Ciao a tutti, benvenuti al Cannabis Day. Questa è una giornata veramente speciale, particolare, innanzitutto perché è la giornata mondiale della Cannabis e oggi si sancisce il primo grande evento organizzato da tutte le associazioni, o gran parte delle associazioni nazionali dedicate alla Cannabis che si baciano per la sua liberalizzazione da tantissimi anni, certe più, diciamo, giovani, certe associazioni più antiche che da veramente più di 30-40 anni sono nello scenario italiano, abbiamo organizzato tutti insieme questo incontro che parte adesso alle 11, andrà avanti fino alle 23 di questa sera, nel quale vedrete un intervento dopo l'altro da massimi esperti italiani, tra medici, divulgatori, industriali, insomma, alternati a show musicali e show artistici di personaggi pubblici che hanno voluto dare il loro contributo appunto per questa causa. Facciamo un saluto di tutti i presidenti delle associazioni, grazie a te e buona visione a tutti. Se volete ognuno dire due parole, abbiamo ancora qualche minuto. Sì, benvenuti a tutti, anche da parte del Cannabis Service. Benvenuti a tutti da parte dell'Associazione Culturale e gli Amici di Nonna Cannapa. Godetevi questa meravigliosa giornata. Buongiorno a tutti, da Sardegna e dall'Associazione Sardegna Cannabis. Buongiorno. Buongiorno a tutti da parte di Residenza Italia Ullis. No, lo vediamo. Buongiorno a tutti da parte di Gia Pronta Store Brescia. Buongiorno a tutti da parte di Gia Pronta Store Brescia. Ciao a tutti, io sono Franco, dell'Associazione Tara, Franco Cheselone. Vorrei subito lamentarmi che questo modo di dover scaricare le indicazioni, che non riusciamo, non è un modo giusto. Dopo una roba di noi, perché tanto è detto che tutti siamo noi, non è un modo giusto. Ok. Buongiorno a tutti, anche da Cannabis Attiva Italia. Sono Massimo Cossu, rappresentante dell'Associazione. Buongiorno a tutti, 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 buongiorno a tutti. e vi lasciamo alla fine del primo video e qui dopo l'intervento di Franco Calvalone nel mondo della cannabis considerato un guru uno dei primi che ha iniziato a divulgare e a tradurre i libri in italiano grazie Franco, grazie a tutti buona visione grazie a tutti gli spettatori che ci guardano condividete l'evento e donate in modo tale che possiamo andare avanti con i nostri progetti ciao a tutti allora ragazzi io vi vorrei ringraziare tutti siete sempre un cuore d'oro e siete la meglio parte della società perché continua a rgrapparsi alla vita chi soffre, chi no non mi interessa l'importante è aver eliminato il dolore e vediamo un pochettino come va a finire con la cura che devo fare e penso che mi faranno una bella sorpresa impandineranno pazienza però penso che sia anche grazie a quelle cose che si chiamano cuore che arrivano dritto tutto qua a volte sembra uno sguardo e mi dicono ammazza da un giorno a quell'altro io non so che è però ho una fottuta paura di tutto quindi farò dei bisogni ragazzi vi abbraccio di cuore e speriamo bene forza bisogna andare sempre avanti con io sempre non vengono l'aria ne vengono l'aria buongiorno a tutti no solo per il momento buongiorno scusate buongiorno a tutti deve arrivare chi io sono Leonardo Fiorentini direttore di fuori luogo e segretario di forum droghe prendo un attimo scusate ci dobbiamo passare all'altro in attesa che arrivi chi deve condurre questa prima parte della mattinata che però non vedo arrivare e quindi chiedo chiedo l'Uni Raffaello devi venire su Restream nel frattempo vi mandiamo un clip che io devo intervistare Leonardo io io sì ma su Restream per appello devi venire su Restream io Marta devi venire su Restream non qui non su QuotoMeeting su Restream io devo intervistare Leonardo io grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricordiamo che questo è un evento organizzato da una lunghissima serie di associazioni che è impegnata nella sensibilizzazione e nella lotta per la legalizzazione della cannabis in Italia come nel mondo. Se recuperate per favore Casalone forse riusciamo a far partire l'intervista. Non so se Marta nel frattempo vuoi dire qualcosa? Sì. E' un'iniziativa popolare che unisce gli intenti di tutte le realtà antipreobiezionisti italiane per chiedere un'unica cosa che è quello del riconoscimento del diritto alla cannabis terapeutica che è già legale e di quello che è necessario ormai per... a livello storico e per un adeguamento a quello che è l'orientamento internazionale rispetto alla posizione sulla cannabis in generale e in particolare la cannabis terapeutica. Quindi è un onore e un piacere far parte della prima giornata che è un'unica giornata che come in altre nazioni già esiste portata avanti da tutte le realtà antipreobiezioniste qui per la prima volta siamo tutti presenti. Tanto che abbiamo anche sottoscritto un unico manifesto come unione delle associazioni per la cannabis. Nel frattempo ho visto Piero se volete passiamo a Piero e portiamo avanti quello che è un discorso di attualità legato sempre alla libertà personale di poter produrre nella legittimità. Nel frattempo forse si è collegato a Franco Casalone... Abbiamo ospiti ecco due vittime diciamo due rappresentanti di quello che può essere una cattiva interpretazione della legge e quindi ecco sia produzione di CBD che di THC come poi possono mettere a rischio le libertà personale. e semplicemente per una mal gestione delle situazioni e poi compromettono quella che è l'esistenza di privati cittadini. Se volete iniziamo a chiacchierare con Piero mentre attendiamo Franco. Va bene iniziamo con Sardinia Cannabis allora buongiorno a tutti buongiorno Sardinia Cannabis buongiorno noi siamo Sardinia Cannabis un'associazione che nasce nel 2017 come primo passo verso la creazione di un'impresa cooperativa consortile. che si rivolge alle comunità organizzando eventi informativi culturali presentazioni di libri convegni e conferenze. La nostra visione è quella di promuovere l'applicazione e la reintegrazione della canapa nell'agricoltura moderna per favorire la biodiversità e il recupero dei terreni abbandonati. Riunire i canapicoltori al fine di studiare, raccogliere e condividere i dati agronomici sulla cultura della canapa per costruire le fondamenta di una filiera che consenta a tutte le aziende del territorio e alle comunità di poter giocare nel prossimo sviluppo, cioè nel prossimo futuro dello sviluppo economico e industriale che ne deliverà. Quindi la nostra missione è quella di promuovere attraverso la reintegrazione della canapa nell'economia locale i principi dell'agricoltura 4.0, del consumo critico e della sostenibilità ambientale, economica e anche sociale. Passo ora la parola al presidente dell'associazione Piero Manzanares. Grazie mille Leonora. Faccio notare anche che Leonora indossa il cappellino e la maglietta della nostra associazione che saranno poi uno dei tanti premi che durante la manifestazione abbiamo deciso di mettere in palio. Così pure anche un bellissimo viaggio, il viaggio non lo paghiamo, ma pagheremo il soggiorno in Our Garden che è una nostra associata, Ramona Bavassano, che metterà a disposizione un weekend in Sardegna. Detto questo io voglio fare un piccolo comunicato e lascio poi la parola alla regia perché sappiamo benissimo che i tempi sono abbastanza ristretti, per assicurare un po' i coltivatori di cannabis della Sardegna che ultimamente hanno subito, stanno subendo un po' delle pressioni sotto l'aspetto da parte delle procure o di una procura in particolare. Voglio ricordare che la coltivazione della canapa si può fare, si deve fare, serve perché anche l'agricoltura della nostra isola possa avere un rilancio economico. Detto questo si spera che tutti continuino a coltivare la canapa, non ci possono essere differenze e noi come associazione al di fuori della canapa industriale sosteniamo e rilanciamo sempre la legalizzazione, una giusta e corretta normazione della materia e soprattutto la possibilità per chi soffre, per chi usa la cannabis teratutica come strumento per alleviare i dolori, che venga semplificato l'accesso e soprattutto la disponibilità. Detto questo vi saluto, vi ringrazio della possibilità di essere parte di questo bellissimo evento e lascio la parola alla regia. Grazie ancora. Grazie a te Piero. Grazie a te Piero e grazie alla realtà di Sardegna Cannabis, che in realtà in Sardegna non si occupa solamente di agricoltura, ma anche di assistenza a quello che è un'informazione a 360 gradi sulla canapa e sulla cannabis, perché poi alla fine è un'unica varietà e un'unica genetica, che poi si differenzia appunto nel... cioè un unico ceppo, un'unica varietà botanica, poi si differenzia nelle varie genetiche. Abbiamo qui ospite ora Franco Casalone, che è in realtà reputato all'interno del nostro settore per oggi, speriamo di poterci affacciare e far conoscere la canapa, lo ricordo anche ai nostri ospiti, far conoscere la canapa anche a persone che non ne hanno mai sentito parlare prima o che comunque sono ancora cariche di pregiudizi dati dall'ignoranza dilagante del proibizionismo nell'ultimo secolo e purtroppo e per fortuna arrivano sempre più frequenti le conferme e le smentite di quello che ci è stato insegnato durante il proibizionismo e con Franco si sta collegando, appunto, possiamo affrontare quello che è stato proprio un processo storico anche molto lungo e sofferto in particolare da parte di chi se ne è fatto carico maggiormente della diffusione culturale legata alla cannabis. No, abbiamo riperso Franco Casalone. Passerei all'intervento successivo che se non sbaglio è la... Raffaello. Raffaello Federico Valcauda che prego di legarsi. Ok, mentre attendiamo Raffaello e Federica per, appunto, altre realtà meglio legale, Anzo Tortora e THC Milano. Eccoli. Eccoli sì. Ciao Raffaello, ciao Federico. Buongiorno. 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 Buongiorno ragazzi. Tocca a me, è vero? Sentivo dall'altro computer il mio nome. Ciao Marta. Ciao Raffaello. Ciao Federica. Potete parlarci un po' di quello che sono le iniziative che state portando avanti? Qual è la realtà che vedete un po' tutti i giorni, il lavoro che state facendo? Lascia voi la parola. Vai Raffa. Sì, allora, noi abbiamo deciso anche grazie al grandissimo supporto del Cannabiservice appunto di aprire questo presidio costante che possa dare informazioni e formazioni riguardo appunto all'uso di cannabinoidi. Abbiamo la fortuna con un gran lavoro di aver, come dire, oltre fatto partecipare, anzi ci hanno dato un grandissimo supporto, tutta l'associazione Radicali di Milano con i quali insomma già da tempo sono fatte battaglie. Io ricordo già un primo 4 e 20 di cinque anni fa che è partito con la raccolta firme di la campagna che iniziamo, dove in un giorno solo si sono raccolte solo a Milano mille firme. Il Cannabis Day è questo, è il giorno per andare a rivendicare questo tipo di libertà. Poi qui accanto appunto Federica che è la segretaria dell'associazione Radicali di Milano che stanno facendo un grandissimo lavoro proprio sul territorio non solo riguardo la cannabis terapeutica ma riguardo anche la sicurezza, tutto quello che comporta la problematica di approvvigionamento che molte volte viene, come dire, demandata alle piazze di spaccio e quindi alla criminalità organizzata. Sì, io in realtà dirò un po' di cose specifiche sulla questione criminalità organizzata nel senso che ci troviamo all'interno di un contesto in cui ad esempio a livello nazionale abbiamo un po' di se possiamo dire antiproibizionisti, scusate di proibizionisti all'interno del sistema della giustizia come Gratteri ad esempio. Io a Milano la scorsa settimana abbiamo scoperto che anche la direttrice della DDA locale, Alessandra Dolci, è contraria alla legalizzazione delle droghe leggere e questo pone un problema fondamentale. Il problema fondamentale che oggi direi essere di letteratura nel senso che una delle rimostranze appunto che venivano fatte da Alessandra Dolci era quella appunto dell'aumento dei consumi a seguito di una legalizzazione. Ora, anche rispetto a questo punto, i dati che ci arrivano dai paesi che la legalizzazione sono anni che l'hanno ottenuta, ma anche dai paesi che hanno legalizzato da un anno, due anni, vediamo come in realtà i consumi diminuiscono. E diminuiscono in particolare dove? Diminuiscono in quella fascia di popolazione giovanile che evidentemente è più avvezza ad andare nelle piazze di spaccio piuttosto che, ad esempio, autocoltivarsela, questo per ovvie ragioni anche familiari. Il nostro compito come Associazione Sottortura Radicali Milano, ma io credo dovrà essere un compito della politica in generale, dovrà essere quello di far emergere questi temi cercando di in qualche modo cambiare anche la retorica della propaganda che viene fatta da certe parti politiche rispetto alla questione sicurezza. Quando si parla di droghe e di possibili legalizzazioni o depenalizzazioni, si arriva a gamba tesa con questa parola sicurezza, deviandola però in realtà da quella che, scusate il doppiaggio, viene deviata da quella che è la realtà, nel senso che la legalizzazione della cannabis è a tutti gli effetti una politica per migliorare la sicurezza delle persone dal punto di vista della salute. Dal punto di vista della salute intendo anche e soprattutto e solamente per chi ne abusa, perché evidentemente c'è anche una parte di consumatori, e qua parlo in generale, di tutte le sostanze che hanno un approccio consapevole. È ovvio che questo può avvenire solamente se si fa informazione, ma se l'informazione che ci arriva dalle istituzioni è deviata da degli errori di base che dicono che la legalizzazione della cannabis provocherebbe un aumento dei consumi e questa cosa non è assolutamente in alcun modo verificata dalla realtà, ma appunto si dice l'opposto, io credo che il nostro impegno sia continuare in modo sempre non violento e laico a dialogare anche con le parti contrapposte per far sì che capiscano in qualche modo che ciò di cui dobbiamo parlare oggi è come legalizzare semplicemente e ciò di cui si dovrà parlare da oggi, che mi sembra che ricomincino le discussioni in Commissione Giustizia sulla proposta di legge Maggi, è anche e soprattutto la storia di Walter a cui è dedicato questo evento perché se ci fosse stata una proposta di legge Maggi qualche anno fa probabilmente anche Walter non sarebbe stato incriminato da una legge ingiusta che evia anche dall'importanza che lo Stato ha dato in quest'anno rispetto al mettere prima di tutto la salute durante il periodo Covid ecco non basta mettere davanti la salute solamente quando ci sono le pandemie ma forse bisognerebbe fare molta più attenzione anche rispetto a quei metodi alternativi perché poi alcuni dicono e qua chiudo che la cannabis è un metodo alternativo pertanto offerta anche ai pazienti come ultima via anche su questo se andiamo a cercare le ricerche scientifiche su PubMed e scriviamo NHTHC ovvero Natural Killer THC quindi scopriamo che anche per le questioni relative al cancro che è la malattia ad oggi più diffusa questa pianta potrebbe avere una rilevanza anche per quella malattia per quella patologia e quindi sono finita poi appunto a Walter per anche dirvi e chiudo davvero che la prossima settimana il 27 giugno ci saranno molte piazze davanti ai tribunali a mezzogiorno in concomitanza con l'undienza di Walter che si terrà ad Arezzo e tutte le informazioni verranno verranno poi date da Meglio Legale che si sta occupando di riunire queste piazze e per chi può e per chi vuole saremo fisicamente tutti tutti insieme grazie grazie a te Federica in realtà hai toccato due punti chiave che sono proprio la tutela del consumatore sul prodotto finale perché continuare a far arricchire le mafie è uno dei cavalli di battaglia degli evergreen che sono più comuni non facciamo arricchire le mafie ma portiamo i soldi allo Stato ma c'è anche la qualità del prodotto che se passasse per un mercato legittimo ed ecco qui che ci colleghiamo anche alla produzione della cannabis a livello agricolo se gli fosse dato una categoria e quindi anche un iter di commercializzazione dal prodotto medico a quello non è cioè terapeutico e basta perché poi io lo reputo terapeutico e magari adesso portiamo avanti il discorso anche grazie alle competenze di Franco indiscusse e superiori nettamente a quelle di chiunque altro è comunque un rispetto sia della pianta che di chi poi ne vuole fare qualsiasi tipo di uso umano e dopo l'altro punto nevralgico che hai toccato è che dopo la votazione dell'ONU non può più essere considerato un prodotto drogante e quindi nocivo per il consumo umano e il concetto di tossicodipendenza da cannabis dovrebbe essere eliminato proprio sia dalle menti degli italiani che dai tribunali che purtroppo in realtà ha già condizionato l'esistenza di tantissimi cittadini essere acquisati come tossicodipendenti. Grazie Federica e quindi il 27 è una data da segnare sul calendario tutti a supporto di Walter e del processo che lo vede ingiustamente in tribunale giudicato come uno spacciatore quando invece purtroppo è allettato fuori da ogni logica. Ciao Franco, benvenuto. Grazie, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Più che altro ben ritrovato dopo tutto quello che hai passato, non so se ci vuoi raccontare qualcosa. Anch'io dovrò essere giudicato come uno spacciatore ma mi hanno già giudicato dal 77 che io ho dei processi perché uso cannabis e me la coltivo e la uso per uso terapeutico eccetera eccetera. Per chi non mi conosce ho anche scritto i primi libri nel 95 sulla cannabis. Hai anche tradotto la Bibbia di Cervantes se non erro, quindi sei un po' autore. Sono amico di Orlio per carità. Qua io lavoro per la cannabis e anche rappresento l'associazione Tarek, associazione di malati. Visto che l'intervento è breve non sto lì a dilungarmi su che cosa può essere e cosa non può essere. Soltanto che tutti i dati che danno anche gli antiproibizionisti sull'uso possibile di cannabis da parte della popolazione italiana sulla necessità di cannabis sono tutti bassissimi. Google fa una ricerca indipendente, stima che almeno 5 milioni di italiani potrebbero beneficiare dalla cannabis, potrebbe entrare in composizione o sostituire il 50% di farmaci. È un business enorme. Le farmaceutiche si stanno cercando di organizzare, intanto rallentano la cosa, ma in Italia almeno 5 milioni di persone che hanno bisogno di un grammo al giorno, perché la uso anche per dormire meglio, la uso anche per il mal di testa, la uso anche se ho dei piccoli dolori. Mi hanno operato stamattina, la mia dottoressa mi ha detto usa le tue gocce, l'olio che faccio con la canna industriale, che è il meglio che puoi usare. Allora abbiamo bisogno di almeno 2000 tonnellate all'anno, l'unica possibilità è che ce la possiamo fare. I tempi della politica sono lunghi e lo sappiamo e vediamo che continuano a rimandare le cose, anche la discussione è stata rimandata, è stata fatta lunedì scorso, è stata rimandata mercoledì, è stata rimandata mercoledì prossimo. Vedremo che cosa succederà, ma i tempi sono lunghi. C'è una legge, la 309, che all'articolo 17 prevede che puoi coltivare cannabis per previa autorizzazione. L'autorizzazione viene concessa solo a enti e imprese. È una privazione dei diritti personali che possa essere solo concesso a un ente e imprese che poi lo può vendere. A quel punto lì me la devo anche poter fare da solo. Il mio invito è, adesso l'associazione Tare è ferma da tempo, però speriamo che appena ci riusciamo a muovere un po' meglio tutti, ci troviamo e proporremo una serie di cose e una serie di azioni anche che saranno necessarie. però io fin da adesso propongo a tutti quelli che vogliono usare cannabis e la usi comunque per scopo terapeutico. In America il 90% di quelli che usano cannabis per uso ludico, diciamo, sono anche scritte le liste di cannabis terapeutica per poterne usufruire. perché la usi comunque per stare meglio e quindi è un uso terapeutico che ne dicono tanti medici, tanti dottori. quindi invito tutti a farsi dare una ricetta. Chiaramente ci sono dei medici a questo punto, tanti medici che si sono accorti del valore della cosa. una ricetta rossa, devi andare in ospedale, farti fare un piano terapeutico. A me hanno detto, dopo la disavventura che mi è successa, che mi hanno preso le mie piantine, sono poi detto ok, me la faccio andare in ospedale. Mi hanno detto, lei la toglierebbe un mucchio di gente che l'ha bisogno, perché sono tutta gente che non ha mai usato cannabis, e allora gli do 100-200 mg di sostanza grezza al giorno, che non è niente. Io ho una ricetta per 10 grammi al giorno, Luisi anche. Luisi è riuscito a farsela dare, a me ha detto, eh, le toglierebbe un mucchio di gente, lei intanto riesce in qualche modo ad avere qualcosa, le scrivo lirica. Io non lo voglio lirica. Sì, è molto più facile prescrivere psicofarmaci. Perché per loro c'è anche questo iter, devono scriverti tutti i farmaci che considerano antidolorifici, fin quando, se non sono efficaci, allora ti possono scrivere la cannabis. Capisco che anche per loro è questo iter. Ok, io invito tutti quelli che vogliono usare cannabis a farsi dare una prescrizione medica, anche su ricetta bianca. A questo punto fare domanda al Ministero della Salute, guardatevi l'articolo 17, e parlatene con un avvocato di fiducia, da fare una domanda al Ministero della Salute, di autorizzazione alla coltivazione, per uso personale, le quantità che sono scritte in ricetta. A questo punto, visto che lo devono poter concedere, è un avvocato, lo so scrivere in termini giuridici, rivolgiamoci alla giurisprudenza piuttosto che alla politica, visto che è anche molto più veloce nel cambiare le cose. La coltivazione di cannabis feroso personale non è più un reato penale, però comunque vengono, mi portano via le piante e mi fanno un processo. E intanto io se l'ho bisogno come medicina, non posso avere la mia medicina. Luigi qua poi vi farà un piccolo video e vi racconterà le sue vicissitudini. Lui è riuscito a farsi dare 10 grammi al giorno, di cui ha bisogno e di cui tanti medici riconoscono che è necessario una dose alta per i suoi problemi, per le sue malattie. Continuano a fargli delle storiacci, continuano a mettergli bastoni fra le ruote per poter accedere alla medicina, continuano a non voler credere, una parte anche della classe medica, alla sua necessità reale. Scusa se ti interrompo Franco, maggiormente senza considerare il fatto che la maggior parte dei medici non considerano le tue anamnesi che magari è tanto lunga, quindi il medico non ha tempo, vuole una cosa rapida. Non ha tempo e non ha preparazione. Venerdì mi è successo che mi è stata diagnosticata un'altra malattura timone, la fibromialgia. Bene, nessun problema, si cura. Sto curando un Crohn di forma anche estrointestinale, sto curando un dolore neuropatico cronico per un aggresso toracico al plesso. Sinceramente non è una problematica mia, il mio problema è quando mi è stato detto la cura mi è stato dato uno psicofarmaco. Anzi, si trattano come un drogato, ma non è certo. Prima di iniziare la mia terapia con canna, con regale prescrizione, mi è stato, mi volevano prescrivere il metadone. Come? Io non sono drogato, mi vuoi far diventare drogato? Ho fatto tutto l'interim dei farmaci oppioidi, perché io non sono contrario ai farmaci, quando funzionano e quando è necessario usarli, ma quando non è necessario, no? Perché mi devi costringere a una dipendenza? Per fortuna, grazie al mio Crohn, ho avuto reazione allergica a tutti gli oppioidi e sono passato alla cannabis, ma nonostante questo, continuano a bloccarmi la terapia. Quando uno non fa del male a nessuno, sono stato assolto anche per coltivazione delle piante, perché per carenza della mia terapia, per lunga scopertura, sono stato così male che ho iniziato ad autoprodurmi le piante e la mia pratica è stata messa nel cassetto, archiviata, poi è stato di necessità, perché ci sono alcune patologie che ti uccidono. Ok. Questo stato e le necessità invito nella richiesta che spero che facciate il più possibile di autorizzazione e continuazione a indicare lo stato di necessità e urgenza, proprio perché è per curare qualunque tipo di patologia. Invito le associazioni a trovare dei legali che si occupino del problema e che cercano in modi legali di far obbligare la giurisprudenza ad accettare una richiesta che è assolutamente legittima. A questo punto io spero comunque che le richieste di modifica della lette sui stupefacenti, delle richieste del deputato Maggi, le altre che ci sono presentate in Parlamento passino il più in fretta possibile, però so che i tempi sono lunghi. Se intanto abbiamo un'autorizzazione alla coltivazione è quella che chiederò quando mi faranno il prossimo processo, adesso chissà quando mi faranno il prossimo processo per l'ultima storia che ho avuto, perché poi mi hanno reso tutto, che era tutta canapa legale, ma era alla fine a sei piantine, mi ho detto che erano per me, erano le mie, e su quelle avrò un processo. Come da tanti anni mi succede, non importa, chiudo la cosa perché penso... Franco, io ti ringrazio tantissimo, adesso avremo come ospiti tra l'altro proprio una proposta che stiamo supportando anche con la raccolta fondi di oggi per andare avanti dal punto di vista legale. Il tuo appello, in particolar modo, che non è agli spettatori, ma è alle associazioni, io spero vada avanti, perché la United Association for Cannabis esiste anche per questo, e è sicuramente un ITER che almeno al Cannabis Service... Fammi parlare, fammi finire. Va alle associazioni, ma va anche ai privati. Se uno non vuole essere rappresentato da un'associazione, però vuole potersi usare la cannabis, vada da un medico di fiducia, si faccia dare una ricetta, con quella, con il suo avvocato, studi in modo di farsi dare una... licenza per averlo. Il primo è che riesce a averlo con i termini, e le associazioni, se sono loro, lo facciano sapere altre, quali sono i termini da fare questa richiesta esatti, perché siano obbligati ad accettarla, e penso che rappresenti un passo importante per chi vuole poter parlare. Se no, la prima volta comunque ti portano via tutto, hai un processo, spendi migliaia di euro di avvocato, non vai in galera... Io sono andato per qualche giorno, come al solito, ma perché mi conoscono... Poi faccio spavetto, no? Con la barba. Va bene. Auguro a tutti che si possa... che ognuno possa godere delle proprietà di questa pianta, e che ci possa essere alleata, come ho scritto nell'ultimo articolo Cannabis e Intelligenza, che vorrebbe portarci su un livello più alto, se noi riusciamo a accettarlo. Questo però dobbiamo riuscirlo a accettare in pieno. Ci sono ancora troppe remore, anche da parte di chi si dice antiproibizionista, rispetto a questa pianta. Mi dispiace, bisogna riuscire ad accettarla in pieno. Come diceva il dottor Grins, deve essere liberamente fruibile, liberamente accessibile a tutti. Vi ringrazio, e spero veramente che sia, come dice il dottor Grins. Buona giornata a tutti, e buona continuazione. Grazie a te Franco. Chiudiamo con Franco, che cita il dottor Grinspoon, quindi è un momento epico. Grazie mille. Allora, io volevo semplicemente dire che noi come associazione del nostro possiamo dare l'accesso a quella che è la ricetta, per cui la prescrizione medica ai nostri associati è quello che facciamo. Poi nella United Association for Cannabis, io spero si porti avanti questa iniziativa proposta da Franco, e diciamo che nel Cannabis Service l'aumento delle prescrizioni e il maggior accesso alla prescrivibilità è anche per riuscire a conteggiare un po' quei numeri reali e il problema dell'accesso al farmaco non è solo legato alla farmacia, ma anche al medico, alla competenza del medico e alla disponibilità del medico. Quindi, purtroppo e per fortuna ci siamo anche per questo. Con Cicla, invece, che è un altro progetto appartenente alla United Association for Cannabis, aderente, si porta questo avanti dal punto di vista giuridico, cioè si può portare avanti nei tribunali. Quindi lascio la parola a Stefano Minucci di Belif, grazie mille, buon 4 e 20 a tutti, in modo che possa approfondire con il portavoce di Cicla, Filippo Corazza, questo aspetto più giuridico. Grazie mille Franco, grazie a tutti. Grazie, grazie Marta, e va bene, buon 4 e 20 innanzitutto a tutti, a tutte e a tutti voi, ormai si dice così, si usa questa formula. Allora, questa maratona, intanto volevo dire che è molto, molto importante, questo che è stato messo in piedi, noi come Belif l'abbiamo sostenuta, la sosteniamo, riteniamo appunto che iniziative del genere servano veramente tanto, anche per far una sorta di coordinamento tra le varie realtà associative, c'è molto bisogno di questo. e c'è bisogno di tenere accesi i riflettori sempre su questa pianta e sensibilizzare il più possibile, diciamo, più persone possibili, anche per in qualche modo far arrivare in Parlamento la verità delle cose, come stanno davvero le cose. Abbiamo anche sentito le parole di Walter De Benedetto nel video, che abbracciamo, Franco Casalone, che insomma gli chiediamo di tenere duro, di andare avanti, che ha parlato dello stato di necessità e dell'urgenza. Bisogna sensibilizzare. Gli amici di Meglio Legale, che approfitto per salutare, stanno facendo un lavoro davvero ottimo da questo punto di vista, e quindi bisogna andare avanti con queste iniziative. Adesso fra poco parleremo con Filippo Corazza di questa interessante iniziativa Cicla, che qui con noi è un'iniziativa che vuole far, in qualche modo, come accennava Marta, vuole fare leva sul diritto e sulla giurisprudenza per in qualche modo portare avanti la nostra battaglia, la battaglia di tutti noi, cioè a liberalizzare, quantomeno la coltivazione di cannabis per uso personale. Però prima permettetemi una piccolissima premessa sul fatto che secondo me bisogna anche spingere molto in questo momento particolare storico, anche su chi ha il potere legislativo d'Italia, e quindi ovviamente sui parlamentari, perché comunque a voler vedere un pochino il bicchiere mezzo pieno e con ottimismo di questa situazione e di questo momento particolare, sembra che i tempi un pochino siano più maturi rispetto a qualche anno fa, più maturi per un discorso, per un dibattito più costruttivo e per vedere in qualche modo qualche passo in avanti, se non altro per tutto quello che ci avvolge fuori dall'Italia, penso all'inteto con cui gli Stati Uniti stanno portando avanti nel processo di legalizzazione a livello federale. Insomma, si sta muovendo qualcosa ai tempi, sembrano un pochino più maturi, però ora quello che credo che bisogna fare è proprio insistere su i parlamentari diciamo un po' più moderati, quelli che hanno ancora qualche dubbio su questa pianta, perché in questo modo si potrebbe allargare la fronda dei sì, dei possibilisti, dei parlamentari che conosciamo a partire da Mantero, però bisogna anche puntare anche su questi che potrebbero essere convinti con iniziative del genere, con iniziative pubbliche, con una serie di sensibilizzazioni. Ora più che mai è il momento di spingere l'Ida, perché comunque, ovviamente non penso ai vari giovanardi o gasparri affetti dal virus inguaribile del proibizionismo. Penso a quei moderati che potrebbero comunque diciamo allargare appunto la fronda. Noi come Bilifo ogni tanto cerchiamo di intercettare qualche parlamentare, soprattutto quelli della fronda del sì, bisognerebbe arrivare anche appunto a questi che sono un po' da convincere, perché secondo me è lì che si gioca la partita. Qualcosa comunque si sta muovendo. Per esempio, vi dico questa cosa che è successa qualche giorno fa all'interno del Partito Democratico. C'è stata una diciamo un'assemblea nazionale il sabato scorso. C'è stata una cosa di cui pochi hanno parlato, però comunque il nostro indizio può essere interessante, ovvero è stato approvato un ordine del giorno. Ricordiamo che l'assemblea nazionale è l'organo in cui si prendono le decisioni politiche, l'organo importante del partito. È stato approvato questo ordine del giorno che impegna tutti gli ingredienti del Partito e i parlamentari di ragionare nelle sedi opportune per arrivare a una soluzione, una posizione condivisa sulla legalizzazione. Ebbene, questo è un passaggio che se dovesse arrivare a questa posizione comune, perché parliamo sul mondo variopinto, la galassia variopinta del disensibilità del Partito Democratico che è piena di sì, no, forse, varie tradizioni, eccetera. Quindi, se si arrivasse a una soluzione unica, condivisa, per cui si è tutti a favore della legalizzazione, questo, insomma, farebbe in qualche modo allargare la speranza di tutti noi di arrivare a una maggioranza con dei numeri, maggioranza composta da PD, Movimento Ciro, in questo caso, il Movimento Più Questelle, l'EU e anche, comunque, Italia Viva, insomma, potrebbe essere una strada interessante. Stavo, parlando di ITER legislativo, adesso ci spostiamo, scusatemi per la lunghezza, ci spostiamo a Filippo grazie al progetto Cicla, come ITER, dicevo, proprio questa mattina è stato accennato anche poco fa, è ripartito l'ITER in Commissione Giustizia alla Camera al Montecitorio e insomma si punta a fare, sono due, due, soprattutto due progetti di legge, quello, soprattutto è importante quello che è stato anche ricordato di prima firma Riccardo Maggi perché quello appunto è quello che prevede la proposta e diciamo che recepisce in qualche modo quella sentenza di fine 2019, quella famosa sentenza che giudica non punibile penalmente la coltivazione per uso personale, insomma vede la coltivazione rudimentale, c'era questa parola in quella sentenza che dice non rientra nell'articolo 73 della 309. Vediamo che succede, insomma noi siamo fiduciosi, speriamo che in questa, entro questa legislatura qualche cosina, qualche passo avanti si possa fare ma c'è anche e qui vengo al progetto c'è anche chi parallelamente sta portando avanti le cose dal punto di vista del diritto, della giurisprudenza e che appunto che è parallela diciamo con la parte parlamentare che magari potrebbero anche prestarsi a vicenda, non è detto che una scuola l'altra, però è importante anche questa strada di cui noi adesso vogliamo parlare, ci spiegherà tutto Filippo Corazza che è il portavoce di questo progetto, io ho parlato anche troppo e quindi Filippo eccoci quindi ti volevo diciamo ciao ciao e allora intanto partiamo da voi usate adesso ce lo spieghi il sistema Besostri per provare in qualche modo a sistemare le cose allora facci capire meglio l'obiettivo diciamo del vostro progetto poi ripartendo da che cos'è questo acronimo CICLA per cosa sta benissimo ti ringrazio per la domanda allora sì progetto CICLA è la cronica di Comitato Italiano Cannabis Libera Autoprodotta e nasce con l'obiettivo appunto libero e indipendente lo voglio sottolineare dal punto di vista non è politicizzato che parte da un'azione dal basso che è nato in seno in abito della categoria molti dei primi aderenti e fondatori sono produttori coltivatori e comunque attivisti nel mondo della cannabis abbiamo deciso e ci siamo resi conto che dopo moltissime promesse moltissime promesse disattese poi anche purtroppo dalla parte politica che dovevamo tentare delle vie alternative per chiedere un diritto semplice che è quello della libera accesso alla cura e quindi che è sancito anche dall'articolo 32 della Costituzione italiana che appunto tutela la salute e diritto individuale e che è anche un interesse è un dovere collettivo questo accesso alle cure gratuite e agli indigenti in particolare questo è il sunto fondamentale della questione quello che siamo riusciti a capire diciamo e analizzare è appunto il fatto che tramite appunto degli studi avvocati di Butti e Besostri in particolare uno studio molto qualificato che sicuramente avrete modo anche di vedere di persona perché oggi ci sarà anche proprio in presenza l'avvocato proprio sul tavolo tecnico di far più tardi adesso non ricordo l'ora precisa magari dopo la regia ci dirà comunque te lo cerco ti ringrazio fondamentalmente il senso è quello di verificare se la 309-90 cioè se la legge sugli stupefacenti abbia dei vizi di incostituzionalità noi siamo convinti che ci siano diverse condizioni che vanno a ledere la libertà individuale la libertà di cura appunto dei diritti fondamentali e l'indicazione che abbiamo ricevuto da questi avvocati è appunto la possibilità di andare in corte costituzionale e alla suprema corte di giustizia per ribadire e per pretendere un chiarimento su quello che è la leicità dell'autoproduzione e della coltivazione questo è il punto di base e è fondamentale questo poi verrà approfondito appunto visto alle 14.55 anche il cannabis fondamentale con Chiara Locascio che modera questo come punto di base e ovviamente all'interno di questo piccolo progetto che è ancora in nascere e stiamo appunto cercando di promuoverlo e di ringraziamo tutte le associazioni che hanno accettato di supportarci appunto anche con questa raccolta fondi e di unire un po' le forze perché è diciamo un approccio alternativo a quello che è sicuramente da perseguire che è quello istituzionale politico anche semplicemente per fare la giusta pressione nei confronti di di chi deve poi andare ad effettivamente operare o eventualmente fare pressione nei punti di governo adeguati quello che ci interessa ribadire è il fatto che appunto a seconda delle ultime sentenze l'ultima la sentenza la cito è la 1 2 3 4 8 del 2019 del 19 12 19 dicembre della corte di cassazione a sezione inulte in cui appunto ha ribadito la la questione della coltivazione domestica rudimentale che ha dato quella a tutta una serie poi di pronunciamenti nei vari ambiti sulla soluzione di persone liberi cittadini che avevano iniziato un'autoproduzione sì perché comunque ricordiamo quella sentenza in qualche modo dice che la coltivazione alimentale poi non rientra nell'articolo 73 della 309 assolutamente voi avete in sostanza due step del vostro progetto il primo in cui voi state cercando di raccogliere fondi per appunto trovare una soluzione un metodo di lavoro una linea guida insieme appunto allo studio e quindi poi diciamo in questa prima parte come pensate di raccogliere i fondi allora abbiamo attivato un sito internet che accoglie appunto un accesso e una possibilità di fare una donazione libera e su questo sito c'è anche una presentazione appunto di quello che stiamo dicendo ora che abbiamo seguito appunto con diversi appartenenti al progetto stiamo ancora ottimizzando ovviamente tutta la parte comunicativa dovremo inserire tutta una serie di progetti tra cui anche quello del bollino cicla infatti qui come oggi c'è anche Antonio Minici che ci parlerà anche di questo progetto che vuole appunto sostenere attraverso questo bollino appunto la raccolta di fondi per questa iniziativa perché parliamo di fondi stiamo parlando appunto di attivare nel concreto delle cause civili in 22 corti d'appello questa è la proposta quindi la seconda parte operativa dopo questa raccolta fondi si consiste nel far partire queste 22 cause sperando appunto che qualche giudice accolga l'istanza e faccia questo ricorso alla corte di cassazione perché non è che uno fa la denuncia alla corte di cassazione se arriva alla corte di cassazione se un giudice decide di portare quella causa appunto ai giudici della corte di cassazione una cosa che volevo chiedere siamo molto in ritardo allora ci sono rischi penali per chi aderisce spiegaci di questo no allora diciamo che appunto la nostra intenzione non è quella di far di far coltivare gli aderenti ma stiamo semplicemente cercando dei volontari che accettino di chiedere appunto un diritto di libera cura quindi stiamo cercando dei pazienti delle persone che utilizzino cannabis terapeutico e questi sarebbero i soggetti adeguati su cui possiamo pensare di fare breccia ed entrare appunto nelle corte di giustizia per pretendere un diritto fondamentale della libertà di cura quindi l'intento iniziale sarà appunto coinvolgere avvocati studi avvocati territoriali perché appunto i 22 distretti sono praticamente distretti in ogni regione d'Italia è un progetto molto ambizioso molto complesso che appunto adesso la prima fase sarà quella di definire lo studio che riguarderà appunto anche l'approccio diciamo legale di tutte le cause che poi saranno anche simili e porteranno appunto una stessa linea di attacco diciamo linea difensiva o di proposta e vuole comunque anche far sensibilizzare appunto responsabilizzare la cittadinanza su queste situazioni effettivamente di difficoltà di accesso alla cura di accesso al farmaco non solamente questo è importante anche che facciate poi il rumore anche quando poi vedevo nella vostra presentazione c'era un inviato esterno fuori in ogni tribunale quando ci saranno le cause mi raccomando facciamo un po' di movimento e comunque per qualsiasi informazione rimandiamo ai nostri spettatori dove i nostri utenti che ci stanno seguendo dove allora www.cicla.eu è il sito attivo potete trovare i primi elementi ci sarà anche la pagina della giornata del Cannabis Day del 420 su cui vedo anche Nadia volevo appunto dirvi che dopo appunto Antonio Minici sarà presente anche più tardi alle 18 con l'avvio della parte musicale quindi farà un collegamento anche dall'ufficio perché così magari avrà occasione di fare due parole meglio sul discorso del bollino cicla e a questo punto visto i tempi ristretti devo dire che siamo in tanti ci saranno anche dei video che gireranno dei vari appartenenti al progetto seguiteci supportateci noi comunque siamo insieme con tutta questa iniziativa per cercare di trovare una soluzione a questa ingiustizia ottimo bene grazie allora Filippo Corazza il portavoce del comitato cicla in bocca al lupo da parte di noi e dunque abbiamo in collegamento in esterna vediamo Nadia passo la parola a lei e buon proseguimento grazie ciao piazza perché non ci piace solo stare online ma anzi usciamo dagli scarmi facciamoci sentire siamo venuti qua in piazza ci hanno accolto tantissimi giornalisti abbiamo fatto questo flash mob nel quale appunto vogliamo insomma dire più quanta più gente possibile che il business della cannabis è un business da 10 miliardi all'anno abbiamo piantato abbiamo piantato una piantina piccina un po' un po' così abbiamo fatto anche queste queste banconate 4 e 20 dove è certo qualcuno mi chiama adesso dove dietro c'è scritto appunto tutti i dettagli di questa informazione ovviamente è uno studio fatto dal GNR perché ovviamente sapete che Cannabis for Future dà sempre informazioni assolutamente attendibili e quindi niente vi volevo salutare vi faccio fare un saluto anche da tutti i ragazzi qua che ci sono sono tante persone ci sono venute a dare supporto i giornalisti ora sono andati via e niente abbiamo piantato la piantina e direi che vi ho detto tutto ci vediamo dopo ciao ragazzi grazie in alto la canapa sempre Nadia scusami puoi presentare i premi della giornata io i premi adesso in questo momento non sono a casa e non posso guardare i premi se vuoi chiedere a Raffaello a Marta forse è meglio ok allora passiamo al prossimo che dovrebbe essere grazie Leonardo ci vediamo dopo Giuseppe Ruggeri da Bari non lo non lo vedo per cui passiamo a Luigi Antonucci che eccolo a cui lascio immediatamente la parola per il mini corso di coltivazione ciao Luigi grazie ciao innanzitutto grazie per per tutto quello che avete fatto oggi ho seguito da dietro le quinte un po' le preparazioni eccetera e quindi voglio dire grazie a tutti gli antiproibizionisti e gli attivisti perché solo grazie al loro sacrificio e soprattutto con la buona forza e volontà visto che non c'è paga nessuno che si riescono a fare queste bellissime iniziative quindi grazie veramente oggi sono qui per un mini corso di coltivazione abbiamo 15 minuti quindi inizio col dire che tutto ciò che verrà detto oggi viene spiegato in maniera molto più ampia cito la rivista Believe Magazine visto che è partner di questa bellissima iniziativa lì da oltre un anno c'è la mia sezione diario di un grower italiano dove insomma in ogni capitolo li trovate i vecchi online e poi escono anche sulle riviste cartacee ovviamente tutto ciò che insomma c'è di importante però ho spiegato alla lunga io faccio parte di Canapassativa Italia Canapassativa Italia che è un'associazione presente attualmente anche al tavolo tecnico e stiamo cercando anche noi di cambiare un pochino le cose nonostante siamo un'associazione che si occupa di principalmente canapa industriale siamo sensibilissimi alla libertà e soprattutto al fatto della modifica della 30990 perché darebbe appunto la possibilità di lavorare visto che Nadia prima parlava anche di indotti di soldi eccetera a tutti in maniera più corretta ed evitare questi inutili sequestri perché il proibizionismo basta ha fallito detto questo facciamo veloce non voglio rubare tempo nella coltivazione il primo step è quello della scelta della genetica qui parliamo in un mondo ideale in cui ognuno è libero come in alcuni stati del mondo ad esempio di coltivarsi la propria terapia la propria cura quindi il primo step è quello della scelta della genetica andremo a selezionare i nostri semi o le nostre talee in base a quelli che sono i principi attivi che ci interessano maggiormente e i fitocomplessi che andrebbero a migliorare la nostra condizione di salute e di vita in generale la scelta della genetica è importante anche in base a quello che è il nostro spazio di coltivazione perché se coltiviamo in un'area un po' più grande qui ho qualche piccolo esempio visto che sono in diretta nel mio coltivo allora possiamo permetterci di scegliere anche genetiche magari a predominanza sativa che andranno a svilupparsi anche molto di più in altezza ed occupare uno spazio maggiore se invece abbiamo la classica box che rappresenta un po' il 90% diciamo delle delle situazioni che di solito andiamo a creare allora potremo andare su una scelta di genetiche magari dei libri di indica sativa oppure 100% indica che avranno uno sviluppo minore soprattutto in altezza e quindi ci permetteranno di riempire adeguatamente il nostro spazio di coltivazione mai fare l'errore questo è un errore classico di chi si approccia all'inizio di metterne troppe quindi calcoliamo sempre che le nostre piante a pieno sviluppo avranno una determinata forma e dimensione a meno che non andiamo ad ottenere dei risultati diversi utilizzando delle tecniche come ad esempio il topping il topping significa fisicamente andare a tagliare la testa della nostra pianta affinché lo sviluppo venga impostato principalmente un po' più a palloncino passatemi questo 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 termine l'errore che fanno molti è quello proprio di mettere troppe piante iniziano a crescere dopo si ritrovano inizio fioritura con delle piante che diventeranno probabilmente il doppio rispetto a quel momento e quindi poi si verificano i primi i primi problemi che non ci stanno più quindi una volta fatta la scelta della genetica andremo a fare la germinazione del nostro seme i metodi sono infiniti si può anche semplicemente mettere all'interno del vaso con la terra il nostro seme avremo comunque il risultato per però velocizzare il processo ed avere una germinazione più sicura più soddisfacente soprattutto vedere subito quali sono spuntati e quali no per non stare là i giorni in attesa che nasca dal vaso e poi non si vede nulla basta immergere i semi per qualche ora all'interno di un semplice bicchiere con dell'acqua affinché si vadano ad ammorbidire e successivamente vanno messi in un posso io di solito uso due piattini due piattini con all'interno dello scottex della carta assorbente bagnata non zuppa attenzione leggermente umida e da lì potremmo vedere come spesso anche già solo dopo 24 ore iniziano a spuntare i germogli perché appunto il seme è germogliato e quindi esce fuori la radichetta a quel punto saremo pronti per trasferirla o nel primo vaso che poi subirà un trapianto quando crescerà oppure direttamente nel vaso finale della dimensione massima che abbiamo scelto di utilizzare per fare questo consiglio dell'utilizzo di un terriccio di semina che sia leggero che sia quindi uno dei cosiddetti light mix i terricci si dividono principalmente in terricci light quindi significa che non hanno una prefertilizzazione e in terricci prefertilizzati prefertilizzati va a significare che appunto c'è già una dose di fertilizzante che può essere sia in forma organica oppure in forma minerale questi sono un po' sconsigliati per la germinazione di solito in quanto le nostre piantine appena nate avendo un apparato radicale appena sviluppato potrebbero soffrire un po' a causa delle c quindi elettroconduttività un po' un po' elevata fatto questo andremo a garantire alle nostre piante una cosa fondamentale ovvero la luce sappiamo che la canna ha visto una pianta molto resiliente però per poter crescere adeguatamente normalmente avrebbe bisogno del sole questo significa che nel caso dobbiamo affrontare una coltivazione indoor dovremmo utilizzare delle fonti luminose che mimano nel modo più simile possibile quella che è la luce solare qui alle mie spalle credo che si veda sono belle intense vediamo un po' eccoci qua stiamo utilizzando in questo caso delle lampade led le lampade led sono l'ultimo ritrovato che in realtà esistono dagli anni settanta però negli ultimi anni si è avuto un fortissimo sviluppo e sono ad oggi a mio avviso il miglior sistema per coltivare indoor perché perché vanno ad avere delle ottimizzazioni soprattutto in quello che riguarda lo spettro lo spettro sarebbe fisicamente il colore diciamo così della luce quindi più si riesce ad andare sul famoso full spectrum cioè una luce più simile possibile a quella del sole e maggiori saranno i nostri i nostri risultati nelle primissime settimane o anche nei primi dieci giorni in base alla genetica andremo a utilizzare dei fertilizzanti a nostra scelta i fertilizzanti sono generalmente in due categorie diciamo tre comunque principalmente organici e minerali poi ci sono gli organo minerali che sono dei mix fondamentalmente quello che cambia è un po' ciò che vogliamo ottenere alla fine io personalmente preferisco la fertilizzazione organica questo perché alla fine si tende ad avere un profilo terpenico migliore e soprattutto la coltivazione organica ci permette anche di se siamo soprattutto alle prime armi di bypassare alcuni piccoli problemi perché i fertilizzanti di tipo minerale hanno le sostanze i principi nutrienti i più famosi i tre classici proprio sono NPK che sarebbero azoto fosforo e potassio li hanno in forma chelata cosa significa che le piante riescono ad assorbire immediatamente questi elementi nell'organico invece sono dei macro elementi che vengono poi dagli enzimi della flora microbica e batterica presente all'interno del terreno a disgregarli e trasformarli in elementi che vengono assorbiti facilmente dalle piante la differenza è che il minerale appena lo mettiamo viene subito assorbito quindi se facciamo un errore magari andiamo in overfair cioè abbiamo aumentato troppo la fertilizzazione avremo immediatamente le piante che vanno in stress soffrono e potrebbero anche morire il primo accenno diciamo così ad una situazione di overfair quindi dobbiamo tenere sott'occhio le nostre piantine è quello dei margini bruciati delle foglie soprattutto le punte se vediamo che iniziano ad arricciarsi ed avere una colorazione sul marrone allora probabilmente saremo in overfair questo con la fertilizzazione organica è più difficile proprio perché gli elementi nutritivi necessari per lo sviluppo e la crescita delle nostre piccole bambine vengono disgregati lentamente e costantemente all'interno del nostro substrato di coltivazione e quindi insomma se siete proprio principianti se si sta iniziando il mio consiglio è di partire con la fertilizzazione organica fermo restando che in commercio esistono tantissimi fertilizzanti di marchi famose di alta qualità e quindi con un pun di granusalis perdonatemi il termine si riesce comunque ad avere un risultato eccezionale possiamo avere due tipi di piante autofiorenti e fotoperiodiche autofiorenti significa che vanno a fiorire quindi alla produzione di fiori e infiorescenze indipendentemente dal quantitativo di ore di luce che ricevono le piante invece le fotoperiodiche saranno in fase vegetativa quindi continueranno a crescere ad aggiungere nuovi steli nuovi rami e nuove foglie fino a quando le ore di luce non iniziano ad abbassarsi e andranno in fioritura quando faremo il cosiddetto switch switchare significa inserire almeno 12 ore di buio perché dico buio perché in realtà le piante non guardano tanto come fotoperiodo le ore di luce ma di più le ore di buio quindi dal momento in cui andremo a cambiare il nostro timer sulle lampade a 12 ore di buio circa le piante partiranno in fioritura quindi fatta la prima fase di vegetativa in cui utilizzeremo dei fertilizzanti che abbiano un quantitativo maggiore di azoto che l'azoto promuove lo sviluppo vegetativo passeremo a fare lo switch in fioritura utilizzando oltre appunto a queste ore di luce che abbiamo appena detto dei fertilizzanti invece che abbiano una maggiore concentrazione di fosforo e di potassio e sono gli elementi che contribuiscono maggiormente alla creazione dei cosiddetti bad sites cioè sarebbero i punti in cui si andranno a formare successivamente i fiori e anche lo sviluppo stesso dei fiori per avere cime più dense più pesanti più profumate più resinose e più più belle per renderci tutti felici detto ciò come ci accorgiamo se una pianta è maschio o femmina perché abbiamo piante femminizzate e piante regolari regolari significa che i nostri semi sono ottenuti da una normale impollinazione di piante femmina da parte del polline di una pianta maschio quindi avremo delle generazioni di semi che daranno vita a più o meno al 50% maschi e femmine come facciamo ad accorgersi se la nostra pianta è femmina o maschio la pianta maschio in fase di prefioritura i prefiori sono appunto nei punti dove si andranno a sviluppare delle piccole gemme che poi si andranno a crescere nel caso di piante maschio avremo la formazione di alcuni pallini quei pallini sono delle sacche che poi con la maturazione si riempiranno di polline ed aprendo questi fiori pieni di polline andranno a impollinare le femmine le femmine invece ce ne accorgiamo perché i prefiori sono fatti come dei piccoli peletti per capirci ed è da quei peletti che andranno poi a svilupparsi i fiori femminili ora se vogliamo autoprodurci i nostri semi perché abbiamo delle genetiche che vogliamo incrociare eccetera utilizzeremo maschi e femmine insieme e faremo queste impollinazioni se invece abbiamo bisogno della cosiddetta sensimilia che significa infiorescenze senza semi andremo ad eliminare le piante maschio oppure ad utilizzare le piante cosiddette femminilizzate le piante femminilizzate sono delle piante che tramite un processo che si chiama reverse vengono praticamente rese ermafroidite di solito si utilizza ad esempio l'argento colloidale per citare uno dei composti che vengono utilizzati e quindi la pianta femmina va a sviluppare anche dei fiori maschili e si autoimpollina avremo quindi dei semi risultanti che avranno esclusivamente però il DNA della madre per cui avremo comunque piante femmine l'utilizzo di piante femminizzate è uno degli escamotaggi chiamiamolo così più utilizzati dai coltivatori per evitare di dover stare a selezionare maschi femmine oppure rischiare dopo magari un mesetto che siamo lì che abbiamo fatto vegetative che andiamo in prefioritura di dover poi tagliare delle piante quando invece avevamo già ottimizzato il nostro spazio di coltivazione detto questo passiamo a quelli che sono principalmente i parametri per una corretta per un corretto sviluppo in fase iniziale quindi diciamo piante appena germinate avremo bisogno di una temperatura di circa 25 gradi e un'umidità ambientale di almeno il 65% conviene stare intorno al 70 75 soprattutto all'inizio per fare in modo che non si verifichi una eccessiva traspirazione quindi che le piantine vadano in stress successivamente in fase di vegetativa avanzata andremo ad abbassare la umidità ambientale a circa il 60% per poi abbassarla ulteriormente in fase di fioritura a valori molto più bassi addirittura mi attesto sul 35% questo per evitare la proliferazione di creare insomma un ambiente che vada bene alle muffe come ad esempio lo idio o anche la potrite che può essere frequente soprattutto in caso di scarsa ventilazione e quindi renderli un ambiente più ostile detto questo mi segnalano che abbiamo solo un minuto abbiamo fatto questo brevissimo escursus a fine fioritura le piante andremo a tagliarle le essiccheremo in un ambiente possibilmente controllato e al buio e successivamente faremo il lavoro di trimmaggio se vogliamo farlo a secco oppure prima trimmiamo e poi essicchiamo se vogliamo farlo a fresco e poi c'è la fase di concia la fase di concia significa tenere le piante all'interno di barattoli armetici ed aprirli regolarmente più volte al giorno nei primi giorni per esempio di meno come passa il tempo per fare in modo che l'umidità all'interno si attesti intorno al 60% le nostre cime diventino più potenti la umidità si ridistribuisca correttamente all'interno di esse e insomma alla fine possiamo finalmente goderci il frutto del nostro lavoro detto questo io auguro un buon 420 a tutti ricordatevi sempre 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 forza cannabis viva l'autoproduzione e rispettiamo i diritti di tutti sia pazienti e sia anche a tutti gli altri perché non è solo per i malati che brutto termine la cannabis è per tutti perché c'è la data la natura e non possiamo andare contro la natura grazie di nuovo per avermi dato questa possibilità e ci vediamo stasera che sto anche con un DJ set ciao grazie grazie mille Luigi scusa ma i tempi purtroppo sono stretti e siamo già in ritardo di una mezz'oretta buona grazie ci vediamo stasera io adesso lascio la parola a Marta Lipsi che ci presenta vista l'ora una ricetta io ho già preparato il video per cui prego Marta presenta pure sì allora grazie Leonardo grazie Luigi per il breve corso e niente per augurare un buon 4 e 20 a tutti abbiamo pensato di invitare una chef a mostrarci una ricetta dato che è quasi l'ora di pranzo quindi ringraziamo Elenia Daniello che sia anche lei scrive per belief come me come Luigi come molti di noi che mettiamo a disposizione le nostre le nostre culture personali a disposizione di tutti per l'informazione pubblica ringraziamo quindi Elenia e a voi prendete taccuino e penna prendete appunti su quantità tempi la nostra Marta Stewart all'italiana e Elenia Daniello ciao sono Elenia Daniello e durante la pandemia ho scritto un libro di ricette a base di cannabis che si chiama a cena con Maria lo potete trovare in vendita su Amazon oggi per il 4 e 20 ho deciso di farvi una delle ricette che fa parte degli antipasti del libro ossia i biscotti salati al basilico gli ingredienti per fare i biscotti salati al basilico sono farina ganja butter scusate è stato un problema con il video riproviamo ciao sono Elenia Daniello e durante la pandemia ho scritto un libro di ricette a base di cannabis che si chiama a cena con Maria lo potete trovare in vendita su Amazon oggi per il 4 e 20 ho deciso di farvi una delle ricette che fa parte degli antipasti del libro ossia i biscotti salati al basilico gli ingredienti per fare i biscotti salati al basilico sono farina ganja butter parmigiano grattugiato uovo e il basilico allora prendiamo le foglie di basilico lavate ed asciugate e le mettiamo dentro il recipiente per frullarle insieme all'uovo noi quelli che lo fanno con la mano solo non siamo capaci noi poi si frulla col mixer ad inozione in un altro recipiente mettiamo la farina e il formaggio grattugiato mischiamo quindi a questo punto prendiamo il ganja butter e lo facciamo a tocchetti dentro la farina e il parmigiano è fresco di frigo quindi è ancora solito l'abbiamo fatto stamattina e rimesso in frigo bricioliamo il composto con le dita come se fosse una crostata a questo punto aggiungiamo la crema di basilico guarda Manu dal piccolo aiutante di papo notale cercando di fare un po' a filo credo no no butta giù scarica giù tutto anzi facciamo così vabbè ragazzi quando si dice foodborne c'è un senso passiamo tutto sulla spianatoia dove potete compattare ulteriormente e dovete fare un panetto allora compattato in un panetto che ovviamente il cui verde come potete vedere è dato dal basilico non pensate che questo verde sia dato tutto dalla cangia anche perché sarebbero biscotti che valgono 150 euro l'uno e non credo che tutti abbiamo la possibilità di fare questo prendete il panetto sarebbero pure un po' a me mangiabili forse beh sì per la maggior parte delle persone direi di sì avvolgiamo il panetto nel frigo e lo mettiamo in frigo per una ventina di minuti perché così si compatta ulteriormente che c'è il burro e dopo facciamo i biscotti passati i 20 minuti possiamo prendere il nostro panetto dal frigo e togliere la pellicola bello verde e burroso dobbiamo fare un panetto da circa 5 millimetri di altezza rinchiato olio di comito no non troppo perché questa è molto morbida non serve tanto olio di comito per spianare questa bisogna cercare qualche altro e tenerla compatta perché essendo di burro direi che possiamo più o meno ci siamo sui 5 millimetri dai vedi lo spessore com'è stampino fatti tutti i biscotti infornate per circa 20 minuti e in forno preriscaldato a 180 grammi e passati i 20 minuti questo è il risultato i vostri biscottini al basilico e al ganja butter che adesso riprendiamo e li sistemiamo sopra un piatto li facciamo freddare e poi ci rigustiamo oddio regà abbiamo staccato tutto perché c'avevamo troppa fame c'erano la voglia di assaggiarli quindi niente più luci però questo è il risultato questo come potete vedere è l'interno e quanto sono friabili i biscotti vi possiamo assicurare che sono molto buoni sanno di basilico sanno di farmigiano ma soprattutto di ganja butter e con questo vi auguriamo da Ilenia e da Milo un buon 420 ciao bene rieccoci ora tocca al video della dottoressa Battaglia rispetto al problema ai problemi delle farmacie galeniche rispetto alla reperività della cannabis non so se Marta che è ritornata vuole per caso introdurre lei questo video se no lo mando direttamente eccomi allora volevo ringraziare Ilenia ho sentito anche il profumo dei biscotti a un certo punto non so sarà la fame e volevo presentare la dottoressa Caputo che fa parte della nostra equip anche del comitato tecnico scientifico del cannabis service con cui abbiamo affrontato quella che è un'emergenza farmaco data proprio sia dalla carenza di farmaco che dalla carenza di supporto da parte del ministero della salute anzi ulteriori ostacoli con le ultime circolari lascio la parola quindi alla dottoressa Lombardi della farmacia Caputo e grazie mille e buon 420 Salve a tutti sono la dottoressa Lombardi farmacista specializzata in galerica tradizionale clinica saluto i responsabili dell'associazione e gli organizzatori di questo evento che come altri eventi organizzati in passato si propongono di divulgare conoscenza e fare chiarezza in un ambito terapeutico quello della cannabis medicinale che continua a rivelarsi così estremamente nebuloso e complesso da un punto di vista politico scientifico e a me legislativo il mio intervento di oggi viene richiesto per esprimere la mia opinione su una circolare ministerale divulgata il 23 settembre del 2020 da parte del Ministero della Salute rivolta alle federazioni degli ordini dei medici dei farmacisti alle società scientifiche dei farmacisti ospedalieri dei farmacisti preparatori a Federfarma e all'AIFA all'Istituto Superiore di Sanità questa circolare ha lo scopo di chiarire l'applicabilità della monografia del cannabis extractum normatum ovvero la monografia dell'estratto di cannabis che è stato pubblicato nella farmacopea tedesca la DAB la circolare viene appunto pubblicata per chiarire che nonostante ci sia una monografia della preparazione in farmacopea la cannabis medicinale continua ad essere esclusivamente una preparazione magistrale cioè una preparazione che non può essere allestita all'otti non può essere allestita senza ricetta medica ma è una preparazione estemporanea che deve essere allestita non appena il farmacista riceve in farmacia una ricetta medica con i formalismi legislativi richiesti cioè quelli della legge di Bella e una volta accertata la legittimità della prescrizione il farmacista è legittimato all'allestimento allestimento della preparazione medicinale altri punti in particolare il fatto che vengono considerate lecite solo le preparazioni farmaceutiche per uso orale e per uso inalatorio che le resine e gli oli resine non vengono incluse nella tabella dei medicinali ma questo non ha nulla a che vedere sulla liceità dell'allestimento degli estratti oleosi perché in questo caso si fa riferimento a delle forme farmaceutiche mai allestite da noi farmacisti il chiarimento importante viene sul digniego sul divieto direi di poter effettuare consegne a casa di questi farmaci perché viene chiarito che la consegna di quantità terapeutiche e di medicinali è prevista solo da parte di operatori sanitari la consegna e mezzo di pacco postale mediante agenzia di trasporto o potere privato è prevista solo per il commercio dei medicinali tramite buon acquisto in sostanza qua si sostiene che non è possibile la consegna a casa di preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica ma la stessa è possibile solo attraverso operatori sanitari che comporterebbe che noi farmacisti dovremo attivare la rete degli operatori sanitari già esistente per le consegne soprattutto in questa fase di emergenza di covid e solo tramite gli operatori sanitari nel rispetto dell'articolo 41,1 bis è possibile fare la consegna al domicilio del farmaco altri chiarimenti che vengono fatti nella circolare sono che le uniche modalità di assunzione consentite sono la via orale e la via inalatoria viene chiarito che l'importazione diretta è consentita solo dalle ASLE solo al ministero della salute olandese quindi le farmacie devono continuare a rifornire attraverso i distributori autorizzati non è possibile fare importazioni dirette viene ancora chiarito che la produzione industriale dell'estratto può essere autorizzata solo presso aziende farmaceutiche autorizzate quindi non è una possibilità riservata alle farmacie che sono autoritate solo agli allestimenti magistrali quindi dietro presentazione di ricetta medica e quindi questi sono gli aspetti dichiariti nella circolare ministeriale altro aspetto che veniva richiesto di chiarire era quello della disponibilità appunto della cannabis sul territorio nazionale perché come si sa ogni anno c'è un problema di carenza diciamo che quest'anno ad oggi abbiamo terminato il quantitativo disponibile di importazione da parte del ministero della salute olandese che era varia 750 kg ma abbiamo ancora attiva la importazione del cannabis dall'Olanda in particolare dall'azienda Aurora ricordo infatti che il bando vinto dall'azienda nel 2019 riguardava un quantitativo globale di 400 kg distribuito in due anni ripartito nell'ora 3 poi adesso sono due perché una è stata annullata a varietà che sono l'alto contenuto di THC chiamata Pedagnos 22.1 e il contenuto simile di THC CBD chiamata Pedagnos 8.8 abbiamo quindi a disposizione nel corso dei due anni i 320 kg della Pedagnos 22.1 e i 40 kg della Pedagnos 8.8 ad oggi è stata già importata parte della Pedagnos 22.1 non è stata importata la Pedagnos 8.8 e quindi abbiamo a disposizione queste quantità quindi laddove il ministro olandese possa avere delle difficoltà come sono capitate già in passato all'inizio dell'anno potremo contare sulla quantità ad alto THC proveniente dal Canada e la quantità a contenuto simile di THC CBD prodotta allo stabilimento chimico farmaceutico militare quindi si spera che appunto all'inizio anno carenza si spera che a inizio anno si possa continuare con la piena disponibilità delle varietà è tutto e sono disponibili eccoci di nuovo qui allora ok grazie mille Leo per la regia grazie alla dottoressa Lombardi per le preziosissime spiegazioni quindi le difficoltà nella riperibilità del farmaco ulteriori e nuove venute con la fine del 2020 e allora leggiamo i premi perché oggi ci saranno anche delle premiazioni durante la diretta quindi in alcuni momenti vi faremo delle domande potrete rispondere nei commenti al video e chi risponderà per primo in maniera esatta potrebbe vincere uno di questi premi allora eccoli qua ok problemi con la videocamera primo premio soggiorno di un weekend in Sardegna in Our Garden per due persone ehm omaggio di Our Garden secondo premio tre kit comprendenti infiorescenze selezionate di cana passativa eh offerto da Miss Joint quindi dall'azienda di cui faccio partire terzo premio tre bustine di canapa un portachiavi in bio canapa tre confezioni di pasta di canapa una di taralli una di frullini una di semi decorticati una di crostini una di farina offerto da Roots quarto premio tre bustine due bustine di canapa due confezioni di pasta alla canapa una di tarallini alla canapa una di frullini una di crostini e un portachiavi sempre offerto da Roots quinto premio una bustina di canapa una di tarallini una di frullini cioccolata con semi decorticati e un portachiavi sempre offerto da Roots sesto premio un pacchetto di tre semi da collezione tre semi da collezione offerto da già pronta store settimo premio cappellini offerti da Sardinia Cannabis ottavo premio magliette offerte da Sardinia Cannabis nono premio un pacchetto da un grammo di infiorescenze selezionate prodotte biologicamente offerte da Imparsativa allora c'è un primo premio tre secondi premi un terzo premio un quarto premio un quinto premio cinque sesti due settimi sei ottavi e sette nonni premi quindi un sacco di premi questo per dirvi rimanete collegati in diretta perché quando Raffaello o Nadia porranno la domanda dovrete rispondere in tempo per vincere uno di questi fantastici premi allora adesso lascio la linea a un fantastico DJ che abbiamo già potuto ascoltare durante le precedenti dirette dello scorso anno e quindi è con grande piacere che lascio il DJ set non la parola ma la musica oltre alla parola a Greenport ragazzi buone 4 e 20 buon 4 e 20 anzi in ritardo c'è anche la Marta qui la sorpresa auguri auguri ben trovati per un altro anno Greenport non ha il microfono quindi a gesti ci saluta grazie come sempre massima energia a prima mattina ci voleva era quello che ci voleva per svegliarci un attimo grazie Greenport facci un ultimo saluto facci vedere quanto sei bello allora eccoci qua Marta ci sei? sei muta però eccomi ci sono ora mi sentite? bene perfetto allora rinnovo il buon 4 e 20 ben ritrovati un anno dopo di nuovo online insieme per celebrare questa giornata molto importante a livello internazionale allora ora dovremmo affrontare un argomento un po' più serio perché in qualità comunque di presidente del cannabis service mi sembrava giusto dedicare almeno un attimo a quello che è appunto un diritto già legale già legale dal 2006 2007 e però non ancora garantito come libertà di scelta libertà di cura abbiamo qui degli ospiti non so se piano piano si possono collegare abbiamo degli ospiti che sono appunto se li vediamo sulle destra possiamo già invitarli a entrare nella nella diretta ricordiamo che siamo in diretta su facebook su youtube grazie a fuori luogo ok ricordiamo che la cannabis medica è legale in Italia dal 2007 ufficialmente ulteriormente legittimata dal decreto Lorenzin mentre si collegano i medici introduco dal decreto Lorenzin nel 2015 e grazie alla legge di Bella del 98 è quindi possibile applicarla richiederla come terapia per qualsiasi patologia che è testimoniata come soluzione appunto applicazione per quella patologia da ricerche scientifiche ora ricerche scientifiche in merito a patologie curabili o affrontabili grazie all'uso dei cannabinoidi e poi entreremo in merito anche all'argomento in maniera più specifica però è possibile per tutte quelle patologie che sono inerenti a un malfunzionamento del sistema nervoso centrale e quindi sia dalla difficoltà date da alterazioni minime come stress ansia insonnia cose che ci troviamo ad affrontare quasi tutti soprattutto dopo l'ultimo periodo particolarmente duro a livello globale sia per tutte quelle patologie che sono inerenti al dolore cronico o comunque tutta una serie di disfunzioni che ovviamente sono riconducibili a una disfunzione del sistema nervoso ora abbiamo qui degli ospiti che sono il dottor Marco Bertolotto intanto li presento mentre si collegano il dottor Marco Bertolotto è direttore del centro di terapia del dolore e cure palliative all'ASL della Liguria e medico presso l'ospedale Santa Corona di Pietraligure e fondatore del cannabis del medical cannabis il dottor Felice Spaccavento che è specialista in medicina interna e specialista in anestesia rianimazione terapia del dolore nonché il dottor Fabio Di Francesco che è project manager del settore cannabis presso la Pharma Lab or SRL è un'azienda autorizzata dall'AIFA la distribuzione di cannabis medicinale alle farmacie italiane quindi il problema dell'importazione dalla prescrivibilità all'accesso al farmaco e infine abbiamo il dottor Luca Manfredini dell'istituto Giannina Gaslini di Genova che è un medico dedicato all'assistenza domiciliare cure palliative e terapia del dolore pediatrico perché anche il tema dell'applicabilità nella pediatria dei cannabinoidi quindi non parlo di THC parlo di cannabinoidi è comunque un argomento che dovremmo affrontare prima o poi io vedo magari movimenti per la legalizzazione della cannabis soprattutto in paesi come quelli dell'America Latina in cui le mamme si sono prese carico di portare avanti non solo la lotta per la legalizzazione della cannabis a uso medico terapeutico autoproduzione non solo per la libertà di scelta totale ma soprattutto in tutela dei loro figli perché sono diverse quelle patologie su cui potrebbero non essere dati psicofarmaci ai bambini ma applicare un altro tipo di cura invito gli ospiti ad aprire le webcam nel frattempo e l'ultimo ospite sarà Fabio Corradi che è un attivista nonché un paziente cannabico con regolare prescrizione medica così valutiamo un attimo anche quello che è lì prego finalmente riesco a vedere qualcun altro possiamo iniziare per me senza tergiversare oltre e possiamo affrontare col dottor Bertolotto buonasera dottore buonasera si sente si 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 sente benissimo grazie per essere qui con noi quest'oggi io le volevo chiedere se insomma quali sono le patologie più comuni o su cui comunque può essere io ho introdotto in maniera puramente profana la materia però vorrei che potesse spiegare meglio alle persone che ci seguono quali sono le patologie quindi curabili con i cannabinodi e qual è la funzione oltre a quella del THC ma anche del CBD di altri cannabinodi perché valutando le ricerche scientifiche appunto in merito non tengono in considerazione solo il THC grazie mille vado io la domanda è per me allora le patologie che possiamo trattare sono molte e devo dire che andando avanti nel tempo sempre più troviamo nuovi impieghi per la cannabis perché nonostante poi abbia qualche migliaia di anni che sta pianta poi di fatto abbiamo iniziato ad utilizzarlo come possiamo dire scientifico da poco tempo quindi stiamo scoprendo ora un po' come viene utilizzato sicuramente lo utilizziamo in quello che è tutto il mondo della terapia del dolore del dolore cronico ma incominciano uscire anche sperimentazioni nell'utilizzo della cannabis nel dolore acuto nel post-operatorio ad esempio o nei strappi o nei strappi muscolari quindi probabilmente andrà a trovare nel futuro una sua funzione anche nel dolore acuto dipende molto poi dalle vie di somministrazione ovviamente da quelle che saranno le future preparazioni farmaceutiche quindi il dolore il campo del dolore è sicuramente un campo di utilizzo poi ci sono tutte le malattie neurodegenerative dove oramai è dimostrato che i cannabinoidi sia THC che il CBD hanno una loro azione perché vanno a interferire con i recettori CB1 CB2 ma non solo con tutta una serie di recettori che sono tipici dei recettori del sistema nervoso centrale quindi quando parlo di malattie neurodegenerative tutti i benefici cognitivi come può essere l'Alzheimer oppure il Parkinson o altre forme di degenerazione poi c'è tutto il mondo dell'epilessia l'epilessia farmacoresistente dove la cannabis soprattutto il CBD ma anche bassi dosaggi di THC possono essere utili nel trattamento di queste epilessie io utilizzo il termine farmacoresistente perché laddove abbiamo un farmaco che funziona a meno che questo farmaco non dia degli effetti collaterali per cui il paziente deve smettere di assumerla conviene tenere il farmaco perché ad oggi è molto più semplice rispetto alla prescrizione di una terapia con cannabis poi ci sono le malattie immunitarie sappiamo che la cannabis il THC nel CBD ha un'azione sul sistema immunitario come immunoregolatore quindi tutte quelle malattie che hanno una genesi autoimmunitaria o dove il sistema immunitario è coinvolto vedono un possibile utilizzo della cannabis e poi c'è tutto il grande capitolo dei tumori perché allora lì dobbiamo distinguere tra due utilizzi uno è l'utilizzo per gli effetti collaterali dovuti ai farmaci che vengono utilizzati come farmaci chemioterapici radioterapici o farmaci moderni antitumorali che sappiamo che hanno effetti collaterali devastanti la cannabis in questo caso sia THC che CBD ci aiutano a controllare tutti questi sintomi penso oltre al dolore la nausea il vomito l'insonnia l'inappetenza l'agitazione psicomotoria tutta una serie di sintomi che prevedono l'utilizzo di farmaci in questo caso utilizzando la cannabis escludiamo gli altri farmaci e abbiamo un unico prodotto che ci permette di controllare questi sintomi e poi c'è tutto il capitolo invece dell'azione antitumorale che hanno i cannabinoidi questi sono studiati oramai ci sono studi in vivo in vitro e studi anche fatti sull'uomo che cominciano ad arrivare dove vengono sfruttate quelle che sono le proprietà antitumorali della cannabis quindi la capacità diciamo di reintrodurre l'apoptosi nelle cellule bloccare la proliferazione vascolare impedire la formazione di metastasi la crescita tumorale quindi hanno queste azioni ben dimostrate vi dicevo in vivo in vitro nell'uomo è sempre più difficile la vera difficoltà che oggi abbiamo nell'utilizzo della cannabis è per il fatto che è ancora legata a una legge che ci impedisce di poterla utilizzare come se fosse un farmaco a tutti gli effetti per cui bisogna fare sempre le preparazioni galeniche per cui non c'è standardizzazione a seconda di chi fa la preparazione sa più o meno esperienza quindi la mano dell'operatore incide molto però diciamo oggi noi in Italia siamo fortunati perché abbiamo una legge che perlomeno ci permette di utilizzare la cannabis in mezzo a tanti facciamo una fatica bestiale perché c'è una burocrazia infinita però rispetto ad altri paesi questo lo possiamo fare basterebbe veramente era mai poco per essere infatti eravamo uno dei primi paesi ad averlo fatto era quasi un miracolo e poi sono passati 15 anni come niente senza fare niente altri i diciamo i grossi gruppi canadesi nordamericani si erano affacciati all'Italia per investire in Italia fare grossi investimenti proprio perché avevano visto qui questa opportunità sono scappati tutti non c'è rimasto più nessuno perché hanno fatto degli investimenti hanno visto che sta roba in Italia siamo fermi là diciamo oramai ci hanno superato anche la Germania ci hanno superato tutti sì nell'arco di pochissimo tempo anche perché anche con la 242 avevamo nuovamente accelerato i tempi e siamo stati pionieri anche in quello nella 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 cannaba industriale l'hemp è stata normata dopo negli Stati Uniti allora volevo grazie mille al dottor Bertolotto per la spiegazione più che esaustiva e io chiedo a chi vuole può scrivere domande anche in diretta e poi possono rintervenire i nostri ospiti nel frattempo passiamo la parola al dottor Fabio Di Francesco in merito a quello che è proprio l'approvvigionamento perché alla fine noi dovevamo anche autoprodurre quella che era la canna bismetica invece abbiamo fatto un ennesimo poco nell'acqua e quindi come siamo messi con le importazioni di cosa si occupa la Farmalabor e quali sono le speranze per il 2021 insomma Allora buongiorno a tutti allora una previsazione iniziale allora le aziende diciamo che distribuiscono la cannabis inclusa la Farmalabor che è quella appunto dove sono io non hanno l'autorizzazione all'importazione quella è diciamo è differente noi abbiamo l'autorizzazione alla distribuzione alle farmacie italiane l'unica che attualmente ha l'autorizzazione all'importazione è lo stabilimento chimico-farmaceutico di scienze che infatti importa quindi cosa cosa come diciamo quella dove sono io abbiamo l'autorizzazione alla distribuzione dall'ufficio centrale stupefacenti che è parte del ministero della salute quindi noi quello che facciamo è ricevere dei quantitativi di cannabis non dalla betrocan attenzione ma dall'OMC dall'OMC olandese perché l'accordo appunto è stato fatto tra Italia e Olanda questo perché ricordiamo sempre che la cannabis è inclusa nella tabella della convenzione unica sui stupefacenti del 61 quindi questo vuol dire che ogni diciamo azienda che commercializza l'international trade quindi il commercio internazionale deve passare sempre ad un ente governativo che nel nostro caso l'ufficio centrale è il nostro ente che tiene conto di tutti i dettagli di questi scambi tutti gli records quindi tutte le transazioni quindi noi distribuiamo in maniera uniforme la tante di scambi italiani e di anche di scambi e quindi questo qui diciamo è il nostro il nostro focus l'approvvigionamento essendo diciamo una sostanza stupefacente le farmacie devono compilare una modulistica che si chiama buon acquisto sono quattro copie le copie diciamo tengono conto appunto di tutti quelli che sono i records tutti quelli che sono i dettagli riguardo i quantitativi che si muovono perché noi le aziende che siamo autorizzate devono poi riportarli tutti all'unità di scambi stupefacenti è una canna vista ad esempio se una farmacia ad esempio ha 20 grammi di cannabis io gli posso fornire solo 50 grammi io gli consegno il buon acquisto che gli ho consegnato solo il quantitativo risorto e l'altra copia del buon acquisto va al ministero della salute quindi torniamo sempre sul discorso che ci deve essere una tracciabilità non dire diciamo precisa è poco deve essere tutto tracciabile questo perché torniamo sempre al discorso che essendo una sostanza controllata a livello internazionale ogni anno il nostro ministero si deve attivare dando appunto tutto quello che serve a un ente che si chiama INCT quindi si chiama International Control Board facciamo un esempio il nostro Centrale Stupefacente comunica a questo ente ci servono mille chili all'anno 500 a scopo di ricerca 500 a scopo medio quindi questo è un esempio proprio banale cosa succede che molte volte diciamo il quantitativo che si fornisce a quest'ente che controlla il commercio internazionale magari si arriva a ottobre novembre che è stato raggiunto è previsto il fatto che si possono diciamo aggiungere delle vuote però stiamo sempre lì parliamo della sostanza sotto il controllo internazionale quindi aggiungere delle vuote quando si è raggiunto il tempo massimo diventa tra virgolette difficile quindi c'è molta burocrazia a riguardo mi aggiungo al discorso del dottor Bertolotto riguardo al fatto che abbiamo diciamo una legge che ci permette l'utilizzo l'automedico questo perché sono stato sono stato nel Regno Unito sono stato in Grecia a lavorare il Regno Unito anche una legge diciamo recente anche loro che permettono l'utilizzo medico ma c'è molta diciamo difficoltà ad approvvigionarsi il farmaco adesso stanno facendo un bel lavoro una clinica che si chiama la Sapphire Medical Clinic in UK quindi insomma però faccio anche l'esempio della Grecia la Grecia ha rilasciato diciamo le autorizzazioni alla produzione di canna vista uso medico ai privati ne ha rilasciate 26 però non hanno una legge che permette l'utilizzo a uso interno quindi praticamente quello che possono fare adesso è solo esportare al di fuori degli altri paesi europei quindi diciamo abbiamo una legge che come dice Bertolotto è ottima che permette l'utilizzo però non tiene conto di tante malattie neurodegenerative quindi sicuramente andrebbe in vita spero insomma arriverà a breve questo procedimento e sono ovviamente sono disponibili a eventuali domande insomma che la palla e gli altri colleghi grazie mille Fabio il dottor Di Francesco e nel frattempo si è collegato anche il dottor Spaccavento e allora presentato prima non so se ha visto la diretta comunque ho fatto una lunga presentazione e quindi vado direttamente alla domanda ora il pregiudizio ci porta a pensare che comunque ci sono delle conseguenze per le persone che utilizzano la cannabis a scopo terapeutico ora da ricerche scientifiche sembrerebbe che queste conseguenze almeno quelle colletto io siano temporanee e legate semplicemente al tempo di somministrazione però per tutte le paure date dal prepezionismo io volevo chiederle se era disponibile a sciogliere un po' questi dubbi su quelli che invece sono i danni collaterali come possibili danni cerebrali la dipendenza insomma scegliamo questa cura piuttosto che un'altra perché e se ci porta delle sì non lo sentiamo credo che il microfono sia chiuso guardi diciamo la diciamo la prescrizione dei carabinoidi e come ogni diciamo farmaco fitoterapico diciamo comporta alcuni effetti collaterali diciamo effetti collaterali che possono essere acuti un esempio banale la tachicardia o effetti collaterali che possono essere anche cronici ovviamente rispetto a diciamo l'utilizzo di molti pazienti che fanno uso di opioidi o farmaci neurolettici o farmaci antiepilettici per controllare il dolore neuropatico i carabinoidi hanno effetti diciamo cronici estremamente diciamo labili e reggeri è chiaro che diciamo ogni ogni sostanza che noi andiamo a diciamo utilizzare può dare praticamente piccole diciamo piccoli effetti collaterali che possono essere controllati o a lungo termine gestiti io penso che la diciamo il pregiudizio è legato più che agli effetti collaterali all'utilizzo della sostanza come praticamente alcuni vent'anni fa si aveva il pregiudizio sull'utilizzo della morfina nei pazienti oncologici attualmente si ha il pregiudizio dei cannabinoidi nei pazienti che fanno uso anche pazienti che hanno un dolore cronico benigno io penso che bisogna fare istruzione e informazioni istruzione ai medici che si occupano di cannabinoidi perché nessun medico può fare prestizione di cannabinoidi se non studia e se non si informa e se non fa corsi di perfezionamento dall'altra parte bisogna fare comunicazione bisogna diciamo dare contezza di quella che è la terapia che è diversa dall'utilizzo ludico della cannabis far capire alla gente che chi prescrive la cannabis è un medico esperto e che diciamo la cannabis è una terapia come è la terapia all'utilizzo degli opioidi o dei fans o dei cortisonici e degli antiepilettici questo è quello che bisogna fare a mio parere nello stesso tempo colgo l'occasione di salutare Marco che non vedo da tanto e diciamo lo saluto caldamente siamo gli antipodi tra due regioni che in questo momento stanno soffrendo moltissimo però diciamo la nostra amicizia tiene non c'è una regione che non sta soffrendo al momento lo dico come presidente del cannabis service abbiamo fatto un'altra riunione stanotte non c'è una regione che non sta in crisi in emergenza purtroppo siamo in emergenza ancora però penso che io infatti mi scuso ma purtroppo non riesco a fermarmi oggi perché è una giornata molto intensa sei in macchina vedo sì sono andato a fare un'ecografia per amonare un paziente disabile covid positivo ci voglio dire allora volevo concludere con Fabio di Francesco perché dalla regia mi stringono i tempi io comunque invito le persone a contattare non solo l'associazione ma anche i medici che si sono resi disponibili per tutto questo e scusate scusate allora allora Fabio eccoci Fabio Corrado allora tu sei un paziente sei una persona comune come possono essere tante persone quindi quanti anni hai cosa fai nella vita e se ci puoi spiegare brevemente come sei venuto a conoscenza della cannabis terapeutica quindi la tua esperienza e quanto è stato facile o difficile avere accesso a questa scelta terapeutica e cosa è cambiato poi da che sei stato supportato da una rete insomma e quali sono state le tue esperienze il prima e il dopo dell'accessibilità ecco buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti ho 41 anni e come lavoro faccio l'elettricista diciamo c'è un'azienda mia lavoro per conto mio e diciamo che vengo vengo trovo l'esigenza della cannabis terapeutica più che altro per risolvere un problema che avevo da diverso tempo da circa 10 anni diciamo avevo un problema di incontinenza e ho provato diverse cure diverse terapie mi sono sottoposto a torture di ogni genere senza mai arrivare a niente e adesso sto resistendo a diversi farmaci e che diciamo conoscendo la pianta e volevo provare perché poi diciamo la mia incontinenza mi ha portato a tanti disturbi non dormivo la notte avevo disturbi durante il giorno non riuscivo a fare 10 minuti in macchina ad andare da una parte all'altra e diciamo che le ho provate tutte fino a quando diciamo ho provato a parlarne con il mio dottore di questa possibilità di di cercare una un'eventuale via d'uscita diciamo però non non ha mai voluto sapere mi ha sempre detto che non era il mio caso e diciamo non faceva non era per questo ho cambiato anche diversi medici fino a che l'ultimo mi ha detto che non ne vuole sapere cosa ha detto l'ultimo che non ne vuole sapere non ne vuole sapere perché perché fortunatamente nel mese a settembre del 2020 mi vengo a conoscenza del cannabis service fortunatamente e diciamo mi si è aperta ma sono riuscito ad avere grazie al cannabis service la prescrizione e da lì è partita la mia la mia cura perché dopo diciamo un paio di mesi e vedevo già i risultati ma i risultati si sono visti dopo una settimana e sono andato a parlarne con il mio dottore gli ho fatto vedere tutto e lì che mi ha detto dice ti credo capisco mi ha detto capisco anche che stai meglio dici però io in questa faccenda non ci voglio entrare in quale faccenda non c'è cioè non è che gli ho proposto di andare a fare chissà cosa e nemmeno potrebbe costringere me magari cioè ora perché come dire la seguire la terapia non è nemmeno tanto facile diventa diciamo facile grazie al cannabis service riuscire ad avere la prescrizione ma come sappiamo diciamo il farmaco è molto carente in Italia e soprattutto non tutte le farmacie lo preparano non tutte le farmacie hanno la continuità e quindi parte già lo stress poi dopo la ricetta subito dopo la ricerca diciamo si passa tutto il mese a cercare il farmaco tra le varie farmacie però diciamo è una guidatura soprattutto per i pazienti cioè per nel nostro caso sono associati però i pazienti ne esistono tantissimi altri cioè la nostra in realtà è solamente una piccola parte quindi è un iter che è un po' una tortura un salto agli ostacoli un dover contrastare medici un dover ricercare farmaco alcuni pazienti possono e hanno l'energia di affrontare altri invece no come Walter ad esempio hai la maglietta lì accanto a te e lo conosci personalmente e Walter ha bisogno del supporto da parte di altre persone che come lui sanno cosa significa e non so se vuoi concludere tu diciamo due parole su Walter visto che è dedicata a lui questa giornata è dedicata la giornata a lui ed è proprio diciamo grazie anche a lui che io ho avuto diciamo il coraggio e la forza più che altro di espormi perché come dicevo prima faccio un lavoro faccio c'ho un'azienda faccio elettricista vado in casa delle persone e già le persone sapere diciamo l'elettricista magari ha fatto uso di cannabis i figli anzi che faccio entra la luce la spengi e combattere con tutti questi pregiudizi è difficile e invece così non è che tu sai benissimo il tuo lavoro quindi sono persone normalissime dalle statistiche degli Stati Uniti più del 40% sono anche genitori responsabili non solo io c'ho due bambini il pregiudizio è tanto non so se il dottore vuole lanciare un appello agli altri medici dato l'altissimo livello di pregiudizio e chiudiamo questo tavolo qui se no la regina ci chiude a forza sicuramente l'appello lo mando volentieri ma lo mandiamo sempre io faccio sempre pressione i miei colleghi sin quando abbiamo potuto abbiamo girato per congressi a dire che sono solo i pregiudizi che ci possono bloccare di fronte alla cannabis diceva bene il dottor Spacavento abbiamo vissuto ai tempi della morfina lo stesso problema quindi le cose stanno andando avanti il problema è l'università dovrebbe riuscire a entrare nell'università e incominciare l'università a spiegare il sistema endocannabinoide e spiegare cosa sono i vari tipi di cannabis come agisce la strada da fare è veramente tanta sicuramente i pazienti sono quelli che hanno meno pregiudizi e sono quelli che si affacciano al mondo della cannabis senza problemi non ho mai trovato un paziente che mi ponesse problemi quindi colleghi invece colleghi sì quando tu gli dici gli pari di cannabis i colleghi insomma tremano non sanno che cos'è li fidano molto il sistema informativo è nelle mani delle case farmaceutiche e intorno alla cannabis il business praticamente è inesistente per cui non hai informatori non è nulla quindi grazie a voi che hai fatto queste non hai vacanze pagate con la cannabis non hai premi con la cannabis no 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 a parte quello diciamo che è la parte negativa del mondo di big pharma però c'è anche tutta una parte positiva perché il fatto che vengano ti vengano a trovare ti dicono i farmaci nuovi i meccanismizzazioni per noi è importante perché non tutti hanno voglia e il tempo di mettersi a studiare questo un po' ti aiuta il collega di Pharma Labor lo sa bene loro non è che possono girare andare negli studi medici a presentare la cannabis non si può nemmeno non si può sarei paureato c'era un corso all'università di Bavia a Padova l'unico master che c'è è quello di Padova che lo scorso anno non l'abbiamo di cui anch'io sono un docente non l'abbiamo fatto perché c'erano pochi scritti quest'anno probabilmente ce ne sarà qualcuno di più riusciremo a fare un appello vorrei fare se ci fosse qualche parlamentare se qualcuno di voi ha relazioni con più tardi ci saranno i parlamentari più tardi sono in scaletta mettere mano alla legge che impedisce di guidare a chi assume cannabis perché chi assume cannabis lo fa perché sta male e ha bisogno di guidare perché lavora basta poco basta aggiungere una postina dove si dice che coloro che assumono cannabis sotto il controllo medico che non hanno effetti psicotropi tali da alterarne le condizioni possono guidare quindi a quel punto la responsabilità c'era in mano il medico che sottoscrive fa una dichiarazione ma perlomeno le persone possono guidare perché diventa rischiano guidano tutti lo stesso lo rimandiamo al tavolo legale più tardi questo argomento allora adesso il video appello di Walter io ringrazio tutti quanti e ringrazio per la partecipazione e buon 420 lascio la parola a Walter bene buonasera a tutti buonasera a tutti allora ragazzi io vi vorrei ringraziare tutti e se siete svegliati siete un cuore d'oro e siete la meglio parte della società perché continua a rgrapparsi alla vita chi soffre chi no non vi interessa l'importante è di aver eliminato il dolore e vediamo un pochettino come va a finire con la cura che devo fare e penso che mi faranno una bella sorpresa mi pallineranno pazienza però penso che sia anche grazie alla quelle cose che si chiamano cuore che arriva a dritto tutto qua a volte si fa uno sguardo e mi dicono ammazza capito da un giorno per l'altro io non so che però ho una fottuta paura di tutto quindi farò dei bisogni ragazzi vi abbraccio di cuore e speriamo bene forza grazie bisogna andare sempre avanti sempre non è mollare io ogni volta ho i brividi non dico bugia credo si vedano i brividi zacc non lo sento ok eccoci qua dicevo anch'io ho i brividi anche perché l'abbiamo rivisto per montarlo quindi ci fa sempre un certo effetto ricordiamo che questo messaggio è stato registrato qualche tempo fa sappiamo che Walter adesso sta come sempre lottando quindi rifacciamo un grosso in bocca al lupo è veramente che possiamo vederlo sorridente fra l'altro c'è un'altra sorpresa vedremo un altro video messaggio quando era allettato però non ha perso il suo humor il suo senso della vita e ci lascia col sorriso quindi è un bel messaggio anche quello che verrà dopo ora per quanto riguarda i premi ci sono dei premi e abbiamo anche la nostra amica eccola qui benvenuta ciao a tutti ciao Serena ciao nonna canapa abbiamo una sorpresina oggi eh oggi vi faccio vedere anche un piccolo un piccolo oh oh chi è ciao nonna è lei nonna canapa ciao abbiamo anche nonna canapa oggi in diretta speciale per il cannabis day e per tutti i bambini che ci seguiranno anche grazie a voi ovviamente grazie ai nostri colleghi amici attivisti del settore che spendono sempre molta energia per trasmettere la giusta cultura di questa di questa pianta millenaria abbiamo un regalo per i bambini vero? assolutamente sì oggi abbiamo deciso di donare i fumetti i nostri fumetti stampati su carta di canapa che come voi saprete se magari ehm mi dà ho del tempo per spiegarvi quello che è il progetto che la nostra associazione ha in piedi dal duemiladiciassette è un progetto dedicato ai nuovi canapicoltori quindi alle nuove generazioni racconta la storia millenaria appunto di questa pianta attraverso gli usi e i benefici e vorremmo donarlo a tutti i bambini e tutte le bambine che ci coloreranno questo bellissimo disegno che facciamo vedere eccolo qua lo facciamo vedere in sovrimpressione perfetto la regia dovrebbe avere dovrebbe dare la possibilità ci copre un attimo però si vede per i bambini non fa niente non fa niente l'importante è che si possa scaricare e ci sia il link per poterlo scaricare sì a breve troverete il link perfettissimo e vi chiediamo in qualche modo di farcelo recapitare o tramite ehm insomma i social dell'evento taggando nonna canapa o gli amici la pagina di facebook gli amici di nonna canapa e e di inviarci una una mail su info chiocciola gli amici di nonna canapa punto org con l'indirizzo di spedizione e il nome del del bimbo della bimba del ragazzo della ragazza al quale volete eh dedica che venga fatta la dedica appunto dalla nostra nonna canapa e benissimo invitiamo a commentare sotto le dirette i vostri messaggi verranno passati in diretta quindi eh commentate se volete ricevere a casa il vostro la vostra copia ringraziamo nonna canapa ringraziamo anche tutti gli altri sponsor eh io volevo ricordare anche che tanti punti vendita ci seguono in questo momento non so se Serena questo è ancora attivo però i punti vendita che vogliono sostenere il progetto il fumetto possono richiedere copie assolutamente grazie Marta per averlo ricordato è un progetto culturale che va sostenuto perché ci permetterà di entrare nelle scuole attraverso dei laboratori e quindi dei workshop culturali e e chiediamo appunto la collaborazione di dei grow shop degli amp shop e anche delle associazioni partner che vorrebbero in qualche modo utilizzarlo come come strumento noi siamo siamo sempre disponibili e siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione che possa portare la cultura di questa pianta alle nuove generazioni benissimo benissimo grazie grazie a voi bene come sta andando la giornata arrivano i commenti ci state seguendo fateci sapere nell'attesa di collegarci con Cannabis for Future che invitiamo già a prepararsi nella sala d'attesa volevo chiamare qui con noi Nadia prima la vedeva adesso non c'è più quindi Nadia se ci senti connettiti con noi e niente vogliamo fare non so un recap di quello che succederà anche più avanti volete svelare qualche ospite ditemi voi ditemi voi dica lei dica lei intratteniamo 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 possiamo dire che più tardi ci saranno altri momenti di confronto uno sul tema legale alle 2.55 verso le 3 credo eccola Nadia e quindi quello che abbiamo messo di prima si continuerà verso le 3 credo togli l'audio Nadia del computer che se no risentiamo quello che stiamo dicendo eccoci qua partiremo di cannabis terapeutica uso veterinario alle 2 e un quarto quindi dopo adulti bambini arriviamo anche agli animali io non darei gli orari perché gli orari sono un po' così diciamo che siamo nei tempi quindi chi diceva che avremmo fatto ritardo per adesso siamo messi bene diciamo io vedo qui gli amici già di cannabis for future raccontaci un po' cosa succederà fra un po' Nadia fra un po' in che senso adesso dovrebbe arrivare Panda DJ con il DJ noi abbiamo fatto di tutto per non farci accorgere di questa cosa però va bene non c'è Panda DJ quindi intratteniamo allora Nadia si spieghi ecco per favore cosa sta succedendo con i flash mob in tutta Italia perché me lo stanno chiedendo in continuazione cosa sta facendo Cannabis for future in città in tutta Italia questo 420 con questi 420 euro è il nuovo sostegno per il covid anche nel senso che Cannabis for future essendo un'associazione nata per la divulgazione quindi per diciamo informare l'opinione pubblica di quello che sono i benefici ovviamente della cannabis e tutti i suoi utilizzi e anche per diciamo fare un po' di pressione sulla classe politica questo 420 l'abbiamo voluto dedicare all'aspetto economico e finanziario della legalizzazione della cannabis appunto siamo scesi in 15 città italiane abbiamo fatto questo flash mob sotto le redazioni di giornali o emittenti televisive con un grande assegno con scritto 10 miliardi in favore dei cittadini italiani perché sarebbe questa la quota che andrebbe diciamo nelle casse dell'erario se venisse legalizzata la cannabis quindi con questo assegno siamo andati assegni e cartelloni siamo andati appunto nelle piazze distribuendo questi volantini dove dietro appunto ci sono le specifiche dello studio condotto dal professor Pietro David quindi del CNR quindi uno studio del CNR nel quale appunto viene viene studiato il fatto che oltre 10 miliardi sarebbero devoluti all'erario se la cannabis fosse legalizzata e in più verrebbero dati verrebbero creati 345 mila nuovi posti di lavoro quindi sarebbe una manovra sarebbe praticamente un terzo della manovra finanziaria quindi sarebbe anche un modo per uscire da questo momento di non cannabis service cannabis for future però va bene anche cannabis service in un certo modo come referente regionale e appunto abbiamo fatto questi volantini li abbiamo distribuiti in piazza per spiegare alle persone che appunto sarebbe un sarebbe veramente un contributo oltre tutte gli utilizzi di cui sappiamo per questa giornata ci siamo voluti focalizzare sulla questione economica e finanziaria che porterebbe la legalizzazione nelle casse dello Stato sono venuti tantissimi giornalisti a intervistarci a intervistarmi quindi questo era il nostro obiettivo quindi di avere un effetto mediatico perché Cannabis for Future diciamo che ha molta visibilità in questo senso e speriamo che escano più possibile su tutte le testate nazionali in modo tale che più persone possano appunto informarsi e capire che la Cannabis non è assolutamente cioè lo sballo al quale tutti i tanti purtroppo l'opinione pubblica ancora lo lega ma è una cosa veramente seria cioè oltre tutti gli utilizzi ovviamente il più il più nobile quello terapeutico ma anche ci sono dei risvolti dei benefici ambientali sociali e economici benissimo allora volevo dire questo lancerai il premio nel senso il decimo premio che sarebbero sette pacchetti da un grammo di infiorescenze dato dallo sponsor Empire Sativa quindi abbiamo sette premi chi risponde alla domanda la domanda è c'è emergenza farmaco ora in Italia allora chi risponde i primi sette che rispondono sotto la diretta verranno contattati e gli verrà inviato questo pacchetto del valore ognuno di 12 euro da un grammo di infiorescenze selezionate di canna passativa continuate a seguire la diretta perché man mano che andiamo avanti diciamo daremo altri premi fino al primo premio che è addirittura un soggiorno di un weekend in Sardegna quindi rimanete collegati partecipate e rispondete alla domanda c'è c'è carenza di farmaco ora in Italia se avete seguito la tavola che ha condotto Marta si ringrazio sei stata bravissima con i medici rispondete i primi sette che risponderanno verranno contattati per avere insomma per avere spedito a casa il proprio premio grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo ovviamente grazie a tutti grazie anche a tutti gli sponsor che metteranno in palio i premi adesso come procediamo chiedo alla regia di Milano dovrebbe esserci il collegamento con Cannabis for Future Milano sì allora io li vedo qui chi possiamo fare entrare se mi dite chi fare entrare così evitiamo magari chi c'è chi c'è di Cannabis for Future oltre te adesso dovrebbe esserci Andrea che è il referente eccolo qua c'è Andrea eccolo ciao Andrea mi sento forte e chiaro ciao ragazzi come va buongiorno a tutti è buongiorno si 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 facciamo facci sentire che ci viene e siamo qua allora ci siamo messi in largo Donnegani questo qua è un personaggio un po' strano non so che lo faccio qua siamo qua in largo Donnegani abbiamo lo striscione si vede 10 miliardi si si 10 miliardi stiamo facendo il discorso col megafono Andrea ti riesci a mettere l'orizzontale vediamo meglio mi vado al contrario però allora no ti sentiamo forte e chiaro abbiamo tutti i benefici della Cannabis benefici ambientali per questo abbiamo abbiamo con noi anche Fai di Sport Future salutiamo e ringraziamo alla nostra palestra vedete oltre i benefici ambientali abbiamo benefici sociali poteremmo letarci ci sarebbero moltissimi altri problemi importanti da perseguitare invece che la Cannabis benefici sanitari tantissimi pazienti che hanno bisogno di questa pianta per curarsi possono reperirla quando vogliono reperirla costa tanto quando invece potrebbero semplicemente continuare in casa vi ringraziamo tantissimo di essere qua e ribadiamo tutti quanti insieme che la Cannabis è un mercato da 10 miliardi di euro che in questo momento stanno guadagnando le macchie e non lo sto italiane speriamo che non l'abbiano arrestato questa era la sirina del megafono speriamo perché se no è grave eccoci qua allora abbiamo tempo per ringraziare di nuovo ancora una volta gli sponsor il nostro main sponsor io vorrei ringraziare vorrei ringraziare anche Nadia però per tutto la ragione di 30 associazioni nello stesso evento per cui avremo dirette non solo Cannabis for Future non solo i tavoli di Cannabis Service quelli di CS gli interventi di nonna Cannaba 30 realtà avremo la presentazione del manifesto collettivo in diretta tutte le associazioni veramente ci hanno messo del loro e questo non è mai avvenuto e quindi proprio un clauso a Nadia che è riuscita nel miracolo grazie e lei speriamo che questo sia soltanto l'inizio di Unit Association of Cannabis per veramente far capire che rappresentiamo tutti insieme 10 milioni di italiani che consumano la Cannabis e quindi anche la politica deve iniziare a ascoltarci perché siamo veramente tanti un sesto della popolazione grazie a tutti voi perché tutti insieme solo insieme possiamo cambiare le cose veramente io farei un applauso a Nadia grazie a voi ragazzi grazie mille grazie a tutte le associazioni a Nadia ecco e a tutte le associazioni che sono state disponibili a cooperare veramente soprattutto a Nadia l'abbracciamo forte grazie a tutti era solamente per dire che la United Association of Cannabis è la prima volta e non deve essere l'unica cioè deve andare avanti Raffaello se la ride perché non ha capito che te ridi Raffaello no a tutti ringraziamo tutti in particolar modo io personalmente posso io in qualità di regista ringraziare e abbracciare Nadia basta quindi questo volevo dire vi abbraccio un'ora di abbracciarvi dal vivo e il prossimo anno il Cannabis Day speriamo di riuscirlo a fare dal vivo diventando il convegno nazionale sulla cannabis e unendo ancora più realtà associative sarà meraviglioso l'avevamo detto anche l'anno scorso però dai siamo agli sgocci e beh siamo andati avanti non l'abbiamo fatto dal vivo però è il secondo abbiamo fatto veramente un passo in avanti grandissimo da che eravamo quattro gatti veramente siamo riusciti ad unire gli intenti comunque grazie anche a Marta perché è lei che ha detto dai organizziamo il 4 eventi e quindi è partito tutto da lei volevamo se bene viene sempre da me capito sì no se no si ingelosisce si ingelosita mo che ho ringraziato a Nadia e non ho ringraziato a Marta ma non è Marta è veramente una persona meravigliosa ho trovato oltre che una collaboratrice un'amica perché è veramente veramente meravigliosa sento 50 euro mi se li do a Davo Nadia no mettili su Paypal a proposito ascoltatori donate donate c'è il Paypal che non so se riusciamo a metterlo nei commenti Zac riesci a metterlo nei commenti sì metteremo nel gruppo così quindi donate 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 sia per sostenere i costi di questo evento anche se sono pochi comunque dobbiamo raggiungere diciamo il contributo per i vari costi che ci sono stati e poi il restante andrà al progetto Cicla che è già stato presentato prima da da Filippo e di cui ne avete parlato potete trovare comunque tutti i riferimenti sulla pagina dedicata su cicla.eu Cannabis Day è arrivato Mario? è arrivato Mario lo facciamo entrare se intanto lo vuoi presentare sì allora Mario Catania ciao Mario è un giornalista ha scritto un libro Cannabis il futuro è verde Cannabis giusto? Canapa ah scusa il futuro è verde Cannapa perché ormai da quando sono entrata dentro Cannabis for Future dico solo Cannabis per partito preso lui è un giornalista scrive per Dolce Vita è il diciamo il responsabile di Cannapa industriale punto it e Cannabis terapeutica punto info quindi diciamo che è una persona estremamente attiva per quello che riguarda l'informazione a livello nazionale abbiamo visto anche che ultimamente è iscritto anche su altre testate nazionali ho visto su il fatto quotidiano Repubblica mi pare di aver visto dei tuoi articoli scusa fanpage Repubblica no ah scusa fanpage scusami e quindi volevamo parlare con lui dell'informazione in Italia della Cannabis raccontaci un po' qual è la situazione sull'informazione in Italia ciao a tutti grazie per l'invito e complimenti per la bella iniziativa innanzitutto sì io sono un giornalista freelance nel senso che ho le mie varie collaborazioni la principale è sicuramente quella con Dolce Vita poi ho i miei due siti che dicevi prima che abbiamo creato nel 2013 e che sopravvivono fino ad oggi sono appunto più dedicati uno alla canapa nell'agroindustria e l'altro alla cannabis in medicina e poi facendo il freelance ho avuto anche la possibilità di collaborare con tante testate anche appunto mainstream come il Fatto Quotidiano come Fanpage o come Terra Nuova che è un messile storico che è molto vicino alle tematiche ambientali da sempre e anche di canapa la stanno trattando parecchio soprattutto negli ultimi numeri noi in Italia abbiamo sicuramente un'ottima informazione per quello che riguarda le riviste settoriali perché naturalmente oltre a Dolce Vita c'è Belief che secondo me fa un ottimo lavoro ma c'è anche Soft Secret che è la rivista storica diciamo per quello che riguarda questo tipo di tematiche e c'è anche un'altra rivista che era Marijuana MJ Passion che era nata anche l'ultima di quelle nate che anche loro facevano un ottimo lavoro molto specializzato su quelle che sono le tematiche classiche della cannabis quindi sicuramente l'informazione specializzata se vogliamo chiamarla così o di settore in Italia non manca e per come la vedo io c'è anche una buonissima offerta il problema vero parlando di cannabis per come la vedo io nasce quando si guardano come viene trattato l'argomento dalle tassate mainstream perché essendo che comunque la cannapa la cannabis come vogliamo chiamarla racchiude al suo interno dei veri e propri mondi per poterne parlare con un po' di competenza serve specializzarsi serve avere delle conoscenze ben precise che se si parla di cannabis in medicina vanno da sistemando cannabinoide alle patologie alle legislazioni un po' come funziona tutto il sistema ma in generale lo scrivere di cannabis presuppone l'aver studiato un po' certi argomenti che vanno dalla storia del proibizionismo appunto una infarinatura di quello che è la cannabis in medicina oltre a tutte le tematiche correlate riguardo al mondo industriale per cui diciamo che è molto facile fare degli scivoloni specialmente magari in giornali grossi in cui vengono affidati articoli a un collaboratore che magari la conosce solo per sentito dire è molto facile prendere delle belle cantonate a questo proposito vorrei chiederti se ci vuoi dire due parole su una manipolazione appunto dell'opinione pubblica attraverso il mainstream sì per come la vedo io in Italia ma nel resto del mondo l'idea che un cittadino medio ha della cannabis è basata su un grande inganno nel senso che noi oggi parliamo tanto di fake news di notizie distorte ma è una cosa che è sempre esistita nell'umanità ancora prima che si inventasse il digitale o che si inventassero i giornali online e le conoscenze che abbiamo sulla cannabis tolto chi si è informato per i fatti propri sono basate sul grande inganno che ha portato poi al proibizionismo nei confronti di questa pianta come sappiamo è iniziato più o meno all'inizio del secolo scorso si protrae oramai da quasi un secolo e le conoscenze medie che hanno le persone sono basate su quell'inganno lì su quelle bugie che sono state raccontate a partire dal 1900 e che stiamo iniziando a smascherare adesso anche a livello ufficiale se pensiamo che l'anno scorso l'ONU tramite l'OMS ha riconosciuto le proprietà mediche della cannabis dopo che per 60 anni la cannabis era stata inserita nelle tabelle delle sostanze ad alto rischio di abuso e che non avrebbero appunto avuto valore medico quindi un grande inganno al quale hanno partecipato i più alti livelli delle istituzioni a livello globale che piano piano è stato svelato e che speriamo possa essere l'inizio per un nuovo approccio nei confronti di questa pianta che accompagna l'umanità da migliaia di anni e nonostante questo nonostante ci abbia nutrito scaldato curato per veramente migliaia di anni è la pianta che nell'ultimo secolo è stata più maltrattata in assoluto è l'unica pianta probabilmente che è stata dichiarata illegale in tutta la storia dell'umanità come si faccia a dichiarare una pianta illegale ce lo stiamo ancora tutti domandando ma sono sicura che insomma siamo in un momento abbastanza diciamo di svolta sembra che le cose si stiano muovendo sia in Parlamento ma quello che ti vorrei chiedere visto che sei comunque una persona estremamente informata sull'argomento infatti sono anni ormai che ne scrivi e per questo ti ringrazio a nome di tutti perché l'informazione è la base è la base della conoscenza ti vorrei chiedere se in questi ultimi minuti per chiudere ci puoi parlare un po' della situazione della legalizzazione a livello internazionale ok allora come sappiamo a livello internazionale stiamo facendo dei passi avanti incredibili nel senso che dopo la legalizzazione dell'Uruguay che è stata la prima abbiamo assistito alle varie legalizzazioni dei vari paesi degli Stati Uniti e poi a quella canadese che è il primo paese del G7 ad avere legalizzato la cannabis in America questo processo sta andando avanti senza sosta nel senso che dieci giorni fa ha legalizzato lo stato di New York che è stato seguito dal New Mexico che è stato seguito dall'Arizona attualmente ci sono almeno altri 4-5 stati che nel 2021 potrebbero legalizzare e parliamo di uso ricreativo portando quindi a circa 20-25 stati mentre quella medica è già legale in più di 30 ma la cosa importante è che in America è stata votata alla Camera la legalizzazione federale pensiamo agli Stati Uniti un po' come fosse l'Italia con le varie regioni e quindi i vari stati nazionali che possiamo paragonare le nostre regioni stanno legalizzando la cannabis ma il governo centrale che è quello federale la ritiene ancora illegale quindi poi ci sono mille problemi che vanno dalla dispensazione dai problemi economici per le aziende e poi non fanno aprire i conti in banca e non riescono ad ottenere i pagamenti insomma tutta una serie di problematiche che ancora non sono state risolte se si arrivasse alla legalizzazione federale che dovrebbe essere discussa in Senato in periodi nel breve periodo sicuramente cambierebbe completamente il paradigma e gli Stati Uniti diventerebbero dopo il Canada il secondo Stato che ha legalizzato completamente l'uso ricreativo ma è un processo di cui si inizia a parlare anche in Europa Malta per esempio due settimane fa ha come dire reso evidente la propria strada che sarebbe appunto quella di depenalizzare il consumo e di permettere l'autocoltivazione di cannabis in Europa ne hanno parlato tantissimi stati come il Lussemburgo che è stato quello più vicino in Spagna se ne parla ai vari livelli in Olanda nel senso è un dibattito che è molto aperto e che sta iniziando a toccare anche paesi molto rigidi come quelli asiatici che da sempre hanno avuto un approccio molto rigido nei confronti della cannabis e di altri stupefacenti stanno iniziando a legalizzare l'uso medico un esempio è quello per esempio tailandese dove il governo sta facendo dei passi incredibili perché dopo averla legalizzata adesso stanno autorizzando le persone a poterla produrre per cedere allo Stato hanno aperto un sacco di cliniche stanno formando i medici e si sono tra virgolette riappropriati di quella che era una medicina tradizionale millenaria nella loro storia e che appunto nell'ultimo secolo era stata eliminata quindi diciamo che a livello internazionale la sensazione è buona i processi legislativi vanno verso la normalizzazione dell'utilizzo della cannabis in tutti i suoi settori speriamo che anche le nostre istituzioni prima o poi se ne accorgano e diano seguito alle varie promesse che sono state fatte in campagna elettorale per le quali hanno preso milioni su milioni di voti e che fino ad oggi invece si sono poi rivelate o nulla di fatto beh dai cerchiamo di essere positivi speriamo che adesso ci sia veramente anche insomma una discussione parlamentare e che si inizi a lavorare in questo in questo senso Mario ti ringrazio tantissimo a nome di tutti gli spettatori e delle unit association of cannabis per la tua partecipazione anche appunto come come tuo diciamo come rappresentante di cannabisindustriale punto it cannapaterapeutica 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 cannabisterapeutica punto info e dolce vita colgo l'occasione anche per ringraziare soft secret e belief che hai citato prima che anche loro fanno parte di questo nuovo movimento insieme sicuramente riusciremo a farci sentire e a far capire che siamo veramente tanti grazie mille grazie a te Nadia un mega grazie perché so che cosa vuol dire riunire tutte queste associazioni che spesso abbiamo divergenze e magari visioni sul particolare no differenti ma è importante che in occasioni come queste siamo tutti insieme per cercare di far sentire il nostro peso e cercare di essere tutti uniti verso una causa comune grazie grazie ancora grazie Mario buona continuazione grazie ciao ciao allora a questo punto passo la parola a Marta che parlerà di cannabis veterinaria con Elena Battaglia e Elia che si occupa un'azienda che si occupa di foraggio un grande abbraccio sia Marta che a Elena che sono due mie grandi amiche grazie passo la parola a voi se la regia sì buona grazie Marta forse è caduta un attimo grazie Nadia però c'è qui con me sempre il buon Raffaello salutiamo Leonardo in background nell'attesa no ecco Marta forse è arrivata eccola qui ciao Marta abbiamo già pronti la dottoressa che ho avuto il piacere di avere ospite con noi al 4 e 20 news ed Elia che ci stanno aspettando quindi Marta a te la parola ok allora benvenuti di nuovo nuovamente benvenuta dottoressa Elena Battaglia specializzata in veterinaria e applicazione dei cannabinoidi nel uso veterinario benvenuto Elia Bardan che si sta occupando di un particolare progetto su l'allevamento e l'alimentazione degli animali a base di canapa e entriamo subito in merito all'argomento magari con una breve presentazione quindi benvenuta dottoressa se ci può un attimo ecco autopresentarsi e poi spiegarci come è riuscita ad introdurre questo nuovo di approccio terapeutico con gli animali in questo paese in particolare perché poi so che è anche studiato altrove prego allora io ho iniziato praticamente occuparmi di CBD diversi anni fa grazie al al mio cane perché non avevo diciamo nessun altro metodo di curarla avevo provato aveva una gravissima artrosi avevo provato diversi tipi di farmaci e niente riusciva a funzionare poi mi sono un po' informata ho visto che comunque negli Stati Uniti veniva utilizzato il CBD per gli animali quindi il full spectrum per gli animali e ho deciso di utilizzarlo anche sulla mia cagnetta ottenendo degli ottimi risultati infatti da lì all'ultimo dei suoi giorni lei non ha mai più assunto un antinfiammatorio o un cortisone e una volta che mi sono resa conto della bontà di questa terapia ho deciso che assolutissimamente era da far provare a vabbè prima di tutto abbiamo iniziato con i miei pazienti poi man mano diciamo che ne ho parlato in giro e la voce è diffusa ok ottimo e come diciamo come l'hanno presa i pazienti cioè i proprietari dei pazienti questo nuovo approccio terapeutico su cosa si basa perché poi non è lo stesso tipo di varietà e genetiche che si utilizzano diciamo ad uso umano quindi come poi viene somministrato all'animale e in quali casi ecco faccio una domanda un po' completa in quali casi perché io vedo un sempre più largoso anche di farmaci psicofarmaci sugli animali animali depressi animali stressati animali che non vivono più bene nel loro ambiente habitat quindi sono stati questi casi maggiori oppure sono stati altri che tipo di esperienza ha avuto e come hanno affrontato questa nuova proposta i suoi pazienti allora i miei pazienti che poi sono i miei clienti la maggior parte sono stati entusiasti di trovare una soluzione che poteva essere naturale e poteva essere utile ok quindi erano ben felici di non dover più eventualmente utilizzare cortisonici fans che comunque alla lunga possono dare degli effetti collaterali la terapia è semplice nel senso che di solito io utilizzo solo l'olio quindi o l'olio di cannabis terapeutica o l'olio di CBD di solito nelle patologie medio leggere si inizia con un CBD full spectrum e si va avanti da lì se poi invece ci sono delle patologie più diciamo gravi io passo all'utilizzo della cannabis terapeutica che è comunque la cannabis terapeutica che viene utilizzata anche per le persone quindi una formulazione galenica che viene preparata in farmacia per quel che riguarda la maggior parte dei casi abbiamo iniziato che fondamentalmente la maggior parte dei casi erano casi di pazienti artrodici adesso abbiamo tantissimi pazienti artrodici tantissimi pazienti oncologici che hanno ottenuto decisamente vari miglioramenti sulla qualità della vita in generale oltre che a un rallentamento dell'evoluzione del tumore per quel che riguarda eventuali casi di medicina comportamentale o comunque cani ansiosi gatti stressati eccetera eccetera diciamo che questi qua sono gli ultimi che stanno diciamo venendo trattati perché fino a poco tempo fa c'era questa nomea che la cannabis era utilizzata solo per il dolore adesso piano piano i proprietari si stanno informando vedono che comunque il CBD può essere utile per rilassare l'animale per soprattutto per far adeguare l'animale alle nozioni che gli vogliamo insegnare cioè se noi abbiamo un cane che fa fatica imparare delle cose il CBD o eventualmente anche il CBG possono essere utili utili per rilassarlo al punto tale che tu gli puoi insegnare quello che ti serve per renderti la vita migliore quindi dagli addestratori o scusate il gatto dagli addestratori può essere utile sia per gli addestratori sia per chi fa medicina comportamentale Perfetto Allora passando un attimo dal pet quindi dall'animale domestico a quello invece da allevamento il rispetto più o meno diciamo dovrebbe essere quello per ogni per ogni essere vivente almeno dal mio punto di vista non è culturalmente dato che scontato Elia se puoi un attimo presentare quello che è lo studio che stai portando avanti in questi ultimi anni proprio sull'importanza del benessere psicofisico quindi anche fisico dell'animale e come ha introdotto la canapa in questo progetto Sì buongiorno a tutti e buon 4 eventi a tutti quanti io sono un'azienda agricola che si occupa principalmente di allevamento di Vitelli a carne bianca e ho fatto dal 2017 una diversificazione aziendale con l'introduzione della canapa per farina e olio per alimentazione umana dalle prime armi abbiamo abbiamo scoperto una cosa un po' imbarazzante che era quella di non utilizzare la farina in maniera adeguata e quindi essendoci la possibilità di usufruire di finanziamenti europei della regione veneto tramite le misure PSR ho ideato un progetto in problem solving e creazione di filiere laddove inserire la farina di canapa o eventualmente strati di canapa all'interno dell'alimentazione solida e liquida di Vitelli nel mio caso Vitelli a carne bianca l'obiettivo principale era quello di verificarne un benessere comportamentale sono state fatte delle registrazioni video 24 ore su 24 per tutto il corso dei sei mesi di prova e abbiamo inoltre era l'obiettivo del progetto e verificare l'apporto dell'omega 3 e dell'omega 6 sulla carne che poi è destinata all'aria di consumo umano e ci sono molte spaccettature di questo progetto perché può essere un volano economico sia per quanto riguarda aziende mancimificie sia per quanto riguarda il benessere animale legato non solo ai regolamenti e alle leggi che abbiamo sia a livello europeo nazionale regionale ma soprattutto legato a una corretta alimentazione che possa diminuire anche l'utilizzo di farmaci che vengono utilizzati anche con leggerezza a volte infatti mi sarebbe anche piaciuto con il dipartimento di medicina e alimentazione dell'università di Padova verificarne la possibilità di utilizzo del CBD o del CBG per diverse problematiche che possono avere anche i vitelli a carne di vitelli o i povini faccio un esempio lo stress da viaggio quando io per esempio non faccio parte della filiera italiana che è un mercato di nicchia e acquisto i vitellini in Francia quindi si fanno un bel po' di chilometri in autostrada poi arrivano e sono stressati quindi il primo periodo di ambientamento ecco potrebbe essere un possibile utilizzo anche del CBD per alleviare questo stress e il progetto si riguarda anche cioè si espande anche per quanto riguarda l'utilizzo in altre funzioni come il foraggio e di questi i dati saranno pubblicati dall'università a giugno di quest'anno sul benessere appunto ci sono tante le regole però una corretta alimentazione sta alla base di tutto secondo me e la cannaba a noi ha dato questi risultati abbiamo nominato anche il CBG di coltre al CBD e questa è la prima volta in questa giornata che si nomina anche un altro cannabinoide quindi portiamola all'attenzione come altamente rilassante la cannaba non è fatta solo di THC abbiamo scoperto col CBD e ultimamente stiamo scoprendo anche altri cannabinoidi e li applichiamo anche sull'uso animale ora quindi qui si prospetta in realtà quindi più di una filiera un'apertura più di una filiera perché oltre a quella dell'allevamento c'è anche la filiera non solo della cannaba ma anche dell'allevamento quindi non solo la produzione ma quindi come come vedi lo sviluppo possibile un beneficio possibile economicamente per l'applicazione di questo metodo piuttosto che il metodo tradizionale ce n'è anche un beneficio economico oltre che dal punto di vista della salute per la filiera della cannaba e non solo allora ad oggi è ancora difficile immaginare uno sviluppo di ritorno economico in quanto si stanno solo facendo prove e studi perché a livello mondiale non ci sono mai stati fatti studi se non sulle galline in Italia e in altri paesi in Europa e a mio parere può essere molto interessante uno sviluppo sia della farina derivata dai semi di cannaba ma anche dell'olio al CBD per esempio perché è già permessa fortunatamente una in ambito veterinario l'omeopatia e quindi un'attenzione anche da parte del cliente finale ad avere la certezza che un determinato una determinata carne segue tutta un'inter disciplinare secondo me può portare anche a un guadagno migliore per quello che è l'allevatore il dottor una domanda alla dottoressa invece i proprietari di animali domestici che volessero invece affrontare una terapia alternativa cosa debbero fare nel pratico oltre a ricercare magari non so sollecitare il proprio veterinario come possono affrontare questa difficoltà del riferimento del farmaco dal punto di vista dell'animale allora prima di tutto devono trovarsi un esperto in cannabinoide perché ci sono sin troppi veterinari che non hanno ancora idea di cosa sia il CBD addirittura c'è chi pensa che sia solo un integratore per cui quando magari una cliente gli chiede quanto ne devono dare gli dicono ma sì ma dagliene due o tre gocce tanto non fa niente male non fa ed è completamente sbagliato perché la terapia con i cannabinoidi deve essere precisa soggettiva adeguata al paziente a tutte le sue varie problematiche e a eventuali farmaci che sta prendendo quindi bisogna trattare il paziente tra 160 gradi per quel che riguarda il riferimento del CBD fortunatamente ci sono diverse ditte in Italia che adesso a parte le grosse ditte tipo per dire canna rescue o altre ditte che sono in commercio ci sono anche tante piccole ditte diciamo di piantagioni di canapa che comunque stanno facendo degli ottimi prodotti e fortunatamente ci fanno avere anche le analisi per cui noi possiamo valutare se quell'olio al CBD può essere utile per un dato paziente quindi da quel punto di vista lì di strada se ne è fatta tantissima dal punto di vista invece dei pazienti che utilizzano la cannabis terapeutica è lo stesso problema che hanno tutti i pazienti di cannabis terapeutica in umana cioè è un disastro è un disastro perché l'anno scorso abbiamo smesso di avere a disposizione l'FM1 adesso praticamente siamo senza FM2 e io ho diversi pazienti epilettici che utilizzano l'FM2 perché è quella che gli permette di avere meno crisi adesso siamo disperati perché non sappiamo proprio come fare per non parlare della carenza che comunque è cronica quindi ci sono dei periodi che abbiamo degli oncologici che stanno bene con una determinata varietà di cannabis poi improvvisamente questa sparisce per due mesi e bisogna riprogrammare il tutto rifare il piano terapeutico cercare un'altra varietà che possa andare bene per il paziente il tumore e tutta la strada che ha appena fatto quindi è decisamente un gran casino quindi lo stesso problema lo abbiamo per ogni tipo di paziente la discontinuità terapeutica l'irreperabilità del farmaco l'impreparazione da parte dei medici che spesso tra l'altro mandano i proprietari di animali agli M-Shop e dicono prendi un olio qualsiasi è uguale se è full spectrum se è isolato se è 5-10-20% e quindi l'uso dei cannabinodi dovrebbe comunque essere monitorato da una figura medica anche per questo dovrebbe essere non solo tutelata la continuità terapeutica ma anche una maggior struttura proprio normativa su quello che è il farmaco e la produzione dello stesso allora per volendo concludere se potete lasciare appunto a chi sta seguendo la diretta dei recapiti utili se vogliono entrare in contatto visto che siamo qui anche per retificare e per diffondere un tipo di informazione che non è data a tutti anzi spesso veniamo contattati noi associazioni per avere appunto contatti tra persone che stanno portando avanti progetti paralleli e sulle proprie spalle perché ecco Elia più o meno mi ha raccontato la sua storia e è veramente una grande forza di volontà quella che ci vuole per portare avanti i progetti del genere soprattutto in campo di agricoltura di allevamento dove dovrebbero arrivare anche finanziamenti per quelle filiere promettenti che non possono stare solo sulle spalle dei liberi professionisti dei cittadini delle aziende private non è sostenibile tutto ciò prego quindi se volete fare un saluto lasciare i contatti magari non so se avete un appello da fare ai vostri colleghi avete carta bianca in questo vai pure no prego 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 signore grazie ma io l'appello ai proprietari soprattutto di informarsi di cercare un veterinario esperto in cannabinoidi e ogni volta che si approcciano diciamo all'acquisto di un olio di CBD o di farsi diciamo consigliare da un veterinario oppure comunque richiedere sempre le analisi di laboratorio per sapere effettivamente cosa stanno comprando e come recapito vi lascio la mia mail che è batteelena 420 chiocciola gmail.com con una sola t comunque cercando Elena battaglia medico veterinario si trova perché si trova una pioniera di questa cosa per quanto mi riguarda io lancio l'invito a tutti quanti di non mollare questa lotta che stiamo facendo perché è un diritto di tutti ed è un bene che ci facciamo e facciamo all'umanità e al pianeta legalizzando questa magnifica pianta per quanto riguarda il mio settore se c'è qualcuno collegato potete richiedere eventuale documentazione all'università di Padova al dipartimento di medicina e alimentazione veterinaria e se qualcuno invece vuole conoscere la mia esperienza e chiedermi quanto l'ho fatto il mio recapito facebook è elia barban e l'email è elia barba senza n chiocciola gmail punto com punto it grazie mille buona giornata a tutti grazie a tutti buon 4 e 20 grazie mille veramente chiedo scusa chiedo scusa a elia ci ho messo una n in più raffa ci sei per la prima volta nella storia del 4 e 20 siamo in anticipo sulla scaletta non so come sia successo ovvero diciamo che un'idea me la sono fatta allora non so vogliamo vogliamo ancora ringraziare gli sponsor ah quindi la mail era senza la n però lui si chiama barban in realtà non avevo sbagliato ragazzi ci siete ci siamo ci siamo un forte chiaro diciamo che io mi trovo a Taranto poi c'è la regia di Leonardo Fiorentini che ringraziamo ancora una volta non smetterò non smetterò mai oggi di ringraziarti poi c'è Raffa al The Amp Club e Marta credo che sia a Roma a Roma a casa mia nella residenza estiva nella residenza di Roma io intanto inizierei a invitare gli amici di Canapantica così intanto li prepariamo al collegamento abbiamo Canapantica Tour che è uno dei social club esistenti in Italia perché ci sono già realtà associative come il The Amp Club Canapantica Cannabis Cura Sicilia e altre realtà di social altre sono nascenti e come associazioni antiproibizioniste le sosteniamo praticamente tutte io parlo a nome del Cannabis Service in particolar modo sosteniamo Canapantica e THC Milano e quindi faremo un tour di questa realtà di cui tutti quanti sono curiosi e sapere ah davvero esistono i social club in Italia sì veramente e vediamo un attimo come funzionano e niente possiamo poi andremo avanti con la giornata con altre dirette da parte di altri di altre associazioni c'è Nadia che ci chiede la parola sì allora volevo lanciare il nono premio il nono premio sono sei magliette di di Sardinia Cannabis messe in paglio da Sardinia Cannabis quindi a chi risponde alla domanda relativa al tavolo della veterinaria che ha tenuto la nostra Marta la domanda è qual è la parola prima di Spectrum quando si parla appunto del farmaco per il pet qual è la parola prima di veramente non solo per il pet però ne ha parlato la veterinaria quindi qual è la parola prima di Spectrum che viene utilizzata appunto per il farmaco chi risponde i primi sei i primi sei che rispondono si aggiudicheranno il nono premio che sono le magliette di Sardinia Cannabis ecco tutto grazie mille perfetto bene bene continuate a commentare se vuoi restare qua con noi tanto siamo in anticipo sulla scaletta quindi nell'attesa appunto del prossimo collegamento io invito nuovamente a commentare e rispondere alla domanda per vincere i premi degli sponsor spoileriamo un altro po' sono le 14.43 siamo in diretta su tutte le piattaforme di facebook sul canale di youtube di fuori luogo che ringraziamo e quindi ci sarà fra un po' anche un collegamento musicale non svegliamo però gli ospiti non spoileriamo gli ospiti ecco mi chiedono dove devono commentare per i premi commentate sotto la la diretta di anzi facciamo così commentate su youtube così non ci sono problemi commentate sotto la diretta di youtube se uno non c'ha youtube poi va sulla diretta però su youtube così noi ci arriva in diretta il commento i primi abbiamo detto sette sì i primi sette vincono la magliettina la maglietta ok ho commentato quindi dal prossimo premio in poi se non avevate capito dove commentare commentate sotto il video di youtube perché le magliette sono già state tutte vinte nell'arco di pochissimo tempo quindi chi era su youtube aveva capito come funzionava e ha commentato immediatamente speriamo speriamo che hanno risposto giusti però se no non si dice hanno risposto hanno risposto bene bene va bene allora io direi che non so se siamo pronti eccoci qua con canapantica quindi vedo che benvenuto francesco salutiamo anche le varie regie che adesso prontamente io bannerò da questo pannello e non so chi chi era il mediatore sicuramente lei per questo per questo intervento aspetta che l'ho cacciata vabbè intanto facciamo entrare francesco ciao francesco ciao a tutti mi date sì ok ciao a tutti mi sono perso Marta a tutti buon 4 e 20 mi sono perso la Marta raffa raffa dammi la mano te apri il microfono però raffa raffa raffaello non ti sentiamo raffaello è andato via anche raffaello prova prova francesco tu ci sei eccoci qua ci siamo bene allora io ti lascerei la parola presentati abbiamo già detto che fai parte di canapantica però insomma noi ti lasciamo ai tuoi minuti di presentazione così ci spieghi anche un po' tour di un social cioè insomma cosa cosa ci dici allora io sono francesco sono il presidente di canapantica ormai dal 2013 2014 ci conosciamo perché ormai è l'ennesimo fortuiti che facciamo insieme quest'anno abbiamo la fortuna di essere di essere in diretta perché è ancora meglio proprio a chiudere la chat altrimenti non riesco ok oggi siamo nella nostra sede di canapantica in realtà stiamo preparando anche una sede estiva dove faremo corsi convegni ed eventi questa diciamo è la nostra sede classica noi siamo nati come social club in riferimento anche social club spagnoli e social club che c'erano in belgio con cui la bravovamo di cui facevamo parte e poi man mano sono nate delle esigenze anche per venire incontro al mercato della cannabis light e per venire incontro ai pazienti stessi sono state delle esigenze che hanno fatto maturare più o meno il concetto di club allora questa è la nostra innanzitutto è la nostra area negozio diciamo è il posto dove il paziente può venire semplicemente a ritirare il farmaco oppure anche i non soci possono venire ad acquistare i prodotti i prodotti dall'associazione o dai soci stessi dopodiché vi faccio fare un giro così intanto vi spiego dopodiché abbiamo la nostra area diciamo salotto con un piccolo bar la nostra terapia room dove si può fare la terapia si può socializzare e dirà abbiamo il piccolo studio medico ve lo faccio vedere al volo anche questo abbiamo un piccolo studio medico dove appunto il dottore solitamente il nostro dottore i nostri medici fanno le visite mediche o le sedute di terapia sotto stiamo anche allestendo un indoor ma del tutto sperimentale non andremo a fare produzione di nessun tipo questo perché nel corso degli anni abbiamo visto che il concetto di club inteso come il social club classico che produce la cannabis per i pazienti o per i soci e i soci vanno lì a semplicemente a comprarlo a ritirarla non poteva funzionare perché sia siamo in un momento di proibizionismo quindi poi comunque le persone dietro al club incorrano a procedimenti penali e prima o poi la produzione si deve interrompere sia perché non si rende indipendente il paziente il socio anche e soprattutto non si diffonde cultura quindi abbiamo deciso di prendere una strada un attimino diversa cercare di usare il club come area proprio locale come centro locale per andare a fare network quindi per andare a collegare pazienti medici coltivatori appassionati della pianta in modo sia da fare formazione sia da condividere esperienze consigli aiutarsi a vicenda in modo da diffondere la cultura di andare avanti ed estendere a più persone possibili la cultura questo perché molto spesso le persone che anche si curano con la cannabis terapeutica non hanno bene idea di con cosa si stanno curando lo stesso vale con i medici d'accordo per cui i confronti sono sempre sono sempre la cosa migliore la cosa che soprattutto fa maturare il paziente il socio la persona è lo fa essere indipendente diciamo nei confronti della propria terapia della propria medicina quindi abbiamo cambiato un po' diciamo le carte in tavola per quanto riguarda il concetto di club negli ultimi anni ma ci stiamo trovando molto meglio così perché in questo modo i pazienti hanno modo di crescere i soci stessi hanno modo di crescere sono più maturi sanno cosa va bene per loro sanno cosa non va bene per loro riescono ad uscire fuori dalle grinti e di questo terribile mercato nero che purtroppo a causa del proibizionismo sono costretti sono costretti a subire quindi in sostanza il social club è questo non uniamo soltanto naturalmente persone all'interno della città di torino o all'interno della regione Piemonte ma cerchiamo di lavorare per quanto possibile a livello nazionale anche se essendo comunque una no profit essendo in pochi è una cosa molto molto difficile benissimo complimenti complimenti per il vostro lavoro grazie Nadia abbiamo ancora qualche minuto esatto abbiamo ancora qualche minuto ci fai vedere un po' intorno che cosa hai dietro qualche piantina allora praticamente vi spiego più o meno come lavoriamo allora praticamente queste sono semplicemente piante ornamentali per il negozio le piante le abbiamo le abbiamo dall'altra parte anche perché stagione siamo andati fuori semplicemente qui abbiamo un redesto dove facciamo principalmente segreteria dove anche i non soci possono venire a acquistare i prodotti che dicevo prima dell'associazione ma anche di alcune realtà locali che cerchiamo di mettere in rete perché anche questo è un po' il bello della cannabis che non è un po' il bello della vita che è un po' il bello della vita di un per il e quindi comunque abbiamo modo di essere abbiamo modo di essere una vetrina per alcune realtà locali molto valide che altrimenti non avevano modo facevano fatica ad esporci quindi non è prettamente non si riduce prettamente solo la cannabis il discorso ma poi naturalmente vengono fuori tantissimi altri spunti una volta una volta che si è insieme che comunque si parla, si fanno le riunioni, si fanno i convegni. Questo salottino bar è lo spazio dove diciamo facciamo i corsi, facciamo i convegni dove i pazienti possono consumare la terapia, abbiamo anche un piccolo giardinetto per l'estate e per la primavera sostanzialmente abbiamo deciso di attuare questa formula e di cercare di spostare il punto della situazione, il nocciolo della situazione sulla formazione del paziente, sulla formazione del coltivatore perché pensiamo che il semplicemente produrre e distribuire cannabis non porta a tanto quanto invece cercare di distribuire cultura e quindi cercare di avere più persone possibili consapevoli riguardo questa pianta perché fondamentalmente la cosa che principalmente manca in Italia oggi è la consapevolezza. Il gradino più grosso che il proibizionismo probabilmente dovrà andare ad affrontare è il gradino dell'ignoranza che le persone hanno su questa pianta che comunque pensano che sia una droga, pensano che altera lo stato di coscienza eccetera eccetera eccetera, porta a dipendenza, quindi tutte cose che miti da sfatare ma da sfatare con le nozioni. Francesco speriamo che tante altre persone seguano il tuo esempio e che piano piano in Italia sia pieno di social club dove insomma potersi riunire perché poi la cannabis diciamolo è anche una risorsa di aggregazione per le persone, è una grande risorsa in questo senso sociale. Per fortuna ci sono tante realtà in Italia che da tanti anni comunque portano il buon metodo, ok, lavorano con etica, professionalità e quant'altro. Oggi tra l'altro siccome è tutti i fortuenti ci sono anche loro e quest'anno per motivi personali non ci sono, volevo salutare Swid che ci stanno guardando, sicuramente sono a casa e saluto anche tutte le altre associazioni che hanno partecipato e partecipano a questa diretta perché è molto importante lanciare questo messaggio. Grazie Francesco e grazie soprattutto per la tua collaborazione e per la tua partecipazione e insomma e anche per tutto quello che fai insomma per quanto riguarda la ricerca e la so che ti fai, comunque sei anche un breeder, ti lavori sulle genetiche quindi insomma meravigliosamente grazie per quello che fai per tutti noi. Grazie a voi, è molto importante che il network sia saldo per arrivare dovunque quindi grazie. Grazie, grazie Francesco, buona giornata. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon correnti. Allora, adesso abbiamo Chiara Locascio che è responsabile, referente di Canna Passativa Italia e che terrà la tavola rotonda dei legali appunto intitolata Cannabis un diritto fondamentale. Parleremo appunto con diversi avvocati della scena, insomma avvocati della scena nazionale per quanto riguarda appunto la Cannabis. Ciao Chiara, benvenuta, non ti sentiamo, questo è il bello della diretta. Continuiamo a non sentirti? Ha una faccia conosciuta. Buonasera a tutti, no scusate che ho in linea anche l'avvocato Besosi che stiamo cercando di collegarci, anzi prego qualcuno della regia di chiamarlo così gli dà le indicazioni perché seguendo l'interno non riusciva a collegarsi però possiamo comunque iniziare, direi che sono qui. Perfetto, allora Chiara ti lascio la parola, grazie per mediare questo tavolo, grazie insomma anche per tutto quello che fai e niente, insomma ascoltiamo con piacere i tuoi ospiti, avvocati e questa meravigliosa tavola rotonda sugli aspetti legali della Cannabis. Sì, se l'avvocato Besosi sta ascoltando. Allora, se vedendo, mi saremo due di partire, vi faccio un pochino una carrellata di quello che andiamo ad ascoltare sempre che tutti si riescano a collegare. Allora, dobbiamo avere assolutamente un aggiornamento sul processo di Walter o meglio farci raccontare un pochino dal legale che lo sta seguendo, quindi l'avvocato Lorenzo Sengoni, cosa sta succedendo e a breve, se non sbaglio, tra pochi giorni ci sarà un secondo incontro del processo. Per quanto riguarda invece l'avvocato Carmelo Butera ci spiegherà il Cannabis Service, quindi come funziona il Cannabis Service e che cos'è il Cannabis Service e quanto possa essere importante in questo momento storico, tra l'altro. E se l'avvocato Besostri si riesce a collegare, io adesso magari, se mi permettete, lo chiamo mentre parla magari l'avvocato Butera, e l'avvocato Besostri ha inventato quello che ormai viene chiamato il metodo Besostri, un metodo civilistico, quindi non penale, che grazie a una proliferazione sostanzialmente di ricorsi fatti in tutte le sedi, in tutte le procure, va a scardinare delle situazioni, per esempio, tutto è riuscito a far abolire il Porcellum, la legge elettorale, recentemente con questo metodo qui. E poi abbiamo l'avvocato Filippo Morinari, penalista, che ci va a raccontare un po' qual è adesso sul mercato della cannabis e prospettive future, ricordiamo che l'avvocato segue il The Hand Club Milano, quindi il social club di cui poco fa stavamo parlando, cioè i social club di cui stavamo parlando poco fa e che è rappresentato in questo caso da Raffaello, che ce l'abbiamo visto anche prima. Allora, visto che ci serve voi due, io darei la parola all'avvocato Butera, inizialmente, visto che è già qui con noi, e abbiamo parlato ampiamente oggi anche di cannabis terapeutica, abbiamo parlato di difficoltà nel depredimento del farmaco e quindi l'avvocato del Foro Ritomax parla un po' dei peculiari profili organizzativi, legali e operativi che ha Cannabis Service. Prego, grazie mille per essere qui. Buonasera a tutti, è un piacere a partecipare a questa tavola rotonda. Vado subito, come dire, alla questione, oggetto di trattazione. Cannabis Service, che cos'è? Come molti di voi sapranno, è un'associazione che opera a livello nazionale e che si prefigge quale obiettivo fondamentale è quello di garantire ai soggetti affetti da determinate patologie di accedere alla terapia della cannabis terapeutica. Accanto a questo, diciamo, scopo, che è uno scopo pratico, vi è chiaramente uno scopo anche naturale, è quello di sensibilizzare la collettività affinché, diciamo, la cannabis terapeutica sia considerata equivalente rispetto a quella che è la medicina convenzionale. È un'associazione, diciamo, senza scopo di lucro, chiaramente, che ha una struttura sicuramente ispirata ai principi della democraticità, quindi aperta sia a coloro i quali effettivamente sono interessati ad accedere alla cannabis terapeutica, ma anche a tutti coloro i quali condividono la causa, diciamo, politica, culturale che la stessa associazione si prefigge di raggiungere. Quindi è un'articolazione molto complessa, se così vogliamo dire, che sostanzialmente funge anche da garanzia sul corretto funzionamento. Abbiamo, diciamo, dei referenti locali, abbiamo quindi provinciali, a livello di ASCO, a livello regionale, abbiamo un direttivo nazionale, abbiamo pure, chiaramente, l'assemblea dove verranno assunte tutte le decisioni fondamentali. Come dire, per lo svolgimento di quella che è alla fine l'attività fondamentale, l'associazione si avvale di una rete nazionale che fa leva sulla presenza di farmacisti, anche medici, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni a titolo assolutamente gratuito. Come dire, trattasi di convenzioni a titolo gratuito che, diciamo, è importante sottolineare e garantiscono assolutamente quella che è l'autonomia di azione sia dei medici e sia anche dei farmacisti. È un'associazione, quindi, che non è che garantisce l'accesso a una terapia, garantisce semplicemente la possibilità, qualora bene sia nei presupposti, di accedere alla terapia. Quindi, chiunque ne abbia interesse, si rivolge all'associazione, avvia o tramite uno dei numerosi infopoint dislocati su tutto il territorio nazionale o tramite la procedura online, svolge quindi la procedura di associazione, si rivolge quindi a uno degli infopoint, viene indirizzato a uno dei medici compensionati che svolgerà, appunto, la visita di rito, che può essere una visita di base piuttosto che una visita specialistica e poi, successivamente, si procederà tramite, diciamo, i contatti, la rete creata da Cannabis Service, diciamo, procederà all'acquisizione della... È importante sottolineare il concetto di rete. Cioè, Cannabis Service ha quale scopo fondamentale? È importante quello di creare rete, cosicché tutti possono accedere a questa terapia. Una terapia che, come poco fa si evidenziava correttamente, subisce quelli che sono i pregiudizi culturali dei giorni nostri. Quali sono i profili, diciamo, chiaramente problematici di un'attività di questo tipo? Incorrere in violazioni, sia di carattere amministrativo, sia di carattere, diciamo, penale. L'ambito penale, come dire, non è, diciamo, l'ambito di mia competenza. Sicuramente il mio collega Molinari, diciamo, potrà eventualmente svolgere, sviluppare, diciamo, maggiormente il tema. Il problema qui, stiamo in presenza di un'attività che può fare emergere i profili, sia sotto il profilo della propaganda all'utilizzo della, diciamo, della cannabis terapeutica, perché è giusto comunque sottolinearlo che il testo unico sulle sostanze superfacenti lo considera ancora oggi uno superfacente. E poi c'è anche il profilo, chiaramente, dell'induzione all'utilizzo, quindi articolo 2 del testo unico. Quindi, ai fini, diciamo, di evitare situazioni spiacenti, sia nei confronti degli associati, sia nei confronti dell'associazione stessa, sia anche nei confronti di chi agisce in nome e per conto dell'associazione, da un punto di vista organizzativo sono state assunte determinate, diciamo, determinate accorgimenti. Accorgimenti che vanno, innanzitutto, dalla predisposizione di documenti, di documenti sociali, di comunicazioni sociali, che oltre, diciamo, chiaramente a illustrare quelle che sono le attività svolte, hanno un contenuto, diciamo, il più possibile scientifico, ok? Poi il fatto che, appunto, nelle comunicazioni deve essere chiaro il fatto che l'associazione non garantisce la prestizione della cannabis medica. Quindi, sostanzialmente, stiamo in presenza di un'associazione che garantisce l'autonomia deontologica e professionale dei medici e delle farmacie. Perché, sostanzialmente, qual è il problema? Il problema è che la cannabis service, l'associazione, persegue delle finalità sicuramente nobili e sicuramente condivisibili. Però, in un substrato culturale di proibizionismo, come poco fa si evidenziava, è necessario, come dire, che tutto venga fatto con la massima trasparenza e lasciando, sostanzialmente, i medici che facciano i medici e i farmacisti che facciano, sostanzialmente, i farmacisti. Sembra banale, però, come dire, così stanno le cose. Poi, come dire, sappiamo anche che, per esempio, l'induzione all'utilizzo può avere delle aggravanti particolari per quanto riguarda i minori. Per esempio, è stato previsto la non possibilità per i minori di accedere all'associazione. Possono farlo eventualmente i genitori, cosicché possa essere garantita al 100% quella che è la trasparenza e sicuramente la responsabilità nell'assunzione di un prodotto che, si torna a dire, fino ad oggi viene considerato come uno stuprofacente. Poi non sono ammessi come uno stuprofacente minori e poi una cosa fondamentale è che deve essere garantita la legalità sia come rispetto dello statuto, sia come rispetto del regolamento, sia come rispetto delle leggi e quindi, sostanzialmente, tutti gli associati, tutti i convenzionati si obbligano a tutti i livelli a denunciare o ai referenti locali, piuttosto che ai referenti nazionali, quindi ai membri del Consiglio Direttivo, eventuali abusi che eventualmente vengono perpetrati dagli associati stessi o comunque anche dagli stessi convenzionati perché è chiaro che potrebbero esservi delle ipotesi di abuso del veicolo associativo anche da parte dei medici i quali potrebbero avere tutto l'interesse e incrementare quello che è il loro bacino di tenza probabilmente, eventualmente, facendo delle prestizioni molto facili e molto legge. Quindi da questo punto di vista vi sono tutta una serie di pesi e contrapesi che garantiscono la trasparenza e la legalità dell'associazione. Grazie mille, grazie mille alla prova di un'utere che ci sono. Grazie a voi per l'attenzione, se ci sono domande su Cannabis Service, diciamo, sono aperto. Esatto, se ci fossero domande qui nella chat di YouTube io lo sto seguendo, eventualmente c'è anche Marta Visti, che è la Presidente di CS di Cannabis Service, moderando, siamo andati a tutto l'evento e quindi si potranno fare delle domande anche a lei. Noi andiamo avanti sferiti, avevamo lasciato l'Avvocato Simonetti prima, che doveva essere il primo, adesso è presente e gli chiediamo al volo l'aggiornamento sul processo di Valtere perché mi piacerebbe che invece l'Avvocato Molinari ci facesse una chiusura e siamo anche iniziati a rivedere se l'Avvocato Besostri si riesce a collegare. A questo punto quindi io darei la parola, se c'è l'Avvocato Simonetti, a Lorenzo Simonetti, che ci può informare un pochino su qual è il leader del processo. Oddio, non c'è. Mi ha appena scritto che c'era. Che ci dovrebbe dare appunto aggiornamenti sul processo di Valtere? Allora qual è la situazione adesso? Se non sbaglio l'Avvocato Simonetti sta seguendo Valtere e però si ritrova tra due o tre giorni ad avere il prossimo incontro quindi chiaramente i veri aggiornamenti ci saranno tra due o tre giorni quando ci sarà il prossimo incontro. Sì, come sto vedendo, l'Avvocato Simonetti non arriva io gli darei altri venti secondi di tempo ma se no non c'è problema, possiamo andare a... Perché mi piaceva tanto che da voi Molinari ci facesse la conclusione e ci daremo molto l'attenzione della buona domenica. Eccolo. Ciao Lorenzo, buonasera. Claudio. Sei in diretta? Perfetto. C'è anche il conto. Allora, ma... Io ricordo che appunto Claudio Milio e Lorenzo Simonetti sono gli avvocati che nel 2016 ci hanno fatto sollevare gli atti di corte costituzionale i problemi riguardo alla quantifazione di Cannabis ha avuto personale e appunto ora stanno seguendo Valter e tra qualche giorno, se non sbaglio, ci sarà un'altra un'ambienza. Citate aggiornamenti. Sì, c'è l'udienza di discussione abbiamo semplicemente il cardinato di Vito abbreviato e quindi dovremmo discutere quindi verosimilmente sarà l'ultima unienza e avremo poi il dispositivo del giudice per le motivazioni chiaramente dovremmo attendere però insomma siamo ottimisti speriamo bene ecco. Valter purtroppo non sappiamo se potrà essere presente però ci ha fatto piacere il fatto che sia stato presente già all'udienza passata quindi ecco il giudice ha potuto vedere ha potuto constatare l'imputato chi è chiamiamolo un imputato ma mi chiede un po' il brito per chiamarlo così ecco questo è già di per sé un dato imputato potuto guardarlo negli occhi ecco con tutte le mascherine però almeno gli occhi quelli si possono guardare e siamo pronti ecco il 27 sì e chiaro appunto il punto è questo che chiaramente il processo di Valter rappresenta un po' quello che in Italia è il problema della coltivazione per uso diciamo esclusivamente personale o terapeutico è chiaro che la vicenda di Valter è un po' più complessa rispetto a quelli di tanti assistiti che riusciamo a terminare durante la fase delle indagini preliminari la presunzione di destinazione della sostanza a fili di spaccio perché in questo caso la quantità è maggiore e c'erano anche altri attori protagonisti della vicenda e dobbiamo dirlo purtroppo che un altro il coinputato che avrebbe aiutato Valter a contivare per quanto Valter per motivi evidentemente manifesti di disabilità non poteva purtroppo è stato condannato dallo stesso tribunale è assistito da un altro studio legale speriamo di avere anche le motivazioni di questa sentenza quindi comincia un po' a complicarsi la storia non sappiamo quanto è stato provato il fatto che questa persona avesse aiutato Valter che era disabile ovviamente lo presumiamo che i colleghi l'abbiano fatto però purtroppo nella vicenda c'è questa condanna sopraggiunta prima del nostro processo quindi è un elemento chiaramente di cui prendere atto quindi per riassumere a voi per chi non lo sapesse perché magari non tutti conoscono Valter per che cosa è stato accusato esattamente e voi quali tesi state portando avanti allora Valter come tantissime persone disabili ha messo a dimora una coltivazione di marijuana perché per motivi terapeutici necessita di un consumo quotidiano di marijuana però per il quantitativo di cui Valter necessita e necessitava chiaramente non si tratta di una coltivazione di poche piantine ma di una coltivazione che comunque è chiaramente domestica ma attorniata ad alcuni elementi che hanno fatto presumere la professionalità al tribunale cioè parliamo di un trimmer cioè un macchinario che serve per frammentare le infiorescenze un macchinario che non tutti chiaramente hanno parliamo di una serra adibita con tutte le accortezze necessarie per crescere diverse piante di marijuana quindi una coltivazione non modesta chiamiamo diciamo così e quindi è accusato di coltivazione di sostanza stupefacente che di per sé è un reato a differenza della detenzione a fini di spaccio la coltivazione è illegale già di per sé e quindi noi ci troviamo di fronte a questa imputazione la cui difesa non può che essere quella che noi poi tra le altre cose abbiamo sempre sostenuto fino ad aver avuto ragione alle sezioni unite che nel 2020 l'anno scorso infatti finalmente superando un vecchio direttamento del 2008 hanno stabilito un principio fondamentale cioè quello per cui non sempre la coltivazione di sostanza stupefacente è reale ma la coltivazione che sia caratterizzata da un evidente uso personale e da una minima entità quindi questi sono i due fattori che devono accompagnare la coltivazione in questi casi la coltivazione non è reale quindi ora il caso di Malte si riscosta rispetto a questi due parametri per un parametro perché la coltivazione non è di modesta entità però quello che noi vorremmo far capire al giudice e spero anche che la giurisprudenza speriamo possa finalmente anche correggere questa precisa precisa cornice che ha voluto mettere e che quello che conta è l'uso personale perché è chiaro che se io per motivi ludici pianto una o due piantine allora la minima entità della coltivazione da un lato e il conclamato uso personale dall'altro chiaramente dimostrano l'inostensibilità del reato ma il caso di Walter è un caso diverso da un consumo ludico quindi è chiaro che Walter doveva coltivare diverse piante quindi il parametro della modesta entità deve lasciare il posto invece all'altro parametro secondo noi assorbente che è quello del conclamato uso personale cioè se io dimostro al giudice che tutta la sostanza che coltive ne la consumo io mi dite qual è il pericolo e il rischio di una destinazione a terzi quindi bisognerebbe in realtà valutare caso per caso il caso di Walter ci rendiamo conto che è un caso emblematico perché chi consuma a scopo terapeutico lo sa meglio di me non può coltivare uno o due piantini perché altrimenti non avrebbe ragione di essere con la coltivazione ma ci sono pazienti che devono assumere diversi grammi al giorno ecco di sostanza scopo docente quindi il caso di Walter dovrebbe essere giudicato in maniera diversa e infatti il punto di forza che io e Lorenzo abbiamo a mente è un altro procedimento che abbiamo seguito in questa volta presso il Tribunale di Alessandria dove addirittura in quel caso il pubblico ministero chiese lui l'archiviazione perché noi dimostravamo si trattava sempre di un paziente con diversi di diverse piante in coltivazione e in quel caso riuscimmo a convincere addirittura il pubblico ministero a non proseguire l'azione penale perché certificati alla mano insomma dimostrando che tutta la sostanza estraibile dalla coltivazione era volta a un consumo esclusivamente personale quindi ecco la scommessa con il processo in Walter è questa fatta via il giudice che tra i due parametri che io in maniera così sintetica e veloce ricordato faccia diciamo riferimento al conclamato uso personale piuttosto che alla monesta entità della coltivazione ok grazie mille allora credo che a questo punto tutti coloro che non sapevano bene chi fosse Walter che magari l'hanno solo sentito nominare in questi ultimi giorni con tutto questo hype ora sanno meglio chi è e sicuramente prima ci è stato parlato di lui successivamente penso che Marta ritorcherà l'argomento ed era importante anche chiaramente fare un passaggio per capire allo stato attuale quali fossero i problemi che stava passando in questo momento dal punto di vista legale grazie mille grazie mille anche per il lavoro che fate è molto interessante in generale il fatto che oggi pomeriggio stasera ci andrà appunto alle 18 ci sarà la conferenza del manifesto collettivo e anche quello è un modo per tagliare la testa al toro per andare a vedere il discorso di professionale e non professionale e quant'altro perché anche un malato lo fa in maniera un po' più professionale perché magari vuole mettere un filtro per l'acqua per stare più attento che non ha due tagli pesanti poi si ritrova lì ha detto che è professionale e così via ok andiamo oltre abbiamo l'avvocato Besost siamo felicissimi la ringraziamo per la pazienza con i vari link della regia è riuscito finalmente a collegarsi perché l'avvocato Besost è l'avvocato da cui si riva il metodo Besost che è quello che abbiamo presentato questa mattina con Cicla Cicla è una situazione di attivisti per la cannabis che sta cercando un modo non penale ma con delle cause civili quindi non autodenunciandosi ma facendo delle cause allo stato per cambiare le cose io lascio subito la parola a lei perché abbiamo pochissimi minuti se può darci giusto qualche dritta su come si potrebbe applicare il suo metodo all'attività bene allora tutto è nato dal problema del controllo di costituzionalità sulle leggi elettorali verso le quali c'era la chiusura totale per una interpretazione dell'articolo 66 della Costituzione cioè le Camere giudicano dei titoli di ammissione che era stato interpretato in maniera la lata cioè che comprendesse non soltanto la proclamazione degli eletti ma anche le operazioni elettorali preparatorie perciò carenza assoluta di giurisdizione cioè non c'era un giudice competente né ordinario né amministrativo dopo gli ostacoli venivano fatti nel senso che abbiamo il controllo di costituzionalità solo incidentale perciò non potrebbe coincidere la domanda di incostituzionalità con l'oggetto della domanda tutto infatti era nato da una impugnazione del decreto di convocazione delle elezioni 2008 sostenendo che non si poteva convocare delle elezioni con una legge palesemente incostituzionale questo fu dichiarato appunto carenza di giurisdizione davanti alla giurisdizione amministrativa abbiamo cambiato strategia cioè abbiamo chiesto non annullamento di atti ma l'affermazione del diritto di poter votare secondo costituzione allora è iniziato in questo modo primo grado di tribunale di Milano ha detto di no secondo grado la corte d'appello di Milano ha detto di no quando siamo arrivati in Cassazione la Cassazione ha fatto ordinanza di remissione alla corte costituzionale che ci ha dato ragione cioè la legge 270 del 2005 cosiddetto colcello era incostituzionale e gravemente incostituzionale erano incostituzionali le liste bloccate che non si potesse scegliere chi mandare in Parlamento come era il legittimo il premio di maggioranza che portava chi non avesse raggiunto con le sue forze il 55% dei seggi gli sarebbe stata la differenza data la differenza per raggiungere il 55% dei seggi bene portato questo ci ha insegnato che non si può affinarsi a un tribunale solo allora quando uscì un'altra legge di sospetta costituzionalità cosiddetto italico del 1052 del 2015 abbiamo fatto 22 riconosci perché? perché qui è un altro problema di limitazione abbiamo ancora una norma del 1863 che quando uno ha come contradditore lo Stato deve andare dove lo Stato ha la sua organizzazione permanente cioè la vocatura la vocatura di Stato anche se questo non è il circondario del tribunale dove uno esercita il proprio diritto che è il diritto di voto si esercita dove uno è scritto alle liste elettorali di questi 22 ricorsi 5 hanno ritenuto che ci fossero dei motivi non manifestamente infondati e rilevanti ai fini della decisione e hanno mandato in corte costituzionale la corte costituzionale ha riunito queste 5 ordinanze di remissione e le ha decise con la storica sentenza 1 del 2014 che ha dichiarato quella legge incostituzionale come aveva già adombrato in una sentenza del 2008 nella quale ero riuscito a far passare l'idea che il singolo elettore potesse contrastare l'ammissibilità di referendum abrogativi e questo non fu accettato però il rilievo della incostituzionalità di questo prezzo di maggioranza era stato messo come avvertimento al legislatore e se ne è strabattuto ma il passo successivo è avvenuto appunto con la seconda con la legge 35 del 2000 e quindi la sentenza 35 del 2017 dove ha affermato che il diritto a impugnare quelle norme solge non con la loro applicazione le motivazioni per cui venivano respinti i ricorsi prima carenza di interesse dal momento che non stava non si stava votando però se si stava votando c'era l'incompetenza della giurisdizione è stato inutile e questo ha detto che la semplice con l'entrata in vigore di una norma che crea dei dubbi sull'estensione rapportata di un diritto costituzionale fondamentale si può iniziare l'azione per l'accertamento del diritto questo è il diritto di voto che non è concepito come diritto di voto perché lì c'è soltanto l'articolo 48 come deve essere il voto mentre invece abbiamo il diritto alla salute come un diritto affermato in positivo che non è di essere sani è il diritto appunto alla salute allora io credo che si possa applicare questo principio le persone a cui è stata prescritta ma la cannabis che faccia il diritto di poter dire accertare il suo diritto di poterla procurarsela in quantità sufficiente per curare la propria malattia o coltivarla loro stessa insomma se questo la produzione autorizzata credo da un istituto a Firenze che è quello autorizzato a fare la cannabis che tra l'altro ha delle quantità insufficienti tra l'altro questa questione pone anche un problema della libertà di circolazione delle merci perché se questi prodotti sono prodotti all'estero legalmente prodotti all'estero non può la legislazione italiana fare degli ostacoli artificiali alla libera circolazione delle merci però partiamo da quell'altro che è il diritto alla salute la mia salute con un accertamento medico dice è curabile con l'uso terapeutico della cannabis e questo dovrebbe servire questo tra l'altro avrebbe il vantaggio di poter tentare di farlo in ogni circoscrizione di tribunale perché quello che abbiamo visto è il numero di ricorsi di trovare un giudice che sia sensibile alla costituzionalità abbiamo trovato anche di quelli insensibili in materia per esempio del diritto di votare anche alle elezioni europee in conformità ai trattati dove invece mentre le altre cause da noi vinte sono sempre con rispese in questo caso la condanna ha complessivamente portato a circa 44 mila euro che sono i vecchi 88 milioni che si spera di non dover pagare perché c'è ancora un grado quello della Cassazione per gli ultimi 20 mila l'altro invece è finito faremo poi anche noi un appello per una pubblica sottoscrizione perché dei cittadini che non perseguono un interesse privato ma un interesse pubblico cioè il diritto di poter godere senza limitazioni dei diritti costituzionali fondamentali diritto di voto accertato in via giurisprudenziale e il diritto alla cura e alla salute questo è il metodo che è stato inaugurato anche con l'uso dei cosiddetti procedimenti sommari di cognizione che adesso sono stati proprio valindati dall'ultima sentenza della Corte Costituzionale del 2008 del 2021 che ha fatto un passo in avanti nel senso di dire per il diritto elettorale che questo accertamento va fatto prima che ci siano le elezioni perché certo io questo ottica è milare in maniera incostituzionale mica si può dare origine al risarcimento del danno da questo punto il danno sarebbe in sé irreparabile e tra l'altro io vorrei ricordare visto che sono anche Zia Maria e Spazio una lancia a favore di tutti gli operatori del settore che già con molta difficoltà operano in questo settore in realtà oltre al diritto alla cura c'è il diritto alla libertà individuale c'è il diritto anche all'iniziativa di impresa che sicuramente è stato anche un bel po' calpestato in questi ultimi anni soprattutto in Sardegna in questo momento c'è anche quello un diritto meno protetto di quello del diritto alla salute ma ugualmente protetto anche si può fare quello se non è in contrasto con l'ordine pubblico o con beni di carattere superiore anche il diritto di la proprietà privata è riconosciuta e tutelata con le sue finalità sociali e qui la finalità sociale può essere oltre quella della cura può essere anche quello di un uso particolare del tempo libero e soprattutto noi siamo in uno spazio giuridico europeo dove la differenza di trattamento tra un paese e l'altro diventa un ostacolo alla libertà di circolazione e di stabilimento che anche questo è un problema che abbiamo detto delle spedizioni delle farmaci che c'è che c'è che c'è che c'è che mentre mentre la corte costituzionale ha fatto questa apertura il governo non questo governo quello precedente ha presentato alle camere dove il primo punto è l'abrogazione dei reti sommari di cognizione e se viene questo vuol dire il primo che iniziò nel 2008 e finito nel 2014 perché fu iniziato con un normale atto di citazione cioè il modo per arrivare rapidamente la cominci di avere un giudice che investito con un rito sommario di cognizione nel nostro caso l'articolo 702 bis del codice di procedura civile ha consentito nel primo caso di arrivare a meno di un anno dal deposito del ricorso e in quest'ultimo caso la 48 ha potuto esaminare un'ordinanza del primo settembre 2020 è stata decisa nel marzo del 2021 grazie mille all'avvocato Besostri io vado a chiudere questo bellissimo panel ricchissimo e molto tecnico sugli aspetti legali che in questo momento insomma stiamo affrontando con l'avvocato Polinari avvocato esperto insomma penalista che si è anche imprenditore nel settore della canapa della canapa questa è della canapa è una pianta che sta seguendo anche il element club di Milano prego buongiorno a tutti grazie a tutti voglio fare l'avvocato ok buongiorno grazie mille avvocato l'avvocato Besostri è stato anche un politico per alcuni anni e poi dopo la sua attività politica pro bono ha deciso di iniziare questo discorso dei ricorsi e di fare politica in questo modo grazie avvocato Besostri arrivederci è stato arrivederci ciao collega buongiorno a tutti nuovamente innanzitutto volevo fare un in bocca al lupo ai colleghi che assistono Walter dove al di là della disquisizione sulla coltivo di tipo professionale o rudimentale ritengo che vi sia una palesi inoffensività della condotta del soggetto e quindi direi quasi questo processo non sarebbe neanche dovuto arrivare in un aula di tribunale detto ciò oggi il mio intervento più che come avvocato penalista con tutte le varie norme sentenze che penso che già molti conoscano in materia si concentrerà un attimino sul discorso della cannabis farmaceutica e del perché dell'esistenza del club ora tenete conto che a fronte di una produzione annua di solo 150 chili questo secondo l'International Narcotic Control Board dove in Italia si stima che vi sia un consumo di circa di due tonnellate di cannabis terapeutica abbiamo una misera produzione di solo 150 chili fatta nello stabilimento farmaceutico di Firenze dove sicuramente è un polo eccellente ma sicuramente non è in grado di poter soddisfare la domanda del mercato la cosa che mi lascia più perplesso e basito è il fatto che a fronte di gare di procedure accelerate per la formittura di cannabis ovviamente sempre per le esigenze legate all'istituto farmaceutico di Firenze si presentino solo aziende estere e parliamo di Germania Australia Francia Olanda tra l'altro l'Olanda e l'Israele sono i maggiori fornitori dell'Italia e questo accesso a queste gare si è negato alle aziende italiane siamo veramente all'incredibile quello che lascia anche perplessi sono i costi perché stiamo comprando dei costi pazzeschi l'ultima fornitura di 400 kg aveva un costo di un milione e mezzo al netto di IVA ed è veramente è veramente un peccato che i nostri grower i nostri coltivatori la nostra agricoltura non possa avere accesso a un mercato come questo ma ci arriveremo tra l'altro è notizia freschissima dove l'Europa dal via libera ha la prima cannabis ad uso farmaceutico che sapete dove verrà prodotta nella Repubblica dell'Esoto che è un piccolo continente dell'Africa della parte sud dell'Africa quindi farà chilometri e chilometri prima di arrivare in Italia e questo sarà l'Europa dove si è riuscita ad andare a scopare questa start up che si chiama MG Health che è il primo produttore che è riuscito a concludere un contratto con la comunità europea e quindi potrà portare i principi attivi in tutti gli stati membri però c'è da riflettere perché stati come il Malawi in Sudafrica e il Marocco producono e si stima che nel 2023 il mercato da cannabis in Africa arriverà a superare i 7 miliardi di dollari quello che si prefigge un po' la nostra azione insieme a Raffaello e i soci fondatori del club è proprio di inserirsi proprio in un contesto diciamo così ancorato a quelli che sono gli archetipi costituzionali sostanzialmente sotto il cappello dell'articolo 32 che è il diritto alla salute e quindi di cercare di dare un servizio di creare un modello e qui ci duole che le istituzioni non siano qua vicino a noi la regione Lombardia soprattutto perché si potrebbe veramente creare un sistema innovativo che possa essere vicino al paziente nel reperimento della sostanza ma anche come aiuto a conoscere la cannabis e al modo di assunzione della cannabis terapeutica perché non ci dimentichiamo che molti pazienti che hanno problemi con i polmoni non possono ovviamente aspirare e quindi c'è tutto un sistema tale per cui qualora il prodotto non possa essere ottenuto sotto forma di estrazione e quindi di liquido necessitano ovviamente di essere educati e di essere così di avere un'alternativa all'assunzione del farmaco rispetto a quello della combustione che altro dire ovviamente i 5 minuti sono pochi le cose da dire sarebbero tantissime quello che noi ci auguriamo anzitutto voglio complimentarvi con tutti voi per la giornata che avete creato densissima importantissima con un sacco di tavoli un applauso veramente abbiamo bisogno di questo perché bisogna fare informazione e speriamo veramente che con questa mossa del nostro primo ministro Draghi qualche cosa si muova in commissione visto le nomine a personaggi che hanno una visione diversa finalmente nei confronti della cannabis non solo a scopo ricreativo non ce lo dimentichiamo la cannabis a scopo terapeutico è veramente importante e questo sta limitando tantissimo la mancanza di prodotto sta limitando tantissimo anche gli studi le ricerche delle università e degli stessi ospedali e questo va contro il cittadino quindi ci auspichiamo al più presto una regolamentazione veramente profonda e intelligente della materia grazie 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 a voi grazie a tutti coloro che si impegnano quotidianamente come voi per seguire questi aspetti vi ricordo tra l'altro che alle 18 questo lo continuo a ricordare per tempo anche da qui trasmetteremo la diretta dalla camera e vediamo anche lì le evoluzioni di questo deposito vi saluto a tutti saluto a tutti quelli che mi hanno saluti ciao a tutti ciao a tutti grazie mille grazie a tutti 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 io volevo chiedere a tutti i spettatori che ci stanno guardando di condividere questa diretta perché vogliamo arrivare al doppio delle visualizzazioni che abbiamo fino adesso quindi condividete 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 e trovate il link per la donazione per Paypal per appunto il progetto cicla e sostenere i costi di questo evento grazie mille a tutti quelli che hanno già donato e a quelli che doneranno a questo punto passiamo la parola a Leonardo Fiorentini che appunto parlerà che terrà questo tavolo con diversi esponenti della cannabis diciamo diversi esponenti appunto cannabis l'alternativa esiste già grazie Leonardo grazie Nadia cercheremo di fare veloci anche se è un po' difficile riuscire a comprimere in 20 minuti ciò che sta succedendo intorno al mondo rispetto alla cannabis con noi sono per il momento Fabrizio Dentini direttore di Soft Sigret Italia che ringraziamo per essere qui e Niccolò Moronato docente al master in non mi ricordo mai esattamente la definizione esatta comunque del Politecnico di Milano su design e comunicazione adesso vado a due spanne ma che si collega da Chicago e quindi a Niccolò chiederemo di parlarci un attimo di come si vive in uno stato che recentemente giusto l'anno scorso ha legalizzato la cannabis a Fabrizio invece a cui do subito la parola perché dobbiamo essere molto molto veloci chiederemo invece di parlarci del Canada che come ricordato anche prima in un panel precedente è stato il primo grosso paese il primo paese del G7 a a legalizzare la cannabis dopo l'Uruguay che l'aveva fatto nel 2013 ed è quello probabilmente che sta anche raccogliendo più dati e che quindi ci può essere più interessante dal punto di vista della valutazione delle politiche perché uno dei dei temi che ormai si pone di fronte ai movimenti antiprovvizionisti mondiali non è se legalizzare o quando legalizzare è come legalizzare bene perché per fortuna le esperienze che ci sono in giro per il mondo ci cominciano a dare anche indicazioni su quali errori evitare allora io lascio subito la parola a Fabrizio saluto anche Luca Marola che ci ha raggiunto e con lui faremo anche con lui una disamina di quel che succede intorno al mondo in particolare negli Stati Uniti vai Fabrizio buongiorno a tutti buon 4 e 20 a tutti allora io scrivo per Soft Secret giornale per un pubblico che affettuosamente inquadra nella dimensione dei talebani della cannabis noi insegniamo a coltivare marijuana come scelta editoriale prima di tutto un doveroso saluto a Walter ho visto le sue immagini lo vedo davvero gonfiato credo dal cortisone io quando conobi Walter era in condizioni molto migliori e credo che sia veramente uno scandalo nazionale che debba oltre le conseguenze della propria malattia subire anche questo accanimento giudiziario detto questo parliamo di Canada nel 2018 17 ottobre per la prima volta all'interno dei paesi del G7 viene approvato la legge C45 con tre obiettivi fondamentalmente smettere di dare i soldi alla criminalità organizzata proteggere la popolazione giovanile e instaurare tutto un discorso di salute pubblica e sicurezza pubblica fornendo un prodotto del quale ci si può fidare a 360 gradi perché la sua filiera è assolutamente tracciabile e sottoposta a approfonditi controlli grazie dell'assist di Leonardo quando dice che si sta legalizzando tutto il mondo l'alternativa è possibile ma dobbiamo andare a vedere nel concreto come si sta legalizzando il modello per esempio canadese è un modello che si basa su un paradigma ancora proibizionista la cannabis è comunque considerata ancora a livello ovviamente di United Nation uno stupefacente e quindi seguono un modello molto restrittivo mutuato dalla loro distribuzione del tabacco in particolare nel dibattito io voglio portare alla vostra attenzione due o tre riflessioni veloci poi ho condiviso in chat un articolo di approfondimento per chi avrà interesse a approfondire tramite lettura su quello che sta succedendo in Canada prima riflessione è come si arriva alla legalizzazione il dibattito previo che si è tenuto in Canada è un dibattito che ha cercato di sintetizzare differenti posizioni la posizione della liberale dell'attuale primo ministro Trudeau che ha voluto fortemente la legalizzazione che però si scontrava con vari partiti conservatori quindi anche per restare all'interno di un certo meccanismo mondiale globale di regolamentazione quello che poi è sancito dalla convenzione del 1961 sui stupefacenti i canadesi hanno detto regolamentiamo per salvaguardare i tre punti che ho prima enunciato ma la cannabis rimane stupefacente quindi al momento considerata questa premessa abbiamo notato che concretamente in Canada oggi è possibile avere in pubblico fino a 30 grammi di cannabis è possibile coltivare fino a 4 piante di questa pianta è possibile comprarla in numerosi negozi e online però il paradosso è che è molto difficile poterla consumare in luoghi pubblici e anche in luoghi privati cioè lo stigma è modulato rispetto alla pre-legalizzazione ma è comunque rimasto in auge questo perché come si prepara come si gettano le basi per un passo così importante come quello della legalizzazione ha poi un effetto costitutivo di quello che poi sono le regolamentazioni concrete che inquadrano il consumo la produzione e l'utilizzo di questa pianta prima riflessione quindi seconda riflessione è voglio portare a pensare sul fatto che quando si parla di legalizzazione non dobbiamo pensare che il mercato legale sia una pura e mera rappresentazione speculare del mercato illegale i prodotti che vengono distribuiti in un contesto di illegalità non sono assolutamente quelli se non in parte quelli che poi verranno ridistribuiti e prodotti e pensati in un mercato legale perché dico questo? perché da questo punto di vista è un aspetto molto interessante è che stanno emergendo nuovi segmenti di consumatori nuovi segmenti di persone che prima nell'illegalità non utilizzavano cannabis oggi che la cannabis è stata legalizzata si affacciano a questo mercato per questo è molto interessante studiare il Canada perché stanno facendo la storia proprio da anche da un punto di vista di sviluppo commerciale da zero di un nuovo comparto industriale e questo settore questo segmento è il segmento di un ehm di un'età compresa tra i 50 e i 60 anni sono molte donne che utilizzano la cannabis e in particolare i derivati ehm del CBD per un ehm utilizzo generalizzato a livello di benessere benessere fisico benessere psicologico e l'utilizzano ovviamente essendo legale ormai la cannabis a 360 gradi al di fuori di un contesto medico eh terzo punto e poi rilascio la parola a Leonardo il il discorso proprio che si focalizza sui modelli di consumo ci stiamo rendendo conto analizzando la la il contesto canadese che eh proprio anche analizzando questo nuovo segmento che sta emergendo che diventa sempre più chiaro che il modello di consumo non di un mercato legale non può essere scisso eh chiaramente fra un modello di consumo medico e un modello di consumo recreativo sono due modelli che non hanno spesso almeno ovviamente a parte i casi molto gravi come potrebbe essere quello di Walter ma eh che non hanno assolutamente eh non dimostrano una soluzione di continuità come per esempio il nostro Stato che dice la cannabis è legale dal punto di vista medico ma se la coltivate e se la consumate al di fuori del contesto medico e terapeutico verrete repressi ecco questa è una eh finzione giuridica che non ha riscontro nella legalità nella realtà proprio perché da un lato i produttori per come si è dato il meccanismo produttivo industriale eh canadese sono nient'altro che i produttori che erano autorizzati per il mercato la produzione terapeutica che poi sono passati alla produzione eh per il mercato ricreativo e dall'altro i prodotti anche sono gli stessi quindi ecco eh io credo che sia molto importante riflettere anche da questo punto di vista per poi non mutuare ovviamente ehm queste decisioni di ampiezza storica ma mutuarle cercando di eh non ricreare le 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 perplessità e le le difficoltà e le criticità che chi prima di noi con sicuramente più coraggio e più pragmatismo ha deciso di sancire questo passo molto importante chiudo con Walter dicendo che oggi in in Canada dati del 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 Ministero della Salute ci sono più di trentacinque mila pazienti che hanno una semplice autorizzazione per coltivare la propria canna la propria cannabis quindi se Walter fosse un cittadino conadese non sarebbe assolutamente diventato un personaggio pubblico ma starebbe eh coltivando la propria cannabis senza nessun problema un abbraccio e grazie dell'ascolto grazie grazie mille Fabrizio io vi segnalo sul Canada alcune analisi che sono state fatte in particolare da Transform che l'anno scorso ha pubblicato un rapporto di cui trovate su fuori luogo la traduzione del sommario rapporto in inglese ovviamente però trovate diciamo un'ampia sintesi su fuori luogo una delle grandi criticità del modello canadese è sia il modello di distribuzione che è stato di fatto demandato dalle province per cui ogni provincia balla con mamma sua come si dice da queste parti ma sappiamo tutti che il territorio canadese è molto vasto alcune province hanno davvero pochissimi pochissimi store e quindi di una difficoltà di reperimento della sostanza abbastanza diciamo problematica stessa cosa rispetto al prezzo e alla qualità sono due dei grandi problemi che hanno colpito diciamo e hanno impedito finora al mercato legale canadese di prendere il sopravvento rispetto al mercato illegale quello grigio che tuttora in canada si mantiene invece negli stati uniti questo problema è un po' meno rilevante anche qui ogni stato balla un po' con sua nonna giusto due settimane fa abbiamo avuto un un due tre abbastanza significativo con la legalizzazione nello stato di new york nel new mexico e in virginia la cosa interessante se andiamo a fare un'analisi storica poi magari la facciamo con luca marola è che pian piano che si che si aggiungono stati migliorano anche le leggi se andiamo a prendere la legge dello stato di new york è probabilmente quella che più riesce a diciamo a porre soluzioni ai tanti problemi che che ci sono uno prima fabrizio diceva giustamente che non si può fumare comunque va in canada non si può praticamente fumare niente dappertutto però non si può fumare new york praticamente il primo stato a parte l'alaska negli stati uniti che permetterà l'apertura di luoghi in cui si potrà fumare socialmente la cannabis nicolò vive a chicago chicago ha legalizzato ha iniziato l'anno scorso dal primo gennaio se non mi pare dal 2020 la legalizzazione ci può un po' raccontare di cosa cosa significa vivere in uno stato che ha di fatto legalizzato la cannabis in modo devo dire anche abbastanza avanzato adesso non entriamo nei dettagli perché sarebbe troppo lungo servono almeno 83.000 caratteri per fare il conto di tutto vai nicolò ciao a tutti ciao a tutte vi parto con un esempio di vita di vita vissuta due settimane fa siamo andati verso i deserti perché poi viaggiando hai proprio la possibilità di vedere quale musica balla ciascuno stato a cavoli suoi per quanto riguarda le leggi sulla cannabis ma mi è capitato che ad esempio nell'Illinois non si può fumare tecnicamente in aperto in realtà almeno a Chicago è abbastanza tollerata la cosa tanto quanto lo è andare al parco con la birra che anche quello in America è vietato però mi è capitata questa cosa prima del volo agitato mi sono portato dietro dei biscottini fatti in casa li sono mangiati fuori ho detto beh li devo buttare via altrimenti chissà che cosa mi fanno a livello federale invece una volta passata la security ho visto questa cannabis honesty box messa dalla città di Chicago a che cosa serve una cannabis honesty box serve fondamentalmente nel momento in cui hai passato la security a mettere tranquillamente senza nessun tipo di senso di colpa la tua ganja in qualunque forma tu la stessi trasportando quindi anche se fosse medica o ricreativa e metterla lì senza nessun tipo di conseguenza legale mi è dispiaciuto moltissimo nessuno ovviamente mi aveva avvisato di questa cosa però è stata una sorpresa piacevole fa parte di tutto lo spettro amplissimo di libertà che ci sono in questo paese alcune molto paradossali e altre invece molto necessarie per quanto riguarda l'Illinois questo mese è stato il mese record questo di marzo passato perché solo in un mese ha fatto una cosa se non sbaglio come 120 milioni di dollari di vendite di cannabis e ricordiamoci che quando parliamo di cannabis non parliamo solo e soltanto di fiore anzi parliamo per la maggior parte dei casi di altre modalità di assunzione e proprio per rifarmi a quello di cui stavamo parlando prima l'assenza di soluzioni di continuità tra il mercato medico e il mercato ricreativo è ad esempio un prodotto come questi per darvi un esempio queste sono delle pillole sono delle pilloline molto carine fatte a forma ciascuna con un effetto entourage come potete vedere è micro dosato perché ha 5 miligrammi di THC e 5 miligrammi di CBD ciascuno quindi all'interno ci sono una ventina di pillole questo è l'esempio perfetto vedete che comincia a esserci anche una produzione vera e propria dei packaging tra quello che ad esempio è il classico integratore alla vitamina C o la vitamina D per l'inverno e quelli che sono i packaging dei prodotti con THC questo è uno tra tanti esempi altri esempi sono quelli ad esempio dei drink che poi vedremo più tardi con un intervento degli studenti del Politecnico il master l'hai detto giusto Leonardo è un master in design della comunicazione e vi do un esempio questo è in California invece l'innoi è abbastanza sprovvisto perché ha delle leggi riguardante la somministrazione di alimentazione con il THC molto restrittive rispetto a quelle della California che sono tuttora più avanzate rispetto a quelle di New York dove infatti ci sono ristoranti interi anche questo è un segmento di consumo che è molto molto cresciuto specialmente durante il Covid quindi il Covid in particolare ha portato a Chicago in Illinois e in generale in tutti gli Stati Uniti a una crescita delle modalità di assunzioni differenti di cannabis differenti dal fumo per quanto riguarda che poi è quello che a me personalmente mi preme di più come utilizzatore come persona che come tanti di noi che sono stati criminalizzati o penalizzati per il proprio consumo in Italia quello che mi preme è esattamente la questione dello spazio pubblico per me personalmente la cannabis l'odore di cannabis è e qua in America si comincia a vedere sempre di più un segnale di tolleranza e di pazienza all'interno dello spazio pubblico dove vari tipi di personalità e vari tipi di modi di relazionarsi alle persone sono tollerati inclusi fanno parte della vita nessuno viene criminalizzato obbligato a restare in casa sua paradosso di New York è che si è vero puoi fumare nello spazio pubblico dove si può fumare sigarette quindi significa che in spiaggia non puoi fumarle al parco non puoi fumarle davanti ai ristoranti non le puoi fumare davanti ai dispensari non le puoi fumare puoi semplicemente farti una passeggiata sul marciapiede fumandoti un sacco di trombe fondamentalmente quindi comunque c'è un gap e quel gap c'è perché e passo la parola agli altri perché da un punto di vista le organizzazioni della polizia nonostante New York sono andati avanti sulla questione hanno indicato di non intervenire alla polizia di stato nonostante si troverebbero comunque in presenza di un reato federale e queste piccole queste piccole zone grigie che vengono comunque lasciate da queste leggi anche quelle di New York sono il motivo per cui gli arresti per marijuana nonostante sono nonostante sono calati totalmente negli Stati Uniti in maniera generale sono cresciuti in numerosi stati in numerosi frangenti per quanto riguarda come al solito la popolazione delle minoranze i neri e le persone fondamentalmente più emarginate da quello che è la vita sociale privatizzata che è quella dell'America perché quando parliamo di spazio pubblico dobbiamo ricordarci che in America lo spazio pubblico è una cosa completamente diversa dall'Europa non c'è quella sensazione là quindi questo diciamo l'overview grazie Nicolò ricordiamo che negli Stati Uniti nel 2019 vi è stato più o meno un arresto al minuto per mero possesso di cannabis in tutto in tutti gli Stati Uniti tenendo conto che nel 2019 circa 11-12 stati avevano già un regime legale per quel che riguarda l'uso ricreativo per cui stiamo parlando di numeri davvero che continuano ad essere alti gli arresti per droga sono il maggior motivo di arresto oltre il 50% tuttora con Luca Marola io volevo dire due cose rispetto a come ragionare sui dati che ci arrivano dai vari stati che hanno legalizzato in una prospettiva di legalizzazione sostenibile uno è una riflessione che è stata pubblicata da FAT insieme a Nomad Institute ed altri ormai un paio di anni fa e declina come legalizzare seguendo i famosi o non famosi perché secondo me se andiamo a chiedere a quelli che stanno seguendo questa diretta quanti sanno che l'organizzazione delle Nazioni Unite si è data dei obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 secondo me sono in pochi a saperlo comunque questa è una riflessione che è molto interessante potete trovare nell'archivio di Foriluogo e sempre su Foriluogo l'abbiamo pubblicato qualche giorno fa nonostante sia di ottobre scorso la pubblicazione IDPC che è un network di associazioni di ONG che si occupano delle riforme delle politiche sulle droghe ha pubblicato un decalogo che poi sono 20 per cui non è un decalogo di principi per la legalizzazione sostenibile e responsabile traendo proprio le proprie considerazioni da quello che sta succedendo intorno al mondo Luca Merola che su questo ha scritto direi per prima in Italia vari testi chiediamo appunto che lezioni possiamo trarre e quali sono le prospettive del prossimo futuro Sì ciao buongiorno a tutti e buon 20 aprile o 4 e 20 io ho iniziato a seguire il percorso di legalizzazione da quando è nata non solo Skunk la trasmissione radiofonica che curo dal 2015 e settimanalmente c'è nel palinsesto una rubrica apposta sugli Stati Uniti e che dire ad esempio facendola molto breve elementi che mi vengono in mente così ascoltando i discorsi precedenti ad esempio in Illinois e questa penso sia una notizia abbastanza importante per la prima volta c'è uno stato ed è appunto l'Illinois in cui i proventi dalla vendita legale di marijuana hanno superato come entrate fiscali i proventi provenienti dall'alcol a gennaio si è arrivati al pareggio alcol e marijuana e poi febbraio e marzo sono i mesi in cui gli introiti fiscali nelle case statali sono maggiori quelli per marijuana rispetto ad alcol e tutte le leggi dal Colorado in poi che permettono la regolamentazione quindi la legalizzazione il commercio consumo di cannabis tutte le leggi dalla prima prevedono un il come utilizzare i fondi e i proventi fiscali della legalizzazione della marijuana e questo ha contribuito io penso enormemente ad avere un'opinione pubblica che via via che le legalizzazioni sono partite hanno scelto diciamo la strada della legalizzazione perché appunto vedono e toccano con mano le destinazioni dei soldi dello Stato nei capitoli di bilancio e quindi come questi vengono reinvestiti nella società ci sono stati come Colorado all'inizio e le investiva principalmente sull'educazione pubblica altri che avevano problemi di questo genere sul mantenimento delle strade del manto stradale ma una grossa fetta di queste risorse vanno ad essere investite sulle comunità più colpite dalla guerra alla droga e sulla fascia di popolazione più debole e quindi tutto quel sistema di welfare che negli Stati Uniti rispetto all'Europa è diciamo non sviluppato ecco come da noi vede un aumento quindi di efficienza e di servizi proprio per le fasce più giovani questo è un altro elemento interessante oggi ricordiamolo il 40% della popolazione statunitense vive in uno Stato in cui è legale la cannabis creativa e un altro dato che potrebbe essere utile se passavano di norma due anni dal momento del voto referendario pro cannabis alla nascita emessa all'opera diciamo della legge successiva ecco che questo lasso di tempo si è via via negli anni più ristretto fino ad arrivare a non si è passati dal referendum fino ad arrivare a Stato di New York e New Mexico in cui e il processo decisionale è stato brevissimo e anche il tempo che intercorre dall'approvazione di una legge alla legalizzazione poi di fatto ecco che viene molto più ridotto rispetto a come era l'inizio questo perché? perché si fa tesoro delle esperienze precedenti e di come gli altri stati hanno legalizzato ed è vero che le leggi approvate nell'ultimo nell'ultimo anno possiamo dire sono leggi meglio fatte rispetto alle prime ma questa è una cosa normale naturale grazie Luca noi siamo più o meno dentro i nostri 20 minuti io vi ringrazio molto per il vostro contributo ricordiamo che alle 17 sarà Nicolò Motorenato sarà ancora con noi insieme ad altri per parlare del Cannefur ovvero come fare la spesa in un paese canna normal grazie a tutti adesso non ho capito se devo tenere io la linea per presentare o se Zaccaricius è arrivato per cui mi salva da questo impegno ciao e grazie buon 420 ci vediamo dopo bene grazie grazie davvero a Leonardo a tutti i nostri relatori è arrivato il momento della musica quindi io senza spoilerare darei il benvenuto farei preparare i nostri ospiti se c'è qualcun altro nel panel che vuole intervenire alzasse la mano io vi vedo intanto diamo il benvenuto ai nostri ospiti ok ecco Nadia con noi allora ciao a tutti allora faccio un'altra domanda per i premi ok intanto facciamo vedere gli ospiti buonasera benvenuti buone 420 ci siamo quasi eh era fatto apposta grazie per esserci grazie mille siete meravigliosi grazie che meraviglia wow grazie a nome di la unit association of cannabis ovviamente allora la domanda per il per aggiudicarsi il premio che a questo punto eh sono è il l'ottavo premio quindi no scusate il settimo premio quindi sono sette cappellini eh carbinia cannabis di sardinia cannabis più cinque barattoli gelato di CBD offerti dalla canapa legale più un cappellino di cold dealer quindi sono 13 13 premi in palio per chi risponde a questa domanda vi ricordo sempre sotto la link sempre sotto la diretta di youtube perché sennò poi non riusciamo a gestire tutte tutte le risposte la domanda è di che per che cosa è stato denunciato Walter De Benedetto ecco rispondeteci sotto la diretta di youtube io lascio a questi meravigliosi ospiti la parola grazie mille per avere partecipato per esserci e grazie Zack grazie a te Nadia allora grandissimo piacere per me io a un certo punto mi trovavo a Londra ho detto ragazzi tocca alle tre tocca a voi e mi hanno risposto vedi che Zack sono già le quattro quindi preparatela fate la grossa perché diamo il benvenuto a Naike con sua mamma se non mi sono venute ciao Ornella è un piacere vederti è un piacere averti qui con noi e salutiamo da Santo Donato sul sound system ciao adesso vi sentiamo ciao Naike ciao Ornella ciao ragazzi grazie veramente grazie di essere qui con noi non ci sono parole guarda io non riesco più a parlare se qualcuno vuole parlare perché io ho perso tutto per non parlare io che di solito ho la parlantina allora facciamo così due minuti fate la grossa ci vediamo il video messaggio di di Walter e e poi i su sound system Naike e Ornella adesso il video di Walter niente video ok ragazzi il video lo mandiamo dopo scusate non c'è il video allora intanto prego Leonardo se riesci a caricare il video di Walter il video messaggio vi vorrei ringraziare tutti eccolo siete un cuore d'oro e siete la meglio parte della società perché continua a aggrapparsi alla vita chi soffre chi no non mi interessa l'importante è aver eliminato il dolore e vediamo un pochettino come va a finire con la cura che devo fare e penso che mi faranno una bella sorpresa impandereranno pazienza però penso che sia anche grazie a quelle cose che si chiamano cuore che arriva a dritto tutto qua a volte si vanno sguardo e mi dicono ammazza capito da un giorno per l'altro io non so che è però ho una fottuta paura di tutto quindi farò dei bisogni ragazzi vi abbraccio di cuore e speriamo bene forza grazie bisogna andare sempre avanti con io sempre mai mollare mai mollare questo è il messaggio che ci manda Walter noi siamo sempre qua indomiti dall'anno scorso Naike come mai questa scelta di condividere con noi questa giornata spiegaci un po' la mamma è d'accordo sì no è secondo te che la metto qua con la pistola parliamo dal presupposto che io faccio cannabis a uso di CVD e abbiamo tantissimi amici e parenti che hanno avuto malattie o che sono emasie e ho bisogno di curarsi quindi perché non essere proprio qui come palladine della medicina naturale why not noi ti ringraziamo davvero Ornella vuoi dire qualcosa? ti abbiamo perso per un attimo vi sentite? sì adesso sì comunque speravo che ci fosse uno dei nostri social per parlare del progetto che stiamo facendo noi stiamo facendo una cosa che ci crediamo tantissimo è per questo che siamo qui oggi Paolo dovrebbe essere con i Sud se no ce ne puoi parlare tu a chi ti riferisci a Paolo eh Paolo Paolo dovrebbe essere con i Sud non c'è? lo vedo c'è piccola ragazzi ci siete San Donato ci siete? ci sono ma non li sentiamo stiamo creando una linea di prodotti in orizzontale ah in orizzontale una linea di prodotti stiamo facendo insieme alla mamma insieme a Salami insieme a Paolo e siamo dai spiegaci un po' spiegaci un po' veramente ve lo doveva spiegare bene Paolo perché i tecnici sono loro quindi noi mettiamo la faccia e il cuore e mettiamo la nostra la nostra visibilità con loro a vedere nasce questo progetto di piante abbiamo visto le piante che stanno crescendo per diventare poi delle le delle quindi penso che la mamma si sta proprio addentrando nel mondo della della cannabis medica in maniera abbastanza importante sì è così il resto lo deve spiegare Paolo ma eravamo pronti a spiegare il progetto tutto quanto così perché speriamo a me piace il freestyle i miei amici dei Sud lo sanno bene Paolo purtroppo non so se riusciamo a sentire Lecce Lecce ci siti ok hanno pure preso il computer si avvicinano guarda che noi scrivete avete dei pannelli per scrivere ascolta volevo dirti anche grazie per dire forza Walter e poi in questo periodo della pandemia l'erba è anche quindi a maggior ragione i malati non trovano per curarsi come in Italia quindi bisognerebbe svegliare non ci sentite noi ogni tanto va e viene io spero che da casa comunque sia arrivato vai vai avanti niente parla tu no perché ogni tanto va via la linea abbiamo anche problemi con i sud il nostro microfono è aperto quindi non non so perché non li sentiamo noi intanto non abbiamo veramente parole per ringraziarvi aspetta voglio fare un saluto per Instagram ok vai allora ci sei here we are tutti insieme saluto su Instagram ragazzi Cannabis Day oggi legalizzazione aiutateci buone 4 e 20 ci siamo quasi buone 4 e 20 grazie grazie ragazzi grazie a voi ragazzi noi non vi sentiamo non so non so che cazzo no no i sud i sud noi vi sentiamo abbiamo sentito erano i sud che non si sentono facciamo provate a uscire dalla dalla diretta e rientrare non so intanto noi salutiamo Naike e Ornella davvero grazie del loro tempo e della loro del loro supporto se volete restare qua con noi siete le benvenute davvero siete meravigliose siete bellissime cioè il vostro contributo anche estetico per la causa è qualcosa di veramente da guardare artistico proprio soltanto nella vostra nel vostro essere grazie mille grazie per sostenere la causa e allora Nadia come siamo messi col collegamento con il manifesto collettivo perché a breve ci collegheremo proprio con Roma no alle 18 Zacca alle 18 ah è slittato alle 18 però vogliamo dire cosa succederà ci sarà un collegamento il manifesto collettivo viene depositato finalmente alla Camera dei Deputati e noi seguiremo in diretta alla deposizione insomma 5 minuti 10 minuti di collegamento e così appunto per sostenere anche anche lì questo il manifesto collettivo che è sostenuto da tantissime realtà di cannabis insomma italiane di cannabis e niente e quindi aspettiamo il collegamento alle 18 con la Camera dei Deputati ok guys I love you bye bye darling bye allora noi volevamo fare un intervento musicale con i Sud se mi sentite uscite dalla diretta e provate a rientrare al limite ci sentiamo col telefono eh col telefono vediamo un attimo ma come mai non si sentono si vedono benissimo loro sono comunque veterani delle dirette abbiamo sempre fatto eh dirette sono con il cell no non si sente provate a uscire e a rientrare ragazzi proviamo così alla vecchia di solito funziona sempre questo questo è un po' come il soffio magico no sai quando succede qualcosa che fai il soffio magico e poi a volte riparte vabbè detto questo nel frattempo eh se vogliamo facciamo i premi ecco sì ci portiamo avanti con la scaletta dunque oddio una domanda una domanda una domanda però che abbiamo avuto come ospite oltre ai sud e naiche rivelli è facile questo dai ok dai chi sono stati gli ospiti Nadia scusami forse abbiamo l'audio dei sud ok abbiamo l'audio ci siamo ciao ciao a tutti ci siamo riusciti buonasì noi ci riusciamo sempre come dice Walter mai mollare alla prima difficoltà noi è un po' che lottiamo sempre per la causa i sud ci sono sempre a tutte le manifestazioni che noi organizziamo li ringraziamo davvero tanto grazie e anche un po' la nostra causa la seguiamo da tempo insomma oltre che essere promotori di questa storia insomma ci teniamo che di esserci quando nel momento in cui ci sono anche persone che ci possono informare come in questo caso su come su quelle che sono le evoluzioni no intorno a alla la marijuana la canapa insomma in generale dunque è un piacere essere qui con voi ci stiamo organizzando un attimo per vedere se facciamo musica perché eravamo un po' così qui abbiamo intanto Paolo che ci ha messo in mezzo io lascerei un po' la parola a lui per farvi spiegare un po' di cose dunque bella ciao allora io sono Paolo il titolare del Cannabis Medical Center di Milano siamo il primo ambulatorio in Italia siamo aperti dal 2018 ambulatorio studio professionale comunque su strada quindi riusciamo a fare facciamo ricette ovviamente è una cosa privata perché non riusciamo a collaborare con l'ASL della regione Lombardia ci abbiamo provato un sacco di volte ma non ci cagano di strisce una volta c'è il covid una volta c'è un'altra cosa vabbè comunque noi andiamo avanti stiamo comunque riusciamo a collegare i malati a fargli avere la ricetta cerchiamo la farmacia col prezzo migliore e che è la disponibilità più immediata perché il problema è quello è buona quindi facciamo questo semplicemente uno studio medico adesso stiamo partendo con un nuovo progetto qua in Salento con Ornella Muti come vi accennava prima e Naike e anche Salento in Shop stiamo aprendo un'associazione anche qua per aiutare i malati e poi tutto quello che ovviamente si occupa un'associazione nel campo cannavico e poi a breve avrete notizie su cosa faremo come svilupperemo la cosa e tutto il resto per quanto riguarda il lato medico per la mia esperienza vorrei anche dare il mio parere che forse in Italia stiamo un po' dando cioè il problema è anche non è più solo la mafia secondo me o i soliti discorsi il problema è che anche le case farmaceutiche adesso hanno capito che ci si fanno i soldi e fanno fatica non vogliono mollare la cosa semplicemente questo quindi legare tutto al che deve essere il dottore a curarsi eccetera mi può anche stare bene ok allora bisogna fare alle università delle scuole per insegnare i dottori perché attualmente un dottore cosa può fare può prescrivere due qualità d'erba quindi cioè due sei ok però diciamo col THC tra Bedrocan e Pedanius cioè questo non è curare curare dovrebbe vedere oltre che il CBD e il valore di THC che ormai conosciamo tutti ci sono i terpeni e allora è quello che va a curare le persone quindi oltre ad aumentare la quantità che si importa bisognerebbe aumentare anche le qualità per permettere ai dottori e ai malati di curarsi ed è per questo che uno poi è giusto anche autocoltivarsi perché anche se mi dai quella dalla farmacia magari un malato non gli va bene solo il Bedrocan ha bisogno della White Widow per curarsi bene bene Paolo grazie lascio la parola ai sud Ornella mi sa che è già andata la saluto sì sì abbiamo già sentito Ornella e Naic grazie davvero e la parola a Terron Fabio e ciao grazie Paolo primi ospiti musicali di quest'oggi su Sound System da San Donato alle 4 e 20 precisi l'abbiamo fatto apposta Fabio con 4 e 20 abbiamo un po' un po' la base stiamo un po' stiamo aggiustando un attimo l'audio sì sì lo facciamo live c'è 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 ce l'abbiamo prima c'era meglio ora sì ora sì così no Fabio no 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 si sente male Fabio vabbè copriamo il tempo ok adesso c'è così va bene sì adesso sì ok allora facciamo un torna 4 e 20 a tutti gli amici acquandanti Terron Fabio insieme a Nudo Rico acquai o cinema ehi 4 e 20 4 e 20 acqua di amici cinete tanti 4 e 20 4 e 20 tu immagini una ma qua tutti quanti 4 e 20 4 e 20 per la legalizzazione facciamo tanti 4 e 20 4 e 20 ne che iuna muoia sopra di io fumo marijuana e la sape pure mamma a casa e in famiglia cortivamo sensimiglia io fumo marijuana e la sape pure mamma a casa e in famiglia noi amamo la sensimiglia perché c'è per c'è qui a dia qui è smocca qui a qui è l'uva se si fumano l'erba con la merda non ci gioca perché la chiamano droga la sape è questa natura e senza l'entra la vita qui c'è la città è sicura perciò con lì con parimoia qua sta per il mio canto che c'è il mio canto insieme a lui d'arico mo della staccante 4 e 20 in giusto un momento oh sì Erba la la, ti dico strigula la, ti la tieni di qualità, vengono in rola la duma la e poi passamela, fumiamo in tranquillità e insieme a questa serenità, cantiamo un'ora verità, una piatta se cantava mi ero la la, oggi arrivano i bagnon e ridano erba, erba, che se è luniero e te la uso la verità, erba lo pensiero da ancora che libertà, di me c'è bene che accende del male, se c'è un problema di me è uguale, che l'erba tiene un effetto così naturale, che chiunque la fuma è sempre comunque tranquillo e normale, che poi quanti piccoli chiede mi ero me più, senti pensieri che fumo me l'erba, ma quando fumo l'erba che dico io, senti che ho belli pensieri a camometro, la piatta se cantava mi ero la la, oggi arrivano i bagnon e ridano erba, erba, che se è luniero e te la uso la verità, erba lo pensiero da ancora più liberta, allora erba la la, per tutti è una botta di profumi di qualità, ogni tipo è una specialità, vista è la realtà, la gestione, la libertà di fumare tranquillità, con sette da serenità, allora ti pesciete che ancora non vuole, quando l'informazione è di qui da cancione, si, la gente sapere c'è bisogno che abusare, non abusare di qui, tu che può fare male, che poi di sicuro c'è di due scuole, una di sciole, capisce l'ora di cinunbole, da un po' di miei rumo fa pure un bene, ma troppo alcol densa retale, ehi, l'erba non ha acceso ma i ceddi, se la mangiano pure agli aceddi, dice naturale come li piscietti, e per la chiantacchina dei pregi Ehi, chiaro noi acquai, a tutti le bagnone, alle bagnone collegati noi acquai, si, erba libera sempre, la marijuana è stata proibita solamente per un motivo industriale, Signori e signore, chiaro, non bufaci di pigliare per culo, perché oggi in una realtà in cui viviamo, la marijuana potrebbe essere veramente un'alternativa a livello di materia prima, in qualsiasi campo, della carta alla plastica allo petrolio, chiaro noi acquai, quindi erba libera sempre, non abbiate paura di cantare, e neanche di fumare, se bucappa, tanto non face male. Vai, sentiamo un altro pezzo, ce l'avete un altro pezzo? E guarda, su due piedi qua, lo dobbiamo cercare un attimo. E va bene, allora grazie ragazzi davvero di cuore, anche per quest'anno ospiti del 4 e 20 del... Grazie, grazie a voi, stiamo un attimo in fase di allestimento di nuovi brani e nuove produzioni. Stanno preparando il disco, lo so, lo so, diciamo un po' che cosa, possiamo spoilerare qualcosa in uscita. Abbiamo un prossimo singolo, insomma, un foundation reggae style, roba de foundation, insomma, sentirete, sentirete. Bella sorpresa, bella sorpresa, uno dei tanti. E sta per uscire anche un rhythm esteso a 15 artisti, Demo Good, prossimamente, insomma, Salento Sound System Production. Grazie, grazie. La mia famiglia è grande, please free of the high grade. La mia famiglia è grande, ti putem a ballo. High grade, high grade. Yo, gimme di Gurganja Will, Real Sense Emilia, the best from the East. Chiaro, mua qua, nuova uscita, sì? Nuova produzione, Terron Fabio versus Sound System. Allora, vi faccio salutare. Così, in freestyle, da un amico che suonerà a breve. Siamo un po' in ritardo, non so se ci sente il nostro amico da Roma. Vi faccio salutare da un personaggio. Bella Ice. Allora, vi suonete il microfono. Ice One, big up. Non hai il microfono, non hai il microfono. Quindi, leggete il labiale. Adesso mi sentite, perché c'è quello del telefono, dopo lo levo, quando inizio a suonare. Mi aveva pregato, ha detto no, preferisco non parlare, però i Sud te li ho voluti far salutare. Hai fatto bene, grande. Ricambio tantissimo, un abbraccio a tutti. Anche perché Ice sono le 4.20, io non so se tu fumi più, però, insomma, la possiamo fare. Esattuariamente, esattuariamente, diciamo qualità. E l'ora buona. Bene, a dopo Ice, ancora un po' di tempo, di pazienza e ci vediamo dopo. Allora, visto che siamo nei saluti, vi saluto i Sound System anche da parte di Ale Festa del Sole, che una volta vi ha portato al Club 262 che avevo io. Ah, vero, a Genova. A Genova, bravissimo. Vero, vero. E vi saluto in diretta, quindi vi saluto un bacio. Bello, bel terzo tempo. Grazie a voi, un saluto. Ciao, Zac mio. Grazie, ragazzi. Ciao, ragazzi, grazie. Ciao. Ciao, Beijing. Benvenuta, Cristina. Buongiorno, ciao a tutti. Eccola. Allora, buone quattro e venti anche a te, Nadia. Non so, vogliamo andare avanti con il programma? Vogliamo fare un altro sponsor? Ci sono gli amici di Meglio Legale? Ditemi qualcosa, vi prego. Per me il quattro e venti è finito quando ho visto Ornella Muti. Per me io adesso posso andare a casa, con tutto il rispetto, ovviamente. Ragazzi, facciamo una domanda per i premi? Vai, Nadia, tu sei la nostra jolly. Allora, per aggiudicarsi, il sesto premio, che sono sette pacchetti da tre semi da collezione, creati da Già Pronta Store, nostro sponsor che appunto li mette in palio, insieme a altri cinque parattoline gelato di CBD offerti dalla canapalegale.it, main sponsor dell'evento, è un cappellino di Call Dealer. Quindi abbiamo altri 13 premi per chi risponde sotto, ricordiamo, sotto la diretta di YouTube. Alla seguente domanda. Alla seguente domanda. Ce l'ho, ce l'ho. Io ce l'ho, eh. E se tenitela per dopo. Come si... Allora, scrivete il titolo di una canzone dei Sun Sound System a tema cannabis. Deve essere il titolo esatto, eh. Non andate a vedere su YouTube, a memoria. Ci può stare? Va bene. Il titolo di una canzone dei Sun Sound System che parla di erba. Quella che vi piace di più, perché ce ne sono tante. Ok, Raffaello, se vuoi presentare Cristina. Mi sentite? Sì. Sì. Ciao Cristina, benvenuta anche a te. Ciao a tutti. Ma io, più che presentarla, lascerei a lei la presentazione, visto che, insomma, è da un po' di tempo che si occupa di cannabis, da quello che so, un po' da 360 gradi. Quindi, riguardo a quelle che sono le attività, riguardo a quelle che sono, sì, sono quelle passate, ma soprattutto quelle future, ecco. I progetti futuri che ci vuole anticipare. Allora, io sono una grande imbucata col mio amico Paolo, in realtà. Sono Cristina Caruso, il mio settore è il settore sportivo e sono una pluricampionessa del mondo di kickboxing, nonché laureata in scienze motorie, quindi questo è il mio ambito a 360 gradi. Sicuramente quello che posso portare io con la mia esperienza, quello che ho visto, è la non nocività di questa erba, appunto, non sostanza, come invece ce la vogliono spacciare gli altri. E quindi Paolo, ho il pensiero di invitarmi per poter dimostrare come anche gli sportivi hanno un… non traggono beneficio barando nell'utilizzo della cannabis, ma al contrario, anzi, sono pochissimi in realtà gli sport che potrebbero considerarsi… nei quali si potrebbe considerare doping l'utilizzo di cannabis, solo ed esclusivamente gli sport i quali prevedono un mio rilassamento, quindi gli sport di precisione. è ridicolo che venga ancora annoverata tra le sostanze dopanti all'alba del 2021, visto le qualità curative e non degenerative che invece ha la cannabis. ecco. Sì, un'altra cosa, anzi, importante che ti volevo chiedere è, diciamo, come avevi… che effetti avevi ottenuto anche riguardo a quelli che possono essere i traumi, che è uno sport come il vostro comunque prevede, prevede, essendo uno sport da contatto, come il CBD, come il THC hanno aiutato, possono aiutare, tu appunto che sei anche, insomma, oltre ad essere una campionessa sei laureata… mi fa molto piacere, sono molto incuriosito da questo tipo di approccio appunto dei cannabinoidi riguardo, da quello che so, anche alla possibilità di velocizzare eventuali, sperando che non avvengano tratture o comunque calcificazioni… non regimi se sbaglio… allora, non mi permetto di entrare nello specifico delle fratture, perché non mi occupo io nello specifico di riabilitazione… sicuramente ha un grandissimo potere a livello di recupero e di rilassamento e di abbassamento della tensione… perché un atleta di per sé è sempre sotto stress… consideriamo che è sotto stress fisico e mentale… e le due cose sono una influenzata e influenza l'altra… considerando poi che in Italia, inoltre, lo sport non è considerato un lavoro… uno sportivo medio non fa lo sportivo di lavoro… quindi… anzi, anche uno sportivo di alto livello… stiamo parlando solo ed esclusivamente delle forze dell'ordine… che si possono considerare professionisti… e non sono professionisti perché vengono pagati per fare altro… rispetto a quello per cui vengono ingaggiati… quindi sicuramente aiuta nel recupero muscolare… nella rigenerazione dei tessuti… e nell'abbassamento del cortisolo a livello generale… quindi arrivare a casa… tendenzialmente noi ci si allena sempre negli orari sbagliati… quindi… la sera, quando in verità bisognerebbe andare a rilassarsi… ad abbassare gli stimoli… noi invece… come tutte le persone che si allenano in linea di massima… cioè chi pratica sport lo pratica dopo il lavoro… e quindi invece di abbassare il cortisolo che hanno in circolo… lo rialzano praticando l'attività sportiva… e quindi… a fine allenamento poter… usufruire… di un mio rilassante naturale… come la cannabis è… per tornare a uno stato fisiologico… di tranquillità… sicuramente è… la miglior cosa… piuttosto che… l'utilizzo di farmaci… chimicamente elaborati… ok… ok… un'altra… ultima domanda… diciamo… il consumo che tu immagino avrai avuto… sarà stato almeno inizialmente… un consumo… diciamo… da strada… di approvvigionamento da strada… o… spero… da… coltivazione… diciamo… di conoscenze… nel tuo… particolare sport… quali sono… ad esempio… le differenze che… hai provato… qualora hai provato… diciamo… allenarti… perché in gara… immagino… sarei stata più attenta… essendoci contro gli antidoti… ma immagino… che qualche allenamento… avrai avuto modo… di farlo anche… sotto l'effetto… di cannabinoidi… volevo capire un po' qual era… la differenza… appunto… di… di prestazioni… riguardo a… un allenamento… e poi… una gara… e quella… che potrebbe essere… diciamo… l'eventuale… miglioramento… delle prestazioni… anche in gara… se appunto… i cannabinoidi… il THC in particolare… venisse… non venisse più… considerato… la sostanza… questo… la facente… ogni sportivo sa… che non si fuma… prima di andare ad allenarsi… qualsiasi sportivo lo sa… perché… perché l'ha fatto… e come hai detto tu… ci sono passato anch'io… a livello cognitivo… sicuramente… hai una perdita di prestazione… perché… i tempi di processamento… eh… si rallentano… e di conseguenza… la risposta… all'ottimolo… è più lenta… soprattutto… per uno sport… come il mio… ehm… non puoi permetterti… di essere rallentato… visto che… stiamo… ragionando… in frazioni… di secondo… di risposta… ehm… mentre… per altri sport… come dicevo prima… dove… ehm… il rilassamento… e avere una maggior precisione… stiamo parlando… per esempio… degli sport a tiro… ehm… quindi… ehm… pistola… carabina… arco… e quant'altro… dove… non so se lo sapete… loro tirano… tra un battito cardiaco… e l'altro… allora lì sì… è fondamentale… a livello dopante… l'utilizzo… ehm… per la prestazione… per sport… ad alta… ad alto stimolo… ad alta risposta… ehm… tutti gli sportivi… sanno che non si fa… ma perché… perché… è un danno che ti produci… ehm… mentre… lo è… ehm… l'utilizzo… è… molto importante… nel recupero… nel post… quindi nel post allenamento… ha un… un effetto importante… ma… non mi viene da considerare ciò… dopante… proprio perché… è… esattamente come ti fa il bagno caldo… la sera… ehm… cioè… i fumi… il tuo… scusami… la prestazione l'hai avuta… e quindi… ehm… non è più… la prestazione è stata data… esatto… cioè io non… non utilizzo la sostanza… per migliorare la mia prestazione… ma per meglio recuperare… dalla prestazione… e cioè… ehm… ripeto… sono pochissimi di sport… che hanno… che possono utilizzare questo… come… doping… a differenza di tutte le altre sostanze… che sono… molto… ehm… condizionanti… sulla… sulla prestazione in sé… se andiamo a guardare… l'utilizzo di… ehm… cocaina… anfetamine… ehm… cose del genere… io sarò molto prestativo… nel… assumerli prima… e sarà assolutamente una controindicazione… assumerle dopo… Maradona insegna… Maradona insegna… fino a che ha fatto… una cosa… c'è gente che… ma… ma… mangiato… per aver criticato… l'utilizzo… delle sostanze di Maradona… eh… però ero un gran calciatore… eh… se ero un gran calciatore… poteva farlo… bravo… anzi… io… quello che dico io… è facile vincere i campionati mondiali… eh… con le sostanze… quelle che ti… ti eccitano… prendi… con quella… prova a vincerli con le sostanze rilassanti… allora lì sei quello bravo… Sì beh… sicuramente aveva un talento fuori dal normale… il fatto che usava… lo aiutava a essere più istintivo… infatti ha fatto delle cose fuori dal mondo… che nessun altro essere umano… dopo il suo talento… e dopo quello che insomma… era… le sue assunzioni poi a Napoli… insomma… non è che ci… non è che sia stata… una… una scelta… come… molto… saggia… a livello di salute… che altro per quello… poi a livello calcistico… si è… è un dio… quello… non ci piove… ma esatto… quello assolutamente… non critica… cioè… non si può toccare il… il talento di per sé… ma… eh… la vita che… che… come… in quanto sportivo… comunque… tu devi… a mio avviso… aver… incarnare… una determinata… ehm… cioè… devi… aspetta… non mi viene… devi portarti dietro dei valori… che secondo me… la cannabis è un valore… cioè… il far capire… anzi… cioè… ho addirittura una mia amica che non riusciva a capacitarsene di come io vincessi così tanto… ho comassi pure le canne… diceva… da lì… da lì ho detto… ok… allora questa è speciale… o… non è… il… non speciale la sostanza… cioè… l'ho sconvolta… ho… ho… ho cambiato il suo… eh… il suo… state of mind… bene… bene… ehm… direi che… non so se ci sono domande… a parte di qualcun altro… ricordiamo… ricordiamo… che potete commentare… sotto la diretta… se avete domande… saremo ben lieti di… darvi tutti i chiarimenti… eh… eh… Nadia vuoi ricordare… eh… l'indirizzo mail… eh… di United Association… così se vogliono… certo… Cannabis Italia… chiocciolagmail.com… se volete collaborare… supportare… eh… anche per… i prossimi eventi… scusate… Cannabis Day Italia… chiocciolagmail.com… ora vediamo di metterlo anche in sotto… in sovraimpressione… io… vi ringrazio davvero di cuore… Cristina… per la… la… la sua testimonianza… vi ringrazio per l'ospitalità… per avermi lasciato dire… il punto di vista di noi sportivi… che… ogni tanto contiamo anche noi… cioè… fondamentale… anzi… è uno… una delle… delle cose più assurde… quando appunto… viene… eh… usato… il paradigma… che… la canna… che si faccia male… è che… gli sportivi… non debbano usarla… come… se fossero sigarette… no… come sigarette… è un'altra cosa… è un'altra cosa… di cibo… eh… sì… infatti… sono andate… atleti che fumano sigarette… il tabacco… come per moto… più di cibo… va bene… va bene… grazie a tutti… Marta… grazie Cristina… grazie mille… ben trovata Marta… velocemente… eh… lanciaci il prossimo video… non si sente Marta… non ti sentiamo… ok… eccomi… eccomi di nuovo online… allora… nel prossimo video… interviene uno dei medici… della nostra associazione… appunto… il Cannabis Service… su quella che è… la possibilità… di prescrizione… del farmaco… eh… lascio quindi… la parola… al dottor Battaglia… e ringrazio… la regia… buon 4 e 20… buonasera a tutti… io sono il dottor Domenico Battaglia… sono un medico chirurgo… mi occupo ormai… da quasi cinque anni… eh… di Cannabis terapeutica… sono un medico prescrittore… eh… siamo veramente… in pochi… i medici prescrittori… in tutta Italia… io lavoro con… tutta Italia… praticamente… anche grazie… al supporto… eh… logistico… di Cannabis Service… eh… credo che… una situazione come quella… italiana… eh… difficile… veramente… perché siamo in un paese… in cui… eh… il diritto… ad una terapia… eh… è sempre più negato… io… tra l'altro… eh… sono… un medico che… eh… si occupa di… eh… medicina olistica… di alimentazione… quindi… vedo… da un osservatorio… molto più ampio… eh… le problematiche… eh… sono stato per tanti anni… in ospedale… eh… l'ospedale già… era troppo ristretto… eh… per una visione ampia… a 360 gradi… eh… sul paziente… eh… oggi… le problematiche… dei pazienti… sono le più disparate… soprattutto in questo periodo… eh… eh… esistono… tutta una serie di sindromi… ansioso-depressive… sindromi dolorose… eh… eh… oltre alle classiche, diciamo… eh… applicazioni, eh… eh… dei prodotti, mhm… derivati… dalla… dalla cannabis… eh… tantissimi pazienti che soffrono di dolori cronici, dolori oncologici, di dolori da allettamento… ehm… devono poter accedere a farmaci come i prodotti derivati dai cannabinoidi… che hanno rarissimi effetti collaterali e eccellenti performance per quanto riguarda il loro profilo. Nessuno si vuol prendere la briga di regalare agli italiani la libertà di scelta terapeutica e la cannabis è una priorità fra queste, per cui dobbiamo lottare per affermare i nostri diritti sacrosanti e i diritti dei pazienti. Grazie e vi saluto per avermi ospitato. Ecco, io ringrazio il dottor Domenico Battaglia perché rispecchia perfettamente quello che è il know-how della nostra associazione, ossia l'accoglienza della persona in quello che è il suo disagio sociale che poi si va a sfogare in patologie che possono diventare sempre più gravi. Ecco, le patologie anche più gravi e croniche derivano comunque da una gestione del sé nel mondo, anche in maniera molto listica. Molti di noi addirittura sono buddhisti, quindi ne facciamo una filosofia molto più ampia di questa pianta, che non si limita alla libertà dell'uso di una pianta, ma anche nell'entrare in sinergia con se stessi e con il resto del mondo. E questo non lo dico solo io, ma lo dice anche la scienza, perché dalle ricerche l'89% delle persone che utilizzano cannabis, so che mi sto dilungando, Zac, non mi odiare, però è molto importante, ma hanno un miglioramento della vita in generale, proprio dell'approccio alla vita in generale, all'accoglienza dell'altro. Grazie a voi e grazie a voi. Non sto dicendo niente, è piaciuto il video? Sì, mi è piaciuto il video, sei stato un bravo, hai montato tutti i video. Allora, siccome abbiamo perso Nadia e abbiamo Barbara Bonvicini collegata con noi, credo da Milano, se non va derrato, gli diamo il benvenuto per la campagna di Medio Legale. Grazie a voi, ciao Barbara, grazie a tutti. Ciao Barbara, non la vediamo in cam, quindi, Barbara, eccola qui, eccola qui, ecco Nadia. Ciao a tutti, scusate, mi si è bloccato il computer, meraviglioso. A te la parola, Nadia, a dopo. Bene, allora, benvenuta Barbara, che appunto fa parte del team di Medio Legale e anche fa il programma insieme a, oddio, Fabrizio. Riccardo, scusa, Riccardo, perfetto. Appunto, ci spiega un po' com'è la situazione, cioè la legge è criminale, quindi questo è il titolo del suo intervento, quindi Barbara, raccontaci un po' tu che cosa vuol dire, no, questo titolo, ecco. Intanto parliamo col dire che è criminale una legge che non ha aggiornamenti da 30 anni, perché il testo unico sugli stupefacenti è il datato 1990 e dalla data della sua pubblicazione ha tentato di essere rivisto in ogni modo. ci siamo riusciti con il partito di Medio Legale nel 1993 che organizzando e vincendo un referendum abrogativo su quella che ha il consulso del consumo di cannabis, quindi altrimenti sarebbe stata penale anche semplicemente di utilizzarla, questa meravigliosa pianta. Io in tutto ciò sento un po' disturbato, non so se sia un problema mio o sia... Io ti sento bene! E allora abbasso un pochino così non sento più il disturbo. E quindi da lì poi sono partiti vari tentativi di revisione di questa legge che come vi dicevo è intonsa e intoccata da oltre 30 anni. Per noi questo quattro eventi è anche un po' speciale perché è il primo anno, è il primo anniversario di quella che è stata la più grande disobbedienza civile in Italia e cioè l'iniziativa Io Coltivo lanciata da Medio Legale e da insieme a tantissime altre associazioni tra cui anche il promotore di questa bellissima giornata è stata una obbedienza civile, la verità non è stata una disobbedienza civile perché noi abbiamo obbedito a quella che era un ennesimo tentativo di provare a cambiare questa legge criminale che è il testo unico degli stupefacenti ad opera questa volta delle sezioni unite della Corte di Cassazione che nel dicembre del 2019 hanno di fatto depenalizzato l'autocoltivazione a scopo personale. Io vi dico di fatto perché ovviamente nulla è cambiato noi oggi siamo qui riuniti e stiamo dedicando questo quattro eventi a Walter De Benedetto che tra una settimana esatta affronterà un processo per spaccio mentre invece viveva una situazione dove lo Stato avrebbe dovuto tutelare il suo diritto alla cura e il suo diritto alla scelta anche della cura e Walter lo dice benissimo nella lettera appello che lui manda a Mattarella e dice lo Stato non è stato così solerte a procacciare la mia medicina mentre invece è stato molto solerte a denunciarmi e quindi poi a procedere a giudizio quando c'è stato invece da recriminarmi una mia condotta di forme a quella che era una legge di Stato. Quindi diciamo che lo Stato è molto omertoso per quanto riguarda le violazioni che esso stesso compie nei confronti delle libertà dei cittadini e su Walter è l'omertà simbolo che stanno vivendo i malati e dobbiamo ricordarci che poi Walter non è solo e non è il solo e abbiamo sentito tantissime testimonianze nella giornata di oggi molte abbiamo provato a raccoglierle con meglio legale insieme a tanti malati che ci hanno messo la faccia e hanno deciso di raccontare la loro storia la loro vicenda che è una vicenda quasi di illegalità che loro vivono come una illegalità e non sarebbe giusto perché è una cura che lo Stato ammette dal 2007 e quindi la situazione che stanno vivendo i malati è paradossale ma paradossale è anche la situazione che stanno vivendo gli imprenditori che anche oggi qui si sono raccontati e noi con Meglio Legale abbiamo cercato di raccontare per tutto quest'anno che sono imprenditori per lo più giovanissimi e si parla tanto anche del lavoro per i giovani che non c'è e invece c'è un settore in emergenza che sta emergendo più che in emergenza con tantissimi lavoratori giovani che lo animerebbero e invece si cerca anche qui di ostracizzare l'impresa, l'industria e l'economia e l'avete ricordato molto bene anche voi oggi ma è criminale anche la legge nei confronti soprattutto dei consumatori e quindi reprimendo tutte le condotte che hanno a che fare con la persona e con nessun altro in realtà di fatto lo Stato continua a reprimere una condotta che non ha vittime e a trattare da reato un reato che reato non è perché anche nel mercato nero fino a prova contraria lo scambio che si attua tra la persona che vende e la persona che acquista è assolutamente consensiente quindi io non sto andando a giudicare nessun atto che sta ponendo in essere un'azione lesiva nei confronti di alcunché ovviamente i coltivatori erano anche il focus della campagna Io Coltivo e sono tantissimi sono circa 100.000 l'anno che decidono di non finanziare la criminalità organizzata e il mercato nero ma di coltivare la propria pianta decidendo quindi cosa consumare anche a chi non dare i soldi è chiaro che la legge è criminale perché per tutti i motivi che abbiamo visto per tutti i motivi che voi avete raccontato oggi ma è criminale anche perché è trattata da tale dal Parlamento stesso che evita come la peste di discutere della revisione del testo unico sugli stupefacenti e questo è stato il focus anche di Meglio Regale quest'anno perché come non mai ci siamo concentrati sul tentativo di fare intervenire il Parlamento perché ovviamente è l'organo preposto alla formulazione delle leggi la creazione delle leggi e il ruolo che è stato necessario in questo caso è stato un ruolo di intermediazione che si è fatto con i parlamentari che singolarmente sono molti e ci mettono alla faccia ma che poi quando devono rendere conto ai gruppi politici più grandi fanno un po' più fatica abbiamo una situazione di breccia che si è aperta in Commissione Giustizia grazie a una proposta di legge depositata in contrapposizione a un'altra proposta di legge della Lega a prima firma Molinari che voleva inasprire tutte le condotte legate ai fatti anche di lieve entità legati alla cannabis e invece una proposta di legge in segno opposto vi dicevo è stata depositata a prima firma Riccardo Maggi questa proposta non è solo il tentativo di far recepire al nostro codice penale la sentenza della Corte di Cassazione ma va proprio a legalizzare l'autocoltivazione quindi togliendo anche la parte della sanzione amministrativa che comunque rimaneva ed era abbastanza fastidiosa e per fare questo dobbiamo continuare a spingere noi come cittadini abbiamo un ruolo importantissimo nel ricordare ai nostri parlamentari innanzitutto chi li ha messi lì e poi effettivamente quali sono le istanze sociali di cui loro devono farsi carico con la proposta di legge a prima firma Riccardo Maggi abbiamo vi dicevo aperto una breccia una breccia che è stata recepita anche da Mario Perantoni che è il presidente della Commissione Giustizia che stasera alle 19.30 farà una diretta con Antonella Soldo che è la coordinatrice di Meglio Legale e direi che questo grande endorsement del presidente della Commissione Giustizia della Camera non è da lasciare cadere nel vuoto io chiudo questo intervento e vi saluto ricordandovi anche che abbiamo degli obblighi diciamo così abbiamo dei compiti a casa che questa giornata ci impone e i compiti a casa sono cercare per l'appunto di sfruttare tutti i mezzi in nostro potere per riuscire a fare una breccia come abbiamo detto nel Parlamento ma non solo nel Parlamento anche nel Governo noi abbiamo una nuova ministra a cui sono state date le deleghe sulle droghe è la prima volta da tanto tempo che si assegnavano queste deleghe che rimanevano se no vacanti o in mano al presidente del consiglio di turno è una ministra, la ministra Dadone che ha accolto con favore l'appello di fuori luogo noi abbiamo oggi che ha coordinato tutta questa bellissima giornata anche Leonardo Fiorentini che è il direttore di fuori luogo e che ha coordinato un appello alla ministra Dadone sulla convocazione della conferenza nazionale sulle droghe che è un appuntamento previsto dal testo unico sugli stupefacenti e che il governo non convoca da 12 anni quindi perpetrando l'illegalità verso le sue stesse leggi e sarebbe un momento in cui la politica può incontrare realmente la società civile che è quella che ha fatto dei passi avanti e ha fatto il vero follow up sul testo unico degli stupefacenti in quest'anno per cui diciamo alla ministra Dadone benvenuta tra noi visto che ha subito le angherie della Lega e dei fratelli d'Italia i quali le hanno dato della drogata e quindi è stata marchiata dello stesso stigma che subiamo noi che ci occupiamo di cannabis ogni giorno pertanto le chiederemo anche di non rispondere con uno stigma e quindi con la risposta che ha avuto lei quindi quell'orribile richiesta di fare il test sulle droghe anche i parlamentari della Lega così si gioca a chi è più puro e a chi è più pulito perché non è quella la via la via è la via di legalità che ognuno di noi sta provando ad aprire con le proprie associazioni, con le proprie realtà e che dobbiamo cercare di continuare a perseguire per riuscire poi ad arrivare a quello che vorremmo e vogliamo e cioè la legalizzazione della cannabis quindi grazie mille a voi e buona esperienza mi raccomando fate speranza e non perdiamo la speranza grazie a voi Barbara perché è veramente meglio legale in questo ultimo anno con le sue attività sta veramente facendo un lavoro incredibile e quindi vi ringraziamo a nome di tutti tante sono le petizioni e le azioni e anche la pubblicità sulla cannabis insomma state veramente facendo un lavoro meraviglioso e vi ringraziamo davvero davvero tanto no grazie a voi grazie a voi davvero buon 4 e 20 compagni buon 4 e 20 anche a te ciao Barbara buona giornata grazie Giancardo senza altro sarà fatto grandi grandi allora niente io vorrei dire tante cose anche su tutte le altre associazioni che hanno partecipato però adesso cadrà la diretta su Facebook quindi il tempo tecnico di riavviare pregherei la regia centrale di switchare ci rivediamo fra un minuto benissimo dopo ciao a tutti vi aspettiamo grazie a tutti Siamo ripartiti con la diretta Facebook Eccoci qua Grande Leonardo Grazie ancora La pausa è dovuta Esclusivamente al limite di Facebook Di 8 ore Che ovviamente avremmo superato Per cui in questo modo siamo riusciti A garantire che fino a meno alle 11 Si possa andare in diretta A te Zacalicio Bene grazie Ecco anche Nadia Qui con noi al telefono Abbiamo il collegamento con Bologna Con Cannabis for Future Che non vediamo Ah eccolo qua Ci senti Lauro? Ciao a tutti Ciao Nadia Vediamo se c'è anche Nadia Sì ci sono Allora Dici un po' la situazione Ci avete boccato in un momento un po' scomodo Perché mi fa piovere Eh ma Bologna piove sempre Io lo so perché ci ho vissuto una vita Ringraziamo Ice One per la pazienza Ecco di nuovo Nadia Nadia velocemente un saluto da Bologna E poi la linea Ice One Vai Lauro Scusa c'è un gran casino Mi sentite? Ciao a tutti Ciao Luca Ciao Ciao Cannabis for Future Grande In piazza Allora in realtà la piazza si è appena svuotata Perché è iniziata a piovere Però fino a mezz'ora fa C'erano 100 persone 150 persone Abbiamo Avete boccato per il momento giusto Diciamo Rick Rick Puoi fare un'impandatura C'è la diretta Per vedere com'è la situazione Fai il Eh come si dira questo Eh non lo so Ok Che fortuna proprio Un momento che pioveva Grandi presenti anche a Bologna Cannabis for Future Grazie Grazie davvero Non il Nettuno di dietro Ripeti Luca ripeti Vediamo le immagini Ma non sentiamo Avete piantato le piantine? Avete piantato? Sì sono qua Ecco faccele vedere Dobbiamo andare a piantare tra poco Appena finiamo Grandi Benissimo Grazie Luca per il vostro intervento Grazie per essere scesi in piazza Dobbiamo andare in piazza A farci sentire il più possibile Grandi Grazie Cannabis for Future Bologna Ciao Buona giornata Buon proseguimento Buon quattro eventi Grazie Allora Bene Ciao A questo punto I premi E poi vi passo Inizia la musica No? Premiazione Ci abbiamo già pronto L'ospitone Però Aspetta due secondi Ancora di pazienza Soltanto un attimo Che diamo il quinto premio Il quinto premio Stia diventando Sempre i premi più belli Perché ci avviciniamo ovviamente Al primo Quindi il quinto premio Che Sono Dieci barattoli Gelato CBD Offerti dalla Canapa Legale Punto it Un cappellino Cold dealer Una busta Poi E questo Cold dealer Invece Roots Un altro Nostro sponsor Che fa un pacchetto Di prodotti Di canapa Con Una bustina Di canapa Uno di tarallini Alla canapa Uno di frollini Cioccolato Con semi decorticati Di canapa E un portachiavi In bio canapa Quindi Quinto premio Che si aggiudicano Quindi Tutti questi Premi A chi risponde Chi ha seguito Il tavolo Di fuori Di fuori luogo Che E risponde A questa domanda Quanti stati USA Hanno Legalizzato La cannabis Per tutti Gli usi Allora Rispondete Sotto La diretta YouTube Per ricevere A casa Il vostro premio Ciao a tutti E ci vediamo dopo E adesso Buon ascolto Con un po' Di buona musica Grazie Nadia Allora Per me È un piacere Nonché un onore Avere qua Uno dei capisaldi Della musica hip hop Italiana E non solo Un grande artista Io Grazie Siamo coetanei Però Tu hai cominciato Prima di me Quindi io mi ricordo Di te Quando ero Pischello Anche se siamo coetanei Insomma Una colonna portante Ice One Da Roma Grazie Ti chiedo Una piccola collaborazione Adesso Io da questo momento In poi Attaccherò il cavetto Se mi fai Un pollicione alto Se si sente bene Io proseguo Se no stacco E uso il microfono Del telefonino Facciamo come Gerry Scotti L'accendiamo Vai Esatto Perché io da questo momento in poi Non ti sento più Vado eh Se l'accendo Vuol dire che si sente Ciao ecco qua Ci hai deliziato Veramente Peccato È durato poco Io pensavo Volessi suonare Un pochettino De più Grazie Ice One E approfittiamo Perché siamo un po' In ritardo Con lo scusarci Con tutti gli ospiti In attesa Pregherei un messaggio Di servizio A tutti quelli Esatto Il pannello Carneful E tutti gli altri Siamo un po' In ritardo Quindi Se cercate di entrare Nella room Nella diretta E vedete che la stanza È piena Diamo Scusami Zac Facciamo un'inversione Di programma Perché i parlamentari Hanno una conferenza Sampa E 18 Per cui Ritardare loro Sarebbe complicato Per cui chiediamo Invece agli ospiti Di Cannefur Di scollegarsi In modo da lasciare Libero Il posto Per Marco Perducca Caterina Licatini Giuditta Pini E Riccardo Maggi Che dovrebbero Collegarsi Caterina Licatini E Giuditta Pini Sono già In effetti Dentro Aspettiamo Che si colleghi Marco Perducca Va bene Allora Inversione Di Scaletta Ecco Vediamo Eccoci qua Vi lascio Grazie a Marco Grazie a tutti gli ospiti Diamo direttamente la parola Marco Perducca Della associazione Luca Coscioni Che presenta questo panel Con il Parlamento Grazie Leonardo Buonasera Riccardo Maggi È già collegato Ai luoghi Delle decisioni politiche Noi vediamo GP che credo sia Giuditta Pini Stiamo aspettando Anche l'onorevole Licatini Eccoci qua Buonasera Allora inizierei Con Riccardo Con un aggiornamento Relativamente a quanto È stato deciso Il Commissione Giustizia Oggi Dove Il Presidente Per Antonio Mi aveva annunciato Sarebbe stato Rimesso all'ordine del giorno E le problematiche Attorno ai vari disegni Di legge Che sono stati presentati Nell'ultimo anno e mezzo Nella speranza Di poter fare un passo avanti Che cosa è successo? Sì Ciao Marco E ciao a tutti Voi che ci state seguendo Dunque Stamattina Si è tenuta La seduta Della Commissione Giustizia E devo dire La notizia Per il momento è positiva Si è deciso Di andare avanti Con l'esame Delle proposte di legge Al momento sono Tre proposte di legge Abbinate Sul tema Della coltivazione Domestica D'uso personale E dei fatti Di lieve entità E' stato dato Quindi Un mandato E' stato chiesto Al relatore Di lavorare Per formulare Un testo Un testo base E quindi adesso Seguiranno Delle Riunioni Della maggioranza Che sappiamo E' una maggioranza Molto ampia Va da l'EU Pino alla Lega E i testi Sono un testo A mia prima firma Ma sottoscritto Da una trentina Di deputati Il testo Il testo a prima firma Di Caterina Ligatini Che vedo qua E saluto E poi c'è un testo Della Lega Io credo che Pur trattandosi Diciamo Di Testi che toccano Degli aspetti Molto puntuali Non si tratta Di una riforma Organica complessiva Come piacerebbe A tutti noi Legalizzazione Della produzione Del commercio Ma Tocca due punti Che però Noi dovremmo Mettercela tutta Per cogliere Quest'occasione E fare dei passi In avanti E questo è L'aggiornamento Che arriva oggi Io spero Che soprattutto I gruppi Che sono Più pesanti E più forti Diciamo Come presenze Si assumano Delle responsabilità Chiare Da questo punto di vista Grazie Riccardo Riccardo Maggi Che è del gruppo misto Componente radicali Più Europa Azione E uno dei coordinatori Anzi Il ripromotore Coordinatore Dell'intergruppo Cannabis Alla Camera Che era stato promosso Da veredetto Della vedova Nella scorsa Divisatura Beh Gruppi pesanti Ne abbiamo rappresentati Negli altri due schermi Se Caterina Riesci a rovesciare Il tuo telefono Forse ti vediamo meglio Perché io ti vedo sotto sopra Magari è solo un problema mio Non lo so Giuditta Pini Allora Tra i gruppi Che da sempre Manifestano Attenzione Alla questione Però purtroppo Al momento Della decisione Non sempre Questa attenzione Si mantiene Non per come vorresti tu Ma per come vorrebbero Tutti quelli Che non la Hanno a cuore La necessità Di guadagnare Nuove riforme Relativamente alla cannabis Qual è la posizione La posizione preponderante Nel partito democratico Adesso E quali secondo te Anche sulla base Di questa richiesta Di composizione Di testo unico Possono essere Gli sviluppi possibili Vista la Diciamo Multicolorata La maggioranza Che sostiene Il governo Draghi Allora Grazie mille E anche grazie Per averci fatto parlare Dopo questo DJ set Molto Molto bello È la prima volta Che parlo Dopo Peter Tosch E sono Molto emozionata E Allora Partito democratico Come si sta Su questi temi Ha delle posizioni Molto Ambigue Sempre ha avuto Le posizioni ambigue Nel senso che Da una parte Ha avuto Parlamentari Esponenti Fortemente favorevoli Alla De penalizzazione Alla legalizzazione Dall'altra Ha fatto un po' Fatica a volte A prendere Posizioni chiare Il segretario Uscente Gingaretti Aveva detto Più volte Che era contrario Alla legalizzazione Mentre invece Stiamo riuscendo Con il segretario Letta Finalmente Ad aprire Un dialogo Costruttivo È stato approvato Un ordine del giorno Che impegna La segreteria A discutere A prendere una posizione In tempi brevi Su questi Legge Magi Credo che anche Magi Potrà confermare Che ci sono Dei momenti Che Prima erano Un pochino Più difficili Da vedere E quindi So già Che ci sono stati Anche alcuni Incontri Insomma interni È stato un dibattito Per cui Insomma Per la prima volta Devo dire Da quando Faccio parte Del partito Democratico E mi occupo Di questi Temi E posso dire Finalmente Che il partito Democratico Sta dibattendo Seriamente Al suo interno Per avere In tempi brevi Una posizione Su questo tema Sulla proposta Di legge Magi C'è una Posizione Anche Una posizione Che ovviamente Sarà di mediazione Come tutte le posizioni Interne Al partito Democratico Ma che possa Essere anche Di appoggio E costruttiva In questo senso Per finalmente Diciamo avere Una Legislazione Che sia Più al passo Con la realtà Dall'aula Più di affinità Con quel mondo Da farmacista Ma dato Le ultime Purtroppo Gli ultimi Accadimenti I quali Quelli di Walter De Benedetto Che conosciamo In particolare Ma anche Di altri Purtroppo Pazienti Che devono Necessariamente Utilizzare Questa sostanza Diciamo E lì è nata La mia proposta Un po' Di 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 intervenire Facendo questa Proposta Che Soprattutto Di Mettere La faccia Perché Sappiamo Conosciamo Le difficoltà Che Comunque Sono legati A questo tema Non tutti Hanno Questa Facilità Mettere In prima linea Apprezzo Tanto Riccardo Che lo fa Da anni Radicali Che lo fa Da tanto tempo Ma comunque Seppur Parlando Singolarmente Con tutti Con molti Dei colleghi Non con tutti Ma con molti Dei colleghi Seppur sono d'accordo A riportare Questo dibattito Serio Costruttivo E vero Qui In realtà Non è così Semplice E quindi Dalla mozione Che abbiamo Depositato Trasversale Insieme a tutti Gli altri colleghi Da dicembre Poco Poco Diciamo In questo ambito Si è mosso Quindi la mia proposta È stata un po' così Un po' Voler Voler intervenire Sono contenta Dei risultati Dei passi avanti Che si sono fatti In queste ultime settimane In commissione Giustizia Siamo qui Ci credo Sono anch'io Come la collega Ottimista Però È chiaro che Il percorso Ancora è lungo E soprattutto E questo è il motivo Per cui Anche se non sono In genere Non partecipo A grandi eventi Abbiamo bisogno Di informare E sensibilizzare Chi sta I miei cittadini Anche chi Magari non conosce Questa Questa sostanza Perché in qualche modo Non avrà Non ha mai avuto Occasione Noi sappiamo L'enorme Vantaggi Di questa pianta La sua Duttilità Dall'utilizzo In terapia Ma anche Per altri Scopi E purtroppo È stata demonizzata Negli anni E oggi Siamo qui Intanto Ad eliminare I pregiudizi A farci strada In questo percorso Legislativo Che speriamo Veda la luce Al più presto Grazie So che anche voi Avete altri appuntamenti Noi siamo un po' in ritardo Un ultimo giro veloce Caterina ricordava Walter De Benedetto Oggi è la giornata Mondiale Della cannabis E noi la dedichiamo a lui Walter avrà Settimana prossima Un'udienza Che lo vede coinvolto In quanto coltivatore Di un prodotto Illecito La domanda A questo punto Si sposta dal Parlamento Al Governo Dopo le cose Che la Ministra Cartabia Ha detto Relativamente Alla proporzionalità Della pena Secondo voi Dal punto di vista Se non altro Della comunicazione Di un importante Componento Dell'amministrazione Del governo In quanto tale Ci potrebbe essere Modo di insistere Su questo Grosso Peso Macimio Che ci portiamo dietro Da almeno 30 anni Di sproporzionalità Delle sanzioni Penali E per certi versi Anche amministrative Per una condotta Che non ha Vittime Riccardo Questo è esattamente Uno dei punti Su cui noi Potremmo intervenire Con le proposte Che attualmente Sono in discussione In Commissione Giustizia Come ricordavi tu La ministra Cartabia Che tra l'altro È anche La relatrice Di una sentenza Della sentenza Del 2014 Sulla Fini Giovanardi Fondamentale Sentenza Lei all'epoca Da giudice Costituzionale L'ha seguita Però più recentemente Da ministro Della giustizia Ha presentato Le proprie linee Programmatiche Con un'attenzione Particolare Ai fatti Di lieventità In generale Ovviamente Non solamente Sulla questione Delle sostanze Stupefacenti Che non devono Ha detto lei Necessariamente E anzi È consigliabile Che non portino A un esito Carcerario A un esito Penitenziario Ecco Questo è esattamente Il punto Noi sappiamo E il Parlamento Lo ha appreso Perché Nelle lunghe audizioni Che abbiamo avuto Su queste proposte Di legge Nei mesi scorsi Ci è stato detto Chiaramente Con statistiche Aggiornate Numeri aggiornati Che in sette casi Su dieci Nel nostro paese Si finisce in carcere Per i cosiddetti Fatti di lieventità E allora La soluzione Può essere Ed è una soluzione Diciamo Già di mediazione Fare in modo Che Ci sia una Depenalizzazione Di questi fatti Sì che Vengano Identificati Con una fattispecie Autonoma Nel codice Penale E soprattutto Che anche Per i fatti Di lieventità Si distingua Come voleva La sentenza Della allora Giudice Cartabia Si distingua Tra le varie sostanze In questo modo In questo modo Noi avremmo Un effetto Importante Per orientare Poi Diciamo Il giudizio Dei giudici In Italia Quindi questo È il motivo Per certi versi È anche il motivo Principale Il più importante Persino più importante Di quello Della coltivazione Domestica Che pure Segnerebbe Un passo In avanti Recepire La sentenza Delle sezioni unite Della Cassazione In altre parole Mi viene Dato una volta Dicevamo Che i cittadini Erano più avanti Dei parlamenti In questo momento Possiamo dire Che non solo i cittadini Ma anche i tribunali Rischiano di essere più avanti Questo vale Non solo Per Non solo Per la Per la cannabis E per le droghe Vale Lo diciamo oggi Insomma Una giornata importante Anche per il fine vita Anche da quel punto di vista Però Il Parlamento In questa fine Di legislatura Ha un'occasione Importante Per definire Una Una normativa Più razionale E più umana Grazie Riccardo Giuditta Sulla Ministra Cartabia E le possibili Attenzioni Sappiamo che la tradizione Da cui proviene L'uridica Ma anche Diciamo Para o post Pseudopolitica Non è necessariamente Tra le più progressive Su alcune questioni Però il fatto Di mettere al centro Lo Stato di diritto E anche la qualità Della Della detenzione In Italia Potrebbe concorrere A far A fare qualche passo avanti Relativamente Alla questione Delle pene Sapendo noi Che Come diceva Riccardo Un terzo Dei detenuti In Italia A parte le persone Che incontrano Il circuito penale Ma insomma Sono in carcere Per motivi di droga Richiedi che Il tuo ottimismo Si ferma Alle soglie di governo O addirittura Entra Allora Innanzitutto Se uno fa politica Secondo me Deve essere un pochino Ottimista Perché se no Non gli passa Se poi uno fa politica Nel PD Deve essere un pochino Ottimista Per forza No Penso che proprio Paradossalmente Proprio perché È una persona Come diceva giustamente Magi Che conosce La macchina Della giustizia Conosce Il nostro sistema Giuditerio E anche Come le condizioni Il sistema carcerario E le condizioni Come funzionano L'applicazione Poi delle leggi Può essere questo Veramente il momento Per fare questa discussione Seria E paradossalmente Il fatto che ci sia Un'alleanza Una maggioranza Così Eterogenea Può consentire Finalmente Di fare una discussione Su temi Sui merito E non Che diventi una roba Come si fa di solito Al lupo al lupo Su un tema O su un altro Su questo sono Particamente ottimisti Da una parte E dall'altra Ovviamente Se penso a Il fatto che ci è stato Già chiesto In questa legislatura Di legisperare Su appunto Fine vita Di legisperare Su adozioni Di legisperare Ci sono state fatte Varie richieste Da parte delle corti E noi Tutte le volte Parlo ovviamente Per il mio gruppo Ma non solo Siamo stati inadeguati A queste domande Non abbiamo fornito Risposte Anche come parlamentari Quindi diciamo Sono ottimista Da una parte Dall'altra Sono anche realista E quindi penso Che bisogna Lavorare ancora di più E soprattutto Se la spinta esterna L'attenzione esterna È forte Questo sicuramente Internamente Ci aiuta molto A fare un dibattito Che sia nel merito E che vada anche In contro A quello che appunto Aveva detto Già la ministra Cartabia Prima di essere Ministro E con atti Tra l'altro Grazie Ultimo intervento Caterina Licatini Anche te Non solo un giudizio Sulla Cartabia Ma anche Un'opinione Su qua Visto che sei Farmacista Quanto Continuare a demonizzare Una pianta Abbia delle influenze Negative Per il suo uso Riconosciuto Tra l'altro Dalla legge In piani terapeutici Ormai mondialmente Ricchi di letteratura Scientistica Infatti Ricordiamo pure Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità Ha deciso Di Scusatemi Prego Di modificare Lo status Della cannabis E quindi Grandi Dal punto di vista Medico Scientistico Grandi passi Avanti Sono stati fatti Però è chiaro Che bisogna Scusatemi Ah prego Sì no Immagino che il collegamento Dalla l'Aula Non sia De più agente Non è Non è facile Stavo dicendo Dico anche La scienza Lo sai che cosa Pensavo In questi Giorni In questi mesi Diciamo Anzi da quando Sono deputata Da farmacista E da deputata In Italia Potrebbe avere anche Una grande occasione Limitiamoci in quello Che oggi In Italia è lecito Ovvero L'utilizzo Della cannabis Dovremmo 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 Date le nostre Anche potenzialità Del nostro territorio Del nostro clima Potremmo diventare anche I principali produttori Di questa pianta Come farmaco O come quello Che vuoi tu Invece purtroppo Abbiamo Abbiamo dei limiti Che oggi Risultano essere Non più Sopportabili Per cui Ma siccome Sono donne Siccome Oggi L'ottimismo Si chiama Donna E la ministra Eppure Donna Secondo me Siamo sulla strada giusta E della legislatura Anche questa Quella giusta Grazie Caterina Licatini Giuditta Pini Riccardo Maggi Che sono tre parlamentari Che si sono collegati Dall'aula Ma sono anche I tre Che sono sempre presenti Alle manifestazioni In piazza Alle conferenze stampa E a tutto quello Che è Fino oggi Negli ultimi mesi Ma Nei Trent'anni Precedenti Garantito Un dialogo Fra piazza E palazzo Dove Non ci sono Più Quelle contrapposizioni Di una volta C'è maggiore attenzione E ascolto E si riesce a Marciare Separati Per colpire uniti Anche se non ci piace Usare un linguaggio Marziale Ma insomma Creare sinergie Per il bene E avendo L'obiettivo comune Che è quello Di legalizzare Regolamentare De penalizzare Aiutare i malati Ad ottenere Questa pianta Avevamo intitolato Cosa bolla in pentola Se non altro bolla in pentola Molto ottimismo Si stanno muovendo Molte cose Sicuramente Torneremo a parlarne Nelle prossime settimane Grazie ancora Restituiamo la linea Alla gestione Grazie a tutti Siamo pronti col panel Siamo pronti Col panel Non c'era Pietro Sparacino Prima? L'ho visto In background Eccolo qui Eccoci Garia Vi lascio Al panel Su Cannefur Ok No C'era Pietro Sparacino Prima Pietro vai Ciao Garia Ciao Garia Figurati Figurati Bentrovati a tutti È un grandissimo Veramente grandissimo Dispiacere Essere qui Perché non ci sarei voluto essere Anzi Devo dire che Avrei proprio preferito Che non ci foste Neanche voi organizzatori Nemmeno quelli che ci stanno seguendo Online Avrei preferito Che non ci fosse bisogno Nel 2021 Eh di una diretta così lunga Per chiedere semplicemente Dei diritti E invece ci si ritrova Anche quest'anno qui A fare questa Questa giornata A chiedere semplicemente Che poi è banale Veramente la libertà Per Per una pianta Io ho preso Ho preso un po' Degli appunti Eh Siamo contraria a una pianta Proibiamo Una pianta E siamo L'unica Specie vivente Che ha mai popolato Il mondo A proibire Una pianta Eh Facciamo un piccolo Passa indietro Proprio per Capire Che siamo l'unica Specie vivente 65 milioni D'anni fa Come ben sapete Non c'erano Gli esseri umani Sulla terra Ma c'erano i dinosauri C'era questa Bella terra Popolata Da tanti dinosauri E tra i dinosauri C'erano i dinosauri Carnivori E i dinosauri Erbivori Per esempio Tra i carnivori C'era il tirannosauro Che cosa faceva Il tirannosauro Ogni mattina In quanto carnivoro Usciva dalla propria Tana E doveva Necessariamente Importunare Un altro Dinosauro Per soddisfare Le proprie Eh Il proprio regime Alimentare La carne che preferiva Il tirannosauro Era quella del triceratopo Il triceratopo Invece È un dinosauro Erbivoro Era un dinosauro Quindi che cosa faceva Ogni mattina Ogni mattina usciva Dalla tana Si guardava intorno Sceglieva la pianta Che voleva mangiare E senza importunare Nessun altro dinosauro Andava a mangiare Questo che cosa ci insegna Cari amici E cari amiche Che anche Nella preistoria Tendenzialmente Chi consumava erba Non rompeva Il cazzo A nessuno Siamo l'unica Specie vivente A proibire una pianta I dinosauri Non lo facevano Ma voi pensate Che se Che ne so Il triceratopo Se una mattina Usciva dalla tana Aveva voglia Di pianta di canapa Doveva andare Dallo spacciosauro Per rimediarla Cioè Voi pensate che All'epoca dei dinosauri C'era il giovanardinosauro Che rompeva le palle Agli altri dinosauri Eh dinosauri drogati No Non c'era Siamo l'unica specie A proibire una pianta Eppure Eppure Solo in Italia Siamo 6 milioni Eh a consumare O ad aver consumato Cannabis 6 milioni 6 milioni di persone Che anche se Se spendessero Spendessimo Un solo euro l'anno Un solo euro l'anno E non spendiamo ovviamente Un solo euro l'anno Con un euro l'anno Ci compreremo giusto Il celofan Dentro il quale avvolgono L'erba O il fumo Se spendessimo Un solo euro l'anno Sarebbero 6 milioni di euro in meno Facile facile il conto 6 milioni di euro in meno In mano Alla mafia Alla mafia Cosa nostra Andrangheta O alla camorra Io ogni volta che fumo Penso sempre di Destinare i miei soldi A cosa nostra Ma questo è più Spirito campanilistico In quanto siciliani Siamo 6 milioni E eh Io capisco che La cannabis rilassa Ma secondo me È arrivato Il momento di incazzarci In un In un vecchio monologo Eh dicevo che L'unico modo per fumare Legalmente In Italia E non finanziare le mafie E avere una prescrizione medica Perché in Italia Finalmente dopo tanti anni Rispetto ad altri stati nel mondo Alcune patologie Vengono curate Con la cannabis Eh terapeutica E quindi In Italia Visto come stiamo messi Piuttosto che aspettare Una legge Sulla legalizzazione E ci conviene augurarci Una malattia Perché io pensavo Che avendo una prescrizione medica Sarebbe stato tranquillamente Accessibile Eh Il THC In farmacia Invece non è così Perché mi hanno detto Che tu puoi avere La prescrizione medica Ma piccolissimo particolare Poi il prodotto Ci deve essere In farmacia E ho scoperto Eh Le dinamiche Che ci stanno dietro La cannabis Terapeutica Seguendo la storia Di Walter De Benedetto Walter De Benedetto E altri pazienti Che si curano E che curano Le proprie patologie Con la cannabis Eh terapeutica Ho scoperto Che c'è carenza Nelle farmacie italiane Eh Del prodotto E mi sono chiesto Immaginate se succedesse Con un altro farmaco Cioè con un altro prodotto Cioè immagina Eh Tu che stai Seguendo questa diretta Immagina che a un certo punto Che ne so Eh Hai la febbre Ti viene la febbre E quindi Hai bisogno di un farmaco Per curare la febbre Vai in farmacia E chiedi a farmacista Che ne so Eh Uno Zerinol Una Vivinci Eh Una spirina Eh Una supposta Anche particolarmente grande Qualunque cosa Eh Vai lì E il farmacista Ti dice Guarda non c'è niente Abbiamo Abbiamo finito tutto Non ti posso dare Niente Non c'è nulla Ma tu sei Sei disperato C'hai la febbre a 40 Da due giorni Ti serve per forza Un anti-influenzale A casa Ti usano come termosifone Stai contribuendo Sul riscaldamento globale Devi fare qualcosa Quindi che fai Ti organizzi Esci dalla farmacia E vai al parchetto Che c'è di fronte Alla farmacia Lì dove ti hanno detto Che ci sono dei tipi Che spacciano farmaci illegali Quindi che fai Ti avvicini a questi due tipi Loschi Ti guardi intorno Spieghi le tue esigenze Uno dei due Si avvicina a una macchina Parcheggiata lì a fianco Stacca dal paraurti Un'aspirina E te la dà Illegale Un'aspirina illegale Tu ti guardi intorno Mi dici ma che devo fare Che devo fare questa aspirina La prendo Non la prendo Non sai se è roba buona Magari l'hanno tagliata Con la biochetasi Che le sai Però la febbre è alta Devi prenderti qualcosa Quindi prendi sto pacco Di aspirina illegale Te lo metti in tasca E ti avvighi I due tipi Loschi Spariscono A un certo punto Arriva una volante Dei carabinieri Che ha visto Quello che è successo Ti becca E a quel punto L'aspirina È l'ultimo Dei tuoi problemi Ora Caro amico E cara amica All'ascolto Sostituisci in questo racconto Aspirina Con cannabis Terapeutica Fatto Bene Adesso sostituisci La febbre Con tutte le patologie Che si possono curare Con la cannabis Terapeutica Fatto Bene E adesso io mi chiedo Ma è possibile Che se uno si cura Con la cannabis Terapeutica È possibile Non reperire le scorte È possibile Nel 2021 È possibile Che in Italia Gli unici a poter coltivare Siano quelli Dell'esercito È possibile Che io anni fa Ho rinunciato All'esercito Per i miei Ideali pacifisti E invece oggi Scopro che forse Un ruolo Me lo sarei potuto Ritagliare Anche nell'esercito A quel punto Non avrei esportato Democrazia Ma felicità Ora io mi voglio unire All'appello Di tutti quelli Che mi hanno preceduto Sono con Walter Benedetto Nella sua battaglia E quindi Grazie Per avermi dato La possibilità Di essere Con voi oggi Ripasso La linea A chi dirige Grazie Grazie mille Pietro Grazie A voi Mi hai tolto le parole Da bocca Guarda Avrei detto io La stessa cosa Solo che non sono un comico Sono un cantante Ma ti faccio davvero i complimenti Grazie mille caro Scritto e sottoscritto Grazie E scusami Per il misandistenghi Adesso Dovrebbe essere Il tempo Per il panel Eccoli qua Scusami Leonardo No tranquillo È una giornata lunga È faticosa È faticosa E ancora devo iniziare A voi ragazzi Soprattutto voi Non lo sapete Ma Diciamo Nel backstage Ci sono almeno Tre chat Da seguire Per cui Diventa difficile Riuscire A Ci sono persone Che continuano a entrare Che non riescono a entrare Esatto Quindi Al nome di tutti Dalla regia Ci scusiamo Con quelli che Non sono potuti Entrare subito Perché Purtroppo c'è un limite Quindi Grazie Nell'attesa Grazie a tutti Io adesso Passerei la parola A Nicolò Moranatto Che avete già conosciuto prima E a Alice Crippa Che sono Designer e docenti Al Master Di Art Direction E Copywriting Del Politecnico Di Milano Sono collegati Da Chicago Hanno Allo loro spalle Una bellissima pianta Che Addobba La loro casa Perché Ricordiamo In Illinois E' legale La cannabis Ed è anche legale Coltivarsela Detto questo E' arrivato anche Marcello Vendramel Eccolo Io Lascerei Direttamente La parola A Nicolò E Alice Per introdurre Il panel Con tutti Gli ospiti E presentare Magari Anche gli ospiti Meglio Di quanto Farei io Grazie mille Grazie per questo invito Di oggi Siamo ovviamente Felicissimi Di essere qua Oggi A celebrare Questa giornata Ma Un'altra volta A rivolgere L'attenzione A Walter De Benedetto E alla criminalizzazione Di un paziente Che ovviamente E' un evento Tragico E grottesco E noi Dal nostro punto di vista Della comunicazione Ovviamente Vediamo questo Non solo Come un problema Di regole Di legge Di processo Ma come un vero e proprio Problema di sensibilità Collettiva E quindi Occupandoci di comunicazione Spesso quello che andiamo a fare E proprio Usare il design La bellezza La curiosità Per un po' Modellare Questa risposta collettiva Agli eventi E quindi Vedete che E' stato introdotto Il nostro intervento di oggi Che si chiama CanFur Fare la spesa In un paese Canna normal Proprio perché Vogliamo portarvi In un viaggio Dell'immaginazione Che adesso Incomincerà Tra qualche minuto Attraverso Un supermercato Un supermercato Del futuro Che in Italia Sembra ancora Molto lontano Ma vedrete Che ogni prodotto Che vi Presentiamo Avrà una specie Di cugino Oltreoceano Che assolutamente Reale Nel mercato Statunitense Qui con noi Oltre a Nicolò Che ovviamente Si occupa Di design Del linguaggio Abbiamo Eleonora Abbiamo Andrea Abbiamo Marcello E ognuno di noi Ha un po' Un punto di vista Su questa dinamica Della comunicazione Andrea È un designer E Eleonora Si è occupata Di destigmatizzazione Da tanto tempo Soprattutto Nell'universo Femminile E come anche Usare il desiderio La curiosità Per aprire Delle porte E far sì Che esistano Posizioni Un po' Più aperte Un po' Più empatiche E non così Dogmatiche A questo punto Direi che possiamo Arrivare Agli esempi Che abbiamo Preparato Con voi Oggi E ricordarci Tutti insieme Che a volte Anche delle dinamiche Un po' Più soft Che non sono Necessariamente Solo cambiare Le regole Possono fare Davvero Tanta presa Quindi Benvenuti In Carrefour Market Un viaggio Che vi porterà A vedere Come quello Che sembra Ancora così Lontano In Italia Altrove Giare E come prodotti Che a volte Sono meno Controversi Di quelli Che ci si possono Immaginare Immediatamente Come un fiore Fumato In realtà Hanno un ruolo Fondamentale Nel modellare La percezione Collettiva Quindi Iniziamo a vedere Il primo prodotto Che in questo Viaggio Dell'immaginazione Ha avuto Uno spazio Sugli scaffali Italiani È il Calmolive Molte persone Lo apprezzano A base Di latte Di canapa E ovviamente Ha delle proprietà Positive Per la pelle È una formula Lenitiva Per una pelle Felice Infatti Contiene CBD CBG E CBN Che sono I cannabinoidi Molto utilizzati Nella Cosmesi Nella Detergenza E Nell'igiene Intima Negli Stati Uniti Primissimi prodotti Che hanno trovato Hanno trovato Uno spazio Sugli scaffali Diciamo così Mainstream E se andiamo A vedere Nei cugini Oltreceano Ma anche in Cina In tutti gli altri mercati Il beauty Ha avuto Un ruolo fondamentale Una saponetta Che puoi buttare Nella borsa E la palestra O un siero Per rendere la pella Più luminosa Non fanno Lo stesso effetto Che fa fumare Una canna O vedere il fiore Nudo E quindi Molto spesso Come abbiamo parlato Anche nel passato Il lavoro Dei noi designer Il lavoro Che ha fatto Andrea In questo percorso Che fa Marcello Che fa Niccolò Ogni giorno E quello proprio Di trasformare La percezione Di questa pianta Di questa sostanza Da un vizio Di pochi A un prodotto Per tutti Quindi per qualcuno È un sapone Per qualcuno È un prodotto Di bellezza E nel momento In cui tutti Ne abbiamo a casa Almeno uno La percezione Inizia a trasformarsi Non è più così Dogmatica E siamo un po' Più aperti A capire cosa succede Il secondo prodotto Che vi vogliamo portare Parla sempre Di benessere Ma questa volta Arriva più Nel femminile Quindi il benessere Dell'igiene intima E lascerò la parola A De Leonora Per raccontarci Che cosa succede Nel mercato effettivo Degli altri paesi Grazie Alice Mi sento Mi sento Di raccontarvi Come il dolore Intimo Femminile Venga gestito Senza alcun tipo Di stigmatizzazione Appunto I cannabinoidi Sono molto Utili Sia per quanto Riguarda Il pacere sessuale Che per Per quanto riguarda In realtà La gestione Dei dolori Mestruali O legati A questa malattia Molto comune Che di recente Diciamo È stata stigmatizzata Che è quella Delle endometriosi E Diciamo che Prevenire alle donne L'accesso A un miurielassante Appunto Come si diceva Anche prima Come Tutti i prodotti Legati al mondo Della canna È un problema Che in altri paesi Si è già risolto E sono veramente Molto popolari I Lubrificanti Che sono Un po' Una sostanza Che Essendo già Nel mercato Stigmatizzato Della sessualità Ci permette Di Svelare Un altro Livello Che appunto Quello dello stigma Del pregiudizio Dello scurantismo Che con il lavoro Di Andrea Stiamo un po' Andando a Rivedere Infatti ci sono Ci sono degli esempi Che ha portato Eleonora Proprio di queste Di questi prodotti Già esistenti Qua in slide Se ci aiuti Con la regia Eccoli qua Sì Vediamo a sinistra Da lì Dai Hai un tampone Per le mestruzioni Che tra l'altro È completamente Come si dice Biodegradabile Ed è arricchito Con CBD In questo momento Si può acquistare Anche in Italia Sembra Questo prodotto È arrivato A influencer italiane Che operano Diciamo Nel settore Piacere E sessualità E Moun Proprio il lubrificante Che come vi Vi raccontavo Poco fa È Un tipo di prodotto Che tra l'altro Viene abbinato All'effetto Scaldante Il calore E la classica Bull dell'acqua Calda Sono qualcosa Di tradizionalmente Legato alla gestione Del dolore femminile E Come vedete Un packaging Che Non presenta La foglia O il fiore Ma che Regala Un immaginario Una promessa Attraverso Altre tipologie Di simbologia E vediamo Proprio Come diceva Eleonora Che a volte Cercare di abbattere Uno stigma Abbinandone Un altro Quindi parlare Di temi Che non sono sempre Così facili Da raccontare A volte Addirittura Arriva a facilitare Questo percorso Il design Ancora una volta Così pulito Così piacevole Da vedere Così non controverso Spesso è un rimandello Molto più importante E molto più fittante Di quello che si può pensare Ma adesso Con Nicolò Andiamo All'esempio successivo Siccome noi siamo In un supermercato italiano Le zanzare Specialmente a Milano Ci sono tutto l'anno Quindi non solo In questo momento In cui stiamo andando Verso la primavera E proprio a questo scopo L'autan ha fatto L'autan tropica Che come vedete È già il numero uno Degli sette repellenti In Italia Grazie alla sua combinazione Di CBD Che nutre la pelle E terpenica All'autanante zanzare Sappiamo tutti Basta andare al fiume Che se ci sono le mosche I tafani I moscerini Basta accendersi Una bella tromba E se ne vanno via tutti Vedete come andare in giro Con uno zampirone in mano Di conseguenza Questa è stata La risposta Del sistema commerciale A questo tipo di necessità Di nuovo Un prodotto Che porta la cannava Come soluzione Di problemi A cui le persone Non pensavano E infatti Questo esiste già Ed è anche molto di successo Qua negli Stati Uniti Giusto Alice? Sì E vedete Di nuovo C'è una foglia Ma è completamente trasformata Quindi di nuovo Come utilizzare La bellezza Il desiderio La curiosità Per andare oltre E aprire un po' All'empatia Aprire un po' Alle possibilità Ma passiamo A una delle tisane Preferite Da un sacco di italiani Specialmente per la sera Questo è stato Un best seller Tra gli anziani La fascia Tra i 70 in su Per poi scendere A tutti quanti I livelli demografici Dei consumatori Ed è la calmomilla Che unisce Con quello che in America Va moltissimo Che viene chiamato L'entourage effect Quindi l'unire Determinati cannabinoidi Ad altre piante Che già si sa Possono indirizzare Verso un determinato Tipo di effetto Eccitante O rilassante O mio rilassante Antidolorifico In questo caso È stato unito A passiflora E valeriana Quindi CBD Passiflora E valeriana Dosato Secondo il principio Del microdosing Che è il principio Che sovrasta Tutto quanta L'applicazione Commerciale Dei prodotti Di marijuana Quindi Stiamo parlando Di milligrammi Neanche di grammi All'interno Di ciascuna bustina Che permette Un effetto Dosato Misurato E alla portata Di tutte le persone Specialmente Le persone Che non hanno mai Consumato Cannabinoidi Prima E che quindi Potrebbero avere Delle reazioni Particolarmente forti Se fosse risposta Alla stessa quantità Di utilizzatori Di utilizzatori Abituali E tra l'altro Una delle cose Belle di questo Laboratorio È che Siamo persone Molto differenti Per quanto riguarda Le nostre abitudini Di consumo A lavorare Sullo stesso tema Ci sono persone Che non consumano Minimamente Persone che consumano Persone che consumano Solo CBD Dopo ne possiamo parlare Perché è una cosa Che può arricchire Nel linguaggio Andiamo avanti Per gli scaffali Ma ci ricordiamo Intanto Che questo tipo Di tisana In America Esiste già Ed è anche Molto utilizzata E qui vediamo Due esempi Abbiamo il Subdol T Nella sua formulazione Per la sera Che favorisce Ovviamente Il rilassamento Quindi ha tanto CBD Ma anche un pochino Di THC E invece Sulla destra Abbiamo una soluzione Ancora più tecnologica Con una polvere Effervescente Che praticamente Una volta mescolata Qualunque cibo O vevanda Rende qualunque cosa Attivata al THC Quindi una specie Di edibo E di nuovo Insapore A una grafica fresca E a metà Tra il pulase E qualcosa Più fashion E più interessante Questo anche per far capire Che nel momento In cui c'è una legalizzazione In cui c'è una sensibilità Un po' più aperta Le modalità Di consumo E di accesso A questi benefici Diventano Assolutamente Più ampie E non così Esposte ai dogmi E anche A un riconoscimento Così immediato Ma entriamo invece Nel clou Poi del supermercato Perché comunque Sia noi dobbiamo andare A fare la spesa Quindi va bene Abbiamo preso Tutte le varie cose Gli insetti E tutto Però dobbiamo anche andare A prendere qualcosa Da mangiare E quindi arriviamo Alla corsia dell'olio Nella corsia dell'olio Siccome dobbiamo tornare a casa E probabilmente C'è assemblea Condominiale dopo Quindi bisogna mangiare Ma bisogna anche cercare Di farsela passare Un attimo Scegliamo il tranquuolio Di cannapelli Che è un olio completo Cbd Con extravergine 100% italiano E cannabinoidi 100% coltivati Prodotti testati In Italia E se passiamo Allo scaffale D'oltre oceano In Gino d'America Vediamo che questo Ovviamente già c'è E hanno addirittura Fatto un pensiero Molto interessante Anche sul dosaggio Questo è un tema enorme Ora che in tanti paesi È possibile Avere questi prodotti E trovarli Su uno scaffale Specialmente Se sono solo Al Cbd In questo caso C'è anche del THC Qui dentro Il dosaggio diventa Un elemento di design Un elemento di ricerca Perché quando Se è facile capire Quanto ti può fare Una birra Non è così facile Capire i milligrammi Cosa questo Può fare al tuo corpo Quindi l'idea Del micro dosing L'idea di educare Anche con un processo Proprio di sperimentazione Personale Quanto è una dose È qualcosa Che non è assolutamente Perfetto Neanche in questi mercati Più avanzati Ed è solo L'inizio Di una frontiera Quindi c'è tantissimo Comunicazione Che sta avvenendo Proprio sull'educazione E sul consumo responsabile Anche di questi prodotti Che adesso Iniziano ad essere Sugli scaffali Abbiamo preso L'olio Dobbiamo decidere Che cosa fare Da mangiare Abbiamo tutto sommato Poco tempo Ma vogliamo qualcosa Di gustoso E assolutamente In linea Con i dettami Della dieta italiana Invece di prenderci I soliti ricotte Spinaci O gorgonzola E noci Scegliamo di provare Questa novità Di Giovanni Rana Che sono Burrata e canapa Sempre canapa Assolutamente italiana Altissima qualità Ricette Tradizione Nutrienti Tutto quello che volete Dell'armamentario Del marketing Del cibo italiano Cbd con canapa italiana Questa cosa ci porta Poi anche a prendere Magari qualcosa Per il secondo Perché questi pacchi Di ravioli Sono sempre un po' Bastardi Perché hanno una dose Per una persona e mezza Quindi devi prendere due Poi ti avanza Per riempire Quell'angolino Abbiamo preso Un po' di formaggio In questo caso Lo stacchino Visto che oggi può E l'abbiamo preso Con il cibi di In modo che Mentre mangiamo Ci si riduce Del 30% l'ansia E del 50% Lo stima Grazie al cannabinolo Italiano E questo ci porta Di nuovo Una riflessione Sul piano internazionale L'immagine che vedete In alto Viene addirittura Da Bon Appetit Che ha pubblicato Più volte Le ricette Per farsi in casa Il cannabatter Con le cime Coltivate in casa O comprata Al dispensario Quindi questa apertura Nel momento in cui C'è una legalizzazione Anche la sperimentazione Proprio Una responsabilizzazione Anche personale Mentre in basso Vedete la cannaba Utilizzata un po' Come il caviale Nell'altissima cucina Nei ristoranti stellati E questo ci porta A un'ulteriore osservazione Cioè che a volte La formazione Anche degli chef Non è assolutamente Scontata Quindi per esempio Negli Stati Uniti L'associazione degli chef Appena Creato Un certificato Specializzato Perché uno chef Possa Di tutto diritto Occuparsi di cannabis E di edibili E ovviamente Con tutte le limitazioni Del caso Servirli al proprio pubblico Questo di nuovo Perché ovviamente Nel momento in cui La sensibilità Si espande Quindi c'è un'apertura C'è una curiosità Anche i propri professionisti Creano anche fiducia Nei confronti Di questi prodotti Avendo una professionalità Più elevate Garantendo la sicurezza E l'esperienza Delle persone Che la fanno con loro Qui a Chicago Quei pochi posti Pionieri Che stanno lavorando Con la pasticceria E anche oggi In particolare Per i portuenti Per la pizza Stanno facendo Un grandissimo Un grandissimo successo Bene Abbiamo risolto Il problema Della cena Prima dell'assemblea Condominiale Poi ci serve Portarci dietro qualcosa Perché veramente Non ci passa E allora passiamo A un'altra Un'altra corsia Molto popolare Sia qua in America Che in questo supermercato Del futuro In Italia Patatine E Campari Assolutamente Nella loro Detlinazione Attivata Attivate le patatine Con il 6% Di olio Ocbd Quindi sono senza glutine Sono fonte di relax E danno Almeno 30% Di stress Rispetto alla patatina Fritta tradizionale Mentre Campari Ha fatto Una sua versione Totalmente identica Da un punto di vista Di bouquet Al Campari Che conosciamo tutti Solo che invece dell'alcol Ha il THC Anche questo Può sembrare Fantascienza Però poi ci basta Guardarci intorno Qui in America E vediamo che questa cosa È già stata fatta Prendendo addirittura Spunto proprio Dal modo italiano Di fare gli aperitivi Si tratta di Artet Un aperitivo Molto simile Al Campari Con lo stesso Bucquet cloreale Ma con il THC Di grandissimo Successo in California E anche delle patatine Come ad esempio Queste che sono molto buone Che di nuovo Con il micro rosaggio Hanno 10 mg Per ciascuna chip In 13 chip C'era qualcosa Che volevi dire Su questo L'aperitivo È un elemento Molto interessante Perché è sociale La cena Può essere Per una famiglia Per un gruppo Di inquilini L'aperitivo Tende ad essere Con più persone Nel momento condiviso E quindi Vediamo di nuovo Il design Di avere Opportunità Di utilizzare Questa sostanza Al posto Dell'alcol Al posto Di altre sostanze Ma in una logica Condivisa Dove tutti possiamo Apprezzarla E nessuno Come dire Passa il segno Quindi anche queste chip In versione Super mini Nano dosing Dove tutti Possono averne Anche solo una E essere parte Di questa esperienza In maniera controllata In maniera controllata Ma adesso Gli esempi Che arrivano Sono più Nelle bevande Quindi in questo caso Vediamo Chi magari Non apprezza Gli amari Bitters A la cibidrata La cibidrata La cibidrata Che è solo con terpeni Naturali È stato un prodotto Di grande successo Perché è unito Quelle che sono Le abitudini di consumo Classiche italiane Con un gusto Assolutamente riconoscibile Ma ha tutte le proprietà Benefiche Dei terpeni E subito Ovviamente Le multinazionali Si sono messe A fare il prodotto Copia Che vende molto di più Ma a me piace In più quello Con la cedrata Comunque se non c'è Prendi pure La terpenata bio Della San Pellegrino Che anche lei Ha solo limoni E terpeni siciliani Questo discorso Che può sembrare Buffo se volete O insolito In realtà È il grande trend Che è emerso Specialmente durante il covid Prima parlava Marola Del fatto che sono scese Le vendite di alcol E sono salite Quelle di marijuana All'interno Dello stato dell'Illinois Questo è vero Perché? Perché durante Il lockdown Una cultura Una società Come quella americana Che non è più Monosostanza Quindi solo sull'alcol Ha capito Che nell'abitudine Di consumo Si può essere sociali Si può bere La stessa cosa Dell'alcol Senza che ci sia l'alcol Perché il mercato E la produzione Di distillati E di bevande Non alcoliche Ma esattamente identiche Alle bevande alcoliche Fino ad arrivare Gli whisky La tequila E gin È già molto diffusa In Italia Vi facciamo vedere Questo esempio Che abbiamo Qui in casa Per me non dite Io lo faccio vedere Come vedete Questo Già esisteva in America Questo è un gin Zero alcol Ma è un gin A tutti gli effetti Quindi da quel momento Lì in poi Mettere dentro L'estratto di THC È stato un passo Abbastanza naturale E vediamo altri due elementi Vediamo il rituale Che prevarica Sulla modalità Di assunzione Quindi è facile Condividere Avere una bottiglietta In mano Essere in caso All'aperto In un patio Essere insieme A degli amici È facile fare Un brindisi Quando abbiamo parlato Della liberalizzazione Adesso a New York Fumare è ancora Molto regolamentato Bene Questi prodotti Ovviamente Arrivano a bypassare Tutti questi limiti E l'altro elemento Interessante Che abbiamo portato In questa slide È il fenomeno Del club soda Molte persone Quando come dire Non c'erano ancora Così tante opzioni Hanno sentito L'esigenza Di riconnettersi Alle altre persone Che hanno intorno E restare sobri Quindi non volevano Privarsi dei rituali sociali Di andare al bar Di incontrare le persone Di essere parte Di quel mondo Ma non volevano Farlo assumendo Degli alcolici Quindi andavano Nei bar E chiedevano Un club soda E a partire Da questo fenomeno Culturale È proprio anche Questa infiorescenza Di prodotti Come dire Paralcolici Dove l'alcolico È sparito Ma adesso Arriva un'altra Forma di benessere Di come dire Condivisione sociale Che è portata In alcuni casi Dal CBD In altri casi Anche da una piccola percentuale Di THC Anche perché sappiamo Che il fumo Comunque negli Stati Uniti È molto È molto condannato In generale Quindi questo Alla fine Rivede anche Tutte quante Le definizioni Le definizioni Di sobrietà Che abbiamo Cioè è una definizione Fondamentalmente Di Cali Sober E per restare In tema di Cali Sober Vi facciamo vedere Appunto Delle bevande Molto Molto di successo Can che ha una combinazione Di THC E CBD Molto spesso Si usa Lo stesso quantitativo O più CBD All'interno delle bibite Proprio per limitare Gli effetti Più debilitanti E aumentare Gli effetti Invece ricercati Oppure la recess Che è ormai Tutte queste Sono in realtà Supermercato La recess Che è con il CBD E forse è La bevanda Di più successo Sia di design Che come successo commerciale Ci può sembrare Così lontano Da noi Ma in realtà La stessa azienda Che è proprietaria Della Peroni Ha creato La birra Ceria O seria Che è una birra Con il THC Esatto E quindi questo È anche per portare La luce Al fatto che Spesso sono Piccole start up Che iniziano Questa strada Che fanno vedere Una possibilità Creano un glamour Creano un desiderio E le persone Anche solo per curiosità Si avvicinano E da quel momento in poi C'è uno stigma Che è stato rotto E c'è un'apertura Che si apre Ma nel momento In cui si guarda Il business Una multinazionale Che è quella Che ha Peroni Ma anche Miller E alcuni dei brand Più grandi di birra Degli Stati Uniti Ha immediatamente capito Che se non si fossero Mossi in questo ambito Avrebbero perso Consumatori E quindi Ha iniziato a creare Questi prodotti Che sono in realtà Per persone molto consapevoli A livello Di salute Che non vogliono Troppe calorie Non vogliono l'alcol Non vogliono questi effetti E quindi Vogliono di nuovo Qualcosa di effervescente Qualcosa da condividere Ma che in questo caso Ha una piccolissima Percentuale di THC E vogliamo chiudere Con questo E se ci sono delle domande Magari delle riflessioni Anche appunto Dal nostro Studente Da Marcello Ovviamente sappiamo Che tutto questo È È un problema Come dire Molto profondo E quello che stiamo facendo È davvero Lavorare su delle leve Più soft Che possono essere Quelle dell'immaginazione Della creatività E della bellezza Di quello che le persone Vogliono magari provare Nella loro vita Proprio per far sì Che quello spazio Che c'era tra le piante Così come abbiamo Il basilico E il rosmarino Un giorno Arrivi a essere Tanto normalizzato Tanto quanto Ovvero una pianta Di cannabis In casa O alessia lingua Marcello E Andrea Prego Facciamo parlare Prima Andrea Magari So che uno degli autori Anzi Fosse l'autore Di gran parte Dei visual Che abbiamo visto Ciao a tutti Allora Io ho apprezzato Il mondo Cannaba Molto in ritardo E solo Grazie al Politecnico Al corso Di Niccolò Ed Alice Perché comunque Vengo da una famiglia Molto giusa Da quel punto di vista Anche l'ambiente E tuttavia È basata una persona Comunque Questo progetto A farmi avvicinare A questo mondo E E Farmi ci appassionare Addirittura Andando a combattere Per Insomma Per combattere Tutto Lo I pregiudizi Attorno a questo mondo E quindi Andare a Aiuto De Stigmatizzarlo E E Quindi Il mio sguardo Di una persona Esterna Che fino a poco tempo Fa era addirittura Contraria E quindi Io posso Magari Comprendere Quali possono essere Le brecce In cui insinuarsi Per andare a comunicare E Appunto Però la mia esperienza È dato che A partire Appunto Da un progetto Comunque una persona Che mi ha parlato Mi sono così appassionato Quindi Quanto è importante La comunicazione È fondamentale Questa è una mia riflessione Invece Marcello Marcello Scusami Sì sì Ciao ciao Come state? Che per fortuna Parla italiano Per cui Parla un po' italiano Un po' portugliano Dai così Sì Ho conosciuto Questi ragazzi Alice E Nico Tanti anni fa E abbiamo questa cosa in comune Che è questa storia Sulla cannapa Io sono cresciuto in Brasilia A San Paolo Io ho avuto tante storie Tristi Su questa Proibizione E quindi Con loro Stiamo provando A Stigmatizzare E E dare Questo nuovo visual A A questo universo Provando a portare Questi colori Pure lì Dal Brasile Un po' Anche se noi Adesso Siamo tanto indietro Con quello governo Lì Ma Ma sì Questo è il mio ruolo Un po' qua Portare questi visual Più Più freschi Con Andrea E tutti loro Grazie Dobbiamo chiudere In un minuto Per cui Non so se volete Aggiungere qualcosa A me pare evidente Che La strada Sia segnata Con tutti i pericoli Che ci sono dietro Nel senso che Diciamo Da Far diventare La cannabis Comunque Un prodotto Di largo consumo In una società Non certo Non consumista Ha tutta una serie Di problemi Legati al sistema Economico In cui siamo Cosa vi insegna L'esperienza americana Cosa vi Pensate Possono essere Le cose Da non ripetere O da correggere Chiedo Prima Da dice Nicolò Poi anche Gli altri Sicuramente In positivo Che c'è Una leva Per ogni Categoria Di persona Quindi anche Quella Come dire Dogmaticamente Più rigida Su queste posizioni C'è probabilmente Una tipologia Di prodotto Che può parlare A quella persona E quantomeno Aprire una curiosità È un dialogo diverso Negli elementi Invece Da guardare Come si è parlato In partenza Alcuni stati Stanno dedicando Alcuni dei proventi Da questi prodotti Sia come dire Largamente controllati Sia della cannabis Medicale A cercare di riparare Delle iniqualità Che ci sono Nella società E questo Che anche Hai appena accennato Tu Il fatto del Consumierismo Di questi prodotti Da un lato Ovviamente È uno strumento Essenziale Per cercare E di nuovo Di far capire A tante persone L'opportunità Dall'altro Ricordiamoci Che questa È una pianta È un elemento naturale E che Le strutture Della società Vanno a penalizzare Per il consumo E a penalizzare Anche l'imprenditoria Sempre un po' Le stesse categorie Di persone Quindi questa È un'attenzione Che qua si sente Ed è un problema Che non è assolutamente Ancora risolto Ed è sicuramente Una delle sfide Più grandi Di questo Ambito Dello sviluppo futuro Io se posso dire Una cosa breve La sensazione È che Vabbè Le leggi Che ci sono Negli Stati Uniti A seconda dello Stato Sono perfette E imperfette In vari punti E credo che Diciamo che La sensazione Principale Che ho io Quando vedo queste cose Specialmente riguardo Il CBD È che in realtà Ce l'abbiamo arrivati Prima noi Come italiani Abbiamo fatto prima Di loro Specialmente Tutta l'intuizione Sul CBD Dopodiché Ci siamo dati Ci siamo fatti dare La zappa Sui piedi Da parte dello Stato E ha impedito La nostra imprenditoria Davvero di crescere E di svilupparsi In maniera matura Quello che è successo In America È che invece Una volta che hanno Intuito La potenzialità L'hanno spinto Al 200% E questo è il risultato Un mercato Che fa bene a tutti Il mercato Fa bene a tutti La questione Non avere È l'unica cosa Nella nostra vita Quotidiana Applichiamo Altre cose Per quanto riguarda L'autocoltivazione Ci sono modi Nel momento in cui C'è un'opportunità Per tutti Ci sono modi Per poter avere Ciascuno Il proprio modo Di vivere In libertà E in sicurezza Il proprio amore O la propria necessità Per la canapa Quindi Il mercato Che molto spesso Viene Viene osteggiato In Italia Noi potremmo guardare Finalmente All'esperienza Dell'estero Per fare la legge Migliore del mondo Noi possiamo fare La legge migliore Del mondo In Italia Il mercato Migliore del mondo Lo avevamo Fino agli anni 40 Eravamo il paese Numero uno Per produzione di canapa Sia di lavorati Che di canapa Che di produzione agricola Possiamo tornarci Ce l'avevamo Prima noi Cerchiamo di smetterla Di darci Zappa sui piedi E sovrastrutture E non è un caso Che abbiamo avuto Appunto Il Campari O l'olio Perché anche Nel mercato statunitense L'ispirazione italiana È assolutamente presente Quindi Se qua copiano L'Italia E danno Quel glamour Quell'influsione Di specialità Di eccellenze I loro prodotti Perché sanno Che sarà qualcosa Che crea fiducia E che crea curiosità E desiderio Immaginatevi se questo Venisse direttamente Da noi Con le nostre eccellenze Con la nostra esperienza Di secoli Sì è vero Stanno creando i prodotti italiani Che dall'Italia Non ci sono Certo Marcello e Andrea Vogliono aggiungere qualcosa Se no Passiamo La parola Non vedo perché Non debbano esistere Insomma Questi prodotti È stato davvero interessante Come viaggio Vi ringrazio A nome di tutti quanti noi Grazie a voi Grazie Vi saluto I prossimi 4.20 In Arial Life Bella Allora Adesso Praticamente Finalmente è arrivato Il mio momento Fatevi mettere comodo Perché Volevo Innanzitutto Ringraziare Nuovamente Tutti quanti Quelli che hanno Reso possibile Questa iniziativa Intanto Mi scuso Con quelli che Hanno cercato Di entrare Nella room Ma Dovevamo Aspettare Appunto Che finisse Il panel Si va di man mano Quindi anche Per gli ospiti futuri Se vedete Che la stanza È piena Dovete solo Attendere Che si liberi Io qui Ho delle sorprese Ok Benissimo Allora Io direi Che è la prima sorpresa La prima chicca Che mi gioco subito Prima di fare Questa edizione speciale Del 420 News È il primo ospite musicale Di questo segmento Ecco lo vedete qui Ciao Ziba Dimmi che mi senti benissimo Ti sento un po' bassino Ti devo Ti avrei illuso Meglio Adesso meglio Sì Grazie Grazie Benvenuto Buon 420 Grazie anche a te A tutti quanti Ti faccio Autopresentare Io è una cosa Che da cantante Odio Odio Grazie Dicci due parole Su di te In realtà Non ho molto da dirti Sono felice Di essere qua Perché Tutto quello Che ho sentito Finora È molto interessante Ed è Importante Fare Un po' Ammenda Di alcuni discorsi Che sono sempre Lasciati un po' Nell'aria Io sono Un consumatore E ho Molto Insomma Sono dalla parte Di quelli che ne fa Un uso Anche terapeutico Per Sopportare La maggior parte Delle brutture Di questo mondo Mi piace essere qua A portare la mia testimonianza In questo modo Ti aiuta anche A scrivere A creare Mi ha aiutato A scrivere A creare Come mi hanno aiutato Tante altre cose A volte una sbronza A volte la chiacchiera Con un amico Anche da sano Non è detto Non per forza Non sempre Ma sicuramente Mi aiuta A non prendere Cose per calmarmi Differenti Per esempio Che insomma Sarebbe peggio Io non prendo Nessuna medicina E ho difficoltà Ad avvicinarmi Al mondo medico E delle medicine Di conseguenza Preferisco aver trovato La mia piccola dimensione La mia oasi felice Bene Io invito i miei amici Reggettari A stare tranquilli Perché io qua vedo In collegamento Dalla calada In collegamento Quindi state calmi Un attimo Non vi scalmanate Troppo Diamo la parola Alla musica Vado Con il primo ospite Zibba Qui con noi Al 420 Day Questa canzone L'ho cantata insieme a Bunna Degli Africa United È una canzone Che ho scritto Proprio pensando a lui Nel momento in cui Io stavo diventando papà Ma non lo ero ancora E si intitola Le distanze In un modo o nell'altro Parla molto anche Di questo momento storico Di questo periodo Che stavo vivendo E lo dedico a tutti I colleghi collegati In questo momento Pochi metri Camminati Ad allenare il petto Che resti in forma Muovi piano la testa Ho bisogno di viveri Sono un mendicante Ignorato Nel centro di una capitale I nostri sogni Ci somiglieranno ancora Devi mordere il tempo Prima che faccia sera Non uscire dai giochi Ho bisogno di pochi discepoli E molti più cuori Nel senso Con la più scarsa poetica Hai tutto il tempo Che vuoi Tanto le distanze Ci nutriranno Tanto della notte Ci resta il giorno E domani torna Se ne hai bisogno Che se non ci sono Mi trovi Tu che minuti Gli hai contati Senti ancora la voglia Di uno stringerci sano E io ho sempre paura Del dopo Ma è solo che Non sopporto più Che qualcuno mi manchi E ciò che manca Da sempre Continuerà Continuando a mancare Contando in tasca Dei buoni Ma che vada Ci trovi Un indirizzo Un indirizzo Da salvare Un indirizzo 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 e vi saluto con questa canzone mia che si intitola il 16 di aprile è uscito un mio nuovo EP che si intitola il EP Arancione questa è una delle canzoni contenute in questo EP se avete voglia andatelo ad ascoltare vi saluto e vi ringrazio per avermi dato questo spazio e vi mando un grande abbraccio a tutti vedo che ti diverti sulle coperte verdi e come la mettiamo con i tuoi capelli vedi che sono sfatto non sento più se passa il tempo come se fosse tutto quanto un unico momento e poi i cantanti sono tutti uguali i nasi storti delle nostre madri che perdiamo i pezzi sperando che qualcuno apprezzi e moriremo per mano lasciandoci dietro la strada la noia o moriremo per mano di qualche ubriaco stonato che stona e sarà sabato sera a roma e sarà sabato e sarà sabato e sarà sabato e sarà sabato e sera a roma farà freddo e non ti dirò mai che te l'avevo detto che se fosse per me andrebbe bene così com'è grazie grazie bella 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 ziba grazie a te di aver portato la tua musica qui al cannabis day mando un abbraccio a tutti bene bene buona continuazione che seguo di là grazie grazie ancora a presto ciao allora siamo pronti siamo qui ci siamo tutti sono entrati anche gli ultimi arrivati che non spoilerò quindi chiedo al mio compagno di sventura da tanti anni Tony di entrare qua con me ecco perfetto non te sentiamo accendi il microfono devi andare in opzioni e mettere l'ingresso del computer evidentemente allora sigla e poi iniziamo il 420 News questo programma è presentato da Zia Maria The Finest Hemp Shop in San Lorenzo Via dei Sabelli 94 Roma 420 Fast Buds American Out of Flowers TooFastForBuds.com Greenhouse Seed Company Amsterdam Since 1985 Grazie a tutti eccoci qua benvenuti 420 News un'edizione speciale per il 420 Tony ci sei? mi senti adesso? adesso si abbiamo ciao ragazzi due ospiti anzi tre invitiamo il terzo a entrare qua con noi ciao alla Coseica Cap TV c'è Giacchi Giacca Lizzo speak up ola ola ecco lì il collegamento dalla calada bella ragazzi buon 420 a tutti buon 420 fate la grossa anche a Barcellona fate la più grossa di noi se ce la fate grande ragazzi canapa che dici canapa king ce la facciamo ce la facciamo ragazzi buon 420 a tutti buono 420 allora praticamente oggi ci sono state un po' di iniziative e io colgo l'occasione per salutarli tutti quelli che hanno fatto eventi per il 420 scusate il gioco di parole cerchiamo di unire gli intenti anche con gli amici di pot radio che stanno facendo tutta la giornata come noi sono qua da stamattina quindi big up a tutti quanti non so se volete iniziare con un pezzo musicale non so vuoi dirci qualcosa di questa giornata io ce l'ho il pezzo musicale allora mettiamo subito il pezzo musicale noi ce l'abbiamo noi la nostra giornata dopo la raccontiamo al massimo vai col pezzo musicale la macchina la conoscevate la conoscevate questa la conoscevate il marijuana no io no immaginavamo immaginavamo mi ha messo apposta eh vi amo vi amo tutti oh ma è Toni quello lì ma è Toni ma io non l'avevo visto è Toni grande Toni direttamente Milano Taranto Barcelona che te lo dico a fare mi ha raccontato che in Italia sta passando il manifesto collettivo no oggi allora bravo bravo che mi hai lanciato l'assist grazie perché ci sarà anche il collegamento con Roma perché oggi è stato presentato un'altra volta il manifesto collettivo forse per la volta buona quindi appena è pronto il collegamento io sono d'accordo con la regia che mi avvisano e diamo la linea a Roma però nel frattempo io inviterei anche Raina a entrare ho spoilerato anche l'ultimo ospite e dai eh anche Raina c'è qua siamo proprio tutti in famiglia sempre collegato da Roma con Potradio sì c'è tutta la famiglia e raccontateci un po' come è andata questa giornata allora noi abbiamo aperto l'associazione ma adesso l'associazione la possiamo aprire col 30% fino alle 5 il pomeriggio seguendo le leggi che fanno qua per il post coronavirus quindi stamattina come sempre tutti i soli sono minuti contenti per festeggiare abbiamo fatto un trombone di quelli gorossi i vari bong la colazione cannabica c'era caffè con il succo di frutta che se lo bevevi ti dava un po' di più e tutte le cose cannabiche normali poi abbiamo tentato di collegarci col programma spagnolo anche che non ci siamo proprio riusciti però beh non c'è nessun problema invece in Italia funziona molto meglio la connexione mi sembra di vedere ma sì volevamo fare un collegamento in simultanea con la giornata della della calada e ovviamente ci sono stati un po' di problemi e quindi qua ci siamo qua ci siamo ovviamente Zac ma per lì e in Italia come l'avete vissuto il 420 allora noi abbiamo fatto dalla mattina praticamente diversi panel rispetto all'anno scorso devo dire che c'è stato davvero un bel salto di qualità anche perché abbiamo avuto addirittura un collegamento con gli onorevoli dal Parlamento quindi attenzione qualcosa si muove come quello che lanciò il martello io lancio la cima eppur si muove lancia il vaso lanciamo insieme Raina quando vuoi tu puoi entrare sei il padrone ma non ti vediamo sei nero grande Raina mi sentite ragazzi? ma non ti vediamo buon 420 a tutti a tutte buon 420 Raina che bello bella Tony bella calata che è tutto nero non ti vediamo Raina aspetta aspetta sai che io ho un metodo analogico ovvero scotch davanti alla telecamera accendi il fuoco a vindoli togli il cerotto il nemico ti ascolta lo so tolto il cerotto e accendo il cerotto insomma che devo fare io c'ho un'altra diretta da un'altra parte che dopo noi però siamo sempre qua noi abbiamo anche 30 persone connesse al Twitch che ci stanno vedendo la nostra diretta sta vedendo Raina Zacca Lizzus e Antonio di King Canapa King a Milano Milano ovindoli Taranto Barcelona no? abbiamo anche Enrico dalla Giamaica eccolo qua è arrivato giusto in tempo just in time Enrico una famiglia una dalla Giamaica mettermi il corazone sai nel chat box per Enrico dalla Giamaica dal Long Bay grande Enrico Enrico ci sei? smutati io ci sono ma non vi sento prima vi sentivo così bene grande Enrico noi ti sentiamo forte e chiaro ti sentiamo eh? sì 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 eh sono io che non vi sento sto cercando di capire leggi il labiale sto cercando leggete il labiale bravo prima faceva così adesso Raina stai lavorando? aspetta aspetta ancora un po' fai arriva a 190 quanti gradi ho? 190 puoi svapare dai 180 per me voglio più THC e CBD 180 ok alla soglia del THC allora io avevo avevo piacere di parlare un po' di POT Radio la web radio antiproibizionista di cui insomma Raina fa parte fa parte anche di Danzinar Danzinar la la Kermess insomma che ci ha visto partecipare eh voi ci avete la diretta mi stavi a dire noi stiamo in diretta Zach dalle tre e visto che poi in questo 4 e 20 per fortuna ci stanno tantissimi appuntamenti streaming eh varie iniziative varie rignoni varie Facebook abbiamo deciso di unire un po' anche eh le cose no? e infatti tenteremo di fare un collegamento insieme quindi la nostra diretta con la vostra diretta intorno alle 9 meno 10 adesso non so se usciremo però vorremmo dare eh un segnale di unità rispetto alla a questo movimento cannabico perché io da tutti questi anni lo vedo molto disgregato e se ancora se dovemo appizzare dietro una frasca per farsi una bomba è perché non siamo riusciti a prendere una posizione a far sentire un'unica voce quindi per questo ho detto uniamoci e cerchiamo di unire le dirette e io ci tengo a stare qui con voi anche se c'è un'altra diretta in corso da un'altra parte assolutamente era questa proprio l'idea di unire gli intenti eh io non so se tu sei collegato col microfono per farci un pezzo non lo so certo eccolo qua allora senti io questo devo uscire da più di un anno no? perché è in mano a bizzarri sapete bizzarri quanto è lento diciamo un po' a bizzarri dai ciao a Mario ciao a Mario ciao a Mario ciao a Mario Leo solo puoi fumare il CBD Leo ma manco il CBD allora quindi niente ci sono stati un po' dei problemi perché c'è un campione di J-AX che non si vuole da non si può usare comunque a me mi frega un cazzo anche lo sai mi sa eh ragazzi scusate abbiamo avuto Nella Muti ospite del 4 e 20 con Aike figurati se c'è un problema per J-AX J-AX sta parlato dai ci parlo io adesso dai cattacelo ok il pezzo si chiama Regalize It e e diciamo che oltre a essere una bella cangiaciunde divertente come al solito parla pure di un problema che è quello dei pazienti ce ne sono tanti che hanno in Italia la ricetta ma pochi riescono a riuscire è bello Enrico pochi riescono adesso li sento pochi riescono a reperire questo farmaco e c'è gente che sta veramente bloccata a letto in sedia a rotelle non si può muovere quindi una cosa è la cosa ludica che di che palle oggi non c'ho da fumare ma per chi ha veramente bisogno questa è una rosicata quindi ho scritto questo pezzo senza ammorbare tutti rimanendo sempre diciamo ehm leggero eh però eh facendo una risata e portando anche questo problema ricordiamoci poi in America e lo sa bene Alessio che se eh adesso da due anni tre anni ho perso il conto in California è totalmente legale e ludica siamo abbiamo per arrivare a questo risultato ci sono stati almeno 25 anni di di prescrizioni infatti quando siamo andati insieme alla alla Emerald Cup ti ricordi ci dovevamo fare 40 dollari il certificato per poter entrare nell'area cannabica poi per fortuna avevamo bastito braccialetti siamo entrati senza farse il certificato eppure là avevamo fatto ci siamo autocertificati noi precurtori dei tempi moderni bravo allora senti io ti direi andiamo se provo a cantare sto pezzo spero se senza tutto io non ho provato proprio niente il pezzo si chiama regalize it e sperando che questo sia l'anno buono vado dai zac me dai un segno mimico per farmi sapere che funziona tutto ok le 4 e 20 sopra il mio android dai fanne in altra di l'emoroid se te fa male zero i rudoi cerca su google riciclo noi non è il mio lavoro e non è manco il mio hobby questa è una battaglia contro le lobby contro le mappe e chi c'è fa i soldi metti in quel seme oggi rega 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 bella regalai ma l'avete sentito il giochetto oggi vabbè la rimetto da capo mo l'ho fatto da solo il puloppo oh ragazzi ho lillo grande aria chiappo le 4 e 20 sopra il mio android dai vai ti svapo le 4 e 20 sopra il mio android zack fanne in altra di l'emoroid se te fa male zero i rudoi cerca su google riciclo noi non è il mio lavoro e non è manco il mio hobby questa è una battaglia contro le lobby contro le mappe e chi c'è fa i soldi metti quel seme oggi rega 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 bella regalai rega 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 dai regalai si ti svapo rega 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 bella regalai ti svapo rega 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 regalai da quando svapo erbe drogan me pare light pure la skunk me fa sta bene le va tutti malan pure la sindrome di peter pan resta il dovere per il mio stato garantir la cura ad ogni malato e che coltivare non sia più reato almeno per quelli con certificato rega 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 bella regalai si ti svapo rega 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 bella regalai zero da pacco rega 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 bella regalai si calata rega 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 regalai ti voglio che sogna perché qui in Italia una fogna tra una pasticca ed una sbornia preferisco la guida dalla california rega 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 bella regalai si te svapo rega 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 bella regalai ti voglio rega 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 ok e adesso arrivarino caetano se sei un po' ricercata sarà stato uno sbaglio sei libero ovunque in gran parte del mondo di andare dai pusher proprio non voglio cresci qui con me Maria rega 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 bella regalai tu ti svapo rega 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 regalai se ho tabacco rega 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 regalai tu ti voglio rega 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 regalai tu sulle 4 e 20 sopra il mio android bella zacca bella rega grande rega ce l'abbiamo solo noi grande rega bella a tutti ragazzi giacchi revi voleva cantare anche lui possiamo farlo cantare dammi il pezzo alessio ma c'è la stessa base reina c'ho la stessa base sentila ah giacchi reva vai senti cangia 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 e poi farci rosine farci le joint vado in marocco a fare su dry e non se mi dai 20 grammi a natale felice mi fai il bobby con l'alpha sui chili di ice guardiamo le facce sopra i rosin coin a noi ci dà da lavorare a noi ci dà da lavorare Maria ti voglio solo possiamo ringraziare Maria ti amo rimane despenalizzare Maria Jackie Reva oh aspetta Jackie fammi chiede una cosa ma c'è pure tu sul ritmo eh non hai sentito era questa l'ha rubato no ma che mi ha rubato? l'ha rubato a Jax allora posso dire una cosa sempre fortunate le joint nei ritmi in cui c'è Jackie Revy sempre fortunate grande salutiamo allora i ragazzi che noi dobbiamo sconnetarci un attimo che dobbiamo riprendere la trasmissione qua in Twitch ragazzi un saluto grande salutiamo tutti quanti da Marcellona forza Mariana un abbraccione forza Mariana grandi big up grazie peccato volevo condurre il TG anche con loro perché a chi e stiamo a chi e stiamo siamo velto sentiamo sentiamo ah no se ne sono andati senti niente Zach io pure te devo abbandonare perché c'ho l'altra diretta in corso quindi va bene va bene grazie ragazzi veramente penso che vediamo dopo sentiremo dopo intorno alle 9-10 credo giusto? diamante diamante ma non abbraccio a tutti bella Toni bella Enrico bella Raina vorrei stare all'avvicino insomma bella Raina e buon 4-20 a te Raina grazie buona continuazione a dopo Zach a dopo a dopo Enrico finalmente ci siamo ci senti puoi parlare? ci sento mi sentite voi? sì sì forte e chiaro in collegamento dalla Jamaica dalla Farm un saluto a tutti abbiamo visto anche la Suna prima eh sì sì sempre con me sempre insieme la piccola che ormai sarà grande eh la piccola è diventata grande sto facendo l'online class ovviamente ah la dad si chiama qua in Italia la dad eh 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 quello quello cazzo ci vedo doppio però stasera eh ci vedo doppio là sopra separati alla nascita proprio come io se chiamiamo Vito Yardbit siamo in tre tre fratelli allora Enrico non lo so se tu hai tempo se tu hai tempo tre minuti lanciavo il primo servizio del TG che parla di viaggi appunto chi meglio di te poi può parlarci un po' della realtà giamaicana non appena si possa prendere un aereo sarà la prima tappa almeno per quanto mi riguarda non c'è problema c'è tempo c'è tempo sono sono qua con voi per un po' mi prenoto allora mi prenoto prenoto una singola uso doppio una doppia uso singola siamo in due zone compagno sicuramente non è questo il periodo è che è successo si è bloccato tutto Enrico tu senti Zac io no io sento solo te Zac lo vedo frizzato fermo si deve essere fatto un po' di troppo ma si è andato è andato è finito nel fresh frozen è finito nel free nel 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 sacco del fresh frozen se si è bloccato solo lui se si è bloccata tutta la trasmissione però mi permetto di prendere in mano la situazione allora ti ti volevo chiedere Enrico se ci racconti un po' come la situazione lì in Giamaica dopo la legalizzazione perché io dal negozio quando racconto alla gente che hanno legalizzato in Giamaica mi dice ma come è sempre fumato lì adesso è un'altra cosa non è più nelle hills ma è differente dopo la legalizzazione in Giamaica giusto ci puoi dire qualcosa sì sì assolutamente è cambiato dal 2015 dal 2015 è iniziato questo processo di decriminalizzazione no quindi diciamo che in generale prima era prima era vietato era assolutamente illegale diciamo come tutti sappiamo a uso molto esteso diciamo socialmente utilizzata molto utilizzata però illegale sempre perseguiti poi sappiamo insomma di tutto quello con cui sono stati perseguiti per cui sono stati perseguiti anche il movimento Rasta dopo dal 2015 dal 2015 hanno appunto decriminalizzato adesso è possibile legalmente possedere due once che sono sui 60 grammi e per qualsiasi per tutti insomma è possibile procedere due once e coltivare cinque piante e coltivare cinque piante a testa in più ovviamente questa cosa qua ha aperto il mercato con tutto ciò che ne consegue insomma magari il discorso sarebbe lungo però insomma diciamo che la giamaica è molto cambiata da quel punto di vista sono stati aperti i dispenser c'è una una comunità insomma c'è un terreno molto fertile come posso dire sono questi primi sei anni cinque sei anni di di inizio quindi si sta la qualità è molto salita e c'è la possibilità insomma di 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 lavorarci da un lato e di viversi senza la paranoia degli sbirri dall'altro portando dietro due canne esatto esatto ed è tanta roba perché adesso visto al di là del turismo ok va bene si evita di venire legati per una canna in spiaggia oppure di pagare lo sbirro per per essere lasciati ok quella cosa lì si evita ma soprattutto evita i cittadini cioè tutti qua quello che si chiama l'arrassment dalla parte della polizia perché poi dopo essendo illegale in uno stato come era e in qualche modo è assolutamente corrotto per una canna o due canna quello che era hai capito per partiva partiva l'arrassment cioè eri soggetto a come posso dire come si può tradurre l'arrassment partiva il insomma potevi essere ricattabile ecco la persecuzione riperseguito e ricattabile hai capito in la tangentina la tangentina perfetto io eh sì una roba del genere che tutti venendo in giamaica negli anni hanno vissuto e chiunque può raccontare da da sempre da sempre di queste situazioni ecco questa parte qua è finita dà la possibilità ai local a chi ve qua insomma almeno di non avere quell'aspetto lì ecco ed è tanta roba ecco tanta roba oltre all'aspetto del business in cui magari mi inserisco anch'io e via dicendo quello io credo che sia tanta roba ecco l'unica cosa è che cantanti come John Holt non potranno più cantare a polissimi helicopter perché adesso è legale no mi sto scherzando però il set il ganja quello è sempre rimasto e continua continua ad esserci anzi ancora di più continua ad esserci perché ovviamente stiamo parlando sotto lockdown sotto in questo in questa situazione che ovviamente non è la solita giamaica non è il solito mondo quindi le danze aspettiamo anche qua figurati però abbiamo visto che Zach si è sfrizzato ma non lo so sono caduto forte proprio mi sono fatto male eh ti abbiamo visto fermi fermo era quello il servizio però del TG eh era forte proprio e mo non lo facciamo più sì ci riproviamo riproviamoci in attimo dai a stavolta ci frizziamo io ed Enrico vai uno ah mi sono frizzata sicuramente non è questo il periodo migliore per programmare il prossimo viaggio ma siamo certi che se come noi siete stanchi di questa situazione siete amanti della cannabis non vedete l'ora di prendere un aereo magari verso uno di quei paesi dove la marijuana è quantomeno tollerata gli USA ha un'ottima meta infatti New York è in ordine di tempo l'ultimo stato americano che ha detto sì all'uso ricreativo della cannabis oltre che a quello medico già legale nella maggior parte del paese gli states infatti sono una delle mete da visitare se si vuole toccare con mano come la depenalizzazione abbia dato i suoi frutti e per poter scoprire e assaggiare nuove genetiche oppure conoscere i metodi di coltivazione più avanzati dopo gli USA un'altra meta è l'Uruguay dove è del tutto legale sia l'uso medico che il ricreativo ma i consumatori sono costretti ad iscriversi ad un apposito albo il costo medio al gramma è di un dollaro circa se volete restare in Europa c'è Amsterdam dove pur non essendo legale è comunque tollerata da diversi anni ed è possibile acquistarla e consumarla all'interno dei famosissimi coffee shop la Spagna è uno dei paesi comunitari dove la legalizzazione sta facendo passi da gigante nella penisola iberica ne abbiamo già parlato in un'altra puntata nascono come funghi Cannabis Social Club associazione di consumatori ad uso terapeutico ma non solo dove viene coltivata la quantità di cannabis necessaria per i soci eliminando di fatto quasi del tutto il mercato nero dello spaccio dalle strade dall'America all'Europa e infine in Asia in Bangladesh non esiste nessuna legge in proposito e quindi di fatto è totalmente legale il costo di un grammo di cannabis è di udite udite appena 50 centesimi di dollaro nel mondo esistono posti dove la marijuana è depenalizzata ovvero pur restando illegale la coltivazione ad uso personale il consumo ad uso ricreativo è tuttavia tollerato in più è del tutto legale la produzione e la vendita da parte di aziende specializzate e il consumo a scopo medico prescritto da uno specialista la pena per il possesso inoltre non prevede la detenzione paesi europei come Portogallo Svizzera Austria Germania e Repubblica Cieca nel mondo Argentina Perù Colombia Jamaica e Costa Rica nel resto del mondo il consumo della cannabis rimane ancora illegale ed il suo utilizzo un reato penale le punizioni per questo genere di reato sono tuttavia molto variabili da stato e stato vanno da semplici multe al carcere fino in alcuni casi alle pene corporali tra i paesi più vicini all'Italia vi sono la Croazia punito severamente il possesso anche solo di un grammo con una multa per la coltivazione e per la vendita si rischiano dai 3 ai 15 anni di carcere la Romania molte per il possesso di modiche quantità lo sfaccio del possesso di grandi quantità prevedono la detenzione il Belgio del tutto illegale in qualsiasi forma e la Francia illegale previsto fino ad un anno di carcere divieto assoluto anche in Inghilterra e Nuova Zelanda la marijuana è proibita inoltre nella totalità del continente africano ed in quasi tutti i paesi dell'Asia come il Giappone dove dal 1948 sono illegali tutti i preparati contenenti di HC è vero però che dopo la modifica la convenzione unica dell'ONU il 4 dicembre del 2020 sono stati diversi gli aggiornamenti normativi quindi ne attendiamo di nuovi e stupefacenti da qui è tutto Marta Lispi 4 e 20 news a voi studio eccoci di nuovo eccoci 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 bene ce l'abbiamo fatta non si siamo frizzati io invece volevo chiedere a Enrico che è stato così gentile da collegarsi insomma capiamo quello che significa mantenere una farm una fattoria con tutto quello che ne consegue e volevo chiederti appunto cosa come si svolge la vostra giornata di cosa vi state occupando ultimamente ma allora noi da qualche anno da qualche anno abbiamo messo in piedi appunto intendo noi intendo io nessuna abbiamo messo in piedi nella nostra guest house già esistente che è sempre la famiglia abbiamo messo in piedi appunto questa fama in cui abbiamo iniziato a coltivare a coltivare la cannabis diciamo che l'esperienza l'esperienza è stata il fatto di entrare in contatto con queste nuove studiando queste nuove leggi in giamaica è possibile è possibile coltivare diciamo legalmente dal punto di vista medico e quindi con le licenze dello stato e via dicendo che poi è medico barra ricreativo e quindi poter aprire dispensare e via dicendo oppure lo stato ha fatto anche questa sorta di reparation per la persecuzione appunto del movimento rasta in cui ha dato la possibilità alle chiese rasta registrate al governo e via dicendo di poter coltivare di poter coltivare la cannabis a scopo sacramentale no? e quindi si diceva sacramental purpose l'uso religioso per uso religioso per uso di culto e diciamo che è stato non si può diciamo commercializzare strettamente per uso di culto però ti dà la possibilità appunto alle chiese di avere propri spazi e legalmente di poter fare di poter fare questa cosa noi io per un discorso molto legato alla musica perché appunto suonando suonando spesso facendo diciamo il selector in giro sono molto in contatto con diciamo questi questi ambienti rastro delle chiese quindi abbiamo abbiamo stretto un rapporto con una di queste chiese e insieme abbiamo fatto questa collaborazione per fare questa farm qua da noi ecco quindi diciamo a livello di come è stata impostata la cosa l'abbiamo impostata così noi siamo sacramental farm e assolutamente è quello a dispetto del look diciamo a dispetto del look a dispetto del look you don't have read to be rust coltiviamo in collaborazione in collaborazione con 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 questa chiesa insomma e quindi la registrazione la registrazione ce l'abbiamo ce l'abbiamo così senti una cosa Enrico ma preferiscono più indica o più sativa cioè se dopo devono pregare diciamo che è interessante dal punto di vista cannabico del mondo cannabico di vedere come la giamaica come la giamaica sta cambiando e come anche l'introduzione diciamo di uno standard tra virgolette più mondiale ok si confronta con quello che era lo standard tradizionale giamaicano legato all'erba e quindi pensiamo alla molto ovviamente sativa crossbreeding da una vita perché poi è dagli anni 60 che la gente porta semi e semi e semi quindi diciamo però insomma quello che conosciamo come la land spread e tutto sono diciamo le genetiche quelle più vicine a quelle che si chiama la land race e quindi diciamo sativa molto molto crossing ma te lo chiedevo perché si dice sempre che i preti perlomeno quelli cristiani hanno il vino più buono volevo sapere se le chiese rasta come i preti cristiani hanno l'erba più buona ecco tutto qui o no allora certo l'erba l'erba più buona come si dice non chiedere al contenito non far sapere quanto è buono il cazzo con le pere no nel senso ovviamente il discorso è interessante è interessante perché in quest'ambito ognuno le chiese stanno puntando a riprendere in mano una sorta di land race e quindi hanno le chiese che sono diverse ognuna di queste sta cercando di sviluppare delle genetiche che loro ritengono essere il più vicine possibile a quella che era la land spread originale giamaicana e alla chiesa quindi la tua domanda è una domanda c'è una domanda reale cinna smith vi dico questa cosa è detta tra di noi perché collaborando tagabre su al dub club con cinna insomma stanno sviluppando una genetica che si chiama bingistra non è segreto almeno non credo di svelare niente di segreto non lo era e se lo era sti cazzi sharing e insomma stanno sviluppando stanno sviluppando questa stanno sviluppando questa genetica e sono già avanti di una di una sattivona proprio con veramente le foglie sottili 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 e insomma è interessante questo aspetto di un po' in generale non è solo giamaicano di rintracciare l'Andreis come facevano anche Strain Hunter e via dicendo c'è questa cosa e le chiese stanno cercando questo quindi cinna smith e il bingistra movement attorno a Inna De Yard no? attorno il discorso di Inna De Yard quello è così le altre chiese le altre chiese a loro volta stanno cercando di avere stanno cercando di avere la loro in questo poi dopodiché oltre a quello quindi il discorso sostattivo ce l'hanno con questa cosa qua il motocannabico mi sembra oserei dire che va verso diciamo lo standard mondiale tutti questi nuovi train io vedo molte indiche e personalmente anch'io sto in realtà coltivando molte indiche vedendo che i dispensers sono molto sull'indica anche quello ti volevamo chiedere appunto che qualità state coltivando adesso è peccato che non siamo riusciti a farti suonare un paio di brani un paio di dub magari non so se sei collegato poi alla fine l'unica 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 possibilità dovrei collegare i piatti e tutto ma sta prendendo la linea così facciamoci due chiacchiere molto volentieri lasciamo forare se hai voglia di sentirti sì sì va bene io ho un pezzo mi hai detto di mettere su un pezzo fra l'altro tu sei il padrone di casa sei il co-conduttore quindi puoi fare in qualsiasi momento dell'indimenticato junior marvin vediamo se va qua con i sentizi forza Antonio è un artista si sente? no si sente il microfono però dovrebbe essere tutt'uno no no non si sente niente? no si sente solo il microfono allora nel frattempo che settiamo tutto cosa? settiamo tutto io se mi fa un cenno Leonardo volevo approfittare della sua presenza Leonardo Luca non si sente fammi un cenno se posso aprirti la cam o puoi farlo da solo non lo sento hai tutti i requisiti non lo sento non lo sento non lo sento per parlare di questo webinar che si è tenuto qualche tempo fa proprio parlavamo nel primo servizio della convenzione unica non so prima di mandare il video io vorrei farti spendere due parole su questa questi 60 anni di proibizionismo insomma com'è? non ti sentiamo il 30 marzo del 1961 adesso mi sentite immagino sì è stata firmata a New York la convenzione unica sui stupefacenti si chiama convenzione unica perché a quel tempo esistevano tutta una serie di convenzioni pensate a quella sull'oppio e sulla cocaina e su altre sostanze firmate prima ancora prima delle due guerre quelle dell'oppio e poi con la lega delle nazioni altre nel 61 si fa questa operazione sponsorizzata in gran parte dagli Stati Uniti tenete conto che allora il il delegato degli Stati Uniti all'ONU era Lanzlinger autore del marijuana tax per cui della della messa al bando del proibizionismo sulla cannabis e nel 61 appunto si firma questa convenzione che inserisce fra le altre sostanze la cannabis nella tabella 1 e nella tabella 4 la tabella 1 sono le sostanze pericolose a grosso rischio di abuso ma con proprietà terapeutiche la tabella 4 invece è quella delle sostanze a grosso rischio di abuso ma senza alcuna risibili potenzialità terapeutiche la cannabis giusto questo dicembre è stata tolta da questa tabella 4 fatto sta che nel 61 scusate nel frattempo un gatto ha deciso di avere le mie attenzioni nel 61 questa operazione che se in un qualche modo almeno su eroina diciamo su droghe pesanti aveva anche qualche supporto scientifico sulla cannabis viene effettuata esclusivamente con un fine politico nel senso che non vi è alcuna giustificazione scientifica portata in sede ONU per l'inserimento della cannabis in quelle due tabelle vengono diciamo proposte tutta una serie di motivazioni che oggi possiamo definire esclusivamente politiche a partire dalla criminogenità della cannabis cioè fumare cannabis diciamo istiga al crimine chi la usa per intenderci che viene tutta dalla cultura di Hanslinger ricordiamo che la marijuana era quella droga che faceva in modo che le persone diventassero assassine stupatrici stuprati scusatemi è tardi ci ricordiamo ci ricordiamo gli spot abbiamo cominciato troppo presto e e per cui viene inserita in in quella sede gli stati si danno anche degli obiettivi che a rivederli oggi sono davvero impressionanti nel senso che gli stati si danno 15 anni dall'effettiva messa diciamo ratifica da parte di almeno 40 stati per cui dall'esecutività della convenzione si danno 15 anni per la completa eliminazione dei campi di eroina e comunque dell'uso non terapeutico dei derivati dall'oppio e 25 anni per l'eliminazione di qualsiasi produzione e quindi uso non terapeutico dei derivati dalla cannabis e della cocaina queste scadenze sarebbero scadute l'ultima nel 1989 il problema di tutto l'impianto proibizionista mondiale è che al di là delle dichiarazioni di principio e delle politiche e delle politiche che si che si avviano a livello globale e a livello nazionale ovvero la proibizione da war on drugs che viene lanciata formalmente e letteralmente da Nixon nel 71 anzi un po' prima war on drugs viene detto nel 71 e comunque poi con Reagan negli anni 80 ma anche Clinton negli anni 90 gli anni 90 sono quelli del plan colombia dove c'è l'intervento militare degli Stati Uniti in colombia contro i cartelli della droga colombiani ma di fatto contro le popolazioni indigene che producevano la pianta di coca al di là di tutto questo non vi è mai stata alcuna reale valutazione degli effetti di queste politiche non c'è stata nell'89 quando in teoria appunto dovevano essere risolti tutti i problemi anzi nel 98 un italiano Pino Arlacchi che era allora vice segretario dell'ONU lì aveva l'incarico di direttore dell'UNODC cioè l'agenzia dell'ONU che cura diciamo la gestione delle convenzioni sulle droghe rilancia e rilancia in modo diciamo piuttosto piuttosto importante nel senso che dice che un mondo senza droghe è possibile in dieci anni possiamo farcela adesso ve la dico veloce passano dieci anni ovviamente non è successo nulla nel 2009 gli stati si rivedono e decidono che appunto servono altri dieci anni qui comincia a cambiare qualcosa nel senso che nel 2016 alcuni degli stati che più hanno subito gli effetti del lavoro on drugs sul proprio territorio per cui stiamo parlando in particolare del latino america per cui parliamo di guatemala messico colombia chiedono un anticipo di quella sessione che doveva essere appunto l'assemblea lungas del 2019 la chiedono anticipata nel 2016 e si si fa una dichiarazione finale che in qualche modo permette almeno certifica nel testo finale la possibilità di interpretare le convenzioni ovvero che le convenzioni sono flessibili e possono essere interpretate dai vari stati come di fatto lo sono state poi sia prima che dopo pensiamo a come viene interpretata comunque la convenzione da Uruguay e Canada che hanno legalizzato e rimangono all'interno delle convenzioni e nonostante Russia e Cina vogliono cacciarle non nessuno ha realmente posto la questione di diciamo di cacciare questi due stati dalla convenzione sulle droghe scusate è un discorso molto lungo cerco di farla breve ovviamente non basta un pochi minuti perché parlare di 60 anni abbiamo fatto un webinar di due ore che potete andarvi a rivedere è tradotto in simultanea un webinar internazionale volevo salutare anche Marco Perduca che è stato qui con noi un grandissimo moderatore a parte che è grande attivista ma davvero lo stimo molto come moderatore vorrei essere come lui bello spigliato insomma è stato un grande sono state due ore davvero interessanti la chiudo velocissimamente due dati prendendo senza andare nel passato perché facciamo anche fatica a recuperare statistiche serie però dal 98 al 2018 per cui negli ultimi 20 anni i consumatori di droghe nel mondo sono aumentati più del doppio della popolazione mondiale ovvero noi sappiamo che c'è conosciamo il problema della sovrappopolazione del nostro pianeta le droghe però sono andate ancora più veloce ciò vuol dire che quel mondo sulle droghe è impossibile perché è impossibile andare a diciamo tagliare con l'accetto un rapporto fra l'uomo e le sostanze che nasce diciamo dal paleolitico non solo abbiamo le prove e numerosi rapporti che su fuoriluogo potete trovare in parte tradotti e comunque in lingua originale dimostrano come le politiche proibizioniste sulle droghe abbiano prodotto maggiori danni rispetto a quelli che le droghe stesse possono o potevano produrre produrre sia in termini di stigmatizzazione di chi le consuma che in termini di penalizzazione e criminalizzazione e morti nel 2018 sono stati più di mezzo milione i morti nel mondo per overdose e le morti per overdose sono di fatto la gran parte prevenibili per cui in questo webinar cerchiamo abbiamo cercato di fare il punto su tutto quello che è successo negli ultimi 60 anni e dare dando un po' di possibilità di uscita da questo sulla cannabis ne abbiamo parlato per tutto il giorno per cui non sto qui a ripetere di certo più in generale è fondamentale il passare da politiche che criminalizzano le persone che usano sostanze a politiche che depenalizzano e decriminalizzano l'uso personale di tutte le droghe a partire soprattutto dalle droghe più pericolose perché gli effetti della criminalizzazione sono peggio diciamo delle sostanze lo speriamo lo speriamo davvero di cuore tutto quello che tu hai detto perfettamente è riassunto in un piccolo video che è stato realizzato per l'occasione ce lo rivediamo grazie grazie Leonardo per l'occasione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, adesso si sente la musica e non si sente la voce. Ah no, scusa, è colpa mia. Scusami, scusami. Ti avevo mutato. Ti avevo mutato, Zach. Sì, ti avevo mutato durante l'ora. Penso se tutti questi sforzi vi avessero fatti per eliminare l'inquinamento e la fame nel mondo. Forse da 79 ce la potevano fare. Sarebbe andato in maniera forse diversa. Assolutamente. Va bene. Ricordiamo che il 26 giugno prossimo è il World Drug Day, la giornata contro la lotta al narcotraffico. Sarebbe veramente ora di fare qualcosa nel mondo proprio per globalizzare la liberalizzazione della cannabis. Ricordiamo che quando ci chiederanno la linea avremo il collegamento con i ragazzi che stanno portando a Roma, al Parlamento, il manifesto collettivo. Quindi quando volete chiedetemi la linea, io libererei Leonardo se hai ancora qualcos'altro da aggiungere. No, scusami, me l'hai richiamata. Assolutamente. No, perché il 26 giugno è quella che nell'88 è stata definita appunto la giornata mondiale contro l'abuso di droghe e il narcotraffico. Però è anche una data che ormai da molti anni il movimento antiproibizionista ha cercato di cambiare nei suoi obiettivi, trasformandola in una giornata contro la criminalizzazione dei consumatori di sostanze. Questo è il nome della campagna, Support Don't Punish. Anche in Italia ogni anno noi facciamo una piccola azione di sensibilizzazione su questa campagna. Ogni anno noi il 26 giugno presentiamo il libro bianco sulle droghe che è di fatto l'analisi che tutta una serie di associazioni della società civile fanno della legge italiana sulle droghe e dell'assetto globale sulle droghe valutando gli effetti negativi di questa sul carcere, sul sistema sanitario e sulla salute delle persone. Il 26 giugno è quindi la data in cui anche quest'anno faremo azioni probabilmente ancora online, ma vedremo. È possibile scaricarsi il volantino, c'è anche in italiano, e fare foto e postarle sui propri social il 26 giugno, ma non solo il 26 giugno, per cui fatelo, prendetelo, stampatelo, distribuitelo. Attaccatelo, se andate sul sito ci sono anche delle bellissime tasse. Ricordiamo il sito che è supportonpanish.org Tutte le informazioni le trovate anche sulla pagina di fuoriluogo, ovviamente. C'è tutto anche su fuoriluogo, fatelo, diffondiamo questo tentativo di far prendere coscienza all'opinione pubblica che bisogna supportare le persone che eventualmente possono avere problemi con l'uso di sostanze e soprattutto non punirle. Io vi saluto e vado... Bene, permettimi, visto che è un TG questo, che si rispetta, di salutarti così. Grazie direttore. Così mi sento anche come un conduttore senza presa per il culo, davvero, eh direttore. Grazie veramente. Grazie a voi. Buona continuazione. Grande. Volevo interpellare anche Raffaello. Allora, raga, siamo proprio larghi, quindi Enrico, se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, non parli troppo, eh. Parli nel giusto, cioè. È vero? No, ma... L'ho mutato di nuovo. Ah no, è già, ma... Ma perché si sente un casino quando la gente parla? Cioè, il momento serio del TG, uno ce n'era. Che dovevamo fare partire di politica. Un attimo si sentiva tu, che... Oh, qua non ci sento, oh, porco Giuda. Eh, ti ho mutato, ma scusami. Hai fatto buono, hai fatto buono. Allora, intanto, visto che adesso il momento serio è finito, Caciara, per tutti, mezz'ora di Caciara, stavo dicendo, c'è qualcos'altro che volevi aggiungere, Enrico? Ma io, quello che volevo aggiungere era un po' il discorso, nel senso, quanti apriranno, quando, promozionale, ma promozionale nel senso di far conoscere poi dopo questa faccia dell'autica, diciamo, quando riapriranno, quando si riaprirà la possibilità di viaggiare, venite, venite a vedere, ecco, venite a vivervi un po' la Giamaica, sia dal punto di vista musicale, che appunto adesso anche, cioè adesso è sempre stato, però insomma, anche di vedere questa fase, questa fase cannabica, del mondo cannabico, di come sta andando qua, è molto, credo che sia molto interessante, come guest house, noi facciamo anche guest house, quindi nel qual caso, se cercate la famiglia, in qualsiasi modo, cercate la famiglia farm, vedi, ogni tanto entra qualcuno, giustamente, mentre le persone farm, mi fai fare queste figure, qua con gli ospiti internazionali, però ho mutato il negozio, ecco io sono in negozio, ho mutato il microfono, facciamo un po' di pubblicità, abbiamo fatto la famiglia, dai, Canapa King a Milano, Canapa King è il meno, no, invece io volevo dire una cosa, io faccio, Canapa King è il mio negozio di Milano, in zona, via Lazzaro Palazzo, in zona Buenos Aires, bla bla bla, ma è un, il più è il gruppo Cicla di cui faccio parte, stiamo lottando con tutti voi per la legalizzazione, è un progetto dove i coltivatori, senza guadagnare una lira, danno ai negozianti come me la Canapa da vendere, né io né loro prendiamo soldi, tutti questi soldi vanno nel nostro progetto, grazie allo studio Libutti di Roma, per bypassare la politica e a trovare quel buco legislativo o altri buchi, per poter legalizzare in Italia finalmente, quindi se all'ascolto ci sono dei coltivatori o dei negozianti che vogliono aderire al nostro progetto Cicla per la legalizzazione, fate un fischio, abbiamo un sito, poi ve lo dirò, perché Trump, insomma, quindi si combatte da anni e anni e anni per la legalizzazione, anche noi ci mettiamo il nostro peso, perché il CBD è ottimo, è stata una gran bella cosa per sdoganare, fra virgolette, anche nelle vecchiette, questa foglia, che è un simbolo internazionale, però THC also wins, so let it go, Cicla. Yes! Eh, boh, Zac, io voglio provare a vedere se va una canzone, una, vediamo, se non va, ti giuro me ne vado, eh? No, dai, siamo positivi, siamo... Vado, no, scherzo. Vai, vai, vai. Poi tagliamo, vediamo, vediamo. Si sente? Mamma mia, aspetta, aspetta, eh? Lo vedi dalla mia fauna? faccio, se si sente. Non si sente? E allora è finita, ragazzi, è finita. Vabbè, stai qua con noi comunque. No, certo, però non metto musica, dai, ma sai, a volte è anche meglio, no? Chi è che è uscito là, che si è affacciato? Fatti vedere. Eh, c'ho clienti, ragazzi, c'ho clienti in negozio. No, non ti preoccupare. Ah, la faccio là sotto. Scusa, scusa. vai. Io però in cuffia sento, vabbè, fai niente, ragazzi. Zac, dimmi la tua, dai. Non riesci a risolvere, ci abbiamo ancora mezz'ora, non riesci a risolvere. Ma tu non canti, Zac? io sono conduttore del TG 420 News, per favore, non sono Zacca Lì, non so chi sia, Zacca Lìcius. Riproviamo un attimo, dai, voglio far mettere un po' di musica, nell'attesa di collegarsi con il manifesto collettivo. Allora, noi liberiamo Enrico, vi facciamo un grande in bocca al lupo. Bocca al lupo, ma poi ci vediamo presto. Ci veniamo a trovare, tutti e tre come stiamo? Facciamo il primo biglietto promesso, anzi, facciamo un annuncio, gli sponsor che ci vogliono offrire, Emi gratis, il viaggio a Enrico, possono mandare una mail a canna420livegmail.com e noi facciamo il reportage dalla guest house di Enrico. Ma Enrico, ci reggi, ci reggi, guarda che io e Zac facciamo da anni, eh? Eh, mi preparo prima, dai. No, mi stai ancora con la testa. Mi stai trovando pronto. No, ti dico, da quando lavoravamo insieme a Link sono molto cambiato, eh? Non solo nelle forme. Ma in meglio e peggio, Zacca. Nelle forme sono cambiato. Voi mi sto... Nelle forme. Cioè, che fisico che ci abbiamo? Cioè, voglio dire, non facciamo neanche sport. ma appunto, al di là del fisico, mi spendo proprio un minuto per dire che quello che stai facendo, che state facendo, è una bella cosa. Il PG è veramente interessante questa cosa, tutto quello che può andare verso la casa, insomma, dai, ci siamo conosciuti attorno al discorso del reg, dei sound system, e poi ognuno ha preso le sue strade, però quello che ci accomuna, direi che appunto è questa musica, questa cultura e il fatto di, di questa pianta che comunque in tutti i suoi usi, consumi e quant'altro è pienamente parte di questa cosa, quindi è molto bella questa fraternity che c'è, che è una cosa che ci unisce ancora oggi dopo tantissimi anni che ci conosci. Assolutamente, questo è molto bello, questo è molto bello e chi ci sta ascoltando adesso, io capito, ero prima col mio mentore e mi aghi, il confa di Growers with Attitude, che senza di lui quello che sto facendo qua sarebbe stato impossibile pensarlo, quindi c'era lui un collegamento. Quando ti sei assentato un attimo. Niente, bella questa cosa. Grazie, no, mi fa veramente piacere che ti è piaciuta l'idea e niente, allora, visto che ti è piaciuta, due minuti e poi, cioè, ci salutiamo, magari tu comunque continui a guardare due minuti, le cinque curiosità, cinque curiosità sulla cannabis, ci abbiamo anche il nostro Raffaello dall'Emp Club che ti saluta. Sono regale, ecco. Ci veniamo a trovare presto con i soci del club, appena possiamo. Una delle attività che vogliamo fare è proprio quella di istruire dalla possibilità di creare dei gruppi un po' come la chiesa va a Medjugorje o a Lourdes, noi abbiamo la nostra Maria e quindi andiamo a cercare tutto il mondo. Assolutamente, assolutamente. Teniamoci, teniamoci linkati e keep doing, keep doing. assolutamente. One for 20 a tutti, fatene una grande. Grande Enrico, grande. Anche voi, grazie. Salute. Ciao. Allora, nell'attesa, io sono fiducioso, nell'attesa che Tony risolva, ci guardiamo le cinque curiosità sulla cannabis. il primo libro stampato in Europa era fatto di canapa. La Bibbia di Gutenberg o Bibbia a 42 linee fu stampata in Germania intorno al 1450, presso le tipografie Gutenberg appunto. per la stampa fu usata una carta di canapa proveniente dall'Italia. Il libro è stato inserito nell'elenco della memoria del mondo dell'UNESCO. Il latte materno contiene cannabinoidi. Ecco spiegato l'arcano motivo per il quale i bambini smettono di piangere quando sono allattati dalla mamma. La quantità di cannabinoidi è ovviamente irrisoria ed innocua per il neonato, ma gli permette comunque di rilassarsi. C'è stato un tempo in cui era obbligato coltivare cannabino. Nel 1773 in Virginia fu approvata una legge che obbligava i proprietari terrieri a coltivare la canapa ritenuta una materia prima naturale talmente preziosa per il governo che era indispensabile. I primi modelli di jeans erano prodotti con fibre di canapa. Nel XIX secolo uno dei primissimi modelli da lavoro di jeans diventati poi di uso comune della leggendaria azienda Lenis venne prodotto utilizzando fibre di canapa l'unico materiale a quel tempo abbastanza resistente da non cedere sotto il peso del lavoro incessante dei gold digger ovvero i cercatori d'oro. Mangiare un mango prima di fumare ne aumenta gli effetti. La cannabis contiene più di 100 terpeni tra cui il micene artefici e delle fragranze più zuccherine delle cime. Questo composto è presente sia nella cannabis che nel mango. Quando una persona assume cannabis dopo aver mangiato un mango i terpeni vanno diretti del sangue e si combinano con l'ingrediente psicoattivo THC una volta che questo tipo di reazione inizia la potenza e la durata del life aumentano ma questo varia da persona a persona. Quello era l'unico morto per cannabis al mondo a.k.a. Ivory dal film Hawaii il mio film preferito. Ho fatto una citazione alla fine. Tony tu c'hai una curiosità sulla cannabis? Io per esempio sta cosa del mango non la sapevo. Neanche io del mango mi hai ancora mutato. Mi hai immutato? No, no, no. Dai scherzo. Neanche io questa cosa del mango la sapevo infatti stavo pensando che porco giudo avevo mangiato il mango proprio stamattina no, ieri mattina come canta Elsie avevo proprio il mango a casa quindi adesso dopo andrò a comprare il mango e ti saprò dire devi mangiarlo un po' prima sì, sì, sì vabbè ma sì, sì allora ne prendo un paio dai e poi una curiosità boh io l'unica curiosità è che si possono fare pure i biscotti e vengono pure buoni con la mia ragazza gente abbiamo fatti certi biscotti ragazzi non so se è una curiosità oppure un'altra cosa boh i biscotti sono pericolosi da ragazzino perché sai la mattina ti svegli da ragazzino si diceva dei fili di banana ma che cazzo ma non so ve ne ricordate o le stecchiamo ci siamo fumati i banani proprio ma non ci faceva niente una curiosità è che si può innessare col lucolo o viceversa questa sì perché non tutti sanno che sono strettamente cugini infatti cannetta e birretta la giornata è perfetta quella era però sì a innesto a innesto beh parlacene io effettivamente non ci ho mai pensato no allora da quello che so negli anni in alcune comunità facevano la birra con contenuti di cannabinoidi che non si in un'epoca non si dicevano le analisi che potevano fare che possono avere tutti i miei sono a fare oggi era completamente raffaele il microfono era completamente vietato mi sentite sì sì adesso e quindi innestavano alla pianta di canna il luppolo e ottenevano questi fiori di luppolo con un contenuto di THC ripeto non era quantificato però gli effetti c'erano e quindi sarebbe un'altra cosa da proporre all'industria anche farmaceutica di farmaceutica ma infatti se non sbaglio correggimi in India hanno provato del luppolo con piccole percentuali di CBD dentro questa non lo so questa è un'altra curiosità sì da quanto avevo capito tutto il CBD idrosolubile è quello che viene dal luppolo indiano se non sbaglio vabbè comunque adesso forse stiamo andando troppo nei tecnicismi no no che dici tu una curiosità sulla canna ecco una curiosità una curiosità io le ho già dette cinque no quello era un video eh vabbè a chi l'ha fatto il video scusa giusto la curiosità mia è che appunto di cannabis non ce n'è stato nessun morto accertato per causa cannabis in quattromila e più anni di storia dell'uomo giusto andiamo di palloncino questo comunque ricordiamo il 420 News dove oltre alla musica che non siamo riusciti a mettere perché ma io perché mi dovete spiegare com'è la tecnologia le canne ancora le faccio con le mani è la stessa cosa se tu vai su setting sulla rotella setting no si sto cosa cosa vedi video input default audio output cosa c'è scritto dvj sr2 che è la mia console no oh e perché non si sente allora ce l'hai masterizzati ce l'hai masterizzati ce l'ha masterizzati ce l'ha masterizzati ce l'ha masterizzati ce l'ha masterizzati ma non è ma è resolution audio boh dovrebbe andare tutto ma se tu metti un pezzo vedi il segnale da qualche parte di uscita eh certo io non ho la mia console la vedi non è che parte muto il pezzo c'è il segnale oh vabbè pace nessun altro che altro perché mi dispiace voglio dire ma non è che mi hai mutato la musica che stupido non si può fare solo la musica è tutto mutato gomblotto gomblotto guarda ti sei salvato che qua è zona rossa che se no dovevo stare a Milano dovevamo stare tutti e tre adesso come stiamo seduti su quel divanetto e dovevo venire a Milano per la diretta eh niente io eh prima di salutarvi eh purtroppo qui sono in una situazione di condominio non sono in studio quindi non vi potrò cantare eh nessuna canzone però ancora fatemi ringraziare tutti gli ospiti che abbiamo avuto dai Sud Sound System a Naike Rivelli che ci ha fatto il regalo mi ha fatto il regalo più grosso eh facendomi conoscere Ornella Muti anche solo dal web però io mi accontento visto che è il mio sogno proibito da quando sono piccolo adesso lo posso dire eh sì eh quindi Sud Sound System l'abbiamo già detti e poi Raina e tutti i ragazzi della Calada veramente un grande abbraccio Enrico della Giamaica eh c'è ancora un altro servizio mi riaggancio a Raffaello che poi ci presenterà delle ospiti speciali perché da poco è uscito un film però non spoileriamo intanto io volevo o no vuoi dire qualcosa già? sono pronti sono pronte le ragazze? Raffa? eh non lo so ah ragazzi verifichiamo questa cosa Tony tu volevi aggiungere qualcosa proprio all'argomento della giornata prima di salutarci io vorrei che si legalizzasse ragazzi vorrei che si legalizzasse perché i tempi sono buoni la generazione di proibizionisti è cambiata poi io quello che dico sempre quando parlo di queste cose la cosa che mi fa veramente arrabbiare è che il proibizionismo diciamo che ce l'hanno imposto gli americani giusto? ma gli americani stanno legalizzando in tutti gli stati ma e dagli dagli o no Zac? questa è una giornata come no assolutamente sfondi una porta aperta come si dice invece il film che vi volevo presentare per questa puntata si chiama Terre di Cannabis è più che altro un documentario parla di Jacopo un giovane abruzzese che molto tollerava quegli spazi fatti di silenzi di cui nessuna occasione e di nessuna occasione ma nei suoi giri per il mondo ha un sogno trasformare la sua terra l'Abruzzo appunto in un grande campo di canapa e questo è il viaggio appunto di Jacopo un film che potete trovare su Youtube vi consiglio di vedere dura 45 minuti diretto è di Gianluca Macron ci vediamo il trailer e poi una sorpresa cinematografica vero Raffaello? Sì abbiamo un anteprima che ho sentito anche il link adesso la bella sorpresa dall'altra parte del globo siamo stati uniti va bene allora nell'attesa di collegarci con l'America io vi saluto per questa puntata ci vediamo il servizio del il trailer la coltivazione della canapa l'ho iniziata perché mi è piaciuta la novità una cosa fuori dal normale che si deve trovare una soluzione per la migliore coltivazione no siccome io dopo ero sempre stai curioso mi è capito di vedere il telaio di tessere quindi sto dietro la versicura di lino di canapa cotone lana siccome qua prima coltivavano quindi sarebbe bello riprendere una tradizione che c'era prima sicuramente potrebbe da molto lavoro potrebbe risollevare proprio l'economia della zona in generale mo come mo a parte l'edilizia qualche attività così ristorativa qualche bar però se no sta fermo io ho messo delle piante ultimamente su un terreno di un amico mi ha fatto un contratto d'affitto perché aveva paura se viene qualcuno a controllarmi e sul contratto d'affitto te lo faccio leggere dopo che andiamo a casa allucinante marihuana ad uso terapeutico mi vuoi mandare in galera anche tu mettici canapa mettici canapa c'è scritto proprio per mettere la marihuana terapia pregiudizi più di quello e insomma è risaputo che l'Italia è stata la patria della canapa in tempi andati in tempi non sospetti sì primo produttore al mondo per qualità secondo produttore al mondo per quantità ed eravamo secondo di solo la Russia che quando era unita era immensamente più grande dell'Italia abbiamo una storicità che veramente ce l'hanno rovinata e chissà se potessimo fare la stessa cosa con la marihuana un posto della canapa o con la canapa che livelli raggiungeremo il turismo io non so i politici come non pensano a queste cose a me io quando parlo di legalizzazione mi ribolle il sangue da quando ero ragazzino 16 17 anni veramente i miei amici miei è una cosa allucinante allucinante va bene Zach non volevo no no far intristire i nostri no ma che tu i video spettatori però insomma dobbiamo fare qualcosa perché the time is now noi siamo tutti aspettatori aspettatori siamo noi aspettiamo che si muova qualcosa aspettiamo di collegarci con i ragazzi del manifesto collettivo da Roma e non lo so io praticamente da quando sono caduto comunicazione di servizio se dovete comunicare con me solo nel private chat qui dire stream perché non ho whatsapp e quindi fatemi sapere di qua come 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 procedere va bene Tony grazie mille di tutto peccato ci abbiamo provato volevo farti mettere un po' di musica e va bene la prossima volta tanto non abbiamo capito come mai non abbiamo capito come mai ci abbiamo provato io la tecnologia come disse Drugo io la tecnologia c'ho una certa età ragazzi va bene per questa puntata adesso è davvero tutto 420 news vi lascio con la sigla e poi vediamo il da farsi ragazzi freestyle dagli in attesa di collegarci con appunto le autrici di questo di questo film vi saluto arrivederci a dopo a più tardi è presentato da Zia Maria the finest hemp shop in San Lorenzo via dei Sabelli 94 Roma 420 Fast Buds American Out of Flowers 2fast4buds.com Greenhouse Seed Company Amsterdam since 1985 eccoci allora adesso la programmazione prosegue siamo in linea da un po' Marta eccola a parire eccomi ciao a tutti allora vi annuncio che i ragazzi del manifesto collettivo erano in conferenza presso la Camera dei Deputati quindi si collegheranno alle 21 per tutti coloro che stanno attendendo il manifesto collettivo e ora abbiamo ospiti tra poco le Sisters of Valley che è un grande onore oggi sarà presentato il film ne discuteremo con la produzione con la distribuzione italiana e avremo ospite anche ospite specialissimo una delle Sister Sister Kate e quindi mentre attendiamo questi colleghi ricordo che oggi eccoci perfetto oggi è il 4 e 20 Cannabis Day che vede unite 30 associazioni italiane in un'unica realtà che è la United Association of Cannabis prima o poi questo scioglilingo lo risolverò e niente presento qui Beatrice che è rappresentante dell'etichetta allora rappresentante dell'etichetta wanted etichetta tutta al femminile che vede diversi titoli completamente dedicati a quello che è il ruolo della donna ora se mi permettete di spendere due parole che mi sono trattenuta fino ad ora diciamo però due parole per quella che è il parallelo tra la donna e i diritti della donna e la cannabis è un tema a me molto caro ne ho fatto anche un manifesto personale proprio su quello che è il parallelo tra il diritto della donna di esistere come libera espressione del proprio sé e quindi assimilabile all'esistenza di una pianta infestante che tanto è da demonizzare tanto è da estirpare quanto in realtà è utile all'ecosistema generale quindi è un grande onore avere ospiti qui delle donne che di questa stessa lotta dall'altro capo del mondo ne hanno fatto un altro manifesto reale quotidiano e quindi presento Beatrice che è la rappresentante appunto di Get I Wanted a cui chiedo una breve presentazione appunto di quello che è il lavoro che stanno facendo prima come realtà promotrice distributrice i documentari e poi un pochino scusa c'interesse Bianca e poi il perché aver scelto proprio questo documentario così forte ha pubblicato nel 2018 e oggi finalmente distribuito in Italia prego Beatrice ciao buonasera a tutti scusate c'è un po' di confusione perché stiamo un po' festeggiando non dovremmo ma stiamo un po' festeggiando la giornata mi confermate che mi sentite bene? sì ti sentiamo bene un po' di caos sentiamo un po' di caos scusami potete abbassare un pochino la voce per favore allora Beatrice benvenuta dicevamo che la wanted è un'etichetta tutta al femminile promotrice di quelli che sono diritti della donna assimilabili a altri tipi di diritti della libertà personale individuale ora in altri paesi abbiamo visto movimenti veri e propri della donna paralleli ad altri tipi di diritti come il diritto di cura in generale il diritto anche all'aborto abbiamo visto in messico cannabis e aborto portati insieme nella stessa manifestazione volevo sapere qual è il vostro know-how il vostro obiettivo come casa produttrice wanted e perché avete scelto proprio questo documentario come produzione italiana lanciata oggi insomma bene grazie Marta buonasera a tutti scusate un po' la confusione in ritardo ma tra l'altro siamo appena stati in diretta anche con Andrea Scagnette di Cannabis for Future quindi siamo un po' in un flusso di eventi per l'uscita di questo film Sorelle di Maria sulla nostra piattaforma Wanted Zone e presto tra una settimana spera anche in sala perché c'è stata questa bella notizia della riapertura delle sale quindi sia lì che poi con Marta magari approfondiremo un po' meglio anche la possibilità di organizzare proiezioni in altri luoghi nelle associazioni cannabistiche e tutta ecco sì noi di Wanted Cinema appunto siamo diciamo abbiamo un manifesto a cui attingiamo e su cui ci basiamo per la scelta dei film da distribuire e quindi delle storie da raccontare ovvero diamo voce a storie ricercate tra virgolette come dice lo stesso nome della nostra epichetta distributiva storie un pochino più scomode voci fuori dal coro che magari le grandi distribuzioni che si basano soprattutto hanno una logica soprattutto commerciale non portano in sala scelgono di non portare in sala e invece ci pensiamo noi diamo noi voce a queste storie e le raccontiamo e siamo contenti di raccontarle altrimenti in altro modo probabilmente non verrebbero conosciute e siamo molto attenti visto che la nostra squadra è composta da tutte donne tranne un intruso siamo tutte ragazze siamo felici di dare voce a storie di donne come in questo caso alle film o a comunque storie raccontate da donne quindi registre donne quindi questo è proprio il caso perfetto la storia di un gruppo questa volta di un gruppo di donne coraggiose che hanno saputo riscattarti allora l'appello è quello ovviamente di chiunque ci sta seguendo o ci rivedrà poi in replica chiunque voglia o di portare questo film all'interno della propria realtà quindi sono tante le associazioni social club appunto di cui parlavamo prima che possono accogliere questa realtà e quindi proiettare questo documentario sia gli attivisti che vogliono accordarsi con i cinema appunto magari adesso Beatrice ci spiega possono organizzare in accordo con la distribuzione un tour vero e proprio magari Beatrice ci spieghi anche com'è ora la vendita e come possono acquistare il documentario ero in moto ecco sì assolutamente il documentario adesso è acquistabile sulla nostra piattaforma Wanted Zone adesso appena finisco di parlare giusto perché sono un po' non riesco a parlare delle cose insieme vi copio il link in chat tra l'altro abbiamo avuto abbiamo il piacere per la community che ti sto seguendo di dare la possibilità di acquistare il biglietto per vedere il film a un prezzo speciale di 4,90 al posto di 7,90 comunque vi metto il link in chat e cliccando lì potete acquistare il biglietto vedere il film prima del film vi aspetta anche un piccolo video di pochi minuti che abbiamo tra l'altro appena girato con quindi c'è anche un approfondimento per magari chi non non avesse le basi tra virgolette volesse approfondire l'argomento cannabis su tutti i punti di vista e poi dal 26 dalla prossima settimana c'è la possibilità per chi vuole associazioni coffee shop chiunque di contattarci tramite anche semplicemente tramite la nostra pagina facebook via messenger wanted cinema wanted cinema punto eu ci invia una richiesta per organizzare una proiezione visto che si potrà anche fisica o nel proprio spazio per chi avesse un suo spazio o per le associazioni che non possiedono che non hanno uno spazio fisico da organizzare non vi preoccupate perché troviamo noi una sala nella vostra città e organizziamo una proiezione al cinema quindi possiamo fare una diffusione ulteriore anche attraverso altri canali che appunto sono quelli video che abbiamo visto anche oggi come sono di più larga e facile diffusione di una storia di che storia però stiamo parlando Beatrice cioè chi sono le sisters sono delle suore che hanno no ti puoi introdurre brevemente e poi lanciamo il trailer magari così la regia e parlano direttamente loro per se stesse benissimo intanto Marta io ti ho copiato nella private chat non trovo quella comune diciamo la regia lo può mettere magari in sovraimpressione così se volete copiarlo esatto allora la storia delle sisters è una storia appunto come anticipavi tu non si parla di cuore nel specifico diciamo nel termine più canonico nel significato più canonico ma sono questo gruppo di donne in particolare sorella Kate che tra l'altro tra poco avremo il piacere di incontrare qui in video che ha fondato questa comunità sono un gruppo di donne che hanno alle spalle un passato delle vicende familiari personali tragiche brutte che hanno avuto voglia di ricominciare di rimettersi in gioco di riscattarsi formando questa sorta di sorellanza che ha l'obiettivo lo scopo di coltivare cannabis per motivi terapeutici e cosmetici e che ne ha fatto proprio una sorta di stile di vita quindi da qui la scelta di vestirsi da suore perché comunque loro hanno una forte credo di mettere in contatto la sfera concreta della coltivazione a quella spirituale quindi mettendo insieme tra l'altro una serie di ispirazioni new age orientali anche qualcosa del cristianesimo perché sorella Kate cita spesso comunque la sofferenza provata da Gesù Cristo oppure la mirra che hanno portato i re magi che in realtà non era altro che olio di canapa quindi ci sono veramente una commistione di credenze e diciamo di ispirazioni diverse di origini diverse diciamo che la sorellanza è qualcosa di ancora più concreto e tangibile cioè è una sorellanza molto profonda che poi viene resa diciamo visibile da quello che è magari un indumento però in realtà è una profonda sorellanza che vede tante noi donne appunto come dicevo nell'introduzione persone che hanno bisogno di un riconoscimento di un'identità come appunto la pianta della cannabis però solo uno dei tanti paralleli è quello più concreto a livello sociale e quindi è una sorellanza ancora più profonda che noi tocchiamo con mano quotidianamente ma in maniera superficiale e loro lo rendono evidente proprio accecante con questa scelta di vita profonda esatto infatti spesso le sisters affermano questa loro venerazione nei confronti della madre terra e nei confronti della madre canapa proprio vista come una pianta madre perché dalle mille diciamo i piedi tra virgolette dai mille benefici quindi proprio una venerazione nei confronti di questa pianta per me possiamo andare con il trailer se la regia è pronta per me Sì, 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 sì. Ecco, questa in realtà Marta non era il trailer, ma era l'ospensione che abbiamo scelto di mostrare per iniziare il dialogo con Sister Kate, che quindi a questo punto chiamerei insieme alla nostra interpreta Giulia, che saluto. Allora, benvenuta Sister Kate, un onore e un piacere. Allora, benvenuta Sister Kate, è un onore e un piacere averla qui questa sera. Welcome Sister Kate, è un onore e un onore e un piacere avervi con noi con noi con noi. I'm having a little trouble hearing you, I'm going to turn you up a little bit. Okay, that was, hello, and I think you said you were happy to have me with you. I'm very happy to be with you, I'm sorry I don't speak any Italian, very bad Dutch and English. So, we'll just have to struggle. Sì, è davvero un piacere essere qui con voi. È davvero un piacere essere qui con voi, mi dispiace che non parlo italiano, parlo solo un pochino di hollandese e l'inglese, ovviamente, però in qualche modo faremo. E ovviamente, buona giornata della cannabis. Ok, Sister Kate, quanto è stato difficile iniziare tutto questo? So, Sister Kate, how difficult it was to start everything, everything you did? It was very difficult, yeah, I don't, I think a divorce would be easier, an ugly divorce would be easier than doing this. We are, we are in our seventh year, and we still don't have a permit. That clip that you were showing in the, in the movie, it looked like they were being reasonable, but they never gave us our permit. And so, in 2019, we lost banking, and that almost took us out, and then in 2020, we had COVID hit us, and in the meantime, it's not a level playing field. Everything we do, from banking to health insurance, everything we do is more expensive, because we're treated for narcotics. È stato decisamente difficile, credo che un brutto divorzio sarebbe stato sicuramente più facile di tutto quello che abbiamo affrontato. Siamo al settimo anno di questa esperienza e tuttora non abbiamo un permesso. Nella scena che avete fatto vedere nel trailer, sembrava un attimo che la commissione fosse abbastanza ragionevole, ma alla fine non ci hanno dato alcun permesso. Poi nel 2019 abbiamo perso, diciamo, i finanziamenti delle banche e nel 2020 poi ovviamente c'è stata la pandemia del COVID. Nel frattempo però, contate che stiamo giocando su un campo che non è ovviamente alla pari, perché quando si parla di finanziamenti delle banche, di assicurazione sanitaria, tutto costa molto di più, proprio perché abbiamo a che fare con il mondo dei narcotici. Quale tipo di produzione portate avanti? Sia come piante, quindi, perché abbiamo visto, avete una bellissima produzione, io ho visto il trailer che poi apparirà alla fine, avete un coltivo stupendo. Quindi volevo sapere quali sono le vostre scelte appunto sulle genetiche, sui metodi di coltivazione, quanto entrate in sinergia con la coltivazione e i prodotti che derivano da questa produzione, a che scopo sono fatti, per chi sono prodotti, quali sono appunto le persone che beneficiano di tutto questo dispendio di energie da parte vostra. Can you tell us something about the type of production, what kind of plants have you chosen to grow? Because we have seen amazing crops in the images from the trailer. So what are your choices in terms of genetics, of methods of growing? And do you have any kind of synergy with your growing crops? And moreover, the products, what is the purpose of your products? Who are they for? And so who can reap the benefits of all your efforts? Okay, so we'll break this down so that you don't have to take a million notes, maybe take this in pieces. So first of all, we are patterned after our Beguine mothers, who were the first organized nurses in the castles of Europe. And they divided their work, 20, they were the nuns before the Catholic nuns. And 20% of their ranks were men. We are like them. We have adopted their model. Their women own the property. Their women own the businesses. Our men do our growings. And the sisters make the medicine. And we work together at harvest season. So it's a very sort of ancient model. And young people who are, how do you say, gender, non-specified or non-binary, that's it, non-binary, they're always sort of testing us on this issue. But when it comes to growing, we are only a one-acre farm. We have six women and two men that work on this one-acre farm. We only grow enough plants to do one half of one month's salve or tincture. So we buy from other farms around us. But we also grow our sage. We grow sweet grass. And we grow our own vegetables. So maybe you want to translate that first. And then we'll go on to the products. Yeah. Allora, scompongo un po' la risposta in più pezzi, così non vi annoio troppo. Intanto il nostro modello è basato su quello delle madri beghine, che erano praticamente le prime infermiere che c'erano in Europa nel Medioevo. Erano delle suore, prima ancora che arrivassero le suore del cristianesimo. E circa il 20% delle persone che lavorano con noi sono uomini. Abbiamo quindi adattato quello che è un modello molto antico. Le donne sono presenti sulla proprietà e hanno a che fare con la produzione. In particolare gli uomini si occupano della coltivazione, mentre le donne invece si occupano della lavorazione del prodotto per creare i medicinali. È un modello estremamente antico, ma che pensiamo funzioni. È accaduto però che ovviamente molti giovani che tendono a non identificarsi in un genere, quindi non binari, cerchino un po' di sfidarci su questa nostra suddivisione dei ruoli. In particolare abbiamo sei donne e due uomini, che si trovano tutte nello stesso campo dove coltiviamo. e produciamo però giusto quello che serve per un mese di lavoro. Quindi dopo tendiamo anche a comprare da altri produttori e da altri coltivatori. Però coltiviamo anche molte altre erbe e le verdure che mangiamo, ad esempio anche la salvia e altre erbe. Ok, I forgot to say that we get our seeds from Attitude Seed Bank in England. And we've always got them from England. And the way they do that, it's not legal to sell you seeds. So you pick the seeds you want, and then you have to pick like a hemp purse or a hemp t-shirt or something else. and then the seeds come free with that gift. And that's how they've been doing seeds legally for 10 or 15 years. And the reason we go to Attitude Seed Bank is because what we grow doesn't get anyone high. What we grow is basically medical hemp. Mi sono dimenticata anche di dire che noi prendiamo tutti, tutti i nostri semi li prendiamo da una banca del seme che si trova nel Regno Unito, li abbiamo sempre preso lì. Il problema però è che non è legale la vendita diretta delle sementi. Quindi cosa dobbiamo fare? Scegliamo i tipi di seme che vogliamo, poi dobbiamo acquistare ad esempio una borsa oppure una maglietta di canapa e i semi diciamo che arrivano accompagnati a questo prodotto che noi compriamo. Ed è quello che accade da circa 10-15 anni. Un escamodage per l'importazione del seme. So you have found a trick to import the seeds. Yes, and even though we're in California you would think seeds are an easy thing to get but they're not, not if you really care about the genetics and you really care about the THC CBD percentage. E verrebbe da pensare insomma siamo in California dovrebbe essere facile riuscire a reperire i semi e invece no, soprattutto se si vuole prestare molta attenzione alla parte della genetica e alle percentuali di THC e di CBD che si trovano all'interno delle piante. Perché poi sono tutte piante ad alto contenuto di CBD, giusto? Perché tutte le piante che hai sono alto in contenuto di CBD, giusto? Allora si dice che nell'era degli uomini primitivi le donne guardavano la misura dei filari mentre gli uomini mettevano il seme quindi è nella completezza la perfezione. Io mi inchino nuovamente davanti alle sisters perché hanno dimostrato nuovamente che è nella completezza la perfezione. E poi ho un'ultima domanda però la faccio dopo che Beatrice ha posto le sue. Ok, so it was said that when there were primitive men on Earth the women would look at the size of the crops while the men would plant and in that completeness you could find perfection so you did the same thing and I really bow to you for the solution you found but I will wait for Beatrice's questions before asking my last question. Ok. Did you want me to talk about the products? Volete che parli dei prodotti? Oh sì, se vuole dei prodotti sì, volentieri era nostra domanda. In conclusione... No, no, vai, 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 ok. Yeah, ok. So the number one product we sell and in a non-COVID year we sell $40,000 a month of just our topical salve. La crema in Spanish it's a rub that you rub on for arthritis and joint pain and we didn't know that that was going to be so big. We had no idea and the reason why it's so big is that we put it out to them saying we don't know what this will do. for 100 years this has been outlined. you tell us what this does for you. I mean, we knew it would help with muscle and joint pain but we didn't know that it would help with prevent migraines if you put it on your temples in the morning. we didn't know that people would use our topical salve to get off of their sleeping pills. they rub it on their temples at night or behind their neck to sleep at night. we didn't know that so our big surprise was our topical salve being so popular. and then the second product that we sell is a topical oil that you drop, I'm sorry, an oil drops that you drop in your mouth for pain relief. and also, we didn't tell people what it's for, we asked them to tell us what it does. and we've got much of the same help. the number one thing we hear is that they help the people get off of their pharmaceuticals, get off of their pills. that's our one and two. Allora, il nostro prodotto Cardine, di cui riusciamo a vendere più o meno 40 mila dollari al mese di prodotto in un'era ovviamente non covid, è una crema d'uso topico che aiuta moltissimo con l'artrite e i dolori alle articolazioni. non avevamo assolutamente alcuna idea che potesse essere davvero una hit così grossa come prodotto e anche perché noi stesse non sapevamo bene cosa avrebbe fatto e perché è un prodotto che insomma è in giro da praticamente un secolo ma abbiamo chiesto alle persone di dirci cosa quel prodotto poteva fare per loro, quali erano gli effetti che loro provavano con l'uso di quel prodotto e sapevamo che poteva aiutare moltissimo con i dolori muscolari però ci hanno detto anche che poteva essere utilizzato per prevenire le emicranie spalmandolo sulle tempie oppure per migliorare le irritazioni dovute all'uso del pannolino oppure varie irritazioni cutanee. molte persone l'hanno anche utilizzata per riuscire a diminuire l'utilizzo di sonniferi massaggiandone un pochino dietro le orecchie prima di andare a dormire. Il segreto quindi è stato chiedere ai consumatori, a chi lo usa, quale sia l'effetto che ha per loro senza dirgli noi. E il secondo prodotto invece sono proprio delle gocce da assumere oralmente e anche queste hanno un effetto antidolorifico. Anche qui non abbiamo assolutamente detto a chi comprava quale sarebbe stato l'effetto, gli abbiamo chiesto, diteci qual è l'effetto che provate. E molti hanno detto che ha aiutato a riuscire a smettere o a diminuire l'utilizzo di antidolorifici in pillole ad esempio. Non so se la regia nel frattempo vuole mettere in sovraimpressione l'indirizzo delle sisters. Perfetto, prendo un attimo allora la parola Marcia, visto che stiamo già un po' sforando. Innanzitutto voglio salutare personalmente e ringraziare personalmente Sister Kate e scusarmi se c'è un po' di confusione ma come sempre noi crediamo fortemente nei film, nelle storie che scegliamo di portare in piattaforma al cinema. Quindi in questo caso siamo, nel nostro piccolo siamo pochi, non è che stiamo facendo un assembramento, stiamo festeggiando a nostro modo il Cannabis Day. E quindi ecco, ecco Sister Kate che sta mostrando l'indirizzo, però se Giulia poi vuoi dirglielo l'abbiamo già trovato, quindi l'abbiamo già messo sulla chat. Quindi ecco, questo Giulia, se vuoi dirla a Sister Kate, di scusarci della confusione, di ringraziarla tanto per essere qui. E per quanto riguarda la prima domanda che avevo, in realtà ci ho già risposto, perché volevo chiedere di commentare la clip che abbiamo visto, ovvero di come è voluta e come è cambiata la situazione da quell'udienza che hanno ricevuto a Merced anni fa a oggi, come sono venute le cose, come sono cambiate, ma ci ha già raccontato in modo approfondito. So, thank you Sister Kate, I want to personally thank you for being here. And I'm sorry for the noise you can hear in the background, but we are celebrating at the moment because we strongly believe in all the films and stories that we bring to cinemas. And so we are, in our own way, we are just celebrating 420. And I had one question, but you have already actually answered my first question because it was about what happened after the clip we saw with your meeting with the Vigilance Committee, but you have already said everything about it, about how the situation is now. Yeah, we have a relationship with the sheriff and the lawmakers that we don't bother them and they don't bother us, but we don't have a permit from them. But not having a permit has not stopped us from paying taxes in every direction. We pay every kind of tax America has to the tune of about $140,000 a year, but we just don't have that local permission and I don't think they're ever going to give us that local permission. Sì, insomma, possiamo dire che il rapporto che abbiamo al momento con sia i legislatori sia lo sceriffo è il seguente. Noi non importuniamo voi e voi non importunate noi. Questo è un po' il riassunto. Questo però non ci ha assolutamente fermato dal dover pagare le tasse, nonostante noi non abbiamo ancora questo permesso che dicevo, paghiamo qualsiasi tipo di tasse che il governo americano abbia potuto pensare e paghiamo più o meno all'anno sul 140.000 dollari all'anno di tasse, nonostante comunque continuiamo a non avere questo permesso per lavorare. Grazie. Fate bene a non arrendervi, mi raccomando, andate avanti così che vedrete che le cose presto cambieranno. e riallacciandomi un po' a quello che anticipavo prima Marta, noi siamo sempre molto felici e convinte di portare al cinema storie di donne coraggiose che non si arrendono, che riescono a riscattarsi rispetto a un passato e a un presente, come in questo caso, difficili ottici. Quindi volevo chiederti, secondo te, in che cosa sta la forza delle donne? Cioè, quello che voi fate come gruppo di donne, lo potrebbero fare anche degli uomini? Oppure no? So, Sister Kate, absolutely never give up. I'm sure the situation will change in the future. And as it was already said by Marta, we are really happy to bring the stories of extremely brave women to the screens and women that have never given up and that were able to liberate themselves from a very difficult past or present. So, my question is the following. What is the strength that women have? And do you think that men could do the same thing that a group of women is able to do? I think that women's strength comes from the fact that they are more... This is very sexist, what I'm going to say, but you asked me a sexist question. I think that women, whether they have children or not, are more connected and care more about the coming generations than men do. I think men are more like children in general. I know I'm going to get hate mail for this, but in general, they live in the present where I think what makes women sacred is that we are always striving to make our ancestors proud of us, but at the same time, we're thinking about the people around us now and at the same time, we're thinking about the generations to come. And so, because of that, I think we don't allow ourselves to give up. No matter how beaten we are, we feel an obligation to make our ancestors too proud to serve the people we walk with now and to make things right for the coming children and the coming generations. All right, I think that the force of women, and I'm sorry for the response a bit a bit of a sessist, but also the question in reality was a bit of a this sort of background. I think that the women have a lot of children that they don't have a lot of that they don't have a lot of and they don't have a lot of more of the generations to come in front of the generations to come in front of in general I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry for what I'm saying but they're more focused on the present instead what that makes sacred women is the fact that they are in every moment to make proud of their antenates but at the same time they're concerned with the people that are around in the present and they do everything to improve the situation for the generations to come and just for these three components they don't never allow themselves they don't matter how they really they are versating they will always do everything for to make them proud of the antennas to serve the people that are and to adjust the situation for the generations to come to come to come to come to come very excited to come the preparation for the beginning of the film I like . I almost good to come me really to I will see how the world come come the same feelings in nell'animo profondo delle donne soprattutto quando hanno sofferto e non so se prima vuole tradurre so Beatrice said thank it was extremely illuminating what you said and I'm so happy to finally meet you in person after all the preparation for the film and Martha said everything you said was really touching and it's especially touching to see how even though we live in different parts of the world the feelings that women have deep in their soul is the same especially if they have suffered our suffering connects us that's true I want I want to just say that if your women or your readers or your people in Italy want to experiment we actually are selling our plant now as tea and it's smokeable people use it to get off of their tobacco but you can also cook with it like it allows people to this is only a little bit it's a fuller bag I smoke it actually it won't get too high but it allows you if you wanted to bake with it or make tea with it or smoke with it you could experiment yourself with it and it it's legal we ship it to Italy Decisamente la nostra sofferenza ci ci unisce e se volete sperimentare se voi o le vostre lettrici e chi sta guarda chi sta guardando noi vendiamo proprio questo queste borsette di di erba che è fumabile può essere ci si può fare il tè anche e ci sono molte persone che usano per cucinare oppure per smettere di fumare di fumare di fumare tabacco diciamo che il sacchetto di solito un po più pieno soltanto che fumandolo adesso è è mezzo vuoto non fa assolutamente sballare ed è legale infatti lo stiamo già in spedendo in Italia senza problemi Allora l'ultima domanda è questa dopo aver seminato in California dopo aver portato il documentario in Italia ho letto dell'intenzione un paio d'anni fa di creare dei nuovi nuclei nuovi conventi chiamiamoli negli Stati Uniti come va quest'opera di proselitismo e se prima o poi o se qualcuno vuole seguire l'iniziativa riproporre lo stesso network è possibile esportare le suore le sisters of valley e riproporre altrove questo modello di comunità So, my last question iso, after having planted your seed in California, after having brought your documentary to Italy, I've read somewhere that you wanted to start creating new groups of the sisters of the valley all over the US So, how is that going? And if somebody wants to follow your steps and create the same kind of community you have, is it possible to export the sisters of the valley to create the same kind of community? Yes, 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 so we have already a sisterhood in Denmark and we have a sisterhood in New Zealand and Brazil and Mexico and different places in America But some of them can't start doing commerce yet It's like we don't really consider it official until you're doing commerce And the reason is, is because our mission is to make jobs for women So if you can't make jobs for women, you're not really a sisterhood But in some places like Brazil, they cannot make jobs for women because it's completely illegal So we know that for like three or four years or maybe five years in some places, they have to just be activists I was planning this four years before I started it Four years, I was an activist meeting lawyers and doctors and getting people together that would support us But yes, we've got it set up So we want you to have a sisterhood in Italy Because we believe that the medicine works better if it is grown It works better for the Italian people If the plant came from your earth by your men's hands or women's hands And the medicine is made by your women And the product doesn't travel and it doesn't burn fossil fuels So yes, our dream is to have sisterhoods in every town and province across the globe in 25 years or something We know that this is not immediate But yes, and we have a very simple model For example, we help England because they buy wholesale and sell it at retail But if you make the medicine and use our brand and we help you We just ask that you give 10% back to the mother farm And so you can basically take our recipe, take our products Put up a sister flag and start making the products And we're like the Mormons except cheaper The Mormons require 15%, we only require 10% Sì, assolutamente si può fare Abbiamo già una sorrellanza in Danimarca, una in Nuova Zelanda, una in Brasile Anche una in Messico E anche distribuite in diversi posti degli Stati Uniti Alcune però non possono ancora cominciare a commercializzare i prodotti E proprio per questo motivo non sono ancora ritenute ufficiali Perché il fatto è questo, la missione della nostra sorrellanza è quella di creare posti di lavoro per le donne Quindi se non puoi commercializzare non riesci a creare questi posti di lavoro Però ci sono luoghi come ad esempio il Brasile dove questo non è possibile perché è ancora completamente illegale Quindi probabilmente per i primi 3, 4, 5 anni l'unica attività che è possibile fare in questi luoghi è quella di attivismo Io stessa ho dovuto pianificare a lungo il progetto prima di poterlo realizzare Per 4 anni ho fatto solamente l'attivista prima di poter iniziare E ho passato quei 4 anni a incontrare, a cercare di raccogliere insieme avvocati, medici e persone che ci sostenessero all'interno del nostro progetto E noi vogliamo assolutamente che voi possiate creare la vostra sorrellanza in Italia Perché siamo fermamente convinte che la medicina funzioni molto meglio se le piante vengono dal terreno italiano, dal vostro terreno Se sono state coltivate con le mani dei vostri uomini e delle vostre donne Se i prodotti sono stati fatti dalle vostre donne Se sono quindi molto più vicini e non c'è bisogno di utilizzare dei combustibili fossili per il trasporto Il nostro sogno è che fra 25 anni possa esserci una sorrellanza in qualsiasi città, provincia o stato È una visione molto grande, sappiamo che non si può realizzare in un giorno E abbiamo un modello anche estremamente semplice Ad esempio aiutiamo il Regno Unito perché il Regno Unito si tende a vendere ricevo Comprano all'ingrosso per poi vendere al dettaglio Allora l'unica cosa che noi abbiamo chiesto è vi aiutiamo senza nessun problema Però chiediamo che un 10% venga ridato indietro alla fattoria madre Chiamiamola così per poter aiutare In cambio però ricevete tutte le ricette per i nostri prodotti Potete anche usare la bandiera e lo stemma della sorrellanza Insomma siamo un po' come i mormoni però costiamo meno Loro chiedono il 15% mentre noi solo il 10% Grazie mille sister Kate Grazie sister Kate Grazie 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 So You women, you ladies are all welcome to visit our farm If you can ever come to California We'd love to have you on our farm here Voi donne siete tutte assolutamente invitate a venirci a trovare nella nostra fattoria in California Se doveste mai venire venite assolutamente a trovarci Le porte sono aperte per voi Perfetto, grazie sister Kate Ci sentiamo presto e adesso invito tutti coloro che ci stanno seguendo A vedere il film tramite il link che abbiamo messo in chat Per scoprire la storia completa delle sisters Grazie sister Kate, we will see each other soon Ok, bless you, thank you Bye Vi lasciamo buoni iscritti Bye sister Kate, thank you very much Bye everyone Good job Good luck Grazie Giulia Andiamo buoni iscritti They call themselves sisters of the valley They are in the business of helping people in pain Our sisterhood requires us to teach the world about CBD and cannabis I was born and raised in Wisconsin She was the breadwinner of the family She was the CEO, she was the boss There was no rebellious side of her whatsoever Everything was set up for a happy family life But she suddenly saw the truth You took all of the money The betrayal was so huge that it gave me the courage To do something completely radical Like form a real sisterhood We started talking about the changing in cannabis laws If we were smart, we would start a cannabis business This is what we are about This is our religion They're drug dealers and they're trying to say that it's medicine You know they're lying We have nuns that are drug dealers Conventional wisdom is that cannabis is bad Conventional wisdom was that women had smaller brains than men To me, we'll have made it If we could create 20,000 good jobs here in the Central Valley We'll take their product and I will cite them into court Do you think they would charge someone like me? I feel like she was in danger They really intended to kill us When people have everything taken away You should be scared Because they will do something radical I feel like that What and how I come in the state of the branch We did not let the firm So here is the letter You see what was the name of the company That is been an open book And still here is the name of Twice Who is the name of vanish And who is the name of� Grazie a tutti. Cliccando sul link arriverete già al biglietto scontato e riservato ed era scontata per un attimo Anastasia Plazzotta che è la fondatrice di Wanted Cinema. Benvenuta Anastasia, grazie mille sia per l'iniziativa di Wanted che per l'iniziativa di distribuzione del film delle Sister. Grazie a voi, grazie a voi. Eccoci qui, mi avete lasciato sola. Eccoci, ti vedo emozionato, è stata una bella emozione. Bella emozione, anche perché come tu ben sai io, questa cosa della libertà della donna, parallelo con la libertà della cannabis, è proprio un motivo di vita. E sempre più in Italia sta arrivando questa idea. Andiamo avanti anche con i diritti delle donne e i diritti di cura e non solo, anche i diritti delle minoranze, perché comunque ricordiamo che negli Stati Uniti più di un terzo dei ruoli di dirigenza sono occupati da minoranze, che per il 58% sono donne. E minoranze nel senso di realtà, che comunque hanno trovato difficoltà sociali nel trovare lavoro, nel trovare un loro posto nella società, per motivi proibizionistici di vario genere. E invece nel settore della cannabis hanno trovato un comparto adatto a loro, perché comunque è privo di pregiudizio, diciamo almeno in teoria è privo di pregiudizio. E lascia spazio, perché nessuno lo vuole, perché tanto è insicuro, perché le normative variano in continuazione, perché come vediamo le sisters rischiano tutti i giorni, abbiamo visto nel trailer addirittura ci volevano uccidere. E insomma, realtà anche importanti, che comunque sia le minoranze sono abituate, hanno una scorsa abbastanza dura, e quindi sono abituate a sopportare questo e altro per trovare il loro posto nella società. Questo è un tema che a me sta particolarmente a cuore. E anche l'elasticità che hanno nella sopravvivenza, la sopravvivenza ti dà una capacità superiore di adattamento, e quindi questo cambio normativo, continuativo e questa instabilità lavorativa è il luogo adatto per tutti coloro che non hanno trovato un posto. E' un altro lato del nostro settore, diciamo, un altro punto di vista, però stiamo vedendo emergere figure molto forti da persone scartate, soprattutto negli Stati Uniti ne hanno fatto un caso sociale. Io ti vedo già con l'abito da suora, sarai una delle sister. E poi, ecco, non sono realmente suore, sono persone che hanno scelto comunque di rappresentare così, che per noi italiani è ancora più forte, perché comunque noi siamo abituati alla suora prettamente cattolica, prettamente chiusa, prettamente bigotta, che non è neanche una suora missionaria, o comunque una suora... No, abbiamo io qua dietro al convento di claustura, non aprono neanche la finestra e non si preoccupano della... Io, insomma, questo è. Invece vediamo delle persone che mettono a ripentaglio anche la loro stessa vita, si può dire, ma anche vita può anche essere in senso lato, come libertà personale, salute mentale, tutta una serie di cose si mettono a ripentaglio per il benessere del prossimo. Poi, al di là di quelli che sono i loro incassi menti, più che guadagnati, perché comunque hanno creato questa crema miracolosa e... Beh, tanto di cappello, insomma, c'è tanto da riflettere sull'abito che fa il monaco. Sarebbero riuscite a colonizzare anche il fatto di avere una visione più futurista rispetto a magari a quello che può essere la visione che si volette standardizzata, ecco, degli uomini che molte volte sono più legati al passato, perché comunque il futuro, la parità di genere, ad alcuni fa paura, ad alcuni sono tesorizzati, anche per questo spogano, secondo me, poi quello che può essere un po' l'inadeguatezza all'altro sesso, allo stare insieme, al proporsi e non imporsi. Allora, prima che abbiamo un convegno sul patriarcato, perché io sono in grado di farvi fare notte su questo argomento, abbiamo Nadia che ci presenta i premi e ne assegna di nuovi, credo, e poi, anzi no, prima official, fatti segreti, una testimonianza da parte di nostri affezionati amici dei fatti segreti. Torc dovrebbe essere con noi. Mentre attendiamo, ricordo che official fatti segreti ha una pagina ufficiale di Instagram, soprattutto, che raccoglie testimonianze da parte di tutti coloro che vogliono condividere la propria testimonianza, rimanendo anonimi o anche no, però questo ha dato negli ultimi anni un indice reale delle situazioni. Andiamo a collegare anche il nostro nome, Nadia, che ricordiamo, a referenza, oltre che del Canada Service, ancora più, però anche di Canada for Future, che sono una prima mano a gestire tutte le complicanze, i contatti, i profughi, molte volte, le associazioni, però, insomma, ce l'abbiamo fatta. Dai, piano piano ce l'abbiamo fatta, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, sono già le nove, ormai le ultime due ore, siete stati tutti bravissimi, grandi, bravi, veramente. Allora, io lancerai il quarto premio, perché ormai siamo agli sgoccioli qua con il nostro Cannabis Day, il quarto premio, che è del valore di 100 euro, sono 10 barattolini gelato CBD offerti dalla canapalegale.it, un cappellino cold dealer, due bustine di canapa e poi il pacchetto di roots con diversi prodotti, tra cui due confezioni di pasta alla canapa, tarallini, frullini, crostini e un portachiavi in biocanapa. Allora, questo premio, che è il quarto premio, lo vincerà chi scriverà la risposta giusta della domanda sotto la diretta di YouTube, mi raccomando, non sbagliate posto dove andare a rispondere. La domanda è, dove è il convento delle Sister? Dove è nato e dove è attualmente il convento delle Sister? Ok, aspettiamo le vostre risposte e grazie mille, andiamo avanti con fatti segreti e le testimonianze. Sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, abbiamo in linea anche Stefano. Eccoci. Stefano Friwid, abbiamo la chat della regia che Friwid lo traduce in nervaccia libera. Io sto morendo, scusate. Perché fa la traduzione istantanea di Friwid? Erbaccia libera, vabbè, ok. Allora, Stefano, cosa è accaduto oggi? Spiegarci rapidamente, perché noi tutti sosteniamo il manifesto collettivo, invitiamo tutti quanti ad andare sulla pagina del manifesto collettivo, leggerlo, sottoscriverlo. Non so se è ancora possibile sottoscriverlo, però aggiornaci. Cosa è accaduto oggi? Beh, quello che intanto si sperava di fare, almeno come inizio, perché ovviamente una proposta di legge per essere ufficializzata, deve arrivare quantomeno nel Parlamento. era già arrivata al Senato, però, insomma, sappiamo che i numeri ci sono poco, e soprattutto anche per rilanciarla al Senato è complicato, perché chi l'appoggia sono davvero pochi, bisogna dirlo. Sono tutti cani sciolti che vogliono una regolamentazione completa al Senato e si espongono davvero poco. Allora abbiamo provato la Camera e oggi è arrivata, insomma, il rilancio della tematica. Di fatto si è riusciti a fare esporre, perché poi l'obiettivo era questo, cercare di fare esporre la politica, di far dire alla politica che di fatto la richiesta della società è quella di una regolamentazione della cannabis, di prendere in carico il fenomeno, che è partire da autoproduzione, che è partire da un mercato qualsiasi, che è implementare le cose, però affrontare il tema. Quindi affrontarlo completamente e soprattutto senza moralini. Questo è stato, diciamo, l'obiettivo raggiunto, secondo noi oggi, insomma, non è che è la prima volta che si raggiunge questo obiettivo. Però farlo dire dal politico è più complicato, perché di solito è sempre l'attivista che arriva lì, o noi, associazioni, tutte, che ci battiamo, che arriviamo a un dunque, e quando arriviamo alla politica diciamo, beh, noi vogliamo questo, quest'altro e quest'altro. E poi la politica prende in carico la cosa, ma la rimette giù come crede, a volte dicendo anche delle cose personali, non so che, per esempio, è un dibattito, come si era sentito, magari dieci, quindici anni fa, che riguardava soltanto una certa persona e i consumatori, altre volte era un dibattito di sinistra, altre volte invece i quelli di destra avevano etichettato che fosse di sinistra, proprio per non votarlo. Insomma, dei giochettini politici che con questo discorso di oggi, insomma, non si possono mettere in atto, perché di fatto hanno dichiarato anche, per esempio, Sgarbi, ma anche stesso Pratoianni, come Sodano, Radicatini, insomma, gli esponenti parlamentari, che il tema è transpartitico, cioè sono loro stessi a dire, sì, noi non è che come partito portiamo avanti questa battaglia, ma ne rispondiamo perché siamo chiamati in causa su questa battaglia e dovrebbero fare così tutti, perché l'unica soluzione a questo tema, che è poi la repressione che c'è oggi, incondizionata, è cambiare passo e è una regolamentazione sensata, altrimenti si va avanti a regalare soldi a narcomati. Però, insomma, va detto che in Parlamento non è che una conferenza o una decisione in Commissione Giustizia, perché c'è anche questo oggi, che insomma è stato rilanciato a livello importante, possano poi cambiare quello che sappiamo anche noi sono i numeri finali. Non voglio deprimere, perché sono le nove e sta avviandosi la fine della giornata del Cannabis Day, però effettivamente i dati rimangono. Insomma, l'approvazione di una riforma totale, ma anche minima, è difficile. Certo è che se perlomeno il ragionamento è su più anni, quindi arrivare a una votazione finalmente, prima o poi, ecco allora che lanciando una base su un testo su cui tutti sono d'accordo e vediamo che le associazioni bene o male sono tutte d'accordo, perché si può implementare ovviamente, però togliere, nessuno vuole togliere da questo testo e vedere che la politica bene o male dice ok, noi possiamo portare avanti, se parleremo di questo tema possiamo magari tenere questo come testo base. Ecco, sicuramente in prospettiva nuova legislatura, dove magari ci sarà più destra però che sinistra, ecco allora che questo tema centrale scritto in questo modo può essere diciamo già avvantaggiato, nel senso partire un livello più avanti, c'è già un testo, si incardinerebbe subito nelle discussioni di tutti i partiti favorevoli la stessa richiesta e si tenterebbe di andare in discussione con quella. Oggi si prova a portare a casa quello che si può portare a casa perché come detto i numeri sono veramente risicati ma tecnicamente ci potrebbero anche essere per cui la speranza è l'ultima a morire, certo ripeto, anche a vedere come sono le reazioni delle testate giornalistiche nazionali che comunque si riportano le cose ma un po' strampalate adesso per dire una cosa simpatica la Repubblica ha detto no non mi deve denunciare la Repubblica è una cosa simpatica però la Repubblica ha detto che oggi ha fatto la conferenza stampa Michele Sodano del Movimento 5 Stelle sono tre mesi che è espulso cioè è una stupidata però ha capito c'è anche il firmatario se partiamo così figurati dove arriviamo poi hanno scritto che è per la penalizzazione in realtà quello è quello che c'era nelle copioni questo è per tutta il fenomeno cannabis una liberalizzazione una normalizzazione come preferisco chiamarla io perché si vuole normalizzare la cosa normala quindi doppio senso con la regola però anche rendela normale perché poi alla fine dai insomma dai ormai siamo nel 2021 per noi consumatori è veramente assurdo bisogna dirlo essere ancora perseguiti mentre gli altri vanno a fare lo spriff o si discute nei giornali di quando potrà la gente andare di nuovo a ubriacarsi a ballare cioè sì sono divertimenti bella discutiamo anche di quello che oggi però butta la gente in carcere ecco allora un po' una mancanza te lo dico di informazioni di diffusione nazionale si è sentita speriamo però che magari da domani o da adesso stiano scrivendo gli articoli ma non ripeto solo sul manifesto su tutto ma anche su quello che c'è in commissione sulle manifestazioni che avete trasmesso oggi su tutte queste cose è ora che la diffusione arrivi nei telegiornali nazionali bam un bel servizio bisogna spingere e sicuramente l'evento che avete fatto oggi perché di fatto lo state portando avanti davvero super bene super complesso è racchiude il senso della battaglia cioè cercare di sfondare su più fronti un sistema che si difende con dei numeri parlamentari perché è lì il problema è lì nei numeri parlamentari perché la società ormai se domani passasse la legge saremmo tutti pronti anche il contrario cioè non è che farebbe la manifestazione il problema è il Parlamento e quindi riuscire a trovare il modo di far prendere questo tema in carico a tutti gli schieramenti politici non a fare uno contro l'altro altrimenti sarà sempre un gioco di pochi voti bisogna allargare e coinvolgere il più possibile ho visto tanti ieri hanno criticato o erano comunque presi male dalla presenza di sgarbi io per primo ma perché è ovvio non sai mai cosa può dire uno che comunque non ha mai esposto chiaramente il tema o ha detto che deve fare una riforma così però e comunque soprattutto lui ha un cesso insomma un passato di destra anche adesso insomma l'ha detto anche oggi però ecco è lì che dobbiamo smetterla cioè il nemico sì sono il primo a dirlo sì simpaticamente vini con le sue dichiarazioni certamente Pillon non è la prima persona con cui fumeremo una canna quando diventa legale però non sono loro i nemici è l'ideologia che rappresentano smettiamo di attaccare il partito che sennò si difende soltanto con eh ma tu sei un piddino zitto perché io sono della Lega capito e cerchiamo di dire ma tu la vuoi legale come stiamo facendo tutti come associazioni e come attivisti quindi davvero grandi portiamo i contenuti è l'unico modo per battervi stupendo cioè davvero oggi è stata una somma di eventi fatta in un modo stupendo proprio collegati ma collegati tutti interagiscono tra di loro è molto bello è questo che deve essere bisogna lottare così Stefano per l'appunto volevo ricordare che non tutti quanti i leghisti sono contro la cannabis alcuni sono anche produttori di cannabis light per cui noi cosa possiamo fare per sostenere comunque l'iniziativa puramente popolare che va di là di quella parlamentare è continuare a supportare il manifesto collettivo perché se deve essere una lotta che deve andare avanti per anni deve fare i numeri veri deve raccogliere sempre più numeri di cittadini perché comunque alla fine il politico viene interessato da un bacino di possibili voti è inutile che ci stiamo a raccontare le storielle siamo 30 associazioni non siamo 30 partiti e noi interagiamo con i politici da anni e tra l'altro Nadia sa che io neanche ci voglio più tanto interagire per i muri di gomma che si prendono in faccia è dura nel senso è più facile andare per strada e convincere persone a fare una prescrizione ad accogliere la cannabis da un altro punto di vista e spesso sono persone di destra perché comunque sia l'informazione ha superato quella che era il pregiudizio l'ideologia di base quindi se concludendo puoi ricordare appunto gli indirizzi per supportare il manifesto e ti ringrazio tantissimo per tutto il lavoro fatto anche a te perché comunque ognuno di noi si fa un mazzo 365 giorni l'anno e tutti insieme forse prima o poi ce la faremo nell'arco di 25 anni come diceva Raina ma speriamo anche meno no beh dai io sono convinto onestamente in tempi a livello di tempistica penso che in 6-7 anni uno dice oddio è una follia però l'onda è questa e bisogna insistere come detto bisogna sempre stare compatti seguire tutti quelli che si attivano perché è importante cercare di attivarsi su tutti i fronti ognuno sul piccolo grande medio cercare di tenere il tema compatto ovviamente si può seguire la cosa su Instagram del manifesto collettivo che diciamo che è il canale social che racchiude tutto il lavoro che poi fanno tutte le associazioni che spingono il manifesto perché diffonde tutto quello che succede sul tema oppure sul sito manifestocannabislibera.it dove le sottoscrizioni sono ancora attive i doppioni vengono sempre scremati ma soprattutto ora stiamo cercando di coinvolgere i parlamentari e novità anche i parlamentari locali perché comunque quelli che poi saranno i parlamentari della prossima legislatura nelle liste sono quelli che oggi sono già in politica e allora non so i vari partiti di minoranza che oggi stanno creando ma anche i macro partiti insomma c'è un lavoro da fare che vedo che si sta sviluppando anche localmente sui social territorialmente poi adesso si va verso una eventuale riapertura quindi ci si potrà iniziare a attirare una rete davvero più più fitta perché bisogna insistere è l'unico modo bisogna insistere bene grazie Stefano mi raccomando facciamo i numeri tutti quanti insieme e che la United Association of Cannabis possa essere anche un canale di condivisione di tutte queste iniziative delle varie associazioni grazie mille Stefano grazie Stefano grazie grande ciao Stefano bocca al lupo come sempre buon 4 e 20 ciao ok adesso passiamo a un tema a me molto caro che è il tema industriale abbiamo ospiti appunto tre persone che si occupano di questo settore del settore appunto industriale mi raccomando state molto attenti perché alla fine di questa tavola rotonda industriale vi faremo una domanda per giudicarvi il vostro terzo premio stiamo arrivando sempre più vicini al primo premio allora vedo già collegato Vincenzo Guarnieri di Policanapa e Francesco Vitabile di Resilienza Italia Onlus presidente di Resilienza Italia Onlus aspettiamo nel frattempo che si connetta anche Giovanni Milazzo di Canesis nel frattempo possiamo iniziare assolutamente noi ciao Vincenzo ciao Francesco grazie mille per aver aderito a questa iniziativa non possiamo non parlare della cannabis terapeutica quando parliamo di cannabis perché comunque tanti sono gli impieghi e gli utilizzi che si possono appunto fare con questa meravigliosa pianta allora così per incominciare io allora c'è qualcuno che ha un rimando così per incominciare volevo chiedere a Vincenzo che appunto si occupa ha brevettato diversi macchinari di trasformazione per la raccolta della trasformazione appunto della cannabis come si può lavorare per produrre oggi materiale utile per i diversi utilizzi buonasera a tutti ciao Nadia ciao Francesco grazie per avermi chiamato e direi che c'è una base diciamo così di inizio di questo percorso che è sostanzialmente la chiave per spiegare meglio tutto la pianta è unica ma per poter fare un vero cambiamento bisogna lavorare sulla qualità e la pianta è conosciuta da migliaia di anni è stata utilizzata per migliaia di anni lavorare la pianta a canapa a livello industriale vuol dire lavorarla con macchinari che permettono di separare le varie parti della pianta lavorandole tutte contemporaneamente e sono d'accordo con quello che diceva Stefano prima che bisogna agire su fronti differenti per raggiungere un obiettivo comune e la parte industriale è uno di questi obiettivi nel senso che l'utilizzo di materie prime come la cellulosa prodotta in tempi molto ridotti come la canapa non soltanto per un utilizzo industriale in fronti differenziati come potrebbe essere plastica carta con parti sostanzialmente totalmente diversi di edilizia passa sempre comunque attraverso l'utilizzo di macchinari tecnologici che devono permettere la lavorazione in campo la separazione dei vari coprodotti e di conseguenza l'utilizzo di materie prime ripeto di qualità il valore aggiunto che noi possiamo dare come Italia è proprio la possibilità di dire che in Italia il prodotto canapa ha una marcia in più e questa marcia in più è qualità e la qualità si riporta poi su quello che è un prodotto di funzionalità per prodotti diversi perfetto allora grazie mille Vincenzo meraviglioso e allora passiamo la parola a Francesco Vitabile appunto il presidente di Resilienza Italia Onlus che è la detentrice di questo meraviglioso progetto che è il borgo della canapa Francesco che io sono ovviamente una sostenitrice mi avrete visto in tutti i webinar del mondo appunto che abbiamo fatto del borgo della canapa io conosco perfettamente il progetto direi ormai almeno a dito ma chi ci segue forse non sa lì che cosa stiamo parlando Francesco ci vuoi illustrare il brevemente un po' il progetto del borgo della canapa sì ciao Nadia ciao Vincenzo grazie Nadia per avermi invitato a questa meravigliosa serata perché vedo che è una maratona infinita fondamentalmente siete sicuramente spagnati infatti sono spremata grazie a te e alla tua disponibilità sono soddisfatti penso perché vedo che avete avuto tanto seguito e sì dici bene conosci molto bene il progetto come lo conosce molto bene Francesco e Vincenzo si parla di della creazione di un centro polifunzionale di ricerca formazione trasformazione ed informazione della canapa industriale italiana perché quello che manca oggi in Italia è questo perché se si parla di green economy se si parla di economia circolare virtuosa di blue economy di tutto quello che oggi pretende il nostro status sociale e quindi andiamo avanti con questa situazione qua non si può non parlare della pianta della canapa tutti sappiamo i benefici della pianta della canapa ma fondamentalmente per creare delle filiere per creare delle filiere agricole per creare lavoro e per creare sostenibilità bisogna creare dei centri polifunzionali e quindi dei centri che possano acquisire quella materia prima che producono gli agricoltori per poi trasformarla e metterla nel mercato il borgo della canapa è un progetto si agroindustriale ma soprattutto un progetto sociale perché nasce da resilienza Italia Hollus dopo quasi sette anni di ricerche di metodologie di protocolli di intese e di collaborazioni anche con Vincenzo Guernieri con i macchinari di Vincenzo Guernieri e con tantissimi altri istituti come il Sant'Anna come il CNR come la Federazione Agronella Toscana ed altri colleghi ed altre associazioni nasce come Resilienza Italia si propaga con la società il borgo della canapa che è una società agricola SRL Benefit perché vogliamo creare l'economia circolare virtuosa vera e cioè parte dei ricavati diciamo del centro polifunzionale saranno rimessi diciamo in economia nell'economia reale per sostenere delle ricerche o per creare asili piuttosto che scuole piuttosto che parchi giochi totalmente in biodiversità totalmente creati con la biocanapa per metterli poi a disposizione della gente del posto in maniera totalmente gratuita noi crediamo tanto in questo progetto e tantissimi anni che ci crediamo e lo portiamo avanti e finalmente stiamo cominciando a mettere le basi qui a Ribolla in Maremma in Toscana dove abbiamo preso un podere con annesso un agriturismo dove faremo fattoria didattica dove ci sarà la coltivazione della canapa dove ci sarà anche un centro polifunzionale di ricerca formazione e trasformazione della canapa industriale partiremo con una base di produzione di infiorescenza per poi passare nel 2022 con la trasformazione anche di fibre e canapolo e nel 2023 con la trasformazione dell'alimentare quindi olio, semi e c'è olio, farina prodotti e sottoprodotti derivati dal seme siamo presenti anche al tavolo e aspetta no 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 è questa domanda te la faccio dopo non mi anticipare va bene scusa ok allora c'è raggiunto nel frattempo Giovanni Milazzo il titolare di Canesis che si occupa appunto di bioplastica benvenuto grazie per aver accettato il nostro invito vorrei vorremmo vorrei chiederti per quanto riguarda appunto la bioplastica come viene utilizzata la cannabis e quali sono i benefici no ovviamente di questa produzione innanzitutto ciao grazie per questa cosa che avete organizzato che serve che serve a diffondere che serve anche a parlare incontrarci tra di noi ciao Vincenzo come stai quanto tempo e niente questo innanzitutto poi grazie a te per grande io volevo collegarmi brevemente a quello ha detto Francesco i centri polifunzionali assolutamente sì però seguendo quello che è la terra che è la zona per le condizioni petroclimatiche che ci sono consiglia ci sono zone dove si può fare la fibra altre zone dove non si può fare questa è una cosa importante che a volte si diciamo trascura a parte questo io utilizzo la canapa in particolare utilizzo nello sviluppo nella produzione sviluppo di materiali termoclastici quindi con canesis gli altri brand collegati a canesis che sono imprinted per la stampa 3D ed ecofilament per infilamenti ne parliamo dopo anche di questo sì quindi praticamente cioè diciamo quali sono i benefici di utilizzare la cannabis rispetto alla plastica normale sì 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 assolutamente scusami mi ero perso la domanda allora questa è una cosa interessante perché io ho fatto degli studi in particolare sulla fibra di canapa sul canapolo di canapa rispetto alla secatura di legno e rispetto appunto sia alla fibra al canapolo la cosa che è venuta fuori ho fatto delle analisi di questi elementi all'interno dei materiali termoplastici la cosa che è venuta fuori è che la secatura di legno non ha alcun apporto interessante anzi diventa il materiale diventa molto più fragile nella fibra di canapa quindi con l'utilizzo della fibra di canapa il materiale rispetto al materiale vergine senza additivazione ha poche cariche a poca carica non ha non ha praticamente alcuna differenza mentre nella segatura di legno diventava più fragile a poca carica non ha nessuna differenza con la fibra di canapa a grande carica e già cambia con l'utilizzo del canapolo invece cambia tutto la cosa interessante è che prima di me il canapolo non l'aveva utilizzato nessuno non che sia una cosa di cui vantarlo nel senso che è stata una cosa interessante di cui neanche io neanche io sapevo e facendo queste analisi abbiamo scoperto lo presento additivando semplicemente il canapolo a materiali termoplastici anche a poche cariche diciamo 20% in peso dei miglioramenti sulla resistenza allo snervamento e sul modulo di Vian che cosa che non succede mai nei materiali termoplastici quando additivi appunto in materiali termoplastici con una polvere di qualsiasi genere non succede mai si infragilisce sempre come nel caso della secertura di legno solo con con il canapolo si è migliorata la resistenza a trazione è aumentato il modulo di Yang quindi la rigidezza del materiale diciamo la resistenza alla deformazione se vogliamo trovare un termine più vicino tra virgolette mentre con gli altri materiali perché come come sapete penso utilizzo anche altri sottoprodotti agricoli per fare filamenti e altri materiali plastici e ho fatto analisi anche con questi e la cosa interessante è stato che ogni sottoprodotto agricolo basta che non sia legnoso che non derivi da legno o da da albero qualsiasi sottoprodotto da un risultato differente nel caso del fiore di canapa utilizzato per esempio non è che ho utilizzato proprio il fiore ho utilizzato lo scarto della trebbia dei fiori praticamente la raccolta delle dei semi nel periodo dei semi in Sicilia c'era ancora un po' di infiorescenza nelle nelle piante noi abbiamo raccolto questi questi abbiamo raccolto questa polvere questa diciamo le brattè dei semi e questo poco di fiori che c'erano però su etteri è venuto fuori un po' di roba certo e quindi guardata al materiale essendo ancora presenti che hanno di noi quindi che sono lipidi sono ha funzionato come se fosse un emozionante un elasticizzante e quindi il materiale è diventato più elastico dal 3% di partenza del materiale dell'acido polilattico e delle adipate è passata al 8.9 quasi al 9% di allungamento prima di rottura no mi senti quindi questo quindi arrivata al 9% è una cosa che non succede mai perché anche in questo caso se tu additivi una polvere per esempio la secatura o qualunque polvere ad una qualunque materiale plastico questo diventa più fragile il cannabino di canapa abbiamo visto che forse per via della presenza di silicio o forse per altre cose che ancora non sappiamo aumenta questa resistenza mentre la secatura di legno che è identica morfologicamente è identica fisicamente parlando poi chimicamente è differente e la fibra corta di canapa invece ha altre proprietà è differente interrompo un attimo così facciamo un secondo giro di domande al quale avete più o meno tre minuti a testa per rispondere in modo tale da rimanere nei tempi per il prossimo collegamento perché come sapete siamo di corsa un intervento dopo l'altro quindi purtroppo dobbiamo stringere ecco diciamo così quindi passerei di nuovo a Vincenzo Guarnieri e gli vorrei chiedere quali sono le problematiche ad oggi sulla appunto su tutto quello che riguarda la trasformazione cioè che cosa è che in Italia diciamo dove il settore industriale della cannabis trova un blocco un inceppo cos'è che non la fa ritornare la grande coltivazione che avevamo cento anni mi collego a quello che ha detto appena verso Giovanni che ho trovato molto interessante se qualcuno ha ascoltato credo che dovrebbe segnarsi le parole che ha detto perché sono veramente un punto d'attenzione e ti rispondo velocemente e la parte meccana quando 50 anni fa si è scelto per un discorso puramente diciamo così legato ad altri contesti che non c'entrano nulla con la cana anzi per toglierla dai piedi perché era un problema per altri prodotti era il momento in cui si stava iniziando a costruire quella che sarebbe poi diventata la industrializzazione delle macchine senza macchine è difficile produrre materiale in modo industriale nel senso che i numeri se porti della gente in campo ha dei costi fuori norma nel senso che non siamo un paese sottosviluppato il costo di una persona come ore uomo ha un costo importante l'unico modo per rendere poco costoso la materia prima è far lavorare le macchine macchine che devono fare una produzione come dicevo prima di qualità perché batto sulla qualità perché quello che diceva Giovanni che per me è la base di produzione passa attraverso la capacità di mantenere la qualità del prodotto in campo cioè se io ho del prodotto di qualità nel campo e lo lavoro in qualità quello che ottengo di conseguenza cascata è altrettanto qualità questa è una base importantissima per poter permettere a quel materiale di essere in qualche modo diciamo così vendibile su un mercato internazionale non solo per un discorso di numeri ma proprio per le capacità intrinseche ha detto bene Giovanni non è lo stesso avere cellulosa di canapa e cellulosa di legno fatta da albero perché chimicamente sono prodotti diversi possono essere sfruttati in modo differenziato ma deve essere riconosciuta la capacità tecnica di questi prodotti che io parlo per il discorso della cellulosa ma non soltanto perché come ha detto lui lavorare ad esempio anche sul risultante del fiore è altrettanto importante da un punto di vista industriale per una produzione plastica se non di altro materiale va da sé che tutti questi prodotti devono essere trattati con con la giusta posso dire rispetto ecco se si riesce a trattare il prodotto facendolo rimanere quello che ha come qualità nel campo abbiamo vinto una partita che va oltre la capacità tecnica dell'idea nel senso che stiamo producendo industria e questo è un valore che oggi specialmente oggi dovrebbe fare la differenza su tanti tavoli perché stiamo dicendo di lavorare su prodotti che possono sostituire materiali che oggi sono assolutamente invasivi dal punto di vista del nostro modo di vivere e che non avrebbero nessun impatto anzi sarebbero migliorativi da quel punto di vista per la vita che abbiamo quindi sarebbe assolutamente importante far capire che l'industria dovrebbe andare di pari passo con la qualità e di conseguenza con una produzione innovativa così come ha fatto come ricerca Giovanni per rendere un prodotto che è antico nuovo nuovo tanto quanto è la capacità che ha di ribaltarsi e ricostruirsi su fronti completamente differenziati grazie mille Vincenzo grazie e allora passerei la parola di nuovo a Francesco Vitabile che con Resilienza Italia Onlus fa parte del tavolo del MIPAF ovvero appunto un tavolo istituito appunto per riattivare la filiera Canapaia in Italia e se ci vuoi in pochi minuti dire quello che puoi perché so che tante cose non possono uscire dal tavolo ma se ci vuoi un po' dire insomma qualcosa su a che punto sono i lavori di questo tavolo industriale interministeriale grazie grazie Nadia sarò brevissimo e tutto quello che dirò è visionabile anche sul sito del Ministero dell'Agricoltura nel settore filiere agricole e filiera Canapaia è stato istituito questo tavolo non la ripresa ma è stato proprio per la prima volta è costituito un tavolo di filiera Canapicola in Italia e a dicembre del scorso anno e a febbraio è stato istituito questo tavolo ufficialmente con un ulteriore decreto ministeriale messo anche in gazzetta ufficiale questo tavolo si suddivide diciamo ci sono 48 membri è un tavolo si è organizzato dal Ministero dell'Agricoltura che parlerà di agricoltura e che parlerà di tutto il settore agricolo di questa filiera ma effettivamente è un tavolo complesso perché all'interno di questo tavolo ci sono anche vari ministeri che coinvolgono la Canapa perché sì vero è che la Canapa è una pianta vero è che fa parte dell'agricoltura però vero è che è una pianta che fondamentalmente coinvolge tantissimi ministeri tantissimi settori coinvolge il Ministero della Salute coinvolge il Ministero dell'Interno coinvolge il Ministero dell'Agricoltura coinvolge tanti altri ministeri e tante altre associazioni siamo in tutto circa 48 in questo tavolo ci siamo suddivisi in gruppi di lavoro stiamo iniziando i lavori abbiamo veramente iniziato i lavori come gruppi di lavoro per cominciare a redigere un piano di settore per la filiera Canapicola quindi diciamo che è un settore che anche a livello ministeriale a livello governativo si sono resi conto che ha bisogno e necessità di crescita ha bisogno e necessità di sviluppo ha bisogno e necessità di dare chiarezza e di avere chiarezza perché bisogna dare chiarezza agli agricoltori bisogna non terrorizzare questi agricoltori perché oggi si sta facendo terrorismo psicologico anche a chi pianta la canapa per qualsiasi uso e qualsiasi utilizzo non solo per chi pianta la canapa per l'infiorescenza ma si creano problemi anche a chi pianta la canapa per seme piuttosto che per fibra perché fondamentalmente non c'è e la giusta divulgazione di quello che è questa pianta o di quello che sono le normative la legge e tutto quello che si può fare di questa pianta quindi manca effettivamente la comunicazione manca effettivamente l'informazione che è quella che state dando oggi voi e che è molto positivo e che spero che si continui a dare uniamoci tutti cerchiamo di parlare della pianta e non solo parlare di legalizzazione piuttosto di canapa industriale parliamo proprio della pianta per quello che è e così sono sicuro che andremo avanti e che si farà qualcosa di buono io quello che chiedo è stateci tutti vicino noi possiamo essere diciamo un punto di riferimento fra tutte le associazioni tutti gli agricoltori tutti quelli che amano questa pianta e quelle che sono le istituzioni ricordatevi che ci siamo anche noi siamo 5 associazioni elette e quindi poi messe al tavolo di filiera della canapa rappresentiamo le associazioni nazionali canapicole e quindi qualsiasi suggerimento è apprezzato qualsiasi richiesta è apprezzata e siamo a disposizione per ragguagliarvi ogni qualvolta c'è una novità e ogni qualvolta c'è da dire o da fare qualcosa sicuramente saremo quelli che faranno battaglia al tavolo se bisogno ci sarà di fare battaglia sicuramente saremo quelli che metteremo i puntini sulle I se ci sarà bisogno di mettere i puntini sulle I sicuramente saremo quelli che porteranno avanti i bisogni le necessità degli operatori del settore degli agricoltori del mondo agricolo di tutto quello che i giovani e il mondo e il lavoro perché ricordiamoci che oggi il 90% di chi produce questa pianta e di chi coltiva questa pianta sono ragazzi sotto i 40 anni quindi quando si parla di giovani e mondo di lavoro e mondo del lavoro qual è meglio di questo? Perché non dare la possibilità perché non provare a dare vita a vigore a questa pianta che potrebbe farci coltivare il 70% dei terreni che oggi sono incolti e incoltivati in Italia oltre a tutto quello che c'è dietro quindi l'ossigenazione dell'aria quindi la fitodepurazione ricordiamoci che questa pianta produce 250 volte più ossigeno rispetto nettaro di foresto nettaro di canapa e sequestro il 15% di CO2 rispetto nettaro di foresta quindi abbiamo solo dei benefici continuiamo a lottare però qualcosa si sta muovendo Nadia sia da parte vostra che da parte nostra bisogna unire le forze e provare ad andare avanti tutti insieme assolutamente ce la possiamo fare ce la faremo ne sono convinta io come sai sono molto ottimista infatti insomma siamo resiliente interesse da resiliente esatto passo la parola per l'ultima domanda Giovanni Milazzo che chiudiamo con gli ultimi pochi minuti che ci rimangono per questa meravigliosa tavola rotonda sugli aspetti anche industriali della cannabis che non possiamo assolutamente ignorare perché sono veramente infiniti volevo chiederti Giovanni voi so che siete molto impegnati sulla stampa 3D appunto e volevo sapere insomma avete fatto anche delle ricerche state facendo sempre dei nuovi materiali se ci vuoi raccontare brevemente di questo settore di cui vi occupate la stampa 3D ovviamente con la finamenti di cannabis certo innanzitutto grazie a Vincenzo e Francesco per il loro per il loro intervento interessante diverso e sempre sono sempre contributi che possono essere spesi in questo momento in cui si stanno è un momento in infermento e invece rispetto a quello che ho appena detto devo dire perché una cosa interessante è che non solo la canapa ha infiniti usi ma in alcune applicazioni particolari che l'uomo ha che l'uomo è dedito diciamo usare o comunque applicare è migliore della migliore del migliore altro materiale che c'è in questo momento sul mercato cioè quindi è una cosa interessante di mercato per il mercato per la stampa 3D è stata una cosa interessante perché poi mi ha portato a diciamo immaginare quello che adesso è diventato un portafoglio prodotti molto interessante perché presente noi abbiamo dei filamenti che nessuno ha al mondo perché noi mettiamo i sottoprodotti agricoli all'interno dei filamenti ma prima ancora mettiamo i sottoprodotti agricoli all'interno dei compound perché sapete che i filamenti vengono fatti a partire da un compound termoplastico il compound niente altro è che il granulo termoplastico la ghiaietta termoplastica tramite la quale si fa qualunque oggetto in plastica nel mondo qual è il fatto che in questi materiali termoplastici in qualsiasi materiale termoplastico nel compound quando si producono si utilizzano da un 5 a un 20% di additivi sintetici in qualsiasi materiale cioè da bioplastiche a materiali sintetici petrochimici qualsiasi plastica materiale plastico ha da un 5 a un 20% di additivi sintetici benissimo noi non li usiamo noi siamo l'unico materiale perché? perché gli additivi sintetici contengono coloranti fluidificanti migliorativi del processo stabilizzanti chimici elasticizzanti aumentano la resistenza eccetera mentre noi al posto degli additivi noi non utilizziamo coloranti non utilizziamo additivi non utilizziamo niente solo il PLA puro additivato di santo prodotti agricoli che danno il colore e le proprietà meccaniche questa è la cosa interessante e io questo l'ho scoperto perché non si sa in giro la gente non lo sa che nelle plastiche ci sono anche nelle bioplastiche il colore è sintetico ma è una cosa che non ha senso perché la parte sintetica degli additivi è la parte più tossica delle plastiche è la parte la prima parte volatile che è la prima parte che si stacca dalla plastica è la prima parte che va nelle soluzioni è una roba allucinante il fatto che non sia comunicato e io sto lavorando su questo sto lavorando sto creando una struttura su web sia ovviamente per la parte commerciale sia per la parte di diffusione perché è fondamentale sapere che anche nelle bioplastiche che siamo convinti le bioplastiche le dobbiamo buttare nel compostabile si nel compostabile ma dopo un processo di compostabilità che dura forse mesi non lo sappiamo e a temperature e pressioni allucinanti nella compostiera così non funziona in più ci sono tutti i coloranti che comunque se ne vanno anche se li metti nel compostaggio se ne vanno nell'humus che poi l'azienda di compostaggio produce quindi è un sistema che ancora non ha bene afferrato il concetto non è è un sistema che ha bisogno ancora di di aiuto stiamo lavorando tanto certo è cambiato tanto anche da due anni a questa parte nel mondo della plastica parliamo tre anni fa la parte del compound che ho diviso all'azienda sviluppo compound per le aziende che fanno plastiche che fanno cose in plastica quindi gli faccio un compound che vogliono loro o il sottocorotto agricolo che vogliono loro e poi faccio bei filamenti e le altre cose la parte del compound tre anni fa non esisteva cioè esisteva ma c'erano poca roba in Giappone cioè qua niente c'era in Giappone poca roba in Nord America poca roba ora qua in Europa in Italia addirittura si sta cominciando a muovere arrivano le richieste arrivano aziende italiane toscane mi chiedono il compound sono disposto a pagarlo tanti euro al chilo perché ricerche sviluppano però è una cosa già che è interessante perché perché comunque la politica sta cambiando un po' i regolamenti e altrimenti se c'era il dito mi stai a ascoltare parole perché siete tutti veramente meravigliosi innanzitutto vi ringrazio perché siete comunque tre persone estremamente impegnate nel settore della cannabis ma anche nella ricerca perché per fare tutti questi prodotti per andare avanti insomma nelle vari progetti che avete avete fatto tantissima ricerca tantissimo studio e io veramente vi ringrazio a nome di tutta la popolazione italiana perché ve lo meritate veramente quindi grazie veramente del vostro contributo grazie per il vostro contributo al Cannabis Day e niente ci rivediamo prossimamente per le prossime iniziative di questa nuova di questa nuova unione tra le associazioni che appunto che appunto Unit of Cannabis Unit Association of Cannabis che nasce oggi con questo grande evento il coordinamento di queste di più di 30 associazioni e media italiani che insieme dobbiamo appunto farci sentire e farci vedere per appunto fare come dici anche tu Francesco Giovanni la divulgazione una diffusione sempre maggiore di quello che è la Cannabis e tutto quello insomma che sono i benefici che ne porto benissimo allora vi ringrazio tantissimo grazie Francesco di Resilienza Cagliamalus grazie Vincenzo Guarnieri di Policanapa grazie Giovanni e andiamo avanti passo la linea alla regia grazie Nadia grazie grazie veramente tanto forza ragazzi grazie ok ragazzi allora i premi i premi terzo premio terzo premio perché è stato attento a questo tavolo industriale il terzo premio è del valore di 150 euro sono 13 barattolini gelato cbd offerti dalla canapalegale.it un capellino cold dealer tre bustine di canapa un portachiavi in biocanapa scusate quindi poi di roots sempre il pacchetto tutto il pacchetto che comprende tre bustine di canapa un portachiavi in biocanapa tre confezioni di pasta i taralli i frullini i semi decortecati i crostini e la farina dei semi quindi tutti questi premi per chi risponde sotto la diretta di youtube alla domanda che mi sono segnata questa domanda è doppia perché il premio è spicuo e quindi le domande iniziano ad essere un pochino più difficili diciamo allora quindi la domanda è questa quando è stato istituito il tavolo del Mipaf e quanti membri partecipano ok passo la linea alla regia che dovrebbe esserci il video di fatti segreti che prima si è frizzato giusto? quello che ho subito io non dovrebbe subirlo nessuno non mangio da ieri a pranzo e sono le 23 e 58 non ho ancora bevuto oggi queste storie da medioevo devono finire ciao ragazzi quella che state per ascoltare è la registrazione audio di una testimonianza che ci è arrivata qualche giorno fa sul nostro sito a scriverci è stata questa ragazza di 35 anni che soffre di fibromialgia e purtroppo ci ha raccontato quello che è il calvario che ha dovuto sopportare per diversi anni per poter accedere legalmente alla propria terapia a base di cannabis a cui aveva diritto per legge purtroppo questa storia così toccante è condivisa da tantissimi altri pazienti in Italia ed è proprio condividendo queste testimonianze facendole arrivare a più persone possibili che speriamo di poter sensibilizzare l'opinione pubblica e far sì che si ottenga una migliore regolamentazione sia per quanto riguarda i pazienti sia per quanto riguarda l'autoproduzione di questa terapia così che sia più economica e più accessibile da parte di tutti vi lascio all'ascolto 5 anni fa un terapista del dolore riesce finalmente a dare un nome a dei sintomi di cui soffrivo da una vita intera ovvero dolore diffuso in tutto il corpo inappetenza rigidità muscolare insonnia mal di testa problemi gastrointestinali colon irritabile confusione detta anche nebbia mentale fino ad ansia depressione acuta problemi cognitivi disturbi dell'attenzione attacchi di panico e tanti altri sintomi la patologia è la fibromialgia ma in più soffro di epilessia del lobo frontale notturno che non mi è ancora stata inossicata quando raccontai tutto questo al mio medico ero poco più di un adolescente così lui invece di mandarmi da un terapista del dolore pensò bene di schiaffarmi in mezzo degli psichiatri e fu così che iniziò la mia fantastica avventura con la droga premetto che io non ho mai provato nulla oltre l'erba gli alcolici che neanche mi piacciono e le sigarette che neanche fumò più da due anni comunque mi mandò dai peggiori psichiatri che cominciarono a somministrarmi di tutto ansiolitici antidepressivi come se piovesse Xanax Valium Zalofit Udite Udite lo sciroppo Abilifi altro che THC che non ha mai ucciso nessuno dunque passo anni e anni a farmi imbottire di farmaci divento gonfia come un pallone per non parlare poi degli effetti collaterali convulsioni l'appetenza troppo appetito latte al senno irritabilità apatia totale nei confronti della vita e tanti altri fantastici sintomi staccavo e riprendevo farmaci che mi facevano solo stare peggio fino a sei anni fa quando un conoscente mi offrì della cannabis e in quel particolare giorno in cui ero più dolorante notai delle differenze da lì cominciai a capire che la cannabis mi dava davvero sollievo mi disintossichai da tutti quei farmaci e cominciai a comprare cannabis in piazza il tutto durò un anno perché poi ebbi la prima prescrizione da uno specialista altro che meggiogorie consumando un grammo al giorno di cannabis terapetica stavo da dio ma costava troppo così decisi di avvicinarmi all'autoproduzione cercando strain che si avvicinassero a quello preso in farmacia per tre anni andò tutto liscio finché purtroppo ad ottobre del 2020 un grosso problema mi fece perdere quasi tutto il raccolto così mi ritrovai con pochissimi grammi e all'inizio del primo lockdown fui costretta a chiedere la ricetta al mio medico curante 12 grammi in tutto arriva l'estate coltivo tutto ok ma per via di un imprevisto perdo nuovamente quasi tutto il resto del raccolto però mi dura esattamente fino a metà gennaio 2020 quando terminai completamente tutto così mi toccò richiamare il mio medico che sorpreso nella sua ignoranza mi chiese come mai da aprile a gennaio avessi già finito tutto da notare che nella ricetta di aprile 2020 erano prescritti 12 grammi mi chiedo come pensavo potessero durarmi tutto l'anno dato che ne consumo un grammo al di mi dice quindi che non può farmi nessuna ricetta e io cerco di spiegargli che il mio fabbisogno è di un grammo al giorno tant'è che nella ricetta c'è scritto quindi è tutto documentato io ripeto che non è come dice lui che era assurdo mi facesse domande sapeva che mi curavo così e sapeva perché lui era ancora quello stesso medico che mi aveva dato impasto agli psichiatri sì sì lo so era ancora lui non giudicatemi vi prego avrei dovuto cambiarlo lo so ma le cose non sono sempre facili per tutti passano altri 12 giorni ed io finisco nuovamente la mia terapia essendoci ormai freddo e non avendo attrezzatore per coltivare indoor capisco che l'unica è farmi rifare una ricetta il medico mi dice però categoricamente che non può che è assurdo che ne richieda un'altra e io gli spiego nuovamente che è la mia terapia e non capisco perché non vuole prescrivermela vado dunque fino al suo studio con tanto di cartella della mia vita medica gli dico che ho dei diritti ma lui mi dice che se non vado via chiama la polizia io ho molta paura delle forze dell'ordine purtroppo da coltivatrice sono infissa mi causano un pochi disagi ho sempre paura che mi becchino e la paura si è trasformata in terrore un terrore che mi ha fatto avere non pochi disagi nella vita quotidiana tanto da perdere il lavoro ma questa poi è un'altra storia dicevamo lui dice di chiamare la polizia io con la coda in mezzo alle gambe vado via avevo già fin troppi problemi e il mio medico voleva davvero appiupparmene di altri non ci credevo e sapete cosa ho dovuto fare per farmela prescrivere? ho dovuto prenotare una richiesta da un terapista del dolore il problema è che non sapevo di essere finita dalla padella alla barace il mio medico curante come del resto aveva fatto con la mia celiachia certificata da quando avevo otto mesi ovvero signora non penso che lei sia celiaca proprio a mangiare la pasta penso bene di giustificarsi del fatto che la ricetta non voleva farmela perché presumeva mi fosse passata la fibromialgia quindi a detta sua dovevo andare per la terza volta da un terapista per farmela diagnosticare altrimenti niente ricetta così andai all'appuntamento entrai spiegai tutto ma uno non sapeva come si diagnosticasse la fibro due davanti a me cercava i sintomi su google tre mi guarda e mi fa sei in astinenza vero? io non assumevo cannabis da settimane non camminavo bene ero confusa mi metto le mani nei capelli ad alta voce e dico no questo non è reale non è possibile prendo il cellulare per vedere l'ora ero con gli occhi di fuori ma non appena prendo il cellulare la dottoressa che è con il terapista mi guarda guarda al medico e fa attento sta registrando io non ci vedo più ormai sono gonfia di dolore di rabbia di sbigottimento sono fuori di me non credo a quel che sta accadendo spiego al medico cercando di controllarmi che dovrebbe diagnosticarmi la fibromialgia lui si alza mi prende per una spalla mi porta dietro la tendina senza farmi stendere o sedere e comincia a toccare a casaccio non conosceva nemmeno i tender point non sapeva nulla avevo fatto altre visite di diagnosi e non c'entravano assolutamente nulla con questa ad un certo punto la mano gli scese e mi palpò letteralmente il culo dandomi poi una pacca su di esso dicendomi puoi andare io ero paralizzata scrive il foglio dove dice che ho la fibromialgia anche se non sapeva nemmeno come si diagnosticasse mi riconferma un grammo al di di cannabis terapeutica ed esco senza parlare lui mi fa l'occhiolino torno dal medico il pomeriggio stesso distrutta psicofisicamente lui mi fa la ricetta è viva passano 12 giorni la ricetta era di 12 grammi finisce di nuovo e penso alla guerra che mi aspetta ancora e ancora prima dell'estate prima della mia erba pulita dalla mafia che poi coltivando la mia dato che c'è carenza nelle farmacie quella che non prendevo io la prendeva un altro malato no? meglio così finisco sti 12 grammi ed io sono lì che guardo il telefono e penso devo chiamare il medico non so che altro fare so che ha un mio diritto ma lui non è d'accordo con me ma se non lo chiamo che faccio? tutta sudata piena di dolori senza aver mangiato da giorni disidratata e depressa lo chiamo e lui mi dice ancora che non può prescrivermi nulla che adesso sto esagerando e persino che sembro una tossica ribadisco dicendogli che sto male che abito da sola che non riesco più a sopportare di stare così e che penso al suicidio perché questa vita così non è fattibile gli dico che era assurdo aver sofferto per una vita aver scoperto cosa mi fa stare bene e avere tanta difficoltà nella prescrizione e inoltre gli chiedo se fa così anche con chi gli chiede l'insulina se vieta le pillole per il cuore è un cardiopatico ma lui mi risponde che non c'entra nulla ora voi vi chiedete perché non cambi medico? così inizio a dire al medico che sto davvero male che non riesco a cucinare a lavarmi eccetera e che abito da sola e mi risponde di andare a vivere con mia madre evito di insultarlo però e continuo a parlare gli dico che sono stanca di questo bullismo che la cannabis è stata declassata dalla tabella 4 e che è legale a scopo medico dal 2007 che adesso ci sono i corsi di formazioni per medici e farmacisti e tante altre cose e lui mi dice che non ha tempo per queste cose mi spiega che non può farmi nessuna ricetta e che devo cambiare medico perché lui non può più essere il mio wow fallimento riuscito mi chiedo il telefono dicendomi che ha pazienti mi chiedo cosa fossi io per lui e che deve lavorare urlo per la disperazione quasi svengo comincio a stare male attacco d'ansia sudavo parecchio ero confusa sbatto i pugni su muri mi infilo in doccia mi riprendo un attimo faccio varie telefonate sfogo e mi ricordo di una terapista che mi aveva diagnosticato la patologia e la chiamo chiedendole se per favore potesse contattare il mio medico facendogli cambiare idea immaginatevi la vergogna di andare a disturbare medici che lavorano sul serio fortunatamente la terapista riesce a fargli cambiare idea e mi fa la ricetta ma il medico a questo punto è sempre più ferito nel sorgoglio e come avrete capito passano altri giorni ed io rimango nuovamente senza nulla questa volta però le mie condizioni sono diverse ne ho usato molto meno al giorno infatti sono dimagrita nuovamente soffrendo di inappetenza non è mai facile rimanere a normo peso poi senza la dovuta terapia accade questo ed altro cominciarono ad uscire tutti quei sintomi che ero riuscita a tenere a bata con la cannabis e al sol pensiero di ricominciare a star male mi veniva voglia di morire chiamo il medico volevo sparire mi chiedevo se fosse normale sentirsi dalla parte del torto e mi chiedevo anche se fosse normale che il paziente dovesse arrivare a star male per colpa del proprio medico avevo persino paura nel chiamarlo per la sua reazione come era possibile così ritardo ancora e ancora fino all'altro ieri quando lo chiamai per l'ultima volta e mi ribadivi di cambiare medico ne trovai un altro allora propenso anche a farmi la ricetta ed egli mi disse di chiamare il mio vecchio medico per fare l'ultima ricetta poiché il cambio richiedeva giorni così presa dal coraggio datomi dal nuovo medico che presto mi avrebbe seguito il pomeriggio stesso chiamò il mio attuale medico spiegandogli che sarei andata via dato che mi aveva invitato più volte a farlo doveva solo farmi un'ultima ricetta e non mi avrebbe vista mai più in fondo me l'aveva ripetuto da mesi di andarmene dunque glielo chiedo per tamponare almeno il cambio e lui mi dice che non può parlare con me perché ha dei pazienti e io a questo punto mi chiedo cosa diamine sono mi dice che non può farci nulla che se sto davvero male devo andare al pronto soccorso e io mentalmente penso ma che mi fermo gli dico che vuol dire e mi dice con chiarezza e mi sento una stupida non aver registrato che io non ho bisogno di cannabinoidi ma di Xanax e psichiatri al che io gli dico che tra poco avrei chiamato la polizia io la polizia vedi tu che cosa mi tocca fare per la disperazione che sono stanca e che questo gioco deve finire ma mi dice che sono in astinenza che i sintomi che ho sono per l'astinenza non per la patologia lo mando letteralmente a fanculo e ripartono le telefonate sfogo con altri pazienti combinati nel mio stesso inferno perpetuo pianti singhiozzi stare di male in peggio poiché essendo la fibromialgia una patologia psicofisica quando ti arrabbi i dolori si quadruplicano e alla fine non mangi e non bevi più disperata chiamo la farmacia dalla quale compro la cannabis terapeutica da anni supplicandoli di chiamare il mio medico cosa che fortunatamente fanno per fargli capire che quel che stava facendo era ostruzionismo bello e buono bene il mio medico invece di contattare me chiama mia mamma probabilmente per vergogna e le dice che domani mattina la ricetta è pronta ogni volta mi diceva che non poteva poi alzavo il polverone e stranamente poi poteva farmi la ricetta immaginate di star male di aver trovato un aiuto fantastico non dato da pillole bianche e immaginatevi che vi facciano questi problemi per averlo tutto si tramuta in inferno eccoci a tutti ciao siamo tutti stanchi anche la regia forse non si è accorta che era finito il video ma ho cercato di capirci no effettivamente non me ne ero accorto perché era il telefono con pot radio siamo in attesa di collegarci con Raina abbiamo anche collegato Ertical Taua e prima prima di andare avanti io farai il secondo premio perché ormai manca un'ora alla chiusura quindi facciamo il secondo premio lo lanciamo allora con un po' di pazienza Daniele facciamo la la penultima premiazione di questo di questa giornata esatto allora il secondo premio per il secondo premio abbiamo ben 5 kit che comprendono infiorescenze selezionate di canapa stativa offerte da Miss Joint poi abbiamo 15 barattolini generato di CBD offerti dalla canapalegale.it e un cappellino cold dealer quindi abbiamo praticamente un sacco di un sacco di premi il secondo premio a chi risponde alla domanda mi raccomando rispondete sempre sotto la diretta di youtube perché è l'unico il posto valido dove andremo poi a prendere tutte le risposte i primi che avranno risposto per poi aggiudicare i premi e spedirveli quindi la domanda è da che anno è da che anno è legale la cannabis in Italia questa è la domanda facilissima l'abbiamo detto mille mille volte durante tutta questa giornata questo cannabis day meraviglioso e anche un po' infinito direi a questo punto quindi passo di nuovo la parola a Zach che lo ringrazio tanto spero che insomma manca solo un'ora dai Zach ce la possiamo fare dai computer ce la possiamo fare è caduto un paio di molte però ce l'abbiamo fatta alla fine dai allora in attesa di collegarci dicevo con pot radio proprio per il discorso che facevamo prima dell'unità di intenti noi oggi abbiamo come dicevi benissimo prima siamo riusciti ad unire diciamo non diciamo decine svariate decine di associazioni organi di stampa e quant'altro eccola là abbiamo già avuto il collegamento con nonna Canapa ho visto bene eccolo non ti sentiamo Daniele però adesso mi senti? adesso sì quindi dicevo proprio questa unità di intenti oltre al collegamento che abbiamo fatto bellissimo alle 19 con la calada i ragazzi che stavano facendo la trasmissione in Spagna c'è anche un'altra realtà che a me sta molto a cuore che è pot radio è una web radio romana però adesso sta facendo un DJ set giamaicano suona molto regga antiproibizionista e volevo provare a chiamare io non so se sono già passati quattro minuti mi hanno dato quattro minuti quindi intanto magari facciamo presentare il nostro ospite musicale Erti Kaltawa e che è Daniele da Castro esatto scusami non ti ho sentito c'è un problema di streaming allora Daniele scusami un attimo ancora un'altra volta per la quarta volta vediamolo ce l'abbiamo qui chi è eccolo qua si vede Raina lo sentite buonasera ragazzi siamo in diretta qui con il Cannabis Day mi vedete ragazzi ci vediamo dopo poi per il primo premio io vi lascio un attimo stiamo unendo due manifestazioni streaming che sono andate in contemporanea di solito c'è sempre diciamo un po' di rivalità e invece noi dall'inizio abbiamo voluto per molti minuti di tempo ci siamo riusciti di solito ma volevamo fare interagire queste due cose per un segno di unità pure a tutta la scena la scena cannabica spesso disgregata quindi grazie di questo collegamento anche se diciamo di bassa qualità ma simbolico assolutamente sì diciamo la stessa cosa veramente grazie a tutte le realtà oggi è un giorno particolare ma noi 4 e 20 4 e 20 every day man e quindi siamo i soldier non dobbiamo mollare mai questa giornata l'abbiamo voluta dedicare a Walter di Benedetto che come tutti sanno insomma sta subendo oltre ai problemi legati alla sua salute anche il problema dalla parte della legge quindi deve essere sottoposto a un processo nonostante lui sia allettato per gravi patologie perché è accusato lo dico per chi non lo sapesse è accusato appunto di detenzione di cannabis anche diciamo caduta nel penale quindi lui coltivava l'erba per sé per curarsi lì invece com'è andata? guarda qui abbiamo appena superato le sette ore e passa di streaming diciamo che è stata bella dura interventi via tutte le parti e devo dire che abbiamo respirato un piccolo qualcosa sta per cambiare anche quindi non lo so è da tanto che uno spera di avere questa sensazione però anche se il momento è difficile mi è arrivato qualcosa non so dirti da vari interventi da varie persone parlamentari abbiamo saputo da free weed che la discussione in Parlamento è andata bene insomma non dipende da noi speriamo che la cosa cambi è vero comunque è vero quest'anno era lo dicevamo anche noi la qualità degli ospiti dal Parlamento insomma ci abbiamo avuto onorevoli anche noi quindi voglio dire alla fine qualcosa forse si muove dicevamo prima no? eppure si muove qualcosa va bene Raina grazie un abbraccio a tutti voi che state là ti salutano tutti ti chiedeva l'Ampa chiedeva no non lo sentiamo non ti sentiamo più dice che dovrebbe no no dice che io sto col telefono io sto in cuscia quindi non lo puoi sentire diceva che sarebbe ora di mettere insieme tutte queste varie faccettature che fanno l'antiproibizionismo è una spinta unica questo diceva io ti mando un abbraccio ti salutano tutti anche se tu non ti senti un abbraccio a tutti buon 420 tutti i giorni every day grazie a tutti anche a voi tanti saluti vi vogliamo bene ok adesso è il momento musicale uno dei tanti di quest'oggi abbiamo detto Ertical adesso ti puoi presentare adesso tocca a te ciao a tutti mi sentite? sì sì molto chiaro a Zagalicious è un ringraziamento speciale a tutte le associazioni coinvolte e gli operatori dietro questa giornata così significativa perché ovviamente curarsi è un diritto e noi siamo con Valter del Benedetto come con tutti coloro che hanno diritto alla cura in Italia e nel mondo ovviamente però nel mondo sono già molto più avanti di noi però un ringraziamento agli operatori veramente e a tutte le associazioni coinvolte in una canapa e con Valter del Benedetto e con tutti coloro che hanno bisogno di curarsi con la canapa sì Ertical Tovo Sound System è qui per fare il proprio set e ringrazio ovviamente l'ospitalità buon 4 e 20 a tutti ancora non è finito quindi ci facciamo quest'ultima oretta insieme e noi andiamo a fare questo piccolo set è stato il set di Ertical Tovo Sound System original style un ringraziamento ancora a Zagalicious no ma che grazie a te scherzi è stato è stato un come? un ringraziamento a tutti voi questa è ovviamente una femmina a tutti perché questa è una famiglia non può essere l'hai detto bene e quindi siamo tutti uniti per un unico scopo sì? è un'unica causa sì siamo noi che ringraziamo te per averci dedizzato e chiunque volesse comunque sapere di più su questo Sound System sono presenti su Facebook e non so se vuoi dare qualche altra informazione abbiamo anche la pagina Bandcamp potete acquistare la nostra musica indipendente original original version grazie mi è piaciuto anche il fatto che tu abbia suonato con un piatto solo mi hai fatto tornare indietro nel tempo quando andavamo ai RAS ai raduni di Sound System alle feste DAB con Mimmo Superbass e Nicomoduo certo ripeto questa è tutta una family il nostro Sound System è nato a Roma quindi tutta la Massive tutti i DJ e tutti gli amici fratelli a Roma ovviamente hanno contribuito a quello che oggi è ancora il Sound System ogni pezzetto di ogni fratello è dentro di noi è dentro la nostra musica anche se non ci conosciamo però ci chiamiamo fratelli proprio perché a parte che come dicevamo prima nella sessione dove abbiamo fatto diciamo una specie di talk show musicale la musica ci unisce ma ci unisce anche la canapa ovviamente ovviamente allora a proposito di musicisti DJ e DJ set io ringrazio tutti quanti i nostri ospiti abbiamo ancora due DJ set da far ascoltare prima di chiudere alle 23 abbiamo Onirica e Funky O due DJ amici del 420 che però per ovvi motivi di tempo non riusciamo a mandare interamente quindi manderemo dei pezzettini di tutti e due DJ set fino più o meno alle comunicazioni di servizio alle 22 e 55 e poi ci rivediamo qui con Nadia Raffaello per i saluti finali se c'è anche la Marta chi più ne ha più ne metta grazie ancora Daniele complimenti complimenti a tutti a presto a prestissimo come diceva un nostro amico comune io spero mi sentiate ancora ok mi sentite benissimo perché a me ogni tanto il computer esce il fumo allora Raffa sei d'accordo? ci vediamo i due DJ set e poi andiamo con i saluti ovviamente questi non sono ripeto i DJ set interi ma li potete trovare su YouTube io direi di mandare come da scaletta prima il DJ set di Onirica dedicato all'Emp Club di Milano se non sbaglio ah sì Onirica è è una DJ che lavora è una delle DJ donne prima DJ donne in Italia Raffa avvicinati avvicinati se ti avvicini ti sentiamo se abbiamo avuto problemi con i video con i DJ set e quindi anticipiamo i saluti e per i DJ set comunque li trovate anche sulla pagina del Cannabis Service mi dà mi dà problemi a caricare l'altro DJ set quindi ci scusiamo hanno disponibile sulla pagina del Cannabis Service potete assoltarli per intero perché poi è sempre un peccato andare a suddividere anche il lavoro di una magia che hanno voluto esprimere la loro vicinanza ricordiamo Walter che è benedetto con le delitati di tornata e a tutti i malati che con dubito sono in battaglia per cercare di fare delle richieste quantomeno ammorbidire quello che può essere abbastanza lunghe da fare in posto quantomeno riuscire ad ammorbidire quello che è il trattamento sia dei malati ma di dei malati bene siamo pronti con l'ultimo premio vero Nadia? prontissimi prontissimi dov'è Marta? ancora non è arrivata ah ok allora devo togliere l'audio dalle youtube perché quando non sono nella regia ovviamente seguo da youtube e poi ce la rimando ok l'ultimo premio l'ultimo l'ultimissimo premio e direi che poi a questo punto chiudiamo e abbiamo siamo qua online da 12 ore ragazzi siamo tutti estremati senza considerare 156 ecco scusa senza considerare tutta la preparazione che c'è stata in questi ultimi in questi ultimi due mesi per questo super evento ovviamente potete immaginarvelo avete visto quanti ospiti ci sono stati mi sarebbe piaciuto contarli li conteremo ma credo che sicuramente più di un centinaio di persone oggi sono passate nel Cannabis Day ringraziamo tutti dal primo all'ultimo tutte le associazioni aderenti medie aderenti e tutti gli ospiti che abbiamo avuto meravigliosi tutti i contributi che ci sono stati musicali artistici insomma tutte le tavole rotonde di divulgazione grazie veramente a tutti e soprattutto grazie a voi che ci avete seguito per 12 ore non so se qualcuno ci ha seguito ininterrottamente nel caso grandi grazie mille andiamo avanti con l'ultimo premio e poi direi che possiamo salutarci ci rivediamo per il prossimo anno sperando di fare questo Cannabis Day dal vivo ovviamente facendo magari un bel convegno nazionale sulla cannabis tutti insieme di presenza potendoci speriamo abbracciare e baciare come la matura vuole ecco quindi il primo premio è un soggiorno di un weekend in Sardegna offerto dal Our Garden per due persone poi abbiamo 20 barattolini gelato CBD offerti dalla canapalegale.it e un cappellino Cold Dealer questo premio se lo aggiudicherà chi risponderà a questa domanda ovviamente come sempre dovete rispondere sotto la diretta YouTube ed è lì solo che diciamo le risposte sono accettate per poi l'invio dei premi e quindi la domanda è questa non è stata detta durante la diretta mentre tutte le altre sono state dette durante la diretta questa invece no quindi bisogna vedere qua veramente gli esperti della cannabis fatevi avanti e vediamo chi riesce a rispondere qual è stato l'ultimo cannabinoide scoperto? io io rispondo io tu non puoi mi dispiace Zach uffa ma è una gioia va bene ragazzi ci siamo tutti ecco Marta ragazzi grazie a tutti grazie Raffaello grazie Zach grazie Marta facciamo un cuore aspetta così vai come lo facciamo? io faccio così no al contrario al contrario Raffaello che c'hai? al contrario aspetta perché poi puoi anche tutto ecco ecco così l'unico che non c'è riuscito è Raffaello che stavo salutando dall'altro braccio va bene la cosa questo direttamente è quello verso l'altra parte no quell'altro braccio verso la eh ecco bravo non ti devi voltare tu va bene lasciamo stare facciamo facciamo ragazzi grazie a tutti grazie Marta meravigliosa grazie Zach grazie Raffaello grazie a tutte le associazioni dell'Unitop grazie a tutti ragazzi ci lasciamo se il mio computer lo permette con il video la videotestimonianza di Walter ci proviamo almeno altrimenti tutti i contributi li potete comunque trovare sulla nostra pagina sulle nostre pagine ciao a tutti a tutti a tutti e viva la canna la canna la canna la canna la canna la più libera la più presto possibile non esiste che io volevo subire adesso un processo sono consapevole di quello che ho fatto però ho dovuto di subire allora quante persone si trovano nel mio stato tante allora io sto facendo il lupo perché la legge cambi ok allora ci ho messo la faccia il dolore lo offro alle persone perché possono capire la fortuna che hanno e che c'è ancora da fare da controbattere già in una vita che è in salita perché quando nasci con una patologia piccola o ti viene è difficile poi ripartire e allora bisogna prima non trinere noi stessi e poi aiutarci con le medicinee è praticamente quasi un incontinente dai sufi ai sadomundisti nei meta è scritto che l'uomo senza tarapa è un uomo afflitto e quindi praticamente loro già avevano capito 4.000 5.000 anni fa che ingerendo o fumando questa sostanza una persona faceva un viaggio strano estremamente introspettivo e si erano accorti che chi si sentiva dopo bene spesso non aveva non aveva dentro le problematiche risolte per esperienza personale io vengo da più di 25 anni di meditazione quindi posso mettere in bocca allora all'inizio non aiuta e dopo due anni si e quindi molti vogliono fare duet monkey cioè le scimmie bianche che io visano e in cena che io ando all'occidente abbiamo una diversa cultura struttura e da lì dovevo ricominciare e la gente che ai miei tempi ci andavano a scondire ad affoncire per in montagna capire come peccato peccato perché c'era l'ultima parte che diceva perché negare una pianta me lo ricordo perché mi è rimasto impresso dice perché negare una pianta è contro natura si gira e fa come giovanardi ma con una tale naturalezza cioè non ha perso il senso dell'umor nonostante voi lo vediate così infatti ero combattuto eravamo combattuti se mandare questo messaggio che è stato registrato ricordiamo un po' di tempo fa qualche mese fa e ancora ha voglia di lottare il nostro Walter a cui era dedicata questa intera giornata ancora grazie a tutti ragazzi e buonanotte 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 grazie a tutti ragazzi